Gli studi sui volgarizzamenti italiani si sono nell'ultimo quindicennio rinvigoriti e lo testimoniano nuove edizioni, numerosissimi saggi e molteplici convegni dedicati a testi e problemi che a questa tradizione trasversale e fondativa nell'Europa romanza sono stati consacrati negli anni recenti. La scuola, per sua parte, ha partecipato a questa rinascita attivamente. L'impegno necessario per dipanare tradizioni complesse di testi spesso voluminosi e talvolta afosi, avrebbe detto Contini, richiede l'entusiasmo e la dedizione di studiosi giovani. D'altra parte, come ebbi modo di ricordare nel dicembre del 2014, introducendo la giornata di studi volgarizzari classici nel Medioevo, che si teni in questa stessa sala in ricordo di Cesare Segre, i volgarizzamenti furono degli infiniti oggetti di studio di quello studioso onnivoro, forse tra i più precoci. La silloge di volgarizzamenti del 2300, pietra miliare alla quale ancora oggi guardiamo e attingiamo con profitto, recano la data 1953. Sono l'opera, cioè, di un 25enne. Non è senza motivo, credo, che entrambi i due grandi maestri italiani degli studi sui volgarizzamenti attivi nella seconda metà del Novecento, Segre appunto e Gianfranco Folena, autore di un saggio memorabile del quale con Corrado Bologna abbiamo voluto oggi che riecheggiasse il titolo, fossero entrambi, per qualifica professionale e ancor più per ampiezza di sguardo, studiosi della Romagna. Se è inevitabile e in fondo assai opportuno che gli approfondimenti specialmente editoriali e linguistici siano di competenza delle singole filologie nazionali, appare sempre più evidente che il fenomeno della traduzione, nelle accezioni più ampie e più varie, assume nella cultura medievale un rilievo di tale importanza da non poter prescindere da un inquadramento transnazionale. Alcuni degli interventi in programma oggi e domani ne forniranno immediata attestazione. Ed è al resto importante constatare come lo studio dei volgarizzamenti a livello europeo. Noi ci concentriamo per forza di cosa sui testi romanzi, ma è da ricordare che fenomeni paragonabili, anche se diversamente disciplinati, riguardano anche le lingue germaniche. Vada estendendosi progressivamente con importanti opere di recensione e classificazione e con il moltiplicarsi di convegni e progetti di studio anche all'estero. Notevole del resto, e ne avremo qui la riprova in particolare, ma non solo nel nucleo di interventi che si concentrerà sulla fortuna della storia di Alessandro, che giovani studiosi di formazione italiana abbiano portato nelle loro attuali sedi di studio, europee ed extraeuropee, il frutto della propria esperienza, destinata a far propagare ulteriormente questo filone di ricerche anche al di fuori dei confini nazionali. Il contributo più significativo della scuola negli ultimi anni si riassume proprio nella formazione di un manipolo di giovani studiosi che, pur avendo coltivato anche alti interessi e sviluppato diverse competenze, si sono concentrati nell'opera di scavo sui volgarizzamenti, soprattutto volgarizzamenti dai classici, ma non solo. Non posso però tacere che la scuola è stata per alcuni anni al centro delle ricerche più aggiornate sui volgarizzamenti, anche grazie all'insediamento in essa di una delle due unità di ricerca del progetto FIRB Futuro in Ricerca, intitolato DIVO, Dizionario dei Volgarizzamenti, e ospitato dall'Opera del Vocabolario Italiano. Oggi sono con noi in qualità di moderatori l'attuale direttore e l'ex direttore dell'istituto e dalla scuola normale. Il progetto è nato dalle esperienze di Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, i due coordinatori di unità, da un lato sul fronte lessicografico, all'interno dell'OVI, dall'alto sul fronte filologico, attraverso la partecipazione a tre campagne di inventariazione della tradizione manoscritta e a stampa che hanno fatto capo a diverso titolo alla scuola. Il DIVO può considerarsi un frutto maturo dell'operazione culturale di valorizzazione dei volgarizzamenti sviluppatasi nell'ultimo quindicennio, della quale ha confermato l'assunto fondamentale, quello cioè di una sostanziale continuità del classico tra Medioevo e Umanesimo. E' poi da registrare che le edizioni della normale, succedute alle edizioni del Galluzzo, pubblicano attualmente la collana dell'edizione nazionale dei volgarizzamenti. Uscita a Pisa è il terzo tomo della monumentale edizione del volgarizzamento ceffiano delle eroidi a cura di Massimo Zaggia. Le prossime sono tre nuove edizioni. L'Eneide volgarizzata da Ciampolo di Meo degli Ugurgeri, le tre orazioni cesariane volgarizzate da Brunetto Latini e il De Brevitate Vite, volgarizzato da Andrea Lancia. Delle due ultime avremo proprio questa mattina qualche primizia. Le operazioni filologiche richiedono silenzio e disciplina. Mattone dopo mattone l'edificio si innalza quasi senza che gli operai se ne rendano conto. Qualche volta è il caso di sollevare gli occhi e di rallegrarsi del lavoro svolto per imboccarsi le maniche e ripartire. Questi due giorni possono essere l'occasione e in questo spirito, anche a nome del direttore della scuola che qui rappresento, auguro a tutti buon soggiorno e buon lavoro. A riprova del fervore incessante al quale alludevo, presento fresco di stampa il volume che raccoglie gli atti della giornata che si tenne a Firenze in continuazione di quella pisana alla quale ho fatto prima riferimento nel 2014, tradurre dal latino nel medioevo italiano, traslazio studi e procedure linguistiche a cura di Lino Leonardi e Speranza Cerullo. Grazie ancora e buon lavoro. Prego Corrado. Si tratta a questo punto di fare una vera e propria traduzione perché penso ciò ciò va già largamente indicato il luogo. Certo, devo... Grazie Laura. E anche qua sotto abbiamo visto molte impalcature, la scuola sta vivendo un momento di grande ulteriore, insomma, fervore soprattutto invitando i giovani ad esprimersi. Io partirei dalla parola, in questi pochi minuti che voglio rubare a voi, dalla parola gloria, dalla gloria della lingua e dalla gloria e umiltà. Metterei accanto queste due parole, gloria e umiltà del traduttore. Voglio leggervi solo due parole, ma due davvero, di Jacqueline Risset, quando traduce niente meno che la Divina Commedia in francese, e dice qualcosa che sarebbe molto piaciuto a Walter Benjamin, a cui lei ha sicuramente pensato. La traduzione è a sua volta scrittura e invenzione, prolungamento del testo. Il traduttore deve seguire e cogliere il pensiero dell'originale, rinunciando a restituire ad ogni costo la polisemia. Le traduzioni autentiche sono più chiare dell'originale, aggiunge. Laddove Benjamin, ricorderete, sostiene in quel bellissimo, importantissimo esaggio sulla lingua della traduzione, che raggiungerebbe una lingua pura dell'origine. Benjamin parlava proprio di sopravvivenza del testo tradotto attraverso la traduzione. Attraverso la traduzione sopravvive qualcosa del testo. E, aggiungeva ancora Benjamin, c'è una legge della traduzione che è racchiusa nell'originale o nella sua traducibilità. Un altro grande nome, Paul Valéry, nelle variazioni sulle bucoliche del 1955. Ecrire quale se soit, aussitò che l'acto d'écrire exige della riflessione e n'è pas l'inscrizione macinale senza arrêt di una parola interiore tutta spontanea, è un travail di traduzione esattamente comparabile a celui che opere la transmutation d'un testo d'una lingua all'altra. La traduzione ha qualcosa di molto prossimo rispetto alla creazione, alla scrittura creativa. Questa è opinione di scrittori, Valéry, studiosi anche, ma soprattutto scrittori, Valéry, Jacques Lirisset, dietro di loro Baudelaire. E poi la voce, almeno di quei due personaggi centrali nei nostri studi, che sono Folena e Segre, ma vorrei aggiungere ad essi, giusto per tratteggiare, quello che mi pare si stia incominciando a fare, dopo tanti lavori, quelli degli anni Cinquanta, di Segre appunto, e poi l'intervento celebre di Folena, che abbiamo voluto intenzionalmente riprendere nel titolo. Proprio Folena, all'inizio del suo libro, ricordava questa parola chiave, trasferre, che fa parte, insomma, del trasferimento, del portare materialmente da una parte all'altra. E diceva che nel Medioevo Romanzo il problema del tradurre si pone con una complessità nuova. E il concetto del tradurre si allarga a quello della pura trasmissione di contenuti, del rifacimento e della metamorfosi del testo. Il trasferre, cioè, si identifica con il tradere. E poi, via via nel suo testo, in fondo ricordava che a Tur, nell'813, c'è un punto vitale di passaggio tra le competenze dei latinisti e quelle dei filologi romanzi, la rustica romana lingua era un punto verso cui si trasferiva, e il verbo trasferre era proprio utilizzato. Ma perché questa consapevolezza del trasferre come costituzione di una nuova operosità culturale arrivasse fino a dove l'accogliamo con le lingue romanzi? E' proprio il mettere in romanzo, il mettere in romanzo questa nuova grande invenzione, questa nuova idea che significhi recare, tradurre, porre, sporre, involgare in lingua romanza, dove, come sappiamo bene, la parola romanza ha direttamente a che fare con il romanzo. E poi una cosa che mi piace ricordare, sempre da Folena, è come lui sottolineasse già la parola rectorica e dicesse, cioè, che la rectorica, secondo una paratimologia vulgata, divenne un'arte e una scienza del reggimento, con Brunetto soprattutto. E guardo Pietro Beltrami, a cui dobbiamo tanto, anche su Brunetto. C'è quindi questa componente nuova, che è quella di un comune, quindi del momento politico, che assume la lingua volgare in una direzione civile-politica completamente innovativa rispetto alle vecchie tradizioni, che non erano di tipo comunale. Però bisogna aspettare, per avere la parola chiave, che è traducere, tradurre, il settembre del 1400. Il primo esempio è in una lettera di Bruni, di questa data. E volevo poi, sempre per far risuonare solo un po' la parola dei maestri, cui tutti dobbiamo, sentire l'inizio di quel celebre saggio di Cesare Segre sui volgarizzamenti del II del Trecento. Si apriva così. Volgarizzamento è, nella nostra prima letteratura, situazione mentale più ancora che attività specifica. Ed è per questo che, in queste poche parole introduttive, prendo le mosse proprio da un'attività di scrittura, attività mentale, la chiamava appunto Segre, prima ancora che attività specifica, cioè professionalità. E poi anche lui partiva dalle lettere di Guittone, da Guido Faba, dal Trattato di Bono Giamboni, diceva, l'orientamento delle prime opere originali in prosa non differisce molto da quello delle ultime opere in latino, essendo le condizioni culturali degli autori pressoché le medesime. Gli interessi dell'una e dell'altra attività si sostengono a vicenda. Per questo il nostro preside, Giampiero Rosati, latinista, in signe, è qui a fare proprio quasi la traigion, come dire, non solo istituzionalmente, ma anche come studioso tra questi due grandi momenti che implicano una presa di coscienza reciproca. E sarà allora il grande problema di quella che Segre stesso chiamava la inquietudine del traduttore. Ed è bella questa formulazione, sulla quale vado a chiudere appena un momento, perché il terzo nome che volevo evocare è quello di Carlo Dionisotti, di cui non possiamo fare a meno. Invece, quanto più chiaro appare nel desiderio del possesso il contrasto della nuova con la vecchia cultura, il traduttore si fa inquieto, teme che il suo linguaggio non sia all'altezza dell'originale, né violenta, lessico e sintassi. Si intende un'inquietudine di valore positivo. A me pare che questa affermazione di Segre sia da sottolineare con vigore. C'è un'inquietudine che nasce proprio dal confronto con i classici. Siamo abituati a pensare ad un umanesimo tutto latino, mentre proprio le ricerche intorno ai volgarizzamenti, e ho portato queste tante e pesanti carte, almeno per mostrarle anch'io fisicamente, come si faceva nei misteri Eleusini, credo, si alzava una spiga e si mostrava al pubblico. Ho davanti il già citato Massimo Zaggiano, questo importante, il primo di tre volumi, Volgarizzamento Fiorentino e Filippo Ceffi, dell'eroe di Diovidio, dove a lungo si parla di umanesimo volgari, in una bella introduzione che cito anche per la sua ampiezza. Si dice che dall'inizio del Trecento si delinua gradualmente a Firenze un più maturo interesse per la storia di Roma Antica, che porta a una volontà di approccio più diretto ai maggiori testi storici di quell'età e più rispettoso della fisionomia dei testi originali. Dunque tradurre non vuol dire affatto alterare, significa creare un braccio di ferro con gli originali, impostare una vera e propria relazione dinamica e costituire la propria identità attraverso un confronto diretto con quelli che sono sentiti in maniera inquieta, classici fondatori, ma anche, come dire, grandi maestri con cui poter dialogare. Dicevo di Dionisotti, e volevo appena citare fra le tante persone che saranno anche qui oggi in Fiammetta Papi, con il libro del Governamento dei Re di Principi, dove, lo ricordavo qualche settimana fa, già a Firenze, dove abbiamo presentato per l'edizione Galluzzo questa collana, nella quale Lino Leonardi, Pietro Beltrami e Claudio Ciociano sono responsabili, voglio ricordare anche quest'altra, diretta da Claudio Ciociolo, che è la Biblioteca dei Volgarizzamenti, e in cui si dice nella bandella editoriale che sono testi che alla nascita e allo sviluppo della cultura europea concorsero in maniera determinante, e quindi vuole studiare questa collana e valorizzare lo studio e propagarsi in Europa e in Italia, in genere per il tramite dei volgarizzamenti e delle traduzioni latine, della cultura filosofica e scientifica, anche araba. Quindi l'ampiezza non è solo italiana, c'è un orizzonte, una geografia e storia della cultura dei volgarizzamenti che appunto con Dionisotti forse è il momento di affrontare, grazie alle tante specifiche ricerche puntuali di cui oggi avremo sicuramente qualche bella esemplificazione. E di che parlava Dionisotti? Parlava di qualcuno che ha contatto diretto come un terremoto con questo rinnovamento della cultura fine 200-primo-trecentesca e quindi anche un dato sulla storia. Siamo partiti con i volgarizzamenti molto tardi, ancora oggi e domani ci si occuperà del 3 del 400, ma non dimentichiamo che l'attività è fine 200-primo-trecentesca ed è il momento di quello che Dionisotti chiamava il terremoto della commedia, che cambia completamente il paesaggio storico. Allora dicevo di Fiammetta Papi che in questo volume, tra le tante cose interessanti, coglie una parola e qui vediamo l'orizzonte all'acurtius ampio di grande respiro e il microscopio che va usato insieme con il telescopio. La parola è compagnevole che trova in questo egidio volgarizzato. E la cosa interessante è che questo compagnevole Fiammetta Papi lo riconduce all'uso di questo termine nel quarto del convivio e non dà una risposta, ma pone un quesito. Ma Dante, oltre che egidio in latino, una cosa su cui Mirko Tavoni soprattutto ha molto insistito negli ultimi tempi nel suo commento al De vulgare eloquenza, che rilegge soprattutto in una chiave di tipo politico-ideologico, ma non avrà letto per caso anche quel volgarizzamento di origine senese. Ecco allora che volgarizzamenti sul tavolo di Dante Alighieri accanto ai testi dei classici ci portano a una diversa configurazione della geografia e storia dei volgarizzamenti italiani. E cioè appunto a questa religione dei classici, e chiudo con Dionisotti, che certo non era nell'età di Dante di lui solo, è fuori di dubbio che il poema impose quella religione assai prima che la lezione petrecchesca, del resto affatto diversa, potesse essere intesa e accolta. Esemplare e decisiva è anche per questo l'opera del Boccaccio. Insomma sono rimessi sul campo tutti e tre, Dante, Petrarchi e Boccaccio, in diretto contatto con questa attività gloriosa e umile del traduttore, che compie un'operazione decisiva per la storia culturale e civile dell'Italia del tempo, ma anche per gli scambi internazionali. Quante traduzioni dal latino, ma anche quante traduzioni di testi latini dal francese. Ed ecco allora che questo doppio registro degli scambi tra lingue e romanze e della derivazione diretta dal latino costituisce, ci pare, mi pare, ma credo che ci pare, perché ne abbiamo a lungo parlato, ideando questo piccolo, ma insomma intenso incontro, costituisce proprio uno dei piani fortemente dialettici, quindi non solo più un asse, dal latino a lingue volgari, ma una dinamica, e chiuderei con la parola campi di tensione, formula di Maria Corti, che mi è sempre piaciuta molto, perché lei la derivava dai, credo, dai fisici, dai fisici probabilmente, e quando diceva che ci sono dei campi di tensione, diceva che non sono solo degli assi dialettici, monodirezionali, ma che si vengono a costituire delle tensioni multiple entro le quali passa dell'energia, questo mi pare essere uno dei principali componenti chimici di questa novità, che è il portare nelle lingue romanze, nella loro dialettica interna, quindi la forte prevalenza del francese anche in Italia come lingua di cultura, e vedere un classico latino tradotto in italiano dal francese, credo che possa essere una delle esperienze belle e emozionanti di questa attività. Spero non aver tolto troppo tempo agli oratori, e lascio adesso il compito al nostro Presidente Gianpiero Rosati. Grazie. Quel che devo fare, anzitutto, è giustificare la mia presenza qui. Non ho nessun titolo per esserci, sono letteralmente incompetente delle materie di cui si discuterà. Ci sono solo in quanto classicista che ha ceduto alle gentili pressioni dei colleghi che mi hanno preceduto, e sono qui quindi per imparare, cercherò di imparare appunto quello che c'è da imparare, perché io appartengo anche, per ragioni generazionali, io sono un classicista, a una generazione appunto in cui si avvertivano ancora gli echi di una lunga stagione gloriosa della Quellen Forschung, in cui si guardava i classici da una prospettiva più antica appunto, ai testi latini, soprattutto da quelli greci. una stagione appunto gloriosa, dicevo che alla fine ha conosciuto anche delle fasi, come dire, affose, per riprendere una metafora già utilizzata da Claudio Sciocciola, una ventata di aria fresca, mi pare che sia arrivata negli ultimi decenni, invece anche negli studi classici, soprattutto dal rovesciamento della prospettiva e dal nuovo, diciamo, interesse, dal modo di guardare al mondo antico, dalla sua ricezione. Anche i classici latini hanno molto da imparare dallo studio della loro tradizione, della loro fortuna, della loro ricezione. Io stesso l'ho verificato in misura limitata ma molto eloquente dalla frequentazione dei lavori di Massimo Zaggia appunto sull'eroides di Ovidio. E quindi con questo interesse, con questa attenzione, con questa disposizione che sono qui appunto e darei quindi inizio alla sessione di questa mattina invitando a parlare Giulio Vaccaro del CNR, Opera del Vocabolario Italiano, il quale ci parlerà appunto di Seneca volgarizzato da Andrea Lancia. Prego. Grazie. Sì, innanzitutto volevo ringraziare Claudio Scioscia del Corrado Bologna per l'invito a parlare in questo convegno. Parlare di Andrea Lancia vuol dire parlare di un notario fiorentino che si colloca ottimamente al centro di varie linee di tendenza. Era innanzitutto un notario ma è stato soprattutto un grande cultore di materie dantesche e un grandissimo attore nella tradizione di molti volgarizzamenti. Questi sono i pochi dati certi che abbiamo su Lancia. in effetti Lancia è rimasto per un lungo periodo più o meno un perfetto sconosciuto. Fino al Settecento inoltrato il suo nome non era quello di uno dei moltissimi notari che avevano operato a Firenze nella fine del Trecento e solamente a partire dai lavori del Meus quindi siamo già a metà del Settecento a lui vengono attribuite una serie di opere il Meus che attribuisce infatti il volgarizzamento delle pistole di Seneca nella versione tradotta dal francese di cui poi parlerà oggi pomeriggio più diffusamente Cristiano Lorenzi biondi il volgarizzamento dell'Ovidio amoroso il volgarizzamento dell'Eneide di Virgilio inoltre il volgarizzamento del Palladio in realtà di due volgarizzamenti del Palladio di cui parlerà dopo Valentina Nieri il volgarizzamento del De Amore di Andrea Cappellano nella versione che oggi che Barbielini Amidea attribuisce a Boccaccio probabilmente in realtà di Boccaccio non è e infine una piccolissima operetta che è la pistola di Lucillo in risposta a una delle pistole di Seneca con l'Ottocento gli si attribuiscono una serie di altre opere nell'opera di Colombe de Batin che gli attribuisce l'ottimo commento il depulice pseudo-ovidiano e infine l'epistola del marchese Ugo di Toscana infine il trucchi gli attribuisce una serie di una ballata pseudo-dantesca e quattro sonetti Fanfani il volgarizzamento delle leggi suntuare del comune di Firenze il Bencini Valerio Massimo e lo pseudo-quintiliano il Guasti la parte di volgarizzamento di Tacito che prende la morte di Seneca e infine il Papanti una serie di quattro novelle quindi Andrea Lancia più o meno avrebbe scritto avrebbe scritto e volgarizzato praticamente tutto ciò che fu fatto a Firenze circa fra l'inizio degli anni 30 e anzi fra l'inizio degli anni degli anni 20 più o meno e gli anni 50 la situazione in realtà non è così semplice e su Lancia ci si è molto soffermati negli ultimi anni in particolare ci si è soffermati sul suo ruolo nell'ambito della tradizione di varie delle opere dantesche Dante infatti è un copista della commedia è un copista di una della cosiddetta terza redazione dell'ottimo commento ed è autore a sua volta di un commento alla divina commedia edito da Luca Zetta nel 2012 e conservato in un unico testimone nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ma lo scritto è il secondo secondo 39 è inoltre e senz'altro il volgarizzatore degli ordinamenti del Comune di Firenze è un volgarizzamento realizzato tra il 1355 e il 1356 di cui Lancia ebbe l'incarico da parte del Comune di Firenze e sono poi con buona ragione attribuibili a lui tre volgarizzamenti noti in un manoscritto unico e autografo i tre volgarizzamenti di Lancia sono questi uno è il volgarizzamento compendioso delle pistole all'uscilio conservato nel manoscritto C325 della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena uno è un volgarizzamento per excerta delle enarrazioni simsalmos e uno è per l'appunto il volgarizzamento del de brevitate vite in più in più a Lancia è senz'altro attribuibile e attribuita di fatto concordemente da tutta la tradizione la pistola in forma di lucillo che si incontra aggiunta in sei manoscritti che tramandano le pistole le pistole di Seneca si tratta di tre volgarizzamenti su cui mi voglio soffermare mi soffermerà principalmente sui due volgarizzamenti senecani ma non è privo di interesse anche il volgarizzamento agostiniano che presentano delle caratteristiche interessanti innanzitutto quello dell'epistole all'uscillo è un volgarizzamento che non è una copia impulito ma è una copia in cui sono presenti molte aggiunte correzioni cancellature ripensamenti traduzioni alternative e rappresenta si può dire un vero e proprio laboratorio del volgarizzatore cioè consente di vedere effettivamente come un volgarizzatore poteva operare su un testo che aveva di fronte il il volgarizzamento è un volgarizzamento in un certo senso parziale ma in realtà che parziale non è cioè occupa solamente si occupa solamente della prima parte delle dell'epistole di Seneca cioè dall'epistola 1 all'88 anche se poi l'ordinamento delle ultime è turbato quindi l'88 finisce prima dell'84 ed è condotto in una forma estremamente compendiosa cioè anche qui più che exceptata sembra una traduzione in cui il lancia procede per estratti di sentenze per darvi solamente un'idea di fronte a un testo latino molto ampio come quello dell'epistola 7 dell'epistola all'ucilio dei 12 paragrafi in cui si articola la moderna edizione latina sono tradotti integralmente il 2 il 7 l'8 e il 12 3 10 e 11 sono tradotti per piccoli passi mentre i paragrafi 1 4 5 6 e 9 non sono non sono volgarizzati affatto la traduzione è estremamente letterale e priva di ampiamente occhiose finita a testo con una piccolissima eccezione paragrafo 7 e paragrafo 8 in cui spiega il termine relative con cui traduce il latino mutus cioè che tu devi fare altrui e altri eccetera senz'altro relativo è un termine poco attestato in italiano antico c'è un'attestazione nel convivio e una forse se c'è davvero nell'edizione del tesoro volgare però la traduzione al di là anche delle sostituzioni che si vengono producendo che sono sempre in realtà delle sostituzioni non 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 di sostanza cioè anche le sostituzioni lessicali sono pochissime uno è uno sia questa è la di norma la la dinamica delle sostituzioni di siti di oso cupido alcuno ciascuno alcune sono più marcate nel senso diciamo del volgarizzamento contro il latinismo ma di norma si tratta sempre di traduzioni che rientrano pienamente in quelle che sono delle ben note dinamiche traduttive e si tratta comunque quindi di un volgarizzamento estremamente letterale privo di ampiamenti e di apparati è abbastanza interessante anche il caso delle enarraziones il caso delle enarraziones è molto interessante perché si tratta in realtà di un volgarizzamento che ha una struttura di per sé molto particolare cioè Lancia scrive una serie di prologuzzi del volgarizzatore che giustificano la scelta dei passi che vengono volgarizzati dei salmi che vengono volgarizzati e viceversa quelli che non vengono volgarizzati perché così gli sarebbe stato chiesto da un frate il dato tuttavia piuttosto interessante è che nei primi cinque dei sette salmi che vengono volgarizzati Lancia pone il testo latino a fronte del testo volgare quindi di fatto c'è una traduzione che si può controllare direttamente sul testo originale volgarizzato viceversa il testo che viene poi volgarizzato anche in questo caso si tratta tuttavia di una tipologia di volgarizzamento che anche qui molto molto letterale priva di 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 chiose di anche qui in questo caso addirittura molto spesso ma qui evidentemente fa agio il fatto che ci si trovi di fronte a un testo sacro e non a un testo profano probabilmente viene eseguito anche l'ordine stesso delle parole con inversioni con il verbo posto in fondo alla frase resta in realtà molto dubbio poi quale sia stasi anche qui il ruolo del Lancia sia effettivamente quello di volgarizzatore dell'intera opera di volgarizzatore solo di una parte dell'opera nel senso che in realtà se i primi salmi sono tutti tradotti così a partire dal sesto cambia notevolmente sia la qualità della traduzione sia anche la tipologia stessa di traduzione ossia cessa di essere posto il testo a fronte e significativamente viene eliminato il testo volgare non viene eliminato il testo latino il sesto e il settimo salmo hanno sempre il testo latino ma non hanno il volgarizzamento mentre è in volgare solamente la l'asposizione il terzo volgarizzamento del lancia che è quello su cui intendo soffermarmi di più è un volgarizzamento che è stato scoperto da Teresa De Robertis e da me nel manoscritto Frullani 5 della biblioteca moreniana di Firenze si tratta di un volgarizzamento di particolare importanza per due ragioni fondamentali innanzitutto perché volgarizza un'opera ossia il De Brevitate Vita che non ha avuto una diffusione in volgare fino a un'epoca molto molto bassa cioè le prime traduzioni che noi abbiamo sono state fatte in ambito spagnolo alla fine del 400 mentre in ambito italiano tolta questa si arriva addirittura all'inizio del del 600 quindi attesta una diffusione in un ambito romanzo di quasi un secolo e mezzo precedente a quella oggi nota secondo aspetto interessante è che si tratta della quarta traduzione di Seneca compiuta a Firenze entro la prima metà del 300 la quarta perché si aggiunge a quella del Seneca tradotto da Lancia per l'appunto a quella delle pistole all'ucilio passate attraverso tramite francese e a quella del De Providenzia che entra poi anch'essa all'altezza della seconda redazione dell'epistole di Seneca nella tradizione appunto del borgarizzamento dell'epistole ovviamente è anche la seconda versione che è direttamente riconducibile alla figura del Lancia anche in questo caso la traduzione è molto fluida e aderisce strettamente al dettato originale al testo si accompagna un ampio apparato di chiose marginali interolineari che rivelano la grande familiarità che Lancia aveva con le opere classiche e medievali che circolavano nella Firenze della prima metà del Trecento gli autori classici citati sono Boezio Cassiodoro Cicerone Floro Frontino Isidoro Orosio Ovidio Sallustio Seneca Solino Olivio Valerio Massimo Veggezio e Virgilio gli autori medievali citati sono Brunetto di cui viene citato il Tresor probabilmente nella versione toscana ma il passo è troppo breve per poter pronunciarsi con certezza e Dante di cui si citano i versi 93 e 96 del quindicesimo canto dell'inferno e alla fortuna come vuol son presso non è nuova gli orecchi miei talara per oggi fortuna la sua ruota come le piace e il presso del verso 93 è particolarmente interessante perché rimanda alla famiglia del manoscritto copiato dal Lancia mentre in realtà la tradizione fiorentina ha presto quindi probabilmente è una conferma ulteriore questa del fatto che l'apparato di Chiose venga dal mondo lancero e per quanto riguarda anche le citazioni dall'Orosio appare evidente la dipendenza del Lancia dal volgarizzamento di Bono Giamboni un volgarizzamento che penetra in molte opere della Firenze del tempo il caso per esempio dei fatti dei romani come ha mostrato recentemente Claudio Sciocciola ma anche il caso del commento del Lancia che cita abbondantemente il testo di Bono Giamboni questo si prova attraverso una serie di errori traduttivi propri del volgarizzamento giamboniano che producono una costellazione di errori in vari testi diffusi nella Firenze del tempo tutto questo pone in realtà un problema però di fondo ossia alla Gallancia sarebbero riconducibili tre volgarizzamenti fondamentalmente i quali però non sembrano di aver goduto di alcuna circolazione fondamentalmente sono tre volgarizzamenti monotestimoniali due vero in prodotti manoscritti sicuramente di alta gamma si tratta di due codici per gamenacei in un caso c'è quello del palatino anche decorati abbastanza riccamente ma si tratta fondamentalmente di opere tutte monotestimoniate e tutto sommato questa figura di volgarizzatore non si concilia troppo bene con quella che è la figura del volgarizzatore ufficiale del comune di Firenze che ebbe appunto dal comune il ruolo di volgarizzare gli ordinamenti fra il 55 e il 57 è certo quindi che Lancia deve essere stata una parte attiva non solo nella tradizione di altri volgarizzamenti ma anche nella traduzione di altri di altri volgarizzamenti e questo tuttavia questo è un problema attributivo che è spesso e credo per noi purtroppo decisamente insondabile questo perché perché fondamentalmente tutto ciò che noi possiamo dedurre oggi dei volgarizzamenti viene o dalle notizie che possiamo attingere dai manoscritti e come abbiamo detto non c'è nessuna attribuzione univoca andrea Lancia e le attribuzioni che sono state fatte sono sempre state basate su una sigla AL variamente presente nell'explicit di alcuni manoscritti ma che sono tutti i manoscritti che vengono dopo il volgarizzamento degli ordinamenti quindi può essere un'attribuzione in qualche modo accascata su quella spinta ben nota a nominare gli anonimi che già Contini notava verso la fine del 300 e gli altri dati che abbiamo sono tutti dati che possono venire solamente dal punto di vista lessicale e del resto sono proprio le ragioni lessicale di quelli che hanno portato a Lancia tutta una serie di attribuzioni e per esempio faccio qui gli esempi che portava Bencini per attribuire il Valerio Massimo e l'Eneide al Lancia l'uso di Ampoi stremire sprovare sboglientare di sacerdote al femminile di adorare in senso assoluto di legnaio per rogo e ancora altre voci che quantunque siano assai comuni in quel tempo pur nonostante sono amate con tanta predilezione sì nelle Eneide come nel Valerio che a Stagnaro si mostra che le sono figlie di un medesimo padre giovanaglia partimento risplendimento risponso alla perfine femminesco compagnesco e così via tuttavia un controllo oggi possibile con mezzi che ovviamente Bencini non aveva ossia con il corpus divo e il corpus sovi dell'italiano antico mostrano sì da un lato che la filologia fiorentina dell'ottocento aveva raggiunto una sensibilità linguistica notevolissima ma purtroppo anche che non si tratta in realtà esattamente di traduzioni proprie in misura esclusiva del solo lancio ma si tratta in realtà di fenomeni condivisi dalla grandissima parte della pratica del volgarizzare nella Firenze di quel torno di anni e in realtà è significativo il fatto che gli stessi argomenti che Bencini usa per attribuire a Lancia il Valerio Massimo vengono usati cent'anni dopo da Maria Teresa Casella per attribuire la stessa opera a Giovanni Boccaccio la stessa opera aggiungendoci anche in questo caso il Livio un dato però tuttavia che mi sembra che si possa in qualche misura fare è provare a far reagire il lessico del Lancia volgarizzatore di testi classici con il lessico degli ordinamenti del Comune di Firenze che è un'opera che certamente lancea e diciamo che in questo caso tutto forse qualcosa di più emerge con delle traduzioni che sono sì condivise ma in qualche caso che sono più esclusive è il caso per esempio della traduzione di pretexta con la forma gonnella sargiata gonnella sargiata ossia una gonnella fatta di diversi colori è un termine che in realtà è pochissimo attestato ma che significativamente torna solamente nel volgarizzamento del Debrevitate vite e nel volgarizzamento degli ordinamenti altri casi sono per la nettissima preferenza del per la resa dei prefissati latini in in con il volgare dis faccio con i casi dal Debrevitate indignazio disdegno in onestus disonesto impendio dispendio in ermes disarmati infelices disventurati inutiles disutili intemperanzia distemperanza e così via in particolare quello che si mostra è una coincidenza molto alta nelle traduzioni tra l'epistole nel volgarizzamento francese e la pratica di volgarizzamenti del lancia e questo in particolare è vero per una delle epistole per cui possiamo addirittura fortunatamente confrontare i testi ossia l'epistola 88 insomma la celebre epistola sulle arti liberali di cui Seneca parla che chiude la prima parte del del Seneca spesso nella tradizione latina e che è presente sia nel nel volgarizzamento senese C325 sia nella seconda e nella terza redazione del volgarizzamento dell'epistola infatti manca nel volgarizzamento francese mentre entra nella seconda seconda redazione tradotta dal dal latino qui le comunanze sono in realtà decisamente più forti ci sono anche in realtà delle comunanze ancorché diciamo così non dirementi in lezioni erronee del testo di partenza per esempio grammatice del testo latino è tradotto con il grammatico in entrambe le versioni ma in realtà è una lezione che è già presente in alcuni manoscritti medievali del del Seneca e nello stesso modo Amarum reso con avaro o ex alto reso con di quello o d'altro nelle due versioni in questi ultimi due casi si tratta in realtà di lezioni che mancano nei manoscritti ovviamente manca nell'apparto dell'edizione ma questo in realtà ci dice poco ma manca soprattutto nei manoscritti trecenteschi che ho guardato probabilmente si tratterebbe di vedere una campionatura più ampia e ovviamente trattandosi poi di errori abbastanza facili da prodursi anche l'assenza non sarebbe completamente probante ciò che tuttavia mi sembra fondamentale è che Lancia si trovi senz'altro al punto di intreccio di varie correnti culturali della Firenze del Trecento e soprattutto che abbia avuto un ruolo fondamentale in quel mondo fiorentino che nel suo in quegli anni era tutto teso alla ricostruzione dell'antico uso qui la formula che ha coniato Giuliano Tanturli una ricostruzione dell'antico che evidentemente non può che passare attraverso attraverso i volgarizzamenti e per la figura del Lancia in particolare attraverso i volgarizzamenti di Seneca come è evidente sia dal suo interesse più diretto sia il volgarizzamento ancorché incompiuto compendioso il volgarizzamento delle brevitate vite ma soprattutto attraverso un testo fintamente senecano quale è quello dell'epistola in forma di Lucillo in cui Lancia finge addirittura di essere un corrispondente del suo amato Seneca grazie molte grazie a Giulio Vaccaro anche per il rispetto dei tempi mi pare di vedere dal programma che la discussione sia prevista alla fine e quindi forse possiamo passare alla relazione successiva grazie di Valentina Nieri della scuola normale cosa traducevano i volgarizzatori un codice recensior dell'opus agricolture e il volgarizzamento uno di Palladio prego ok ci siamo allora buongiorno a tutti a mia volta ringrazio Claudio Ciosola e Corrado Bologna per l'invito a partecipare a queste due giornate sui volgarizzamenti e naturalmente ringrazio tutti voi per essere presenti questo lunedì mattina il caso di cui parlerò tocca un problema che quasi tutti coloro che studiano volgarizzamenti si trovano ad affrontare ossia quello di riuscire a risalire al testo su cui si è basato il volgarizzatore per realizzare appunto la sua traduzione una ricerca a cui non si può rinunciare ma al contempo estremamente ardua con la consapevolezza che questo obiettivo diciamo alto è pressoché raggiungibile si può però tentare di individuare un testo quantomeno vicino a quello utilizzato dal volgarizzatore ora nel caso dei volgarizzamenti dai classici questa indagine trova un ostacolo ben noto nel ruolo marginale che spesso hanno i codici recensiores negli studi e nelle edizioni critiche dei testi della classicità naturalmente per ovvi e legittimi motivi proprio fra questi codici tardi generalmente numerosi e sicuramente più facilmente accessibile è però più probabile che si trovi se non il modello del volgarizzatore almeno un esemplare a esso affine addentrarsi in questa tradizione quasi sempre poco esplorata può quindi riservare sorprese notevoli come mostra o almeno spero che mostri il caso del volgarizzamento 1 di Palladio che per molti aspetti può definirsi fortunato quindi inizieremo io vi darò qualche informazione di base sul volgarizzamento 1 e la tradizione tarda del Palladio latino ripercorrerò appunto il percorso che mi ha portato all'individuazione di un codice verosimilmente vicino al modello utilizzato dal volgarizzatore procedendo anche con un confronto vedremo non solo del testo ma anche dei paratesti e a partire da questa situazione da questo punto di osservazione vedrò insomma di tranne alcune riflessioni su questioni che toccano insomma quelle che ho definito tra virgolette responsabilità del volgarizzatore ma anche le psicotecniche di traduzione qualche risvolto editoriale quindi iniziamo a vedere un po' più da vicino il volgarizzamento 1 del Palladio dunque come forse saprete i volgarizzamenti del trattato sull'agricoltura di Palladio sono tre tutti i trecenteschi il primo è quella più ampia tra le lezioni manoscritte ed è l'unico edito integralmente l'edizione realizzata da Zanotti nel 1810 il secondo quello attribuito verosimilmente in modo insomma non sostenibile con attribuzione falsa Andrea Lancia edito solo per estratti e poi un terzo da me scoperto di cui sto curando l'edizione che fra i tre sembrerebbe essere al momento il più antico oggi appunto ci soffermiamo sul primo il cui codice più antico ricardiano 2238 è datato agli anni 30-40 del del trecento allora l'edizione Zanotti come è realizzata il manoscritto di base sarebbe il codice appunto più antico ricardiano 2238 ma come spesso succedeva all'epoca Zanotti non si basò direttamente sul codice ricardiano bensì attraverso una copia le informazioni che dà Zanotti su questa copia mi hanno consentito di individuare il codice cioè la copia su cui si è basato appunto Zanotti per l'edizione è un codice che sta nella marciana l'italiano classe undicesima 100 quindi possiamo ricostruire in questo modo il processo intero che ha portato all'edizione di Zanotti perché abbiamo il manoscritto diciamo originale la sua copia e poi il testo elito non tratterò oggi diciamo del confronto tra il testo Zanotti e il ricardiano 2238 quindi rifacendo una specie di cioè rifacendo il lavoro che dovrebbe fare l'editore critico per i passi che vedrete il mio testo di base sarà direttamente quello del ricardiano 2238 con la collazione degli altri testimoni del volgarizzamento 1 come come viaggio diciamo nella tradizione manoscritta il volgarizzamento 1 Palladio è un testo lungo occupa tra le 80 e le 100 carte di manoscritto quindi in genere si trova da solo nei testimoni manoscritti talvolta con qualche testo estremamente breve che lo accompagna in particolare quasi quasi tutta la tradizione manoscritta del volgarizzamento 1 riporta in coda appunto al volgarizzamento un glossario relativo alla viticoltura e una tavola di pesi e misure che vi faccio vedere non avendo purtroppo immagini del codice riccardiano vi faccio vedere nella sua copia cioè nel codice marciano vedete dopo l'explicit tractatus palladi di agricoltura si trova il glossario con il titolo esposizione di vocaboli del palladio e poi la tavola di pesi e misure le misure come vedete appunto e già vi dicevo i paratesti entrambi i paratesti sono in quasi tutti i testimoni sono in due manoscritti non ricorrono casualmente sono in due manoscritti utilizzati per gli spogli per il vocabolario della crusca e poi un codice ci è aggiunto mutile quindi insomma resta il punto interrogativo tenete conto del titolo del glossario esposizione di vocaboli del palladio allora andando a vedere gli studi sul palladio latino la più recente edizione critica è quella di Robert Rogers uscita nel 1975 anno in cui Rogers pubblicò ha anche un supplemento all'edizione che si conclude con un appendice relativa ai codici recensiores è un elenco con descrizioni piuttosto stringate però per noi importanti perché leggendo questo elenco mi sono imbattuta in questi due manoscritti Firenze Biblioteca Medicina Aurentiana Pluto Latino 89 Superiore 60 dove si dice che il testo ends with exposizio vocabularum palladi ricordate esposizione nel volgarizzamento e il codice Vaticano Palatino latino 1566 anche qui si dice che il testo è seguito da exposizio vocabularum e infatti se si vanno a vedere questi due codici due codici entrambi trecenteschi troviamo la stessa situazione che troviamo nel volgarizzamento cioè finisce il trattato di palladio segue l'exposizio vocabularum quindi il glossario sulla viticoltura e poi la tavola di pesi e misure a questo punto l'ipotesi che viene naturale formulare che però va verificata è può il volgarizzatore aver avuto di fronte un codice uno di questi o un codice simile a questi e quindi aver volgarizzato in sequenza il testo e i paratesti questo naturalmente va visto dunque come avete visto le descrizioni di Rogers sono molto stringate quindi lui indica solo in questi due manoscritti l'exposizio vocabularum eccetera io naturalmente sto controllando anche il resto della tradizione latina sono circa 110 codici io ne ho visti la metà per ora insomma non ne ho trovati altri però naturalmente la ricerca è in corso allora quindi andiamo a confrontare testi e paratesti tra questi due manoscritti latini e il nostro volgarizzamento e partiamo dai paratesti glossario sulla viticoltura sono sei definizioni di verbi per i quali non ho trovato paralleli convincenti nelle fonti glossari o altro mentre la tavola di pesi e misure rivela molto facilmente la sua fonte infatti si tratta di un estratto variamente composto come vedremo dalle etimologie di Isidoro di Siviglia allora questa è l'exposizio vocabularum nei due codici latini e nel volgarizzamento leggo solo una definizione cioè la prima blaqueare circa radices vitis terram aperire a blaqueare cioè aprire la terra dintorno alle radici della vite ora cos'è il significativo di questo glossario il fatto che come vedete le occorrenze nel volgarizzamento uno di questi verbi sono sempre una tranne ocare che ricorre in una rubrica cosa vuol dire che queste parole compaiono solo nel glossario e non compaiono a testo a testo questi verbi vengono sempre tradotti con altri corrispettivi pienamente volgari come scalzare cavare e scavare nel caso di ablaqueare le occorrenze del volgarizzamento uno coincidono con quelle che ritroviamo nel corpus divo qualcosa in più grazie al crescenzi volgare o qualche altro testo pratico troviamo per pastinare e per hoccare nel corpus ovi di conseguenza il glossario è funzionale al testo latino ma non al volgarizzamento perché quelle parole nel volgarizzamento non ci sono questo naturalmente è un dato ulteriore a favore dell'ipotesi in una traduzione in sequenza cioè che la presenza di quel glossario sia un portato del modello per la tavola di pesi e misure appunto come vi ho già detto si tratta di una combinazione ecco di di estratti dall'etimologia di Isidoro vi ho insomma ho focalizzato l'attenzione anche in questo caso solo solo su una vedete che la definizione di cochlear è esattamente la stessa da Isidoro al nostro codice latino e poi al volgarizzamento ora anche in questo caso il paratesto nel latino e nel volgarizzamento cioè nel latino intendendo appunto i nostri due codici latini è esattamente lo stesso cioè 33 misure e nello stesso ordine tenuto conto che si tratta di estratti da 5 libri diversi di Isidoro e che non si tratta di tutte le misure comprese in quei libri naturalmente il fatto che la sequenza sia la stessa e gli estratti siano esattamente gli stessi difficilmente insomma può essere poligenetico scendendo nel dettaglio potremmo provare ulteriormente la diciamo l'affinità dei paratesti però insomma non mi soffermo su questo perché il tempo corre e quindi diciamo dando per dimostrato il fatto che quei due paratesti derivano da codici latini con quella struttura passiamo a collazionare il testo e in questa fase diciamo per questa parte vi dico subito che fra i due codici latini che hanno i paratesti il codice laurenziano non ci aiuta dal punto di vista testuale per spiegare le lezioni del volgarizzamento mentre molto interessante per noi è l'altro codice il palatino latino 1566 che chiamerò codice vaticano per per semplificare e per e per brevità allora come vedete ho collazionato nove libri su tredici che però costituiscono l'ottantatre per cento del testo questo perché i primi tre libri da soli sono sostanzialmente la metà del testo di palladio quindi insomma una buona una buona parte ora siccome appunto il tempo è poco l'esemplificazione sarà estremamente cursoria darò qualche esempio macro e qualche esempio micro di affinità testuale tra il codice vaticano e il volgarizzamento ma soprattutto la cosa più importante da qui in avanti tutti i passi che vi mostrerò sono passi che non avrebbero trovato una spiegazione una giustificazione diciamo così convincente avendo solo l'edizione critica del testo latino come riscontro rispetto al testo del volgarizzamento allora un esempio macro è questo libro primo capitolo 4 sulla qualità delle acque il capitolo nell'edizione critica del testo latino che avete nella tabella sinistra è poco più ampio dell'estrato che vedete è un capitolo piuttosto breve mentre è estremamente lungo nel volgarizzamento la parte in grassetto corrisponde all'inizio e alla fine di questa che chiamiamo per ora per comodità aggiunta per darvi un'idea dell'entità dell'aggiunta il capitolo sulle acque comincia in corrispondenza della prima linea rossa la parte evidenziata in rosso è il testo dell'aggiunta rispetto al capitolo corrispondente diciamo all'edizione critica questo nel codice marciano che appunto è la copia del nostro ricardiano di base se andiamo a vedere il codice vaticano troviamo la stessa identica aggiunta diciamo così poi diciamo sulla questione testuale nel palladio latino io naturalmente non entro però prendo atto appunto di questa identità tra i due testi anche scendendo naturalmente a livello a livello testuale vedete che appunto l'ultima parte in comune con l'edizione critica è questa incende rigore moderetur a tempi per qualcuno rigore di freddezza le grandi arsure dell'estate poi inizia l'aggiunta e sia il nascimento del suo corso oriente origo sui cursus cittad orientem eccetera e il testo è precisamente lo stesso forse a schermo intero si vedrebbe meglio di così però vabbè questo è un diciamo un esempio macro però diciamo stringendo le maglie di questa rete di confronto si trovano dati ulteriori a conferma di questa affinità testuale vi ho fatto un esempio piuttosto diciamo semplice da un capitolo su sentenze generali precetti precetti agricoli si dice tre mali nuocciano ugualmente la sterilità il morbo e il vicino colui che diciamo vabbè si pianta in una terra sterile le viti naturalmente perde le sue spese la sua fatica è inutile piantare vigne in una terra sterile vedete che vicinus diventa non un vicino qualsiasi ma il mal vicinus quello naturalmente che vuole nuocere e inicus diventa nemico su questo testo non ci interrogheremo anche sulla base della sua redizione critica la traduzione si spiega naturalmente ma il vicino è una caratterizzazione che discende naturalmente dal significato del testo se andiamo a prendere il codice vaticano troviamo malus vicinus e inimicus quindi questo per darvi il idea appunto dal macro al micro della prossimità dei due testi e di esempi se ne potrebbero fare moltissimi però uscendo un attimo abbiamo visto i paratesti abbiamo visto il testo ma c'è anche un intorno del testo da da analizzare perché? perché nel codice vaticano c'è tutta una serie di glosse di annotazioni interlineari e marginali che costituiscono un sistema piuttosto corposo in interlino troviamo varianti alternative richiami testuali vere e proprie glosse a margine varianti alternative più estese che quindi non potevano stare nell'interlineo e annotazioni esplicative vi faccio notare che nel caso delle annotazioni vedete pinguescunt che viene richiamato nel margine e l'iniziale non è realizzata c'è solo la letterina guida cioè questo codice vaticano non si tratta naturalmente di annotazioni estemporanee cioè qui siamo di fronte a una tradizione evidentemente che ancora deve essere indagata però per ora diciamo teniamoci il codice vaticano e lo studio naturalmente è da fare allora anche questo materiale nell'intorno del testo reagisce diciamo così a che fare con il nostro volgarizzamento dei due esempi in grassetto leggo solo il primo allora qui si sta parlando della legatura a capo di sotto dei tralci di vite cosa vuol dire naturalmente i tralci di vite nascono un po' in tutte le direzioni se si lasciassero liberi al momento della formazione e maturazione del grappolo d'uva il peso del grappolo romperebbe il tralce e quindi il grappolo andrebbe perduto quindi cosa si deve fare si deve prendere il tralce portarlo in basso e legarlo naturalmente a tutto il sistema di fili di canne che sostiene appunto il filare di viti subligazio appunto in termine tecnico nel volgarizzamento si legge sollevare che effettivamente sembra non dico il contrario ma comunque una traduzione non accettabile che non indica quell'operazione precisa forse però anche una traduzione diciamo così che ci sembrerebbe inaccettabile può trovare una spiegazione in una glossa come questa subligazio id est sublevazio nel nostro codice vaticano sotto avevate un altro esempio di fossor id est cavator vine che diventa il cavatore una parola che non viene sostanzialmente mai utilizzata per qualcuno che zappa ma più qualcuno che lavora proprio nelle cave o con altri tipi di materiale pietra eccetera dopo aver visto diciamo l'interlino spostiamoci nel margine allora questo è un capitolo sulla potatura delle vigne e le parti che trovate in grassetto non hanno un corrispettivo nel testo critico latino cioè sembrerebbero anche queste delle aggiunte sulla potatura autunnale su come si deve eseguire la potatura cioè in che direzione muovere appunto il coltello e quanto spazio lasciare nel potare i tralci se prendiamo la pagina del codice vaticano e guardiamo le annotazioni marginali su quella pagina vediamo che queste annotazioni marginali contengono esattamente il testo che finisce dentro il nostro volgarizzamento il testo è esattamente questo vi leggo magari per comodità e per tempi solo il secondo il coltello con che poti non in giù verso la terra ma in su sempre si vuole menare tagliando gladius non vero scusate non versus terram sed sem per ducitur in altum quindi esattamente lo stesso testo quindi anche se insomma un po' di fretta spero di avervi mostrato come davvero il confronto sia stringente fra il testo del codice vaticano e il testo del volgarizzamento e quindi a questo punto posti in una posizione diciamo privilegiata per osservare le tecniche di traduzione vediamo di fare qualche riflessione appunto a partire da un caso come questo ora naturalmente il testo di palladi è un testo tecnico quindi il tentativo di riprodurre una terminologia specifica di mantenere nel caso di ricette procedure eccetera la sostanza del testo latino rispetto a un testo letterario è molto più marcata quindi l'inventiva diciamo così è elestro è molto limitato ecco quindi ci teniamo a dire questo perché è un testo un po' particolare magari rispetto ad altri di cui si parlerà in questi giorni ora naturalmente in assenza del modello e avendo presente solo il testo critico latino la valutazione dell'operazione di traduzione spesso si trova nell'incertezza se attribuire alcune scelte traduttive alcune innovazioni banalizzazioni al traduttore oppure alla tradizione latina a cui il volgarizzatore attingeva e quindi un caso come questo può aiutarci a discriminare un po' di più e a prendere decisioni insomma nella valutazione di questo tipo di dinamiche per esempio questo è un capitolo in cui si sta parlando del potare le vigne nuove si dice non potarle prima che abbiano compiuto due anni altrimenti le radici non sono sufficientemente forti per sostenere la pianta e quindi muoiono subito così si conclude il capitolo nel testo critico un po' più lungo è invece il capitolo nel volgarizzamento dove si dice ok non potarle prima di due anni ma nemmeno non aspettare nemmeno troppo non aspettare tre anni o più anche in questo caso ormai il giochino lo conoscete se andiamo a prendere il codice vaticano troviamo esattamente questo stesso testo aggiunto in fondo al capitolo quindi una nota che potrebbe sembrare si può pensare in questi casi ma forse il volgarizzatore aveva presente queste tecniche ci mette del suo e invece in questo caso almeno non è così lo stesso vale naturalmente per le omissioni qui dunque si sta parlando degli alberi che si trovano nei campi che vengono poi mietuti e finché ci sono appunto le messi le radici degli alberi sono protette dal calore del sole siamo nel mese di luglio libro 8 una volta diciamo realizzata la mietitura questi alberi vanno coperti nella zona delle radici per evitare che il sole li danneggi e poi si parla delle viti novelle vedete che c'è un sodium emomem da obruantur a obruet anche in questo caso si può pensare secondo un doppio binario cioè è stato il traduttore a saltare dallo stesso allo stesso oppure aveva già un testo con l'omissione e il codice vaticano ci attesta un codice che aveva già questa omissione il salto dallo stesso allo stesso tra l'altro vi faccio notare che al posto di immesse che viene tradotto con svelti nel volgarizzamento una lezione che insomma fa un po' specie vedete che inverse si legge invece nel codice vaticano quindi ulteriore riprova altra categoria diciamo che all'interno di queste responsabilità del volgarizzatore è quella delle banalizzazioni soprattutto di fronte a un testo tecnico capita spesso di dire la semplificazione e la banalizzazione di qualcosa che si leggeva male viene riportato a un termine più piano allora in questo capitolo sul diciamo tutta questa parte del libro terzo da cui è tratto il capitolo sulla mixa si parla di vari frutti la mixa o pruno egiziano è una pianta che ha un frutto simile alla rosa canina nel volgarizzamento leggiamo avellane mischiate dove qui evidentemente c'è stato un problema fra mixa e mixta avellane non viene dal nulla ma il capitolo esattamente precedente cioè il 34 parla dell'avellana quindi trovandosi di fronte a una parola sconosciuta mista sopra c'era l'avellana quindi diventa dell'avellana mischiata così come sotto nuces juglandes che vuol semplicemente dire noci nux juglandes è la noce diventa noci e ghiande perché juglandes è una parola ovviamente difficile se andiamo a vedere il codice latino troviamo già esattamente questa situazione de mixta avellana quindi con quella stessa operazione che si ricostruiva prima mista addirittura con la grafia diciamo così ancora più volgare nel corpo del testo e nuces et glandes nel secondo passo anche su banalizzazioni semplificazioni si potrebbero fare molti esempi ma qui il tempo stringe quindi procedo oltre su una categoria un po' diversa che è quella delle innovazioni allora in questo passo si parla del seminare le cipolle e si dice se si seminano a luna calante nascono piccole e agre se si seminano a luna crescente saranno grosse e di amichevo il sapore in corrispondenza di sapori umecti che vuol dire in realtà umido bagnato nel testo latino ora questo amichevo non sta molto bene con sapore tant'è che la tradizione manoscritta reagisce a questa difficoltà un codice cinquecentesco addirittura ritraduce nella versione latina cum amico sapore forse pensando che in latino poteva avere un senso e di buono sapore quindi con una banalizzazione questa volta sì in una serie di altri testimoni manoscritti naturalmente di fronte a un passo del genere si può pensare umecti forse era un po' difficile c'è comunque l'aggettivo agre quindi per opposizione qualcosa che non è agre amichevole qualcosa di dolce insomma si potrebbe salvare comunque il passo però avendo il codice vaticano possiamo vedere che già nel testo latino abbiamo amici quindi la traduzione comunque non risponde a una difficoltà cioè è una traduzione precisa di quello che il volgarizzatore già leggeva nel suo modello una traduzione lineare ok qui vi ho messo alcuni esempi sotto l'etichetta di lessico di traduzione perché quando si parla di lessico di traduzione naturalmente avendo a disposizione edizione critica del testo latino e testo del volgarizzamento le corrispondenze che si fanno sono tra quello e questo per cui in questo caso l'edizione critica del pallaglio latino avremo sariendis reso con sarchiare che è una traduzione precisa e perfetta di sariendis fluor che vuol dire esattamente flusso e diventa flusso camemeli che naturalmente diventa camomilla quella è la pianta tuttavia nel considerare il lessico di traduzione bisogna anche pensare vi ho detto prima che questi codici latini sono trecenteschi sono praticamente coevi al volgarizzamento e sono naturalmente permeabili alla situazione linguistica che li circonda il loro latino di fatto è già in qualche punto mi verrebbe da dire imbastardito anche se è un po' forte però con il volgare infatti se andiamo a vedere in corrispondenza di questi passi il testo del codice vaticano vediamo che al posto di sariendis c'è sarculandis e sarculare naturalmente l'antecedente preciso del nostro sarchiare fluorem che ha dato una parola anche italiana ma ormai obsoleta e molto rara che è fluore diventa fluxum e flusso invece è parola molto più comune così come camemellum è già il latino tardo camomilla che dà vita alla nostra camomilla quindi appunto il passaggio spesso non è netto ma c'è una scalarità che l'indagine nella tradizione tarda dei testi latini ci consente quanto meno di esplorare dove non ricostruire a proposito di tecniche di traduzione si parla spesso nel caso di volgarizzamenti di litologie cioè la litologia come tecnica traduttiva litologie di vario tipo qui ve ne riportate due il primo passo in questo mese in un luogo diciamo ben irrigato umido bagnato seminiamo i napi e le rape napi regalizzamenti cioè una forma più vicina al latino e poi il corrispettivo invece più volgare sotto si parla delle greggi e si dice di farle pascolare lontano dalle siepi ma quali sono i tipi di siepi dannose naturalmente quelle di rovi che possono danneggiare la lana pungere le pecore quindi pascan di lungi da spine e da siepi se andiamo a vedere anche in questo caso il nostro codice vaticano vediamo che napos viene glossato id est navones quindi quella dittologia evidentemente è una glossa passata a testo così come centibus viene glossato con id est aspinis et prunis cioè sono quelle le siepi dannose quelle di rovi questo naturalmente non vuol dire che tutte le dittologie di questo tipo le traduzioni di questo tipo derivino da glosse però evidentemente questa è una realtà codicologica che si fa testualità e anche insomma se non spiega tutti i casi comunque bisogna sempre tenerne conto quando si fa uno spoglio integrale per esempio di tutte le dittologie utilizzate da un traduttore in un determinato volgarizzamento chiudo con un ultimo un ultimo caso io ho intitolato risvolti editoriali allora si sta parlando in questo capitolo dei tipi di terreno e si dice non deve essere né secco né troppo bagnato oliginoso ma una via di mezzo roscidum rugiadoso un po' bagnato nel volgarizzamento leggiamo né secco ovvero il cinoso ma un poco rascido dove rascido non è una parola dell'italiano e quindi insomma qui evidentemente sembra esserci un problema fra l'altro roscido ha due o sole occorrenze nel corpus ovi entrambe dal volgarizzamento di palladio e nel libro nel libro seguente troviamo un altro passo simile dove in corrispondenza di roscidum l'intera tradizione manoscritta è compatta su roscido mentre nel nostro caso a parte il cinquecentesco ricardiano 1646 che evidentemente sembra correggere roscido tutta la tradizione è compatta su rascido Zanotti naturalmente corregge il roscido perché rascido non è appunto non è una parola accettabile e siamo forse quasi vicini a quella cosa che si chiamerebbe errore d'archetipo cioè l'intera tradizione manoscritta compatta su una lezione evidentemente erronea la cautela però vorrebbe che si facesse un passo ulteriore se andiamo a vedere il nostro codice vaticano leggiamo roscidum e non roscidum allora quella lezione cosa potrebbe essere il volgarizzatore si trova di fronte a una parola evidentemente incomprensibile e con un minimo adattamento morfologico la traspone dal latino al volgare come fa per esempio con i grecismi vi faccio notare sempre in questo stesso passo a riprova diciamo così della finità che anche quel ulcinoso per uliginosum che genera anche lui insomma tutta una serie di problemi nella tradizione manoscritta trova ulcinosum anche nel codice vaticano quindi sono due parole proprio vicinissime che diciamo hanno queste sole occorrenze e che si ritrovano appunto nel nel codice latino e poi trasposte nel volgarizzamento quindi in conclusione naturalmente un caso come questo rafforza l'invito alla cautela nella ricostruzione della genesi di una determinata traduzione e nella valutazione del lessico di traduzione e anche dell'usus traduttivo di un volgarizzatore e rafforza l'idea che sia necessaria un'indagine della tradizione latina sfruttando tutti gli elementi a disposizione in questo caso fortunato c'erano i paratesti nel caso dei testi più brevi si potrebbe pensare alle sequenze testuali o comunque a dati esterni al testo che ci aiutino insomma a fare un po' un po' di ordine e quindi per studiare appunto i volgarizzamenti dai classici anche noi dobbiamo fare un po' l'operazione del volgarizzatore cioè quella di muoverci sempre fra latino e volgare grazie vogliamo noi ringraziare Valentina Nieri direi a questo punto possiamo fare una pausa di 10 minuti tempo del caffè insomma ci ritroviamo tra breve gli studi sui volgarizzamenti italiani si sono nell'ultimo quindicennio rinvigoriti e lo testimoniano nuove edizioni numerosissimi saggi e molteplici convegni dedicati a testi e problemi che a questa tradizione trasversale fondativa nell'Europa romanza sono stati consacrati negli anni recenti la scuola per sua parte ha partecipato a questa rinascita attivamente l'impegno necessario per dipanare tradizioni complesse di testi spesso voluminosi e talvolta afosi avrebbe detto continui richiede l'entusiasmo e la dedizione di studiosi giovani d'altra parte come ebbi modo di ricordare nel dicembre del 2014 introducendo la giornata di studi volgarizzari classici nel medioevo che si teni in questa stessa sala in ricordo di Cesare Segre i volgarizzamenti furono degli infiniti oggetti di studio di quello studioso onnivoro forse tra i più precoci la silloge di volgarizzamenti del 2300 pietra miliare alla quale ancora oggi guardiamo e attingiamo con profitto recano la data 1953 sono l'opera cioè di un 25enne non è senza motivo credo che entrambi i due grandi maestri italiani degli studi sui volgarizzamenti attivi nella seconda metà del novecento Segre appunto e Gianfranco Folena autore di un saggio memorabile del quale con Corrado Bologna abbiamo voluto oggi che riecheggiasse il titolo fossero entrambi per qualifica professionale e ancor più per ampiezza di sguardo studiosi della Romagna se è inevitabile e in fondo assai opportuno che gli approfondimenti specialmente editoriali e linguistici siano di competenza delle singole filologie nazionali appare sempre più evidente che il fenomeno della traduzione nelle accezioni più ampie e più varie assume nella cultura medievale un rilievo di tale importanza da non poter prescindere da un inquadramento transnazionale alcuni degli interventi in programma oggi e domani ne forniranno immediata attestazione ed è il resto importante constatare come lo studio dei volgarizzamenti a livello europeo noi ci concentriamo per forza di cosa sui testi romanzi ma è da ricordare che fenomeni paragonabili anche se diversamente disciplinati riguardano anche le lingue germaniche vada estendendosi progressivamente con importanti opere di recensione e classificazione e con il moltiplicarsi di convegni e progetti di studio anche all'estero notevole del resto e ne avremo qui la riprova in particolare ma non solo nel nucleo di interventi che si concentrerà sulla fortuna della storia di Alessandro che giovani studiosi di formazione italiana abbiano portato nelle loro attuali sedi di studio europee ed extraeuropee il frutto della propria esperienza destinata a far propagare ulteriormente questo filone di ricerche anche al di fuori dei confini nazionali il contributo più significativo della scuola negli ultimi anni si riassume proprio nella formazione di un manipolo di giovani studiosi che pur avendo coltivato anche alti interessi e sviluppato diverse competenze si sono concentrati nell'opera di scavo sui volgarizzamenti soprattutto volgarizzamenti dai classici ma non solo non posso però tacere che la scuola è stata per alcuni anni al centro delle ricerche più aggiornate sui volgarizzamenti anche grazie all'insediamento in essa di una delle due unità di ricerca del progetto FIRB futuro in ricerca intitolato DIVO dizionario dei volgarizzamenti e ospitato dall'opera del vocabolario italiano oggi sono con noi in qualità di moderatori l'attuale direttore e l'ex direttore dell'istituto e dalla scuola normale il progetto è nato dalle esperienze di Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro i due coordinatori di unità da un lato sul fronte lessicografico all'interno del lobby dall'altro sul fronte filologico attraverso la partecipazione a tre campagne di inventariazione della tradizione manoscritta e a stampa che hanno fatto capo a diverso titolo alla scuola il DIVO può considerarsi un frutto maturo dell'operazione culturale di valorizzazione dei volgarizzamenti sviluppatasi nell'ultimo quindicennio della quale ha confermato l'assunto fondamentale quello cioè di una sostanziale continuità del classico tra Medioevo e Umanesimo e poi da registrare che le edizioni della normale succedute alle edizioni del Galluzzo pubblicano attualmente la collana dell'edizione nazionale dei volgarizzamenti uscito a Pisa è il terzo tomo della monumentale edizione del volgarizzamento ceffiano delle eroidi a cura di Massimo Zangia e prossime sono tre nuove edizioni l'Eneide volgarizzata da Ciampolo di Meo degli Ugurgeri le tre orazioni cesariane volgarizzate da Brunetto Latini e il De Brevitate Vite volgarizzato da Andrea Lancia delle due ultime avremo proprio questa mattina qualche primizia le operazioni filologiche richiedono silenzio e disciplina mattone dopo mattone l'edificio si innalza quasi senza che gli operai se ne rendano conto qualche volta è il caso di sollevare gli occhi e di rallegrarsi del lavoro svolto per imboccarsi le maniche e ripartire questi due giorni possono essere l'occasione e in questo spirito anche a nome del direttore della scuola che qui rappresento auguro a tutti buon soggiorno e buon lavoro a riprova del fervore incessante al quale alludevo presento fresco di stampa il volume che raccoglie gli atti della giornata che si tenne a Firenze in continuazione di quella pisana alla quale ho fatto prima riferimento nel 2014 tradurre dal latino nel medioevo italiano traslazio studi e procedure linguistiche a cura di Lino Leonardi e Speranza Cerullo grazie ancora e buon lavoro prego si tratta a questo punto di fare una vera e propria traduzione perché il professor Cioccio va già largamente indicato il luogo grazie e anche qua sotto abbiamo visto molte impalcature la scuola sta vivendo un momento di grande ulteriore insomma fervore soprattutto invitando i giovani ad esprimersi io partirei dalla parola in questi pochi minuti che voglio rubare a voi dalla parola gloria dalla gloria della lingua e dalla gloria e umiltà metterei accanto queste due parole gloria e umiltà del traduttore voglio leggervi solo due parole ma due davvero di Jacqueline Risset quando traduce niente meno che la Divina Commedia in francese e dice qualcosa che sarebbe molto piaciuto a Walter Benjamin a cui lei ha sicuramente pensato la traduzione è a sua volta scrittura e invenzione e prolungamento del testo il traduttore deve seguire e cogliere il pensiero dell'originale rinunciando a restituire ad ogni costo la polisemia le traduzioni autentiche sono più chiare dell'originale aggiunge laddove Benjamin ricorderete sostiene in quel bellissimo importantissimo saggio sulla lingua della traduzione che raggiungerebbe una lingua pura dell'origine Benjamin parlava proprio di sopravvivenza del testo tradotto attraverso la traduzione attraverso la traduzione sopravvive qualcosa del testo e aggiungeva ancora Benjamin c'è una legge della traduzione che è racchiusa nell'originale o nella sua traducibilità un altro grande nome Paul Valéry nelle variazioni sulle bucoliche del 55 la traduzione ha qualcosa di molto prossimo rispetto alla creazione alla scrittura creativa questa è opinione di scrittori Valéry studiosi anche ma soprattutto scrittori Valéry Jacques Lirinsay dietro di loro Baudelaire e poi la voce almeno di quei due personaggi centrali nei nostri studi che sono Folena e Segre ma vorrei aggiungere ad essi giusto per tratteggiare quello che mi pare si stia incominciando a fare dopo tanti lavori quelli degli anni 50 di Segre appunto e poi l'intervento celebre di Folena che abbiamo voluto intenzionalmente riprendere nel titolo proprio Folena all'inizio del suo libro ricordava questa parola chiave transferre che fa parte insomma del trasferimento del portare materialmente da una parte all'altra e diceva che nel medioevo romanzo il problema del tradurre si pone con una complessità nuova e il concetto del tradurre si allarga a quello della pura trasmissione di contenuti del rifacimento e della metamorfosi del testo il transferre cioè si identifica con il tradere e poi via via nel suo testo in fondo ricordava che a Tur nell'813 cioè un punto vitale di passaggio tra le competenze dei latinisti e quelle dei filologi romanzi la rustica romana lingua era un punto verso cui si trasferiva e il verbo transferre era proprio utilizzato ma perché questa consapevolezza del transferre come costituzione di una nuova operosità culturale arrivasse fino là dove l'accogliamo con le lingue romanze è proprio il mettere in romanzo il mettere in romanzo questa nuova grande invenzione questa nuova idea che significhi recare tradurre porre sporre involgare in lingua romanza dove come sappiamo bene la parola romanza ha direttamente a che fare con il romanzo e poi una cosa che mi piace ricordare sempre da Folena è come lui sottolineasse già la parola rectorica e dicesse cioè che la rectorica secondo una parietimologia vulgata divene un'arte e una scienza del reggimento con Brunetto soprattutto e guardo Pietro Beltrami a cui dobbiamo tanto anche su Brunetto c'è quindi questa componente nuova che è quella di un comune quindi del momento politico che assume la lingua volgare in una direzione civile politica completamente innovativa rispetto alle vecchie tradizioni che non che non erano di tipo comunale però bisogna aspettare per avere la parola chiave che traducere tradurre il settembre del 1400 il primo esempio è in una lettera di Bruni di questa data e volevo poi sempre per far risuonare solo un po' la parola dei maestri cui tutti dobbiamo sentire l'inizio di quel celebre saggio di Cesare Segre sui volgarizzamenti del 2 del 300 si apriva così volgarizzamento è nella nostra prima letteratura situazione mentale più ancora che attività specifica ed è per questo che in queste poche parole introduttive prendo le mosse proprio da un'attività di scrittura attività mentale la chiamava appunto Segre prima ancora che attività specifica cioè professionalità e poi anche lui partiva dalle lettere di Guittone da Guido Faba dal Trattato di Bono Giamboni diceva l'orientamento delle prime opere originali in prosa non differisce molto da quello delle ultime opere in latino essendo le condizioni culturali degli autori pressoché le medesime gli interessi dell'una e dell'altra attività si sostengono la vicenda per questo il nostro preside Gianpiero Rosati latinista in signe è qui a fare proprio quasi la tradunion come dire non solo istituzionalmente ma anche come studioso tra questi due grandi momenti che implicano una presa di coscienza reciproca e sarà allora il grande problema di quella che Segre stesso chiamava la inquietudine del traduttore ed è bella questa formulazione sulla quale vado a chiudere appena un momento per il terzo nome che volevo evocare è quello di Carlo Dionisotti di cui non possiamo fare a meno invece in quanto più chiaro appare nel desiderio del possesso il contrasto della nuova con la vecchia cultura il traduttore si fa inquieto teme che il suo linguaggio non sia all'altezza dell'originale né violenta lessico e sintassi si intende un'inquietudine di valore positivo a me pare che questa affermazione di Segre sia da sottolineare con vigore c'è un'inquietudine che nasce proprio dal confronto con i classici siamo abituati a pensare ad un umanesimo tutto latino mentre proprio le ricerche intorno ai volgarizzamenti e ho portato queste tante e pesanti carte almeno per mostrarle anch'io fisicamente come si faceva nei misteri e le usini credo si alzava una spiga e si mostrava al pubblico ho davanti il già citato Massimo Zagia con questo importante il primo di tre volumi volgarizzamento fiorentino di Filippo Ceffi dell'eroe di Diovidio dove a lungo si parla di umanesimo volgari in una bella introduzione che cito anche per la sua ampiezza e si dice che dall'inizio del Trecento si delinua gradualmente a Firenze un più maturo interesse per la storia di Roma antica che porta a una volontà di approccio più diretto ai maggiori testi storici di quell'età e più rispettoso della fisionomia dei testi originali dunque tradurre non vuol dire affatto alterare significa creare un braccio di ferro con gli originali impostare una vera e propria relazione dinamica e costituire la propria identità attraverso un confronto diretto con quelli che sono sentiti in maniera inquieta classici fondatori ma anche come dire grandi maestri con cui poter dialogare dicevo di Dionisotti e volevo appena citare fra le tante persone che saranno anche qui oggi in Fiammetta Papi col libro del governamento dei re di principi dove lo ricordavo qualche settimana fa già a Firenze dove abbiamo presentato per l'edizione Galluzzo questa collana nella quale Lino Leonardi Pietro Beltrami e Claudio Ciocio lo sono responsabili voglio ricordare anche quest'altra diretta da Claudio Ciocio che è la Biblioteca dei Volgarizzamenti e in cui si dice nella bandella editoriale che sono testi che alla nascita e allo sviluppo della cultura europea concorsero in maniera determinante e quindi vuole studiare questa collana e valorizzare lo studio e propagarsi in Europa in Italia in genere per il tramite dei volgarizzamenti e delle traduzioni latine e della cultura filosofica e scientifica anche araba quindi l'ampiezza non è solo italiana c'è un orizzonte una geografia e storia della cultura dei volgarizzamenti che appunto con Dionisotti forse è il momento di affrontare grazie alle tante specifiche ricerche puntuali di cui oggi avremo sicuramente qualche bella esemplificazione e di che parlava Dionisotti parlava di qualcuno che ha contatto diretto come un terremoto con questo rinnovamento della cultura fine duecento primo trecentesca e quindi anche un dato sulla storia siamo partiti con i volgarizzamenti molto tardi ancora oggi e domani ci si occuperà del tre del quattrocento ma non dimentichiamo che l'attività è fine duecentesca primo trecentesca ed è il momento di quello che Dionisotti chiamava il terremoto della commedia che cambia completamente il paesaggio storico allora dicevo di Fiammetta Papi che in questo volume tra le tante cose interessanti coglie una parola e qui vediamo l'orizzonte alla curzius ampio di grande respiro e il microscopio che va usato insieme con il telescopio la parola è compagnevole che trova in questo egidio volgarizzato e la cosa interessante è che questo compagnevole Fiammetta Papi lo riconduce all'uso di questo termine nel quarto del convivio e non dà una risposta ma pone un quesito ma Dante oltre che egidio in latino cosa su cui Mirco Tavoni soprattutto ha molto insistito negli ultimi tempi nel suo commento al divulgare eloquenza che rilegge soprattutto in una chiave di tipo politico ideologico ma non avrà letto per caso anche quel volgarizzamento di origine senese ecco allora che volgarizzamenti sul tavolo di Dante Alighieri accanto ai testi dei classici ci portano a una diversa configurazione della geografia e storia dei volgarizzamenti italiani e cioè appunto a questa religione dei classici e chiudo con Dionisotti che certo non era nell'età di Dante di lui solo e fuori di dubbio che il poema impose quella religione assai prima che la lezione petrecchesca del resto affatto diversa potesse essere intesa e accolta esemplare decisiva e anche per questo l'opera del Boccaccio insomma sono rimessi sul campo tutti e tre Dante Petrarchi e Boccaccio in diretto contatto con questa attività gloriosa e umile del traduttore che compie un'operazione decisiva per la storia culturale e civile dell'Italia del tempo ma anche per gli scambi internazionali quante traduzioni dal latino ma anche quante traduzioni di testi latini dal francese ed ecco allora che questo doppio registro degli scambi tra lingue e romanze e della derivazione diretta dal latino costituisce ci pare mi pare ma credo che ci pare perché ne abbiamo a lungo parlato ideando questo piccolo ma insomma intenso incontro costituisce proprio uno dei piani fortemente dialettici quindi non solo più un asse dal latino a lingue volgari ma una dinamica e chiuderei con la parola campi di tensione formula di Maria Corti che mi è sempre piaciuta molto perché lei la derivava dai credo dai fisici dai fisici probabilmente e quando diceva che ci sono dei campi di tensione diceva che non sono solo degli assi dialettici monodirezionali ma che si vengono a costituire delle tensioni multiple entro le quali passa dell'energia questo mi pare essere uno dei principali componenti chimici di questa novità che è il portare nelle lingue romanze nella loro dialettica interna quindi la forte prevalenza del francese anche in Italia come lingua di cultura e vedere un classico latino tradotto in italiano dal francese credo che possa essere una delle esperienze belle e emozionanti di questa attività spero non aver tolto troppo tempo agli oratori e lascio adesso il compito al nostro presidente Giampiero Rosati grazie quel che devo fare anzitutto è giustificare la mia presenza qui non ho nessun titolo per esserci sono letteralmente incompetente delle materie di cui si discuterà ci sono solo in quanto classicista che ha ceduto alle gentili pressioni dei colleghi che mi hanno preceduto e sono qui quindi per imparare cercherò di imparare appunto quello che c'è da imparare perché io appartengo anche per ragioni generazionali io sono un classicista a una generazione appunto in cui si avvertivano ancora gli echi di una lunga stagione gloriosa della la Quellen Forschung in cui si guardava ai classici da una prospettiva più antica appunto ai testi latini soprattutto da quelli greci una stagione appunto gloriosa dicevo che alla fine ha conosciuto anche delle fasi come dire affose per riprendere una metafora già utilizzata da da Claudio Sciocciola una ventata di aria fresca mi pare che sia arrivata negli ultimi decenni invece anche negli studi classici soprattutto dal rovesciamento della prospettiva e dal nuovo diciamo interesse dal modo di guardare al mondo antico dalla sua ricezione anche anche i classici latini hanno molto da imparare dal dallo studio della loro tradizione della loro fortuna della loro ricezione io stesso l'ho verificato in misura limitata ma molto eloquente dal dalla frequentazione dei lavori di Massimo Zaggia appunto sull'eroides di Ovidio e quindi con questa con questo interesse con questa attenzione con questa disposizione che sono qui appunto e darei quindi inizio alla sessione di questa mattina invitando a parlare Giulio Vaccaro del CNR Opera del vocabolario italiano il quale ci parlerà appunto di Seneca volgarizzato da Andrea Lancia prego grazie Sì innanzitutto volevo ringraziare Claudio Scioccio del Corrado Bologna per l'invito a parlare in questo in questo convegno parlare di Andrea Lancia vuol dire parlare di un notaio fiorentino che si colloca ottimamente al centro di varie linee di tendenza era innanzitutto un notaio ma è stato soprattutto un grande cultore di materie dantesche e un grandissimo attore nella tradizione di molti volgarizzamenti questi sono i pochi dati certi che abbiamo su Lancia in effetti Lancia è rimasto per un lungo periodo più o meno un perfetto sconosciuto fino al Settecento inoltrato il suo nome non era quello di uno dei moltissimi notari che avevano operato a Firenze nella fine del Trecento e solamente a partire dai lavori del Meus quindi siamo già a metà del Settecento a lui vengono attribuite una serie di opere il Meus che attribuisce infatti il volgarizzamento delle pistole di Seneca nella versione tradotta dal francese di cui poi parlerà oggi pomeriggio più diffusamente Cristiano Lorenzi Biondi il volgarizzamento dell'Ovidio amoroso il volgarizzamento dell'Eneide di Virgilio inoltre il volgarizzamento del Palladio in realtà di due volgarizzamenti del Palladio di cui parlerà dopo Valentina Nieri il volgarizzamento del De Amore di Andrea Cappellano nella versione che oggi che Barbiellini Amidea attribuisce a Boccaccio probabilmente in realtà di Boccaccio non è e infine una piccolissima operetta che è la pistola di Lucillo in risposta a una delle pistole di Seneca con l'Ottocento gli si attribuiscono una serie di altre opere nell'opera di Colombe de Batin che gli attribuisce l'ottimo commento il depulice pseudo-ovidiano e infine l'epistola del marchese Ugo di Toscana infine il trucchi gli attribuisce una serie di una ballata pseudo-dantesca e quattro sonetti Fanfani il volgarizzamento delle leggi suntuarie del comune di Firenze il Bencini Valerio Massimo e lo pseudo-quintiliano il Guasti la parte di volgarizzamento di Tacito che prende la morte di Seneca e infine il Papanti una serie di quattro novelle quindi Andrea Lancia più o meno avrebbe scritto e volgarizzato praticamente tutto ciò che fu fatto a Firenze circa fra l'inizio degli anni 30 e anzi fra l'inizio degli anni 20 più o meno e gli anni 50 la situazione in realtà non è così semplice e sul Lancia ci si è molto soffermati negli ultimi anni in particolare ci si è soffermati sul suo ruolo nell'ambito della tradizione di varie delle opere dantesche Dante infatti è un copista della commedia è un copista di una della cosiddetta terza redazione dell'ottimo commento ed è autore a sua volta di un commento alla Divina Commedia edito da Luca Zetta nel 2012 e conservato in un unico testimone biblioteca nazionale centrale di Firenze manoscritto il secondo secondo 39 è inoltre senza altro il volgarizzatore degli ordinamenti del comune di Firenze è un volgarizzamento realizzato tra il 1355 e il 1356 di cui Lancia ebbe l'incarico da parte del comune di Firenze e sono poi con buona ragione attribuibili a lui tre volgarizzamenti noti in un manoscritto unico e autografo i tre volgarizzamenti di Lancia sono questi uno è il volgarizzamento compendioso dell'epistole all'uscilio conservato nel manoscritto C.325 della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena uno è un volgarizzamento per excerta delle enarrazione Simsalmos e uno è per l'appunto il volgarizzamento delle brevitate vite in più a Lancia è senz'altro attribuibile ed attribuita di fatto concordemente da tutta la tradizione la pistola in forma di lucillo che si incontra aggiunta in sei manoscritti che tramandano le pistole le pistole di Seneca si tratta di tre volgarizzamenti su cui mi voglio soffermare mi soffermerà principalmente sui due volgarizzamenti senecani ma non è privo di interesse anche il volgarizzamento del il volgarizzamento agostiniano che presentano delle caratteristiche interessanti innanzitutto quello del quello dell'epistole all'uscilio è un volgarizzamento che non è una copia impulito ma è una copia in cui sono presenti molte aggiunte correzioni cancellature ripensamenti traduzioni alternative e rappresenta si può dire un vero e proprio laboratorio del volgarizzatore cioè consente di vedere effettivamente come un volgarizzatore poteva operare su un testo che aveva di fronte il il volgarizzamento è un volgarizzamento in un certo senso parziale ma in realtà che parziale non è cioè occupa solamente si occupa solamente della prima parte delle dell'epistole di Seneca cioè dall'epistola 1 all'88 anche se poi l'ordinamento delle ultime è turbato quindi l'88 finisce prima dell'84 ed è condotto in una forma estremamente compendiosa cioè anche qui più che exceptata sembra una traduzione in cui il lancia procede per estratti di sentenze per darvi solamente un'idea di fronte a un testo latino molto ampio come quello dell'epistola 7 dell'epistola all'ucilio dei 12 paragrafi in cui si articola la moderna edizione latina sono tradotti integralmente il 2 il 7 l'8 e il 12 3 10 e 11 sono tradotti per piccoli passi mentre i paragrafi 1 4 5 6 e 9 non sono non sono vulgarizzati affatto la traduzione è estremamente letterale e priva di ampiamenti occhiose finita a testo con una piccolissima eccezione paragrafo 7 paragrafo 8 in cui spiega il termine relative con cui traduce il latino mutus cioè che tu devi fare altrui e altri eccetera senz'altro è un termine poco attestato in italiano antico c'è un'attestazione nel convivio e una forse se c'è davvero nell'edizione del tesoro volgare però la traduzione al di là anche al di là delle sostituzioni che si vengono producendo che sono sempre in realtà delle sostituzioni non mai non di sostanza cioè anche le sostituzioni lessicali sono pochissime uno è uno sia questa è la dinamica delle sostituzioni di siti roso cupido alcuno ciascuno alcune sono più marcate nel senso diciamo del volgarizzamento contro il latinismo ma di norma si tratta sempre di traduzioni che rientrano pienamente in quelle che sono delle ben note dinamiche traduttive e si tratta comunque quindi di un volgarizzamento estremamente letterale privo di ampiamenti e di apparati è abbastanza interessante anche il caso delle enarraziones il caso delle enarraziones è molto interessante perché si tratta in realtà di un volgarizzamento che ha una struttura di per sé molto particolare cioè Lancia scrive una serie di prologuzzi del volgarizzatore che giustificano la scelta dei passi che vengono volgarizzati dei salmi che vengono volgarizzati e viceversa quelli che non vengono volgarizzati perché così gli sarebbe stato chiesto da un frate il dato tuttavia piuttosto interessante è che nei primi cinque dei sette salmi che vengono volgarizzati Lancia pone il testo latino a fronte del testo volgare quindi di fatto c'è una traduzione che si può controllare direttamente sul testo originale volgarizzato viceversa il testo che viene poi volgarizzato anche in questo caso si tratta tuttavia di una tipologia di volgarizzamento che anche qui molto molto letterale è priva di chiose anche qui in questo caso addirittura molto spesso ma qui evidentemente fa agio il fatto che ci si trovi di fronte a un testo sacro e non a un testo profano probabilmente viene eseguito anche l'ordine stesso delle parole con inversioni cioè con il verbo posto in fondo alla frase resta in realtà molto dubbio poi quale sia stasi anche qui il ruolo del lancia sia effettivamente quello di volgarizzatore dell'intera opera di volgarizzatore solo di una parte dell'opera nel senso che in realtà se i primi salmi sono tutti tradotti così a partire dal sesto cambia notevolmente sia la qualità della traduzione sia anche la tipologia stessa di traduzione ossia cessa di essere posto il testo a fronte e significativamente viene eliminato il testo volgare non viene eliminato il testo latino il sesto e il settimo salmo hanno sempre il testo latino ma non hanno il volgarizzamento mentre è in volgare solamente l'asposizione il terzo volgarizzamento del lancia che è quello su cui intendo soffermarmi di più è un volgarizzamento che è stato scoperto da Teresa De Robertis e da me nel manoscritto Frullani 5 della biblioteca moreniana di Firenze si tratta di un volgarizzamento di particolare importanza per due ragioni fondamentali innanzitutto perché volgarizza un'opera ossia De Brevitate Vita De Brevitate Vita che non ha avuto una diffusione in volgare fino a un'epoca molto molto bassa cioè le prime traduzioni che noi abbiamo sono state fatte in ambito spagnolo alla fine del Quattrocento mentre in ambito italiano tolta questa si arriva addirittura all'inizio del del Seicento quindi attesta una diffusione in un ambito romanzo di quasi un secolo e mezzo precedente a quella oggi nota secondo aspetto interessante è che si tratta della quarta traduzione di Seneca compiuta a Firenze entro la prima metà del Trecento la quarta perché si aggiunge a quella del Seneca tradotto da Lancia per l'appunto a quella dell'epistole all'uscilio passate attraverso tramite francese e a quella del De Providenzia che entra poi anch'essa all'altezza della seconda redazione dell'epistole di Seneca nella tradizione appunto del borgarizzamento dell'epistole ovviamente è anche la seconda versione che è direttamente riconducibile alla figura del Lancia anche in questo caso la traduzione è molto fluida e aderisce strettamente al dettato originale al testo si accompagna un ampio apparato di chiose marginali e interolineari che rivelano la grande familiarità che Lancia aveva con le opere classiche e medievali che circolavano nella Firenze della prima metà del 300 gli autori classici citati sono Boezio Cassiodoro Cicerone Floro Frontino Isidoro Orosio Ovidio Sallustio Seneca Solino Olivio Valerio Massimo Begezio e Virgilio gli autori medievali citati sono Brunetto di cui viene citato il Tresor probabilmente nella versione toscana ma il passo è troppo breve per poter pronunciarsi con certezza e Dante di cui si citano i versi 93 e 96 del quindicesimo canto dell'inferno e alla fortuna come Walson non è nuova gli orecchini italiana per oggi fortuna la sua ruota come le piace e il presso del verso 93 è particolarmente interessante perché rimanda alla famiglia del manoscritto copiato dal Lancia mentre in realtà la tradizione fiorentina ha Presto quindi probabilmente è una conferma ulteriore questa del fatto che l'apparato di Chiose venga dal mondo lancero e per quanto riguarda anche le citazioni dall'Orosio appare evidente la dipendenza del Lancia dal volgarizzamento di Bono Giamboni un volgarizzamento che penetra in molte opere della Firenze del tempo nel caso per esempio dei fatti dei romani come ha mostrato recentemente Claudio Sciocciola ma anche il caso del commento del Lancia che cita abbondantemente il testo di Bono Giamboni questo si prova attraverso una serie di errori traduttivi propri del volgarizzamento giamboniano che producono una costellazione di errori in vari testi diffusi nella Firenze del tempo tutto questo pone in realtà un problema però di fondo ossia alla Gallancia sarebbero riconducibili tre volgarizzamenti fondamentalmente i quali però non sembrano di aver goduto di alcuna circolazione fondamentalmente sono tre volgarizzamenti monotestimoniali due vero in prodotti manoscritti sicuramente di alta gamma si tratta di due codici per gamenacei in un caso c'è quello del palatino anche decorati abbastanza riccamente ma si tratta fondamentalmente di opere tutte monotestimoniate e tutto sommato questa figura di volgarizzatore non si concilia troppo bene con quella che è la figura del volgarizzatore ufficiale del comune di Firenze che ebbe appunto dal comune il ruolo di volgarizzare gli ordinamenti tra il 55 e il 57 è certo quindi che Lancia deve essere stata una parte attiva non solo nella tradizione di altri volgarizzamenti ma anche nella traduzione di altri di altri volgarizzamenti e questo tuttavia questo è un problema attributivo che è spesso e credo per noi purtroppo decisamente insondabile questo perché perché fondamentalmente tutto ciò che noi possiamo dedurre oggi dei volgarizzamenti viene o dalle notizie che possiamo attingere dai manoscritti e come abbiamo detto non c'è nessuna attribuzione univoca a Andrea Lancia e le attribuzioni che sono state fatte sono sempre state basate su una sigla AL variamente presente nell'explicit di alcuni manoscritti ma che sono tutti i manoscritti che vengono dopo il volgarizzamento degli ordinamenti quindi può essere un'attribuzione in qualche modo accascata su quella spinta ben nota a nominare gli anonimi che già Contini notava verso la fine del 300 e gli altri dati che abbiamo sono tutti dati che possono venire solamente dal punto di vista lessicale e del resto sono proprio le ragioni lessicale di quelli che hanno portato a Lancia tutta una serie di attribuzioni e per esempio faccio qui gli esempi che portava Bencini per attribuire il Valerio Massimo e l'Eneide al Lancia l'uso di an poi stremire sprovare sboglientare di sacerdote al femminile di adorare in senso assoluto di legnaio per rogo e ancora altre voci che quantunque siano assai comuni in quel tempo pur nonostante sono amate con tanta predilezione sì nelle Eneide come nel Valerio che a Stagnaro si mostra che le sono figlie di un medesimo padre giovanaglia partimento risprendimento risponso alla perfine femminesco compagnesco e così via tuttavia un controllo oggi possibile con mezzi che ovviamente Bencini non aveva ossia con il corpus divo e il corpus ovvi dell'italiano antico mostrano sì da un lato che la filologia fiorentina dell'ottocento aveva raggiunto una sensibilità linguistica notevolissima ma purtroppo anche che non si tratta in realtà esattamente di traduzioni proprie in misura esclusiva del solo lancio ma si tratta in realtà di fenomeni condivisi dalla grandissima parte della 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 pratica del volgarizzare in nella firenze di quel torno di anni e in realtà è significativo il fatto che gli stessi argomenti che Bencini usa per attribuire al lancio il valerio massimo vengono usati cent'anni dopo da Maria Teresa Casella per attribuire la stessa opera a Giovanni Boccaccio la stessa opera aggiungendoci anche in questo caso il livio un dato però tuttavia che mi sembra che si possa in qualche misura fare è provare a far reagire il lessico del lancio volgarizzatore dei testi classici con il lessico degli ordinamenti del comune di Firenze che è un'opera che certamente lancea e diciamo che in questo caso forse qualcosa di più emerge con delle traduzioni che sono sì condivise ma in qualche caso che sono più esclusive è il caso per esempio della traduzione di pretexta con la forma gonnella sargiata gonnella sargiata ossia una gonnella fatta di diversi colori è un termine che in realtà è pochissimo attestato ma che significativamente torna solamente nel volgarizzamento del debbrevitate vite e nel volgarizzamento degli ordinamenti altri casi sono la nettissima preferenza del per una resa dei prefissati latini in in con il volgare dis faccio con i casi dal debbrevitate indignanzio disdegno in onestus disonesto impendio dispendio in ermes disarmati infelices disventurati inutiles disutili intemperanzia distemperanza e così via in particolare quello che si mostra è una coincidenza molto alta nelle traduzioni tra l'epistole nel volgarizzamento francese e la pratica di volgarizzamenti del lancia e questo in particolare è vero per una delle pistole per cui possiamo addirittura fortunatamente confrontare i testi ossia l'epistola 88 insomma la celebre pistola sulle arti liberali di cui Seneca parla che chiude la prima parte del Seneca spesso nella tradizione latina e che è presente sia nel volgarizzamento senese C325 sia nella seconda e nella terza redazione del volgarizzamento dell'epistola infatti manca nel volgarizzamento francese mentre entra nella seconda redazione tradotta dal latino qui le comunanze sono in realtà decisamente più forti e ci sono anche in realtà delle comunanze ancorché diciamo così non di rimenti in lezioni erronee del testo di partenza per esempio grammatice del testo latino è tradotto con il grammatico in entrambe le versioni ma in realtà è una lezione che è già presente in alcuni manoscritti medievali del Seneca e nello stesso modo Amarum reso con avaro o ex alto reso con di quello o d'altro nelle due versioni in questi ultimi due casi si tratta in realtà di lezioni che mancano nei manoscritti ovviamente manca nell'apparto dell'edizione ma questo in realtà ci dice poco ma manca soprattutto nei manoscritti trecenteschi che ho guardato probabilmente si tratterebbe lì di vedere una ampia campionatura più ampia e ovviamente trattandosi poi di errori abbastanza facili da prodursi anche l'assenza non sarebbe completamente probante ciò che tuttavia mi sembra fondamentale è che Lancia si trovi senz'altro al punto di intreccio di varie correnti culturali della Firenze del Trecento e soprattutto che abbia avuto un ruolo fondamentale in quel mondo fiorentino che nel suo in quegli anni era tutto teso alla ricostruzione dell'antico uso qui la formula che ha coniato Giuliano Tanturli una ricostruzione dell'antico che evidentemente non può che passare attraverso i volgarizzamenti e per la figura del Lancia in particolare attraverso i volgarizzamenti di Seneca come è evidente sia dal suo interesse più diretto sia il volgarizzamento ancorché incompiuto compendioso il volgarizzamento delle brevitate vite ma soprattutto attraverso un testo fintamente senecano qual è quello dell'epistola in forma di Lucillo in cui Lancia finge addirittura di essere un corrispondente del suo amato Seneca grazie molte grazie a Giulio Vaccaro anche per il rispetto dei tempi mi pare di vedere dal programma che la discussione sia prevista alla fine e quindi forse possiamo passare alla relazione successiva grazie di Valentina Nieri della scuola normale cosa traducevano i volgarizzatori un codice recensior dell'opus agricolture e il volgarizzamento uno di papalladio prego ok ci siamo allora buongiorno a tutti a mia volta ringrazio Claudio Ciosola e Corrado Bologna per l'invito a partecipare a queste due giornate sui volgarizzamenti e naturalmente ringrazio tutti voi per essere presenti questo lunedì mattina il caso di cui parlerò tocca un problema che quasi tutti coloro che studiano volgarizzamenti si trovano ad affrontare ossia quello di riuscire a risalire al test su cui si è basato il volgarizzatore per realizzare appunto la sua traduzione una ricerca a cui non si può rinunciare ma al contempo estremamente ardua con la consapevolezza che questo obiettivo diciamo alto è pressoché raggiungibile si può però tentare di individuare un testo quantomeno vicino a quello utilizzato dal volgarizzatore ora nel caso dei volgarizzamenti dai classici questa indagine trova un ostacolo ben noto nel ruolo marginale che spesso hanno i codici recensiores negli studi e nelle edizioni critiche dei testi della classicità naturalmente per ovvi e legittimi motivi proprio fra questi codici tardi generalmente numerosi e sicuramente più facilmente accessibile è però più probabile che si trovi se non il modello del volgarizzatore almeno un esemplare a esso affine addentrarsi in questa tradizione quasi sempre poco esplorata può quindi riservare sorprese notevoli come mostra o almeno spero che mostri il caso del volgarizzamento 1 di Palladio che per molti aspetti può definirsi fortunato quindi inizieremo io vi darò qualche informazione di base sul volgarizzamento 1 e la tradizione tarda del Palladio latino ripercorrerò appunto il percorso che mi ha portato all'individuazione di un codice verosimilmente vicino al modello utilizzato dal volgarizzatore procedendo anche con un confronto vedremo non solo del testo ma anche dei paratesti e a partire da questa situazione da questo punto di osservazione vedrò insomma di tranne alcune riflessioni su questioni che toccano insomma quelle che ho definito tra virgolette responsabilità del volgarizzatore ma anche le psicotecniche di traduzione e qualche risvolto editoriale quindi iniziamo a vedere un po' più da vicino il volgarizzamento 1 del Palladio dunque come forse saprete i volgarizzamenti del trattato sull'agricoltura di Palladio sono tre tutti trecenteschi il primo è quello più ampia tra le lezioni e manoscritte ed è l'unico edito integralmente l'edizione realizzata da Zanotti nel 1810 il secondo quello attribuito verosimilmente in modo insomma non sostenibile con attribuzione falsa Andrea Lancia edito solo per estratti e poi un terzo da me scoperto di cui sto curando l'edizione che fra i tre sembrerebbe essere al momento il più antico oggi appunto ci soffermiamo sul primo il cui codice più antico Riccardiano 2238 è datato agli anni 30-40 del del trecento allora l'edizione Zanotti come è realizzata il manoscritto di base sarebbe il codice appunto più antico Riccardiano 2238 ma come spesso succedeva all'epoca Zanotti non si basò direttamente sul codice Riccardiano bensì attraverso una copia le informazioni che dà Zanotti su questa copia mi hanno consentito di individuare il codice cioè la copia su cui si è basato appunto Zanotti per l'edizione è un codice che sta nella marciana l'italiano classe undicesima 100 quindi possiamo ricostruire in questo modo il processo intero che ha portato all'edizione di Zanotti perché abbiamo il manoscritto diciamo originale la sua copia e poi il testo elito non tratterò oggi diciamo del confronto tra il testo Zanotti e Riccardiano 2238 quindi rifacendo una specie di cioè rifacendo il lavoro che dovrebbe fare l'editore critico per i passi che vedrete il mio testo di base sarà direttamente quello di Riccardiano 2238 con la collazione degli altri testimoni del volgarizzamento 1 come viaggio diciamo nella tradizione manoscritta il volgarizzamento 1 Palladio è un testo lungo occupa tra le 80 e le 100 carte di manoscritto quindi in genere si trova da solo nei testimoni manoscritti talvolta con qualche testo estremamente breve che lo accompagna in particolare quasi tutta la tradizione manoscritta del volgarizzamento 1 riporta in coda appunto al volgarizzamento un glossario relativo alla viticoltura e una tavola di pesi e misure che vi faccio vedere non avendo purtroppo immagini del codice Riccardiano vi faccio vedere nella sua copia c'è nel codice marciano vedete dopo l'explicit tractatus palladi di agricoltura si trova il glossario con il titolo esposizione di vocaboli del palladio e poi la tavola di pesi e misure le misure come vedete appunto e già vi dicevo i paratesti entrambi i paratesti sono in quasi tutti i testimoni sono in due manoscritti non ricorrono casualmente sono in due manoscritti utilizzati per gli spogli per il vocabolario della crusca e poi un codice ci è aggiunto mutile quindi insomma resta il punto interrogativo tenete conto del titolo del glossario esposizione di vocaboli del palladio allora andando a vedere gli studi sul palladio latino la più recente edizione critica è quella di Robert Rogers uscita nel 1975 anno in cui Rogers pubblicò anche un supplemento all'edizione che si conclude con un appendice relativa ai codici recensiores è un elenco con descrizioni piuttosto stringate però per noi importanti perché perché leggendo questo elenco mi sono imbattuta in questi due manoscritti Firenze biblioteca medicia laureanziana pluto latino 89 superiore 60 dove si dice che il testo ends with exposizio vocabularum palladi ricordate esposizione il volgarizzamento il codice vaticano pallatino latino 1566 anche qui si dice che il testo è seguito da exposizio vocabularum e infatti se si vanno a vedere questi due codici due codici entrambi trecenteschi troviamo la stessa situazione che troviamo nel volgarizzamento cioè finisce il trattato di palladio segue l'exposizio vocabularum quindi il glossario sulla viticoltura e poi la tavola di pesi e misure a questo punto l'ipotesi che viene naturale formulare che però va verificata è può il volgarizzatore aver avuto di fronte un codice uno di questi o un codice simile a questi e quindi aver volgarizzato in sequenza il testo e i paratesti questo naturalmente va visto dunque come avete visto le descrizioni di Rogers sono molto stringate quindi lui indica solo in questi due manoscritti l'exposizio vocabularum eccetera io naturalmente sto controllando anche il resto della tradizione latina sono circa 110 codici io ne ho visti la metà per ora insomma non ne ho trovati altri però naturalmente la ricerca è in corso allora quindi andiamo a confrontare testi e paratesti tra questi due manoscritti latini e il nostro volgarizzamento e partiamo dai paratesti allora glossario sulla viticoltura sono sei definizioni di verbi per i quali non ho trovato paralleli convincenti nelle fonti glossari o altro mentre la tavola di pesi e misure rivela molto facilmente la sua fonte infatti si tratta di un estratto variamente composto come vedremo dalle etimologie di Isidoro di Siviglia allora questa è l'exposizio vocabularum nei due codici latini e nel volgarizzamento leggo solo una definizione cioè la prima blaqueare circa radices vitis terram aperire a blaqueare cioè aprire la terra dintorno alle radici della vite ora cos'è il significativo di questo glossario il fatto che come vedete le occorrenze nel volgarizzamento uno di questi verbi sono sempre una tranne occare che ricorre in una rubrica cosa vuol dire che queste parole compaiono solo nel glossario e non compaiono a testo a testo questi verbi vengono sempre tradotti con altri corrispettivi pienamente volgari come scalzare cavare e scavare nel caso di ablaqueare le occorrenze del volgarizzamento uno coincidono con quelle che ritroviamo nel corpus divo qualcosa in più grazie al crescenzi volgare o qualche altro testo pratico troviamo per pastinare per occare nel corpus sovi di conseguenza il glossario è funzionale al testo latino ma non al volgarizzamento perché quelle parole nel volgarizzamento non ci sono questo naturalmente è un dato ulteriore a favore dell'ipotesi in una traduzione in sequenza cioè che la presenza di quel glossario sia un portato del modello per la tavola di pesi e misure appunto come vi ho già detto si tratta di una combinazione ecco di estratti dall'etimologia di Isidoro ho focalizzato l'attenzione anche in questo caso solo su una vedete che la definizione di Cochlear Cochlearium è esattamente la stessa da Isidoro al nostro codice latino e poi al volgarizzamento ora anche in questo caso il paratesto nel latino e nel volgarizzamento cioè nel latino intendendo appunto i nostri due codici latini è esattamente lo stesso cioè 33 misure e nello stesso ordine tenuto conto che si tratta di estratti da cinque libri diversi di Isidoro e che non si tratta di tutte le misure comprese in quei libri naturalmente il fatto che la sequenza sia la stessa e gli estratti siano esattamente gli stessi difficilmente insomma può essere poligenetico scendendo nel dettaglio potremmo provare ulteriormente la diciamo l'affinità dei dei paratesti però insomma non mi soffermo su questo perché il tempo corre e quindi diciamo dando per dimostrato il fatto che quei due paratesti derivano da codici latini con quella struttura passiamo a collazionare il testo e in questa fase diciamo per questa parte vi dico subito che fra i due codici latini che hanno i paratesti il codice laurenziano non ci aiuta dal punto di vista testuale per spiegare le lezioni del volgarizzamento mentre molto interessante per noi è l'altro codice il palatino latino 1566 che chiamerò codice vaticano per semplificare e per brevità allora come vedete ho collazionato nove libri su tredici che però costituiscono l'83% del testo questo perché i primi tre libri da soli sono sostanzialmente la metà del testo di palladio quindi insomma una buona una buona parte ora siccome appunto il tempo è poco l'esemplificazione sarà estremamente cursoria darò qualche esempio macro e qualche esempio micro di affinità testuale tra il codice vaticano e il volgarizzamento ma soprattutto la cosa più importante da qui in avanti tutti i passi che vi mostrerò sono passi che non avrebbero trovato una spiegazione una giustificazione diciamo così convincente avendo solo l'edizione critica del testo latino come riscontro rispetto al testo del volgarizzamento allora un esempio macro è questo libro primo capitolo 4 sulla qualità delle acque il capitolo nell'edizione critica del testo latino che avete nella tabella sinistra è poco più ampio dell'estrato che vedete è un capitolo piuttosto breve mentre è estremamente lungo nel volgarizzamento la parte in grassetto corrisponde all'inizio e alla fine di questa che chiamiamo per ora per comodità aggiunta per darvi un'idea dell'entità dell'aggiunta il capitolo sulle acque comincia in corrispondenza della prima linea rossa la parte evidenziata in rosso è il testo dell'aggiunta rispetto al capitolo corrispondente diciamo all'edizione critica questo nel codice marciano che appunto è la copia del nostro ricardiano di base se andiamo a vedere il codice vaticano troviamo la stessa identica aggiunta diciamo così poi diciamo sulla questione testuale nel palladio latino io naturalmente non entro però prendo atto appunto di questa identità tra i due testi anche scendendo naturalmente a livello a livello testuale vedete che appunto l'ultima parte in comune con l'edizione critica è questa incende rigore moderatur a tempi per qualcuno rigore di freddezza le grandi arsure dell'estate poi inizia l'aggiunta e sia il nascimento del suo corso oriente origo sui cursus sita d'oriente eccetera e il testo è precisamente lo stesso forse a schermo intero si vedrebbe meglio di così però vabbè questo è diciamo un esempio macro però diciamo stringendo le maglie di questa rete di confronto si trovano dati ulteriori a conferma di questa affinità testuale vi ho fatto un esempio piuttosto diciamo semplice da un capitolo su diciamo sentenze generali precetti precetti agricoli si dice tre mali nuocciano ugualmente la sterilità il morbo e il vicino colui che diciamo vabbè si pianta in una terra sterile le vite naturalmente perde le sue spese la sua fatica è inutile piantare vigne in una terra sterile vedete che vicinus diventa non un vicino qualsiasi ma il mal vicinus quello naturalmente che vuole nuocere e inicus diventa nemico su questo testo non ci interrogheremo anche sulla base della sua edizione critica la traduzione si spiega naturalmente ma il vicino è una caratterizzazione che discende naturalmente dal significato del testo se andiamo a prendere il codice vaticano troviamo malus vicinus e inimicus quindi questo per darvi l'idea appunto dal macro al micro della prossimità dei due testi e di esempi se ne potrebbero fare moltissimi però uscendo un attimo abbiamo visto i paratesti abbiamo visto il testo ma c'è anche un intorno del testo da da analizzare perché? perché nel codice vaticano c'è tutta una serie di glosse di annotazioni interlineari e marginali che costituiscono un sistema piuttosto corposo in interlineo troviamo varianti alternative richiami testuali vere e proprie glosse a margine varianti alternative più estese che quindi non potevano stare nell'interlineo e annotazioni esplicative vi faccio notare che nel caso delle annotazioni vedete pinguescunt che viene richiamato nel margine e l'iniziale non è realizzata c'è solo la letterina guida cioè questo codice vaticano non si tratta naturalmente di annotazioni estemporanee cioè qui siamo di fronte a una tradizione evidentemente che ancora deve essere indagata però per ora diciamo teniamoci il codice vaticano e lo studio naturalmente è da fare allora anche questo materiale nell'intorno del testo reagisce diciamo così a che fare con il nostro volgarizzamento dei due esempi in grassetto leggo solo il primo allora qui si sta parlando della legatura a capo di sotto dei tralci di vite cosa vuol dire naturalmente i tralci di vite nascono un po' in tutte le direzioni se si lasciassero liberi al momento della formazione e maturazione del grappolo d'uva il peso del grappolo romperebbe il tralce e quindi il grappolo andrebbe perduto quindi cosa si deve fare si deve prendere il tralce portarlo in basso e legarlo naturalmente a tutto il sistema di fili di canne che sostiene appunto il filare di viti subligazio appunto in termini tecnico nel volgarizzamento si legge sollevare che effettivamente sembra non dico il contrario ma comunque una traduzione non accettabile che non indica quell'operazione precisa forse però anche una traduzione diciamo così che ci sembrerebbe inaccettabile può trovare una spiegazione in una glossa come questa subligazio id est sublevazio nel nostro codice vaticano sotto avevate un altro esempio di fossor id est cavator vine che diventa il cavatore una parola che non viene sostanzialmente mai utilizzata per qualcuno che zappa ma più qualcuno che lavora proprio nelle cave o con altri tipi di materiale pietra eccetera dopo aver visto diciamo l'interlino spostiamoci nel margine allora questo è un capitolo sulla potatura delle vigne e le parti che trovate in grassetto non hanno un corrispettivo nel testo critico latino cioè sembrerebbero anche queste delle aggiunte sulla potatura autunnale su come si deve eseguire la potatura cioè in che direzione muovere appunto il coltello e quanto spazio lasciare nel potare i tralci se prendiamo la pagina del codice vaticano e guardiamo le annotazioni marginali su quella pagina vediamo che queste annotazioni marginali contengono esattamente il testo che finisce dentro il nostro volgarizzamento e il testo è esattamente questo vi leggo magari per comodità e per tempi solo il secondo il coltello con che poti non in giù verso la terra ma in su sempre si vuol menare tagliando gladius non vero scusate non versus terram sed sem perducitur in altum quindi esattamente lo stesso testo quindi anche se insomma un po' di fretta spero di avervi mostrato come davvero il confronto sia stringente fra il testo del codice vaticano e il testo del volgarizzamento e quindi a questo punto posti in una posizione diciamo privilegiata per osservare le tecniche di traduzione vediamo di fare qualche riflessione appunto a partire da un caso come questo ora naturalmente il testo di pallare è un testo tecnico quindi il tentativo di riprodurre una terminologia specifica di mantenere nel caso di ricette procedure eccetera la sostanza del testo latino rispetto a un testo letterario è ancora è molto più marcata quindi l'inventiva diciamo così è elestro è molto limitato ecco quindi ci teniamo a dire questo perché è un testo un po' particolare magari rispetto ad altri di cui si parlerà in questi giorni ora naturalmente in assenza del modello e avendo presente solo il testo critico latino la valutazione dell'operazione di traduzione spesso si trova nell'incertezza se attribuire alcune scelte traduttive alcune innovazioni banalizzazioni al traduttore oppure alla tradizione latina a cui il volgarizzatore attingeva e quindi un caso come questo può aiutarci a discriminare un po' di più e a prendere decisioni insomma nella valutazione di questo tipo di dinamiche per esempio questo è un capitolo in cui si sta parlando del potare le vigne nuove e si dice non potarle prima che abbiano compiuto due anni altrimenti le radici non sono sufficientemente forti per sostenere la pianta e quindi muoiono subito così si conclude il capitolo nel testo critico un po' più lungo è invece il capitolo nel volgarizzamento dove si dice ok non potarle prima dei due anni ma nemmeno non aspettare nemmeno troppo non aspettare tre anni o più anche in questo caso ormai il giochino lo conoscete se andiamo a prendere il codice vaticano troviamo esattamente questo stesso testo aggiunto in fondo al capitolo quindi una nota che potrebbe sembrare si appunto si può pensare in questi casi ma forse il volgarizzatore aveva presente queste tecniche ci mette del suo e invece in questo caso almeno non è così lo stesso vale naturalmente per le omissioni qui dunque si sta parlando degli alberi che si trovano nei campi che vengono poi mietuti e finché ci sono appunto le messi le radici degli alberi sono protette dal calore del sole siamo nel mese di luglio libro 8 una volta diciamo realizzata la mietitura questi alberi vanno coperti nella zona delle radici per evitare che il sole li danneggi e poi si parla delle viti novelle vedete che c'è un sodium mem da obruantur a obruet anche in questo caso si può pensare secondo un doppio binario cioè è stato il traduttore a saltare dallo stesso allo stesso oppure aveva già un testo con l'omissione e il codice vaticano ci attesta un codice che aveva già questa omissione il salto dallo stesso allo stesso tra l'altro vi faccio notare che al posto di immesse che viene tradotto con svelti nel volgarizzamento una lezione che insomma fa un po' specie vedete che inverse si legge invece nel codice vaticano quindi un ulteriore riprova altra categoria diciamo che di sì all'interno di queste responsabilità del volgarizzatore è quella delle banalizzazioni soprattutto di fronte a un testo tecnico capita spesso di dire la semplificazione e la banalizzazione di qualcosa che si leggeva male viene riportato a un termine più piano allora in questo capitolo sul diciamo tutta questa parte del libro terzo da cui è tratto il capitolo sulla mixa si parla di vari frutti la mixa o pruno egiziano è una pianta che ha un frutto simile alla rosa canina nel volgarizzamento leggiamo avellane mischiate dove qui evidentemente c'è stato un problema fra mixa e mixta avellane non viene dal nulla ma il capitolo esattamente precedente cioè il 34 parla dell'avellana quindi trovandosi di fronte a una parola sconosciuta mista sopra c'era l'avellana quindi diventa dell'avellana mischiata così come sotto nuces juglandes che vuol semplicemente dire noci nux juglands è la noce diventa noci e ghiande perché juglandes è una parola ovviamente difficile se andiamo a vedere il codice latino troviamo già esattamente questa situazione de mixta avellana quindi con quella stessa operazione che si ricostruiva prima mista addirittura con la grafia diciamo così ancora più volgare nel corpo del testo e nuces et glandes nel secondo passo anche su banalizzazioni semplificazioni si potrebbero fare molti esempi ma quel tempo stringe quindi procedo oltre su una categoria un po' diversa che è quella delle innovazioni allora in questo passo si parla del seminare le cipolle e si dice se si seminano a luna calante nascono piccole e agre se si seminano a luna crescente saranno grosse e di amichevo il sapore in corrispondenza di sapori umectico vuol dire in realtà umido bagnato nel testo latino ora questo amichevo non sta molto bene con sapore tant'è che la tradizione manoscritta reagisce a questa difficoltà un codice cinquecentesco addirittura ritraduce nella versione latina cum amico sapore forse pensando che in latino poteva avere un senso e di buono sapore quindi con una banalizzazione questa volta sì in una serie di altri testimoni manoscritti naturalmente di fronte a un passo del genere si può pensare umecti forse era un po' difficile c'è comunque l'aggettivo agre quindi per opposizione qualcosa che non è agre amichevole qualcosa di dolce insomma si potrebbe salvare comunque il passo però avendo il codice vaticano possiamo vedere che già nel testo latino abbiamo amici quindi la traduzione comunque non risponde a una difficoltà cioè è una traduzione precisa di quello che il volgarizzatore già leggeva nel suo modello una traduzione lineare ok qui vi ho messo alcuni esempi sotto l'etichetta di lessico di traduzione perché quando si parla di lessico di traduzione naturalmente avendo a disposizione edizione critica del testo latino e testo del volgarizzamento le corrispondenze che si fanno sono tra quello e questo per cui in questo caso edizione critica del pallaglio latino avremo Sariendis reso con Sarchiare che è una traduzione precisa e perfetta di Sariendis fluor che vuol dire esattamente flusso e diventa flusso camemeli che naturalmente diventa camomilla quella è la pianta tuttavia nel considerare il lessico di traduzione bisogna anche pensare vi ho detto prima che questi codici latini sono trecenteschi sono praticamente coevi al volgarizzamento e sono naturalmente permeabili alla situazione linguistica che li circonda il loro latino di fatto è già in qualche punto mi verrebbe da dire imbastardito anche se è un po' forte però con il volgare infatti se andiamo a vedere in corrispondenza di questi passi il testo del codice vaticano vediamo che al posto di Sariendis c'è Sarculandis e Sarculare naturalmente l'antecedente preciso del nostro Sarchiare fluorem che ha dato una parola anche italiana ma ormai obsoleta e molto rara che è fluore diventa fluxum e flusso invece è parola molto più comune così come camemellum è già il latino tardo camomilla che dà vita alla nostra camomilla quindi appunto il passaggio spesso non è netto ma c'è una scalarità che l'indagine e la tradizione tarda dei testi latini ci consente di quantomeno di esplorare dove non ricostruire a proposito di tecniche di traduzione si parla spesso nel caso di volgarizzamenti di litologie cioè la litologia come tecnica traduttiva litologie di vario tipo qui ve ne riportate due nel primo passo in questo mese in un luogo diciamo ben irrigato umido bagnato seminiamo i napi e le rape napi cioè navoni con una litologia tipica dei volgarizzamenti cioè una forma più vicina al latino e poi il corrispettivo invece più volgare sotto si parla delle greggi e si dice di farle pascolare lontano dalle siepi ma quali sono i tipi di siepi dannose naturalmente quelle di rovi che possono danneggiare la lana pungere le pecore quindi pascan di lungi da spine e da siepi se andiamo a vedere anche in questo caso il nostro codice vaticano vediamo che napos viene glossato id est navones quindi quella dittologia evidentemente è una glossa passata a testo così come centibus viene glossato con id est aspinis et prunis cioè sono quelle le siepi dannose quelle di rovi questo naturalmente non vuol dire che tutte le dittologie di questo tipo le traduzioni di questo tipo derivino da glosse però evidentemente questa è una realtà codicologica che si fa testualità e anche insomma se non spiega tutti i casi comunque bisogna sempre tenerne conto quando si fa uno spoglio integrale per esempio di tutte le dittologie utilizzate da un traduttore in un determinato volgarizzamento chiudo con un ultimo un ultimo caso io ho intitolato risvolti editoriali allora si sta parlando in questo capitolo dei tipi di terreno e si dice non deve essere né secco né troppo bagnato oliginoso ma una via di mezzo roscidum rugiadoso un po' bagnato nel volgarizzamento leggiamo né secco ovvero il cinoso ma un poco rascido dove rascido non è una parola dell'italiano e quindi insomma qui evidentemente sembra esserci un problema fra l'altro roscido ha due o sole occorrenze nel corpus ovi entrambe dal volgarizzamento di palladio e nel libro nel libro seguente troviamo un altro passo simile dove in corrispondenza di roscidum l'intera tradizione manoscritta è compatta su roscido mentre nel nostro caso a parte il cinquecentesco ricardiano 1646 che evidentemente sembra correggere roscido tutta la tradizione è compatta su rascido Zanotti naturalmente corregge in roscido perché rascido non è una parola accettabile e siamo forse quasi vicini a quella cosa che si chiamerebbe errore d'archetipo cioè l'intera tradizione manoscritta compatta su una lezione evidentemente erronea la cautela però vorrebbe che si facesse un passo ulteriore se andiamo a vedere il nostro codice vaticano leggiamo rascidum e non roscidum allora quella lezione cosa potrebbe essere il volgarizzatore si trova di fronte a una parola evidentemente incomprensibile e con un minimo adattamento morfologico la traspone dal latino al volgare come fa per esempio con i grecismi vi faccio notare sempre in questo stesso passo a riprova diciamo così della finità che anche quel ulcinoso peruliginosum che genera anche lui insomma tutta una serie di problemi nella tradizione manoscritta trova ulcinosum anche nel codice vaticano quindi sono due parole proprio vicinissime che diciamo hanno queste sole occorrenze e che si ritrovano appunto nel nel codice latino e poi trasposte nel volgarizzamento quindi in conclusione naturalmente un caso come questo rafforza l'invito alla cautela nella ricostruzione della genesi di una determinata traduzione e nella valutazione del lessico di traduzione e anche dell'usus traduttivo di un volgarizzatore e rafforza l'idea che sia necessaria un'indagine della tradizione latina sfruttando tutti gli elementi a disposizione in questo caso fortunato c'erano i paratesti nel caso dei testi più brevi si potrebbe pensare alle sequenze testuali o comunque a dati esterni al testo che ci aiutino insomma a fare un po' un po' di ordine e quindi per studiare appunto i volgarizzamenti dai classici anche noi dobbiamo fare un po' l'operazione del volgarizzatore cioè quella di muoverci sempre fra latino e volgare grazie andiamo noi a ringraziare Valentina Nieri direi a questo punto possiamo fare una pausa di dieci minuti tempo del caffè insomma ci ritroviamo tra breve così felicemente avviato adesso sarebbe il turno di Cristiano Lorenzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia che invito quindi a venire al tavolo il quale parlerà di considerazioni sul rapporto tra testo volgare e tradizione latina il caso delle cesariane di Brunetto Latini prego grazie buongiorno anche io ringrazio ovviamente gli organizzatori per l'invito quindi e per questa partecipazione a questo convegno e in questo mio intervento che si ricollega molto da vicino insomma con quello che mi ha preceduto cercherò di prendere in esame alcune questioni concrete che si possono presentare nel campo dell'edizione dei volgarizzamenti con riferimento soprattutto al rapporto che tali opere nutrono con il testo latino da cui dipendono dettaglio che ovviamente ha delle conseguenze anche nella prassi filologica il fatto che il volgarizzamento sia strettamente legato al testo latino che traduce impone infatti alcune cautelle nella valutazione del testo da recepire da parte del filologo un po' appunto lo si diceva già prima con il caso di Palladi la nozione di errore nell'ambito della filologia dei volgarizzamenti si fa molto più labile e incerta poiché di fronte a un errore o a una lezione poco convincente fornita dalla tradizione ci si dovrà sempre chiedere prima di intervenire per congettura o di postulare quindi insomma un errore d'archetipo se tale esito non possa risalire all'autore stesso e sia dovuto piuttosto a un fraintendimento del testo latino o a una diversa lezione presente nell'antigrafo latino utilizzato dal traduttore a questo proposito proporrò nel corso del mio intervento una parca esemplificazione tratta da un caso di cui mi sto occupando da vicino in vista di un'edizione che si avvia ormai alla conclusione ovvero il caso appunto del volgarizzamento di Brunetto Latini delle orazioni cesariane le tre orazioni di Cicerone pro Ligario pro Marcello e pro Reggio di Iotaro furono tradotte da Brunetto non sappiamo esattamente quando è difficile la collocazione cronologica per venire incontro alle richieste di un ignoto amico dedicatario del testo poco pratico del latino la tradizione sul nome di questo amico si divide proponendo varie diciture tutte tra l'altro stematicamente equipollenti perché ogni ramo della tradizione sostanzialmente propone un nome diverso nomi comunque difficilmente identificabili con precisione un ramo a messa a manetto un altro De Ribbon incontri oppure un iniziale puntata una L e una D andrà subito fatto un accenno alla situazione editoriale di questi tre brevi testi per quanto riguarda pro Marcello e pro Reggio di Iotaro fino a una recente anticipazione che ho dato del nuovo testo negli studi di filologia italiana qualche anno fa l'edizione a cui ricorrere era ancora quella di Luigi Maria Rezzi datata 1832 che era la base delle varie riproposizioni del testo lungo tutto l'Ottocento in particolare da parte di Zambrini e Michele Dello Russo che ripropongono sostanzialmente il testo di Rezzi quella di Rezzi è un'edizione certo meritoria visto che appunto rimaneva l'unica ma che come vedremo e come è facile intuire insomma vista l'altezza cronologica presentava numerosissimi limiti non ultimo il fatto che si valeva di due soli codici vedremo la tradizione molto ampia avvicendando le lezioni dell'uno e dell'altro testimone e non di rado intervenendo anche pesantemente e in modo tacito sul testo per quanto riguarda invece la Proligario la situazione è certo migliore dal momento che abbiamo l'edizione non critica ma criticamente fondata di Cesare Segre citato anche oggi appunto i volgarizzamenti del 2 e del 300 del 53 e poi riproposta anche nella prosa del 200 del 69 tuttavia Segre prendeva in esame tre soli testimoni due codici ricardiani ed un chigiano e soprattutto non dava l'edizione della lettera di dedica che è anteposta in tutta la tradizione all'orazione volgare in realtà diciamo questa epistola di dedica si trova appunto anteposta e poi ce n'è una seconda posposta al testo che si ricollega alla prima proprio l'epistola di dedica della Proligario sembra fornirci qualche indicazione sulla prima diffusione del testo Brunetto infatti dichiara che se l'amico dedicatario gradirà la traduzione di questa prima orazione potrà tradurre altri testi in suo possesso tra cui cita esplicitamente anche Pro Marcello e Pro Regge De Jotaro tutto fa pensare dunque che Brunetto da prima traducesse e mettesse in circolazione la sola Proligario e solo successivamente volgarizzasse e pubblicasse per così dire le altre due orazioni la tradizione manoscritta sembra confermare questa dinamica di trasmissione dei 32 testimoni che recano il volgarizzamento che ho individuato 31 manoscritti e la Princeps solo un terzo circa contiene l'intero terzetto di orazioni mentre i restanti due terzi contengono la sola Proligario nessun altro assetto testuale previsto quindi o tutte e tre o esclusivamente la Proligario non è questa la sede per entrare nel dettaglio dei rapporti tematici tra i testimoni ma voglio almeno delineare il quadro generale che mi pare confermi quanto si ricava dall'epistola Prologo sulle modalità di diffusione della prima diffusione dei tre volgarizzamenti a seguito della collazione quindi sulla base di una serie di errori congiuntivi e separativi la situazione risulta piuttosto chiara tutta la tradizione sembra far capo a due sole famiglie che ho definito alfa e beta entrambe dipendenti dall'originale dal momento che non si rintracciano errori comuni a carico dell'intera tradizione la famiglia alfa oltre una ventina di manoscritti è costituita dai testimoni che recano la sola Proligario con due uniche eccezioni che si spiegano con evidenti e provati avvicendamenti di antigrafo e quindi sembra confermarci che il capostipite alfa sia stato copiato dall'originale al momento della prima diffusione del volgarizzamento della Proligario potremmo definire questo stadio dell'originale O1 quando ancora Brunetto insomma non aveva tradotto le due rimanenti cesariane la famiglia beta invece comprende la decina di codici che conservano l'intero terzetto delle cesariane volgari e quindi il perduto beta doveva contenere i tre volgarizzamenti in successione essendo verosimilmente stato copiato in un momento successivo rispetto ad alfa quando Brunetto dopo aver volgarizzato anche pro Marcello e pro Regge Volgario possiamo quindi riassumere graficamente diciamo in questo modo quello che abbiamo detto a fronte di questo quadro potremmo chiederci se nel passaggio da O1 a O2 si diano interventi d'autore se cioè Brunetto al momento di rimettere in circolazione la Proligario dopo averla riunita alle altre due orazioni appena tradotte si è intervenuto sul testo del primo volgarizzamento in realtà pare che la risposta sia negativa perché pochissime sono le opposizioni in diaforia tra alfa e beta e soprattutto quasi nessuna presenta caratteristiche tali da far ipotizzare varianti d'autore ma sembrano piuttosto da ricondurre all'usuale fenomenologia della copia ci sono forse solo un paio di casi che potrebbero aspirare a appunto varianti d'autore dopo questa minima ma doverosa premessa sulla tradizione dei tre volgarizzamenti mi concentrerò appunto sul rapporto tra tradizione latina e testo volgare come prometteva il titolo del mio intervento come ben noto per spiegare e giustificare le scelte traduttive di un volgarizzatore antico è necessario chiedersi quale testo avesse davanti agli occhi il traduttore come appunto ci ricordava anche Valentina Nieri già nel titolo del suo intervento in tal senso spesso possono essere d'aiuto gli apparati delle edizioni critiche latine tuttavia specie per il caso dei classici le edizioni insomma dei latinisti non sempre risultano sufficienti per le nostre necessità lo si diceva anche prima in quanto per ovvi motivi gli editori escludono la tradizione recensiore che molto spesso è davvero ampia concentrandosi su quella più antica paradossalmente però proprio la tradizione recensiore di norma esclusa dagli apparati molto spesso quanto meno esclusa dagli apparati è quella che ai nostri occhi risulta spesso più rilevante in quanto verosimilmente insomma più vicina al testimone probabilmente usato dal volgarizzatore perché più accessibile veniamo quindi al caso appunto di Brunetto e delle cesariane che sembrano confermare quanto abbiamo detto la vasta tradizione latina delle cesariane conta più di 250 testimoni molti dei quali piuttosto tardi insomma risalenti ai secoli XIII e poi XIV e soprattutto XV e per questo comprensibilmente mai presi in considerazione dagli editori moderni l'indagine della tradizione più antica delle tre orazioni ciceroniane ha comunque messo in luce fin dall'Ottocento l'esistenza di tre famiglie principali di codici denominate Alfa, Beta e Gamma le vediamo molto rapidamente la famiglia Alfa è costituita appunto da quattro codici appunto il primo è il codice C Cluniacensis del IX secolo poi abbiamo un Ambrosiano del X secolo un Arleiano XI secolo e poi il Vossianus latino del XI secolo anche la famiglia Beta comprende quattro testimoni uno codice di Bruxelles XII secolo uno ad Oxford D dell'XI secolo uno oggi a Berlino XII secolo e un altro Arleiano del sempre XII secolo infine questi sono i diciamo principali rappresentanti della famiglia Gamma li vedete tra cui spicca appunto l'Arleiano 4927 già letto e postillato da Petrarca la famiglia Alfa è sempre stata considerata quella più vicina all'originale in virtù di ciò ritenuta fondamentale per la costituzione del testo latino anche se di recente Maria Rosa Pugliarello editrice della sola Pro Marcello ha parzialmente rivalutato gli altri due raggruppamenti la stessa Pugliarello peraltro ha ampliato il novero dei testimoni collazionati includendo anche alcuni recensiores fatto per noi di qualche utilità dal sistematico confronto che è operato tra il testo volgare e le varianti della tradizione latina registrate nelle principali edizioni critiche moderne non emergono però dati stringenti che permettano il sicuro riconoscimento dell'esemplare latino utilizzato dal nostro volgarizzatore quindi da Brunetto sembra comunque di poter dire che per tutte e tre le orazioni esso gravitasse attorno alla famiglia gamma anche se non mancano vari punti di contatto tra il testo volgare e i rami alfa e beta la fisionomia del testimone latino utilizzato dal volgarizzatore pare quindi assai prossima a quella di alcuni codici recensiores collazionati per la Pro Marcello dalla Pugliarello le cui varianti però non sono registrate in apparato se non molto saltuariamente sotto una sigla complessiva cioè la Pugliarello dice di averli visti ma non ne dà in realtà conto nell'apparato la Pugliarello però ci dice che questi codici hanno contaminato la famiglia gamma con beta e misura minore con alfa quindi in qualche modo l'identikit che avevamo tracciato e quindi tra di essi molto probabilmente si potrebbe trovare un esemplare se non diretto molto vicino appunto del volgarizzamento di Brunetto nell'impossibilità di vagliare tutti i numerosissimi recensiores come dicevo sono veramente tantissimi dei quali peraltro manca una catalogazione esaustiva ho svolto un limitato spoglio a campione di insomma una mezza dozzina di codici latini di datazione tarda quindi tra tredicesimo e inizio quindicesimo secolo delle cesariane conservate presso la biblioteca medice-laurenziana al fine non tanto di individuare l'esatta fonte latina da cui fu tratto il volgarizzamento caso insomma realisticamente molto improbabile visti i numeri di cui stiamo parlando quanto piuttosto di sondare almeno le varianti presenti nella tradizione recensiore e quindi confrontarle con quelle presenti negli apparati delle edizioni critiche moderne particolarmente interessante in questo senso si è rivelato il manoscritto laurenziano Plutio 53-12 che pur non potendo affatto essere identificato con un testimonio insomma utilizzato da Brunetto se non altro perché assai tardo insomma per la sezione che ci interessa recano sottoscrizione del 1405 quindi molto più tardo pare comunque attingere a una tradizione non troppo lontana da quella dell'esemplare di traduzione del notaio fiorentino il fatto che il manoscritto sia così tardo cioè posteriore di circa un secolo insomma un secolo abbondante all'epoca di Brunetto ci interessa relativamente nell'economia del nostro discorso al di là appunto della sua datazione tarda infatti il codice è comunque molto interessante perché dimostra di accogliere un buon numero di varianti risalenti alla tradizione recensiore e non attestate invece dalla tradizione antica e neppure da altri testimoni recensiori che ho collazionato innanzitutto se verifichiamo la presenza nelle tre orazioni di una serie di lezioni caratteristiche che avevo individuato sulla base degli apparati critici delle edizioni latine dunque dei loci particolarmente significativi dove cioè la tradizione si divide in più lezioni alternative noteremo che il codice rispecchia la situazione testuale che il traduttore aveva con ogni probabilità sotto gli occhi in un cospicuo numero di casi soprattutto per quanto riguarda due orazioni la proligare e la proregge dei otaro un po' meno per la pro Marcello in ogni caso non raggiunge diciamo tali risultati nessuno dei codici più antichi a fondamento delle edizioni critiche moderne di Clark Clotz Colombo della stessa Pugliarello almeno secondo quanto si può vincere dagli apparati critici ovviamente in particolare possiamo riassumere così diciamo nella seguente tabella i dati emersi dove appunto si raccolgono tutti i loci in cui il testo del laurenziano coincide con quello che abbiamo supposto alla base della traduzione volgare insomma in due almeno per due orazioni insomma le percentuali di coincidenza sono molto alti ma oltre a ciò il codice laurenziano è l'unico a giustificare la resa volgare in una ricca serie di altri luoghi in cui la traduzione si discosta dal testo latino delle edizioni moderne e di tutte le varianti in apparato ovviamente per motivi di tempo mi limiterò qui a commentarne solo alcuni particolarmente significativi ma insomma il numero è piuttosto elevato e indico per primo il testo critico latino lo trovate tra parentesi invece la lezione del codice laurenziano plutio 5312 solo di quel codice nel primo caso troviamo nel volgarizzamento con gracco suo zio quindi troviamo lo scambio gracco brocco invece c'era nel testo latino e in questo caso pur insomma in una lezione leggermente diversa il laurenziano conferma lo scambio tra i due nomi nel secondo caso invece la sorte di Teverone è saputa per sé medesima qui come già supponeva Segre in una nota alla sua edizione appunto della Proligario nei volgarizzamenti del 2300 l'abbreviazione SC per senato sconsulto doveva essere stata mutata in sé appunto cioè letta ovviamente male e poi trascritta in sé ed è quello che avviene esattamente appunto Segre lo ipotizzava ma è esattamente quello che avviene nel nostro laurenziano che presenta appunto la forma ex sé nel terzo caso invece per alcuna mala speranza del comune di Roma anche qui la traduzione si giustifica molto facilmente con spe che si trova nel laurenziano in luogo di specie che hanno i codici della tradizione antica altri casi qui abbiamo un elenco di nomi di personaggi all'interno della Proligario personaggi peraltro ignoti di cui non sappiamo altro che rispecchia esattamente il testo del codice laurenziano cioè vedi lucio varo vedi gaio cesorio lucio cornificio è esattamente diciamo la successione di nomi che si trova nel nostro codice laurenziano e che invece è molto diversa da quella del resto della tradizione un altro caso non solamente si deve avere per noi gentile caro signore ma ottimo coltivatore promuovitore di nostri fatti e del crescitore degli onori della città di Roma in questo caso innanzitutto abbiamo quella traduzione ottimo coltivatore che rispecchia traduce insomma quel optimus agricola mentre insomma il resto della tradizione latina aveva optimus pater familias et diligentissimus agricola e poi la traduzione che segue pare un tentativo di dare diciamo senso al testo a partire da una lezione probabilmente simile a quella del laurenziano peculiaris piuttosto che dal corretto pecuarius cioè allevatore appunto di bestiame ultimo caso molto semplice molto banale la tua misericordia richiede in questo caso ovviamente misericordia si trova misericordiam nel laurenziano e gli altri codici hanno memoriam andranno poi aggiunti anche un paio di passi entrambi nella proregge dei Otaro nei quali la traduzione è notevolmente scorciata rispetto al latino tanto che si può sospettare appunto che il testo che aveva sotto gli occhi il volgarizzatore fosse segnato da qualche lacuna perché non ci sono motivi particolari che facciano pensare a una scelta stilistica del traduttore che invece solitamente è piuttosto fedele al dettato ciceroniano e di nuovo anche in questo caso ci soccorre la lezione del laurenziano 5312 che dimostra una significativa convergenza dal momento che presenta a sua volta queste stesse lacune trovate appunto in maiuscoletto la parte latina che non viene tradotta e che è esattamente quella che manca anche nel codice laurenziano questo è il primo caso e questo è il secondo caso anche qui manca nella traduzione e manca altresì anche nel laurenziano 5312 negli altri recensiori che ho collazionato invece si trova così come gli apparati delle edizioni critiche latine non ci danno diciamo testimonianza di questa lacuna per le ragioni che quindi abbiamo esposto nel vagliare le ipotesi sul testo latino che brunetto traduceva mi sono quindi comportato in questo modo cioè in sede di constituzio textus e di commento in prima battuta ho ovviamente tenuto presente la varia lezione documentata dalle edizioni critiche latine ma poi soprattutto ho sempre verificato anche il testo tradito del manoscritto appunto laurenziano pluteo 5312 dando poi anche conto delle coincidenze più rilevanti e segnalando di volta in volta anche eventuali varianti significative recepite da altri codici recenziori che ho esaminato mi avvio alla chiusura ribadendo ovviamente la necessità da parte dell'editore di volgarizzamenti antichi di vagliare sempre con attenzione la tradizione manoscritta latina con un occhio di riguardo in particolare anche per la tradizione recenziore magari verificata per quanto possibile attraverso appositi sondaggi sui codici ovviamente non è sempre possibile vedere tutti i codici recenziori soprattutto in casi insomma come questi dove i numeri sono elevatissimi ma almeno alcuni sondaggi ovviamente vanno fatti ciò anche al fine di evitare possibili errori di interpretazione con conseguente applicazione di una prassi filologica scorretta si osservano ad esempio una serie di case in cui gli interventi dell'editore ottocentesco delle nostre orazioni appunto Luigi Maia Rezzi non avevano tenuto conto della possibilità che il testo latino che leggeva Brunetto potesse essere diverso da quello testimoniato dalle moderne edizioni critiche anche perché ricordo che appunto l'edizione Rezzi insomma è ancora correntemente molto spesso citata come edizione di riferimento per Pro Marcello e Pro Reggio qui l'integrazione proposta dal Rezzi la tradizione ha e perciò se blessame contro due dignità e scrisse il re di Iotaro il Rezzi integrava sulla base di quell'ex quire e perciò cerca se blessame contro due dignità scrisse il re di Iotaro l'integrazione però sembrerebbe indebita in quanto Brunetto molto probabilmente leggeva ex quare e quindi lo traduceva con quel perciò anche se le moderne edizioni critiche del testo ciceroniano non testimoniano la variante neppure in apparato ne sono riuscito in questo caso a reperire tale lezione nei codici recenziori che ho collazionato ma in altra occasione il controllo dei codici recenziori e in particolare del nostro laurenziano dà delle conferme prendiamo infatti altri due casi di interventi superflui dell'editore ottocentesco questo è il primo cum hominibus nostris consuitudines amicizias res razionesque iungebat la tradizione aggiungendo le nostre usanze l'amistà delle nazioni alle sue e le sue alle nostre qui rezi sulla base del latino e anche sulla base del fatto che il testo aveva un po' meno senso correggeva con le ragioni appunto rifacendosi alla res raziones e però il citato codice laurenziano 5312 a carta 33 verso qui non credo si veda molto ma anche perché la qualità era molto bassa però insomma si legge appunto in luogo di res raziones proprio la variante res naziones non altrimenti documentata dagli apparati delle moderne edizioni critiche quindi una variante che senz'altro leggeva brunetto anche se meno convincente dal punto di vista del senso altro caso plauditibi non solere qui siamo in un'infinitiva la tradizione ha che desideravi di essere lodato e magnificato dalle genti rezi corregge sempre sulla base del latino che non è rilodato e magnificato dalle genti ma di nuovo a confermare la lezione che senz'altro era meno consona entro il testo dato che si stanno elencando una serie di offese nei confronti di Cesare è però il caso del laurenziano che a carta 34 recto reca il solo plauditibi quindi omette in questo caso la negazione e quindi giustifica in qualche modo la traduzione più da vicino la traduzione di Brunetto insomma tutto ciò che abbiamo visto non fa che confermare una volta ancora la grande prudenza a cui si deve attenere l'editore dei volgarizzamenti per quanto riguarda la classificazione degli errori e per quanto riguarda gli interventi a testo cercando sempre quindi di chiedersi quale testo leggesse il traduttore e in questo senso la tradizione recensiore può essere ovviamente se correttamente interpellata di grande aiuto grazie molte grazie mi fa piacere vedere che anche in questo caso si conferma il motto pasqualiano recensiores non deteriores Pasquali è ovvio lo intendeva in tutt'altro senso tutt'altro però è un motto che voi potete assumere appunto come criterio unificante per tutta una serie di ricerche che mi pare siano mosse da questo da questo principio allora nella organizzazione c'è del nel quadro diciamo previsto dal programma del del convegno c'è una piccola modifica cioè la relazione di Federico Rossi sarà spostata oggi pomeriggio e viene invece anticipata a questo punto quello di Miramo Can dell'Università degli Studi di Roma 3 che invito quindi al tavolo Miramo Can parlerà del caso limite del volgarizzamento toscano della crisella latina di Francesco Petrarca prego anzitutto vorrei ringraziare anch'io gli organizzatori Corrado Bologna e Claudio Ciociola per l'invito a intervenire e un ringraziamento anche a Federico Rossi che mi ha cortesemente ceduto il posto questa mattina il mio intervento si discosterà in parte da quelli che abbiamo finora sentiti perché si rivolge a quello che ho chiamato appunto un caso limite di volgarizzamento dedicato a un classico non dell'antichità ma diciamo quasi contemporaneo rispetto al testo del volgarizzamento stesso e per questo motivo vi porterò soprattutto una serie di considerazioni e di riflessioni anzi di interrogativi di natura diciamo più ampiamente metodologica dunque nel 1841 il supplemento alla ponderosa biografia universale antica e moderna di tutte le persone che si distinsero per opere azioni talenti virtù e delitti riporta una voce dedicata alla figura di Griselda annoverata fra i personaggi storici esemplari per suprema virtù e questa non è neppure la più tarda fra le testimonianze che dalla fine del 300 in poi attribuiscono realtà effettiva alla più inverosimile in realtà fra le donne di Boccaccio traendola fuori dalla fabula per consegnarla alla storia in effetti sono pochi i personaggi della finzione narrativa e in particolare della narrativa breve che hanno conosciuto una fortuna secolare pari a quella della protagonista femminile con cui si chiude la diciamo così comédie humaine dispiegata nel Decameron e in effetti il catalogo delle opere dedicate alla storia di Griselda solo entro il XIX secolo comprende ben 335 voci appartenenti a un ventaglio amplissimo di generi che comprende traduzioni in tutte le lingue volgari d'Europa e una serie di riscritture in versi o in prosa come anche ad esempio non meno di una trentina di drammi musicali di grande successo tutto questo per citare solo in estrema sintesi gli ambiti in cui si registra la sua sopravvivenza ricorderò a tale proposito che alla presenza di Griselda nelle culture europee è stato dedicato sia a un convegno nel 2009 intitolato Griselda metamorfosi di un mito nella società europea sia a un recentissimo libro di Raffaele Murabito dal titolo Le virtù di Griselda storia di una storia insomma la umile paziente grigia Griselda gode di quella immortalità e vitalità del mito che è tipica delle figure consumate e pasticciate dalla tradizione come le chiamava Edoardo Sanguinetti una lunga sopravvivenza cioè che è anche la prova più sicura di una straordinaria quanto paradossale attualità di questa figura soprattutto per la società dei suoi primi lettori cioè per quello strato della borghesia mercantile su cui si struttura in seguito tanta parte dell'organizzazione politica sociale e culturale dell'Europa occidentale essenziale per l'incredibile rapidità con cui questa straordinaria vicenda della nobile contadina si era diffusa sul finire del Trecento nello spazio europeo è però come è noto la traduzione latina di Francesco Petrarca che le garantisce l'accesso nel contempo alla cultura alta di stampo umanistico e alla fruizione al di fuori dello spazio linguistico italiano grazie a precoci volgarizzamenti nella maggior parte delle lingue europee e lo stesso Petrarca era naturalmente ben consapevole della portata culturale del suo gesto come emerge con chiarezza dalle epistole di accompagnamento della novella le senili 17 1 e 2 indirizzate a Giovanni Boccaccio come la traduzione stessa dove per motivare appunto la sua traduzione Petrarca invoca proprio la volontà di rendere accessibile la novella anche a un pubblico che non conosce il volgare di sì e particolarmente notevole in questo senso la raffinata strategia retorica con cui il poeta assimila la propria operazione di translazio alla stessa metamorfosi della protagonista da guardiana di pecore a nobile marchesa abbiamo qui il testo sia un brano della decima novella della decima giornata del Decameron sia della lettera di Francesco Petrarca dove vediamo come i vestimenti che hanno mutato insieme ai costumi della giovane Griselda diventano la mutata veste testuale con cui Petrarca la presenta e sarà quindi appunto una nuova Griselda testuale la quale ritornerà mutata veste dal suo primo autore mutata d'animo e di costumi alla stregua della contadina boccacciana la storia di Griselda diventa pertanto sotto la penna nobilitante di Petrarca anche un'allegoria della traduzione stessa e del rapporto almeno nella sua concezione particolare espressa in questo caso fra grammatica e lingua volgare e in effetti insieme con la mutata veste linguistica la Griselda del Petrarca latino acquista anche un diverso significato come sappiamo caricandosi di più forti e soprattutto più evidenti valenze allegoriche alcune delle quali sono esplicitate dallo stesso poeta nella cornice epistolare della senile 17.3 che contiene la novella a cui ho già fatto riferimento così la sovrumana pazienza della guardiana di Pecore lo ricordo nei confronti del suo nobile marito e signore diventa un'allegoria del rapporto ideale fra l'anima umana e il suo signore celeste con un'accentuazione dove non proprio in missione ex novo di allusioni bibliche e religiose in generale al nuovo involucro integumentum linguistico corrisponde insomma anche una nuova sostanza midollo di significato e il processo di traslazio dal volgare alla grammatica non costituisce un pur adattamento superficiale ma coincide con una metamorfosi di sostanza dilatata dalla cito da un importante articolo di Rossella Bessi dalla dilatazione interpretativa dei temi chiave mediante il ricorso a moduli di matrice scritturale e a elementi ricavati dalla tradizione esegetica e d'altra parte la stessa trasposizione linguistica per ammissione del suo autore non segue fedelmente la parola dell'originale lo vediamo propriamente in questo celebre brano dedicato alla mutata veste di Griselda ma vi opera un rimaneggiamento assai profondo potremmo quasi spingerci a dire che il Petrarca traduttore in latino si prende nei confronti dell'originale boccacciano una libertà con cui siamo familiari piuttosto in quella tradizione narrativa che ha anche una circolazione orale per quanto riguarda i primi secoli della letteratura romanza oppure caratteristica anche dei volgarizzamenti di opere latine nel complesso quadro medievale per cui citerò di nuovo un brano di Folena che è già stato evocato questa mattina il concetto del tradurre si allarga a quello della pura trasmissione si allarga a quello della pura trasmissione di contenuti del rifacimento e della metamorfosi del testo e il transferre si identifica con il tradere tuttavia direi che le due relazioni che mi hanno proceduto ci hanno mostrato come si debba applicare particolare cautela propriamente in questa identificazione della variance che normalmente attribuiamo al processo del del volgarizzamento insomma comunque nel caso della griselda petrarchesca a essere sottratto a una presunta contingenza o carenza oratoria in un'anabasi verso il sermone prisco era ancora Folena e insieme al volgare il senso complessivo e il ruolo culturale della novella tutta in effetti la traslazione petrarchesca ridimensiona potentemente soprattutto la peculiare prismaticità della griselda di Boccaccio in cui convergono una molteplicità di canoni culturali e di sistemi valoriali non sempre assimilabili l'uno con l'altro e che hanno portato soprattutto in anni recenti la critica a riflettere molto su quello che viene identificato come una natura eminentemente dilemmatica della novella stessa quasi si trattasse di una questio aperta alle diverse interpretazioni del pubblico per quanto riguarda il nostro orizzonte di indagine però dobbiamo notare che sarà in effetti la griselda nobilmente adornata o trasfigurata dal sermone prisco di Francesco a raggiungere un vastissimo pubblico in varie lingue d'Europa e non quella di Boccaccio prestissimo ritradotta infatti in francese da Philippe de Misière intorno al 1384-89 che era peraltro un amico di Petrarca e accolta anche da Chaucer nel Clark's Tale la griselda entra a far parte delle più autorevoli gallerie di donne illustri e valga per tutte la citazione della Cité des Dames di Christine de Pisan dove dimora incostrastata in quanto icona della perfezione femminile in ambito coniugale almeno fino al XIX secolo in questa vicenda di continuata mutatio-linguistica un capitolo del tutto particolare è costituito appunto dal precoce volgarizzamento della griselda latina in volgare fiorentino volgarizzamento copiato nel 1399 a pochi anni di distanza dunque dalla traduzione francese di Philippe de Misière è contenuto nel codice 1655 della biblioteca riccardiana con chiara attribuzione a Francesco Petrarca nell'intitolazione il volgarizzamento è stato pubblicato nel 1851 da Luigi Bencini vediamo qui l'inizio della novella in questa edizione la quale riporta anche l'intitolazione contenuta nel codice che ci dice appunto si tratti del volgare di una storia scritta in latino per l'onofacondissimo novello poeta Messer Francesco Petrarca il volgarizzamento è stato esemplato da Romigi di Ardingo dei Ricci della omonima famiglia di ricchi banchieri e mercanti fiorentini e fa parte di un ampio zibaldone di materiali in parte di natura immediatamente pragmatica come pagine di conti o istruzioni di agricoltura ma per la maggior parte di tenore morale e didattico in senso largo i testi sono per la maggior parte trascritti dalla stessa mano risulta con evidenza tanto dalla composizione del codice quanto dal fatto che esso si conservò nella famiglia dei Ricci fino al XVII secolo almeno l'uso privato e familiare della silloge Romigi appartiene insomma a pieno titolo a quella categoria di mercanti scrittori e di copisti per passione identificati da Vittore Branca quali primi lettori e destinatari del Decameron non abbiamo elementi certi per riconoscere in Romigi o in qualcuno a lui vicino della stessa famiglia l'autore della traduzione come talvolta è stato proposto mentre una serie significativa di errori e crutele testuali certificano che la versione tradita dal codice è frutto di un lavoro di copia in questo senso rinvio da ultimo al volume appena citato di Raffaele Morabito che analizza alcuni di questi errori tipici di copia questa circostanza attesta l'esistenza del volgarizzamento dunque persino prima del 25 luglio 1399 data della trascrizione del testo come ci informa lo stesso Romigi Luigi Bencini il primo editore appunto del testo nel 1851 ipotizza addirittura che la versione dovesse risalire cito a poco prima o poco dopo il 1374 sulla base dell'aggettivo novello con cui Francesco Petrarca è definito nell'intitolazione ad ogni modo il volgarizzamento dovette essere così vicino dal punto di vista cronologico alla prima diffusione delle 6017 che in effetti cito sembra quasi incredibile che su territorio italiano e fiorentino in particolare a quest'altezza possa essere stata esperita una simile operazione il volgarizzamento è stato studiato esemplarmente da Gabriele Albanese sue sono le parole appena citate sia in relazione agli aspetti linguistico-retorici del testo con un fine esame della sua prosa volgare dal carattere ibrido contraddistinta da una assai riuscita ricerca formale quanto anche da fraintendimenti e goffi calchi lessicali latineggianti sia poi quanto alla circostanziata contestualizzazione nel quadro più ampio della fortuna umanistica di Petrarca per quanto riguarda l'ultimo aspetto in particolare si può senz'altro affermare con la studiosa che cito una testimonianza di questo tenore attesta da un lato la tendenza a riportare l'aristocratica redazione destinata da Petrarca a un'utenza elitaria di connotazione dotta verso quelle fasce di lettori di media cultura che costituivano il pubblico originario e tradizionale della novellistica volgare trecentesca e d'altra parte che essa è anche segnale del recepimento e della ratifica delle nuove coordinate sovrapposte da Petrarca alla tramatura boccacciana perfino da parte di un pubblico borghese e mercantile mi ricollego dunque a queste acquisizioni per proporre alcune riflessioni in margine allo statuto e alla funzione di questo singolare volgarizzamento con riferimento anzitutto al rapporto fra il testo della Griselda e il contenuto complessivo del codice ricardiano 1655 come già accennato si tratta infatti di una silloge velocimilmente allestita dallo stesso mercante copista Romigi dal carattere marcatamente moraleggiante la predilezione per testi con finalità edificanti ed etico pedagogici pedagogici pedagogiche inserisce il volume pienamente nell'orizzonte di quella preoccupazione morale spesso espressa impersonalmente e in modo categorico con sentenze e proverbi spesso rafforzata da insistenti precetti moralistici e religiosi improntata a impartire buoni costumi e buoni emaestramenti in cui Vittore Branca ha riconosciuto una caratteristica peculiare dei mercatanti scrittori e in questa direzione puntano praticamente tutti gli altri testi esemplati dallo stesso Romigi che testimoniano anzi di un gusto della letteratura edificante persino meno a la page così lo definì Raffaele Morabito e meno laico rispetto ai mercanti descritti da Petrarca accanto alla genesi in volgare il volume contiene infatti per la parte esemplata da Romigi le carte 796 nell'ordine i proverbi di Seneca il breviloquio delle quattro virtù di Giovanni Gallico di cui sentiremo parlare anche più tardi questi due testi precedono la Griselda volgarizzata e successivamente il delle quattro virtù di Martino di Braga e due cantari in ottava rima di argomento cristiano moraleggiante la vendetta di Cristo e il cantare del giudizio per quanto riguarda i volgarizzamenti quindi contenuti nel codice che ho appena citato si tratta è da sottolineare che si tratta di testi che circolavano fin dal tardo 200 ed è esemplare in questo caso il trattato delle quattro virtù una versione volgare della formula vite oneste di Martino di Braga attribuito come è consueto nel Medioevo a Seneca nel codice in effetti una delle versioni del volgarizzamento è stata utilizzata lo dimostrano da ultimo le ricerche di Paolo di Vizia che sono confluite anche nella scheda dedicata a questo autore nel progetto Divo dunque è stata utilizzata da Brunetto Latini come fonte per alcuni capitoli del secondo libro del Tresor al posto dell'originale latino per cui le versioni volgari del trattato cito vengono a collocarsi in un'epoca piuttosto alta alle origini della prosa volgare in area italiana negli stessi anni dei volgarizzamenti di Brunetto Latini e Bono Giamboni la composizione del codice sembra insomma rispiecchiare un canone arcaizzante di autorità tes morali nel quale è forse riconoscibile una funzione che oserei dire ancora preumanistica del volgarizzamento quale strumento di accesso ai classici in questo contesto il Petrarca autore dell'esemplum morale della Griselda è affiancato ai doctores morali dell'antichità quale Seneca ed è fruito della stessa prospettiva didattico edificante tale impostazione esemplare moraleggiante sembra inoltre confermata dalla singolare miniatura di fattura ingenua e piuttosto rozza ma non priva di una sua grazia disegnata dallo stesso Romigi in chiusura della storia di Griselda e che rappresenta la protagonista nelle vesti di una trionfante e gaia dea della giustizia quale la connotano con chiarezza la bilancia e la lancia che tiene nelle mani la rappresentazione è assai bizzarra dal momento che nulla nei testi boccacciano o petrarchesco sembra collegare Griselda esplicitamente al tema della giustizia a meno che non si voglia pensare a una autonoma interpretazione della storia da parte del copista in cui si accentui l'aspetto vittorioso della protagonista e cioè il fatto che infine l'è stata resa giustizia e l'è stata restituita la sua funzione di nobile marchesa si può tuttavia aggiungere che nel testo pseudosenichiano che segue nel codice la Griselda latina proprio la giustizia chiude la galleria delle quattro virtù celebrate prima es prudenzia seconda magnanimitas terzia continenzia quarta giustizia leggiamo nel testo non è dunque da escludere che Romigi abbia espresso nella miniatura un'associazione visiva fra la storia di Petrarca e il trattato edificante e in questo caso la valenza didattico morale della Griselda risulterebbe nel contesto amplificata perché collegata intimamente la struttura della Silloge nel suo complesso attraverso questo indizio di ordine iconografico questa particolare sensibilità a dir la verità anche un po' banalizzante forse nei confronti del nuovo portato morale e moralistico conferito da Petrarca alla novella boccacciana che emerge come dicevo dal contenuto complessivo e dalla struttura del codice può a mio avviso dar vita anche a una riflessione di ordine metodologico intorno alla concezione di autorialità che presiede ed è attiva nella selezione dei testi inseriti nella Silloge e alla complessità di questa categoria in epoca medievale umanistica tema che è stato naturalmente molto dibattuto anche in anni recenti ma qui con particolare attenzione al caso di quei testi che sono sottoposti al filtro del volgarizzamento mi riferisco ovviamente alla sicurale circostanza per cui in epoca così alta e proprio a Firenze il testo si è attribuito al facondissimo novello poeta Francesco Petrarca e non a Boccaccio e mi chiedo in via puramente ipotetica e non orizzonte metodologico se questa attribuzione debba essere considerata effettivamente il frutto di una ignoranza della novella boccacciana come generalmente viene interpretata o non piuttosto il sintomo di una precisa percezione circa la novità della versione petrarchesca declinata appunto prevalentemente sul registro morale nella prima delle ipotesi dovremmo infatti immaginare un ambiente di alta borghesia mercantile fiorentina cui il libro di Boccaccio è idealmente destinato che negli ultimi decenni del 300 ignora il contenuto delle novelle boccacciane ma conosce e volgarizza il Petrarca latino o viceversa dobbiamo immaginare che la diversità dell'interpretazione petrarchesca autorizzi una diversa attribuzione autoriale secondo un criterio che predilige non l'invenzio della materia ma la sentenza che vi si immette similmente al modo in cui se mi è concesso l'accostamento noi oggi parliamo di un tristano di Tommaso di Berulla a seconda della diversa declinazione della materia tristaniana una simile valutazione del dato autoriale sarebbe peraltro agevolata dalla circolazione autonoma della seniles 17.3 che contiene la vicenda di Griselda ampiamente attestata dalla tradizione e d'altra parte si potrebbe anche osservare con la cautela necessaria dal momento che ci muoviamo nel campo degli indizi e non delle testimonianze certe che il volgarizzamento contiene anche la chiusa finale della novella nella versione petrarchesca in cui il poeta nell'esporre il significato allegorico morale attribuito alla novella dichiara esplicitamente leggerò ora dal volgarizzamento contenuto nel codice ricardiano che questa storia mi è paruto di raccontare con altro stile che altri il mercante copista Romigi doveva dunque essere al corrente almeno indirettamente di una più ampia circolazione dell'esistenza di altre elaborazioni della materia griseldiana se mi è concesso chiamarla così e in questa direzione potrebbe aver agito anche l'insistenza petrarchesca nel distinguere fra fabula e storia insistenza ben nota e che costituisce per certi aspetti il fulcro esegetico suggerito dallo stesso poeta ed indirizzato diciamo al amico boccaccio nel momento in cui gli dedica la griselda volta in latino petrarcha insiste infatti a porre a proporre una distinzione fra fabula e storia ho riassunto qui sulla slide alcuni dei luoghi solo alcuni dei luoghi testuali in cui nell'epistole torna questo problema e anzi arriva a definire a scegliere per il proprio testo latino proprio la definizione storia in contrasto con la volgare fabula decameroniana le più recenti ricerche di Monica Bertè e Silvia Rizzo che vorrei anche ringraziare per avermi messo a disposizione il nuovo testo critico dell'Esseniles 17 di imminente uscita per l'edizione nazionale delle opere di Petrarca dimostrano infatti che è proprio come storia che il poeta desidera presentare la sua Griselda latina di conseguenza la versione petrarchesca della Griselda mirava in sostanza e senza dubbio a essere una storia esemplare al pari di quelle di Valerio Massimo e attraverso l'allusione ai racconti di Abramo e Giobbe anche della Bibbia la storia vera per eccellenza definire quindi la più inverosimile delle vicende decameroniane una storia e non una fabula equivale a una garanzia di verità su un piano sostanziale fosse anche stando soltanto a livello allegorico come per i grandi testi dell'esegesi e certifica di conseguenza la validità del valore esemplare e didattico che la novella deve veicolare e che la rende degna di essere accostata tornando con la mente alla silloge esemplata da Romigi ad altri autorevoli testi di edificazione morale potremmo insomma dire in conclusione che il pubblico borghese della Firenze di fine 300 si riappropria della ficzio dilemmatica di Boccaccio con la sua complessità aperta al dibattito morale anche nella forma più pacifica e univoca almeno secondo questo tipo di lettura della storia moraleggiante sottesa alla rielaborazione latina del Petrarca e che questo consente di applicare alla problematica vicenda della nobile contadina lo stesso trattamento dedicato ai grandi esempi morali dell'antichità di usare cioè il volgarizzamento quale strumento di fruizione consono al proprio orizzonte culturale con un gesto molto diverso aggiungerei se non addirittura antitetico rispetto alla ricezione umanistica del testo latino di Petrarca che darà vita invece nei decenni successivi a questa rielaborazione di Romigi a una serie di ritraduzioni latine anche di altre novelle boccacciane vi ringrazio bene grazie Amira Mohan a questo punto abbiamo concluso le relazioni e si apre lo spazio della discussione in un ordine che potrebbe essere o secondo la sequenza delle relazioni come le abbiamo ascoltate ma anche no potrebbero anche incrociarsi domande interventi osservazioni diverse che magari legano insieme alcune di queste delle varie relazioni non nell'ordine appunto in cui le abbiamo ascoltate quindi apro lo spazio della discussione c'è una prima domanda grazie solo una minuzia per Giulio Vaccaro volevo chiedergli se riguardo all'aspetto alla traduzione delle voci col prefisso in con dis in Andrea Lancia se è una tendenza solo di Andrea Lancia se è paragonabile a qualcosa di simile che si nota nella pratica dei volgarizzatori perché nelle glosse che ho studiato di solito le voci con prefisso in vengono tradotte con non più la voce relativa quindi mi chiedevo quale fosse l'usus grazie dunque allora diciamo non è una tendenza a livello macro traduttivo traduttivo non è una tendenza esclusiva di Andrea Lancia quello che fa la differenza rispetto agli altri volgarizzamenti è la costanza con cui ovviamente si verifica nel senso in realtà poi c'è la traduzione più comune è quella che dicevi anche tu cioè non più l'aggettivo o in un'epoca più tard il calco dal latino quindi l'uso di diciamo così incauto per dirne per dirne uno quindi diciamo in Lancia quello che emerge è proprio la costanza della traduzione con questi prefissati con dis non soltanto per gli aggettivi ma anche per verbi sostantivi avverbi grazie io avrei una domanda per lo splendido intervento della dottoressa Valentina Nieri innanzitutto complimenti per l'analisi estremamente dettagliata e precisa la mia domanda è a proposito della ricezione di questo testo e quindi dell'uso che se ne fa perché insomma un testo tecnico non è necessariamente utilizzato come un manuale però se l'ho utilizzato creare una specie di pianta che non esiste diciamo così come mi sembra di essere successo in questo caso dell'avellana mista che sostanzialmente attraverso un errore di trasmissione insomma si crea una pianta completamente nuova crea degli interessanti problemi quindi la domanda per me è appunto da chi era recepito come era utilizzato e se questo può aver portato anche all'inserimento di glosse o di test diciamo così di frammenti di testo relativi a questa esperienza pratica insomma questa è la questione grazie è già attivo ok ringrazio per la domanda che è naturalmente interessantissima dunque per ciò che riguarda il testo latino io ne ho una conoscenza naturalmente molto limitata quello che posso dirle è che la maggior parte delle copie si collocano in ambito monastico cistercense per ciò che riguarda il palladio latino veniva tenuto appunto questo testo nella biblioteca effettivamente insomma sono passati un po' di anni dal testo del palladio che è un testo che nasce fra quarto e quinto secolo quindi l'attualità tecnica insomma viene effettivamente un po' un po' mancare per quanto riguarda il volgarizzamento ci sono alcune tracce di interessi specifici faccio un esempio nel volgarizzamento 3 che è quello che ho scoperto io nel suo manoscritto più antico i capitoli sulla picoltura sono raccolti e collocati tutti in fondo al manoscritto a creare una specie di manualetto e lì allora si denota un interesse specifico però in generale salvo forse un solo altro caso in cui effettivamente si vedono delle annotazioni di qualcuno che dice ah sì qui palladio dice alla gallina lascia 15 uova ma sì secondo me è meglio se gliene lasci solo 10 ci sono interventi di questo tipo non sono tantissimi e sono abbastanza cioè c'è un solo caso ecco per esempio di rifacimento con inserimento di annotazioni di questo tipo per ciò che riguarda il volgarizzamento è un interesse librario cioè palladio era un classico che viene volgarizzato come gli altri classici per cui rimane nelle biblioteche ci sono copie dedicate a personaggi di famiglie importanti fiorentine e lì appunto l'interesse specificamente il librario di avere il classico ecco nella propria biblioteca con qualche raro caso di diciamo interesse più specifico per le tecniche di agricoltura ma sono casi più limitati mi introduco abusivamente approfittando appunto del ruolo la curiosità l'avevo anche io quindi ero molto attento alla risposta mi chiedo in questo senso lei dice un testo tecnico per esempio non c'è differenza con le georgiche che è un testo molto più letterario rispetto a palladio cioè mi chiedo appunto abbiamo possibilità di comparare due testi comparabili dal punto di vista del tema ma non dal punto di vista della destinazione primaria è possibile fare un confronto di questo tipo? fare un confronto tra un uso mi pare di capire anche con degli aggiustamenti dal punto di vista tecnico da parte di persone che praticavano poi un po' di attività che sono però molto rari sono poche sono poche sono poche ho capito quindi in questo senso viene trattato diciamo tra un palladio e un virgilio non si coglievano grandi differenze no 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 è proprio questa la cosa singolare cioè che appunto l'uso pratico di un testo pratico come questo non incide in maniera sensibile sul grazie mille chiedo scusa e ridò la parola a chi grazie anche il mio intervento è per Valentina Nieri che ringrazio associandomi alle lodi già espresse la mia domanda è duplice una è una richiesta di chiarimento su un passaggio che credo di aver perso io e cioè perché diciamo lei si è poi soffermata soprattutto sul palatino sul vaticano palatino non ho capito bene perché l'altro codice forse è meno interessante e l'altra domanda è proprio ragionando invece sul palatino sul manoscritto vaticano palatino mi chiedevo si sa qualcosa della storia precedente di questo codice perché i palatini vengono da Heidelberg nel 1623 se non ricordo male entrano in vaticana allora si stringe anche il periodo in cui si può ipotizzare la circolazione del testo suppongo mi chiedo che cosa si sappia su questa questione allora sì sulla prima domanda il codice laurenziano che naturalmente io ho collazionato per tutti quei passi che vi ho riportato ho guardato entrambi i codici latini e in tutti quei passi il codice laurenziano ha la lezione dell'edizione critica quindi non ci aiuta a spiegare l'innovazione la particolarità del volgarizzamento per quanto riguarda invece l'altra domanda allora il palatino latino non ha nessuna traccia non ha note di possesso non ha indicazioni particolari quindi dal punto di vista codicologico per me che insomma lo fruiscono un punto di vista innanzitutto testuale e lo scavo storico naturalmente è ancora da fare non ci sono elementi di quali mi posso per ora appigliare per dare informazioni in più però sicuramente è un'operazione da fare assolutamente grazie per la domanda io volevo collegarmi a quello che ha detto Giulio Vaccaro e alla successiva domanda di Marco Maggiore perché quel discorso che gli aggettivi con un in negativo iniziale io credo che mi sembra che devi aver visto che la traduzione di aggettivi come immobilis con non mobile fossero quasi un obbligo in testi giuridici diplomatici quasi automatico che negli inventari dicono bene immobili e non mobili tanto che anche traduttori di altri tipi di testi lo facevano ricordo una conferenza di Claudio Lago Marsini che esponeva un volgarizzamento di Virgiliano dove nel testo poetico c'era delle scissioni del genere non ricordo se era in berbe o qualche altro aggettivo che non viene mai scisso che veniva scisso in due parole quindi si potrebbe pensare che Lancia volesse tenere un verbato perché in un testo poetico questo qui un aggettivo tipo immobile scisso e non mobile cambia 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 parecchie cose anche stilisticamente quindi che il suo ricorso a questi aggettivi prefissati con dis fosse un modo di tenere un verbati questi aggettivi poi avevo una piccola curiosità del rivolgere a Miramokan perché io stavo quando ho mostrato la lettera di Petrarca stavo per fare una domanda quasi subito poi dopo ha risposto molto bene ha mostrato gli esempi perché io non sapevo che fosse definita istoria mi stavo chiedendo ci sono altri casi in cui narrazioni brevi in volgare possono mai essere definite istoria in latino medievale grazie sì allora io solamente una cosa aggiungo se è vero negli statuti si tende sempre anche negli statuti non tradotti si tende comunque a tradurre poi con questo sistema del non e il che rende appunto anche più interessante questa coerenza del lancia che tra l'altro appunto traduce con dis anche quando volgarizza gli ordinamenti quindi è un diciamo così in questo senso una prova in più della paternità del volgarizzamento ora grazie della domanda che è molto interessante pertinente a cui non vorrei lanciarmi in una risposta perché dovrei fare prima le dovute verifiche diciamo prima delle verifiche direi di sì soprattutto per quanto riguarda la tradizione probabilmente più di natura epico-orale ma è tutto da verificare appunto quindi non vorrei dare una risposta univoca se no ringraziarla per il suggerimento nel testo di Petrarca però mi scuso questa contrapposizione è molto netta e sottolineata dallo stesso autore il quale quindi rende in un certo senso auto evidenti nel testo le distinzioni fra l'idea della fabula come ficzio e quella di storia come contenuto corrispondente a una verità quindi è una materia diciamo non inventata dal nulla dal poeta ma diciamo oggetto di diciamo una verità storica fra l'altro questa contrapposizione in Petrarca è stata anche piuttosto studiata in questo senso direi che la nuova edizione di Monica Bertè e Silvia Rizzo costituisce un po' uno spartiacque perché non mi sono soffermata su questo per ragioni di tempo ma effettivamente loro sciolgono in quel punto un problema testuale che consente di affermare con certezza che Petrarca volesse definire storia la propria Griselda e non mantenerla in questa incertezza fra fabula e storia con cui sembra iniziare a parlarne e in questo senso del rapporto fra storia e verità sin Petrarca credo che la questione però sia addirittura più sfumata perché ci si potrebbe domandare se questa verità della storia in Petrarca si riferisca al dato storico in senso concreto o piuttosto a quella verità di tipo esegetico diciamo per cui l'esegesi biblica medievale richiede un dato diciamo di realtà storica su cui costruire poi un significato allegorico anche valido quindi mi scuso se non ho saputo rispondere nel concreto alla domanda ma queste sono le considerazioni che potrei aggiungere su questo punto Miramo Campi che per una domanda per una sottolineatura a proposito del diciamo triangolo Boccaccio Petrarca e volgarizzatore mi pare che quello che lei ha esposto sia abbastanza convincente soprattutto vorrei sottolineare la pertinenza relativa direi della domanda conosceva Boccaccio nel senso che se l'avesse conosciuto e avesse voluto inserire nella sua sillage Boccaccio beh non avrebbe copiato la novella di Boccaccio ma quello che è certo e che voleva e era perfettamente consapevole di inserire un volgarizzamento del testo di Francesco Petrarca punto cioè direi che questo dà consistenza alla lettura complessiva della sillage poi se conoscesse anche Boccaccio e abbia preferito tenerla da parte questo a mio modo di vedere è meno significativo della rilettura complessiva di questo manoscritto la ringrazio dunque senz'altro ovviamente concordo il punto forse semplicemente che mi sentirei di aggiungere che questa stessa domanda che effettivamente si è indirizzata soltanto alla presenza di questo volgarizzamento di Romigi sembra un pochino auto-evidente in realtà si collega a una questione della stessa natura ma più seria in relazione alla circolazione di questa Griselda fuori dallo spazio italiano e cioè a dire che quasi tutti i volgarizzamenti e le citazioni successive del personaggio di Griselda quindi della sua storia non necessariamente del testo di Petrarca attribuiscono comunque questa materia allo stesso Petrarca a partire da Philippe de Mezière a Chaucer eccetera eccetera e quindi in quel contesto ovviamente la domanda è più trova una risposta più difficile quello che posso dire è che comunque anche nella letteratura è vero non amplissima su questo volgarizzamento in qualche luogo affiora proprio un interrogativo intorno alla stranezza del fatto che qui ci sia la Griselda di Petrarca e non quella di Boccaccio cioè si dà in un certo senso per scontato che in realtà il volgarizzatore non conosca la Griselda Boccacciana ritiro una parte della domanda che era la stessa di Perlarsson a cui Mira ha già risposto ma una considerazione quella miniatura quel piccolo disegnino più che miniatura perché è un goffo e ingenuo molto naif disegnino è un punto di congiunzione mi pare molto importante anche ermeneutico cioè se è suo di pugno dello stesso menante insomma che sia Romigio non non conta è un momento ermeneutico quello perché mi pare tu l'abbia ben mostrato fa parte della rilettura cioè il discorso intorno a istoria fabula anzi fabella ed era molto chiaro questo nelle nell'evocazione delle senile dove dice nescio an res veras anfictas queiam non istorie set fabelle sun quindi abbiamo un caso interessantissimo mi pare in cui una lettera di quell'autore che si appropria del testo dell'amico e in qualche modo intenzionalmente perché sta in quella lettera fornendo quasi un prologo all'operazione che ha compiuto compie una rotazione epistemologica così profonda tanto che la parola istorie resta proprio nel volgarizzamento in testa ecco questo e quindi quella miniatura diventa chiamiamola così ma non è tale diventa qualcosa di ancora più misterioso perché se quella è come pare davvero una giustizia collega appunto a Seneca e fa dunque di Boccaccio ormai petrarchizzato qualcosa di paradossalmente senechiano quindi prossimo alla sequenza delle virtù rilette in chiave cristiana quindi questo diventerebbe anche un momento interessante di una appropriazione del Seneca volgare di cui anche si è parlato insomma cioè va insieme con il Seneca volgare una situazione paradossale interessantissima ma volevo fare una breve considerazione riprendendo l'utilissimo richiamo del nostro presidente e preside a una cosa che è tutta sua cioè recensiores non sempre sunt etteriores credo che proprio in queste sale sia stata ideata questa formula anzi recensiores sunt utiliores se si può brutalizzare così quella formula no soprattutto quando ci poniamo dal punto di vista del volgarizzamento quindi riflettevo sulle tante poche numericamente ma tante da un punto di vista delle scusi Laura no no lascio sono un pasticciolo delle importanti considerazioni di metodo che questa mattina sono venute fuori e riflettevo su questo noi siamo abituati a pensare ormai ad una opposizione frontale diciamo così l'Ackman Bediè ma in fin dei conti Bediè ci viene utile quando andiamo a prendere quel utilior che è il buon manuscritto ma non nel senso che sia il buon manuscritto come ben accennavi tu prima perché ha un piano assiologico insomma dei valori ecdotici funziona meglio ma perché è quello giusto che come è stato benissimo mostrato in almeno un paio di casi la prudenza del filologo deve andare a scegliere quindi comportarsi come l'Ackman per poter poi andare a lavorare con Bediè mi pare una considerazione la sto mettendo in modo un po' paradossale perché mi sembra che ci sia qui una divaricazione molto importante sul piano del metodo dei due momenti dialettici che Pasquale poneva nel suo titolo celebre e cioè a noi interessa in questo momento la storia della tradizione la critica del testo la farà chi deve pubblicare quel testo soprattutto con i latini cioè in qualche modo lasciamo ai latinisti il compito di studiare la tradizione per fondare un buon testo critico l'Ackmaniano o Bedireano vedranno loro ma noi lavoriamo attraverso l'Ackman per giungere al buon manuscritto cioè quel manuscritto che aveva davanti il volgarizzatore questa che sto mettendo su un piano paradossale è una divaricazione epistemologica di grande momento mi sembra e che proprio giunge a maturazione oggi Walter Benjamin direbbe giunge a leggibilità in una determinata epoca storica ecco proprio questo mi pare cioè questo è il momento giusto in cui dopo gli anni 50, 60, 70 dei lavori dicevamo di Dionisotti di Segre di Folena e di tanti altri si giunge finalmente a poter lavorare nel microscopico per poter poi guardare con il telescopio largo il metodo e in questo senso quando parliamo di umanesimo volgare io lo accennavo poco fa la cosa è molto interessante perché è stato dimostrato mi pare in modo ferreo che è un vero umanista quel volgarizzatore che resta fedele al suo testo fino alla fine anche nel utilizzo delle postille del paratesto insomma come soprattutto nel suo caso è venuto ben fuori e quindi la filologia materiale come l'abbiamo chiamata un po' di fierezza disciplinare insomma è nata un po' nella filologia romanza soprattutto con la valle il quale ha fatto uno splendido lavoro proprio sui canzonieri provenzali ecco nata lì mi pare che si stia esportando bene questa questa attenzione ai micro elementi del codice non solo del testo e chiudo introducendo queste due nuove componenti abbiamo parlato di testi ma forse sarebbe più importante parlare dei codici che trasmettono quel testo ed è di nuovo cioè il testo nella sua mise en page mise en forme diciamo così e quindi non tenere distinti i due momenti che invece evidentemente erano da rimettere insieme insomma noi dobbiamo disarticolare la proposta di Pasquali senza ovviamente alterarla tenendo conto che è necessaria la dialettica per i due momenti se vogliamo un testo critico ma se vogliamo studiare l'operazione del volgarizzamento occorre quasi una tangente una tangenziale insomma una diagonale ecco è una considerazione di fondo non so se qualcuno vuole reagire a questa ma vale un po' per le cose che abbiamo sentito e immagino anche domani sull'Alessandro Magno e oggi pomeriggio ci saranno ma volevo come dire per quanto mi riguarda scusate se ho preso un po' troppo tempo come uno dei due organizzatori non l'avrei dovuto ma è quasi una piccola riflessione sul piano più astratto del metodo che mi pare già di poter rilanciare anche per tutte queste due giornate scusate se parlo ancora mi è venuta una nuova curiosità pensavo a una delle cose che aveva detto Giulio pensavo alla personalità dell'Ancia il quale se si guarda le opere dell'elenco finale quello delle opere sicure tutto sommato è uno che sta sempre attento a trasmettere quello che a spiegare o a tradurre quello che altri hanno detto anche il commento dantesco tratta del fatto di trasmettere il messaggio di Dante e poi fa un'opera di quello che oggi chiameremo fanfic né più né meno che le persone che leggendo Harry Potter in traduzione aggiungono delle nuove avventure dell'eroa preferiti mettendo quella l'epistola di Lucilio diciamo e la mette insieme all'originale mi trovavo un fatto curioso e interessante che una persona che sta tutta attenta a trasmettere il messaggio degli autori che ha letto o che ha avuto l'incarico di tradurre come scritti comunali oppure che deve commentare non si non si imbarazza davanti a un'operazione del genere sul discorso diciamo di quest'ultimo discorso apre un capitolo che è piuttosto interessante cioè se noi prendiamo per buona l'attribuzione del vulgarizzamento delle neide anche lì Lancia dice che l'ha fatta a distanza di un frate che gli ha chiesto di scrivere un compendio e che questo frate si chiama frate Nastagio e c'è un'ipotesi a mio avviso anche abbastanza convincente di Emiliano Bertin che in realtà questo frate Nastagio sia un frate indeterminato e con un'ipotesi secondo me ulteriore che si può fare che in realtà lì lui trovi un giustificativo qualunque per estrarre in realtà un vulgarizzamento compendioso che è un po' poi lo stesso discorso che secondo me avviene anche nel prologo al vulgarizzamento dei salmi anche perché poi insomma curiosamente i salmi che vulgarizza poi sono i salmi penitenziali quindi non è che sia una scelta profondamente marcata e cioè Lancia è senz'altro un uomo centrale nella cultura fiorentina conosce benissimo la cultura la maneggia e probabilmente la manipola del resto chi scrive comunque sia chi poi romanza o romanza nel senso inventa questi sono neanche fasi insomma questi finti lettere è comunque una persona che deve muoversi con grandissima capacità e ovviamente anche il vulgarizzamento di Dante raccoglie tutta una serie di storie e di opere che sono il commento a Dante raccoglie una serie di opere che sono amplissime notevolissime e comunque sia anche lì di vicende racconti che vengono da fonti diverse fatti dei romani storie di Tristano e così via quindi si senz'altro era un uomo che aveva una grandissima capacità di lettura e di assimilazione di ciò che leggeva volevo ringraziare tutti e quattro i colleghi che hanno presentato oggi tutti i contributi molto interessanti e volevo rilanciare una domanda o questione che professor Bologna ha menzionato e rilanciarla in particolare a Giulio Vaccaro ma a tutti mi chiedo se tornando sulla personalità del Lancia su questo periodo fiorentino di Metà Trecento guardando anche il lavoro che ha fatto Valentina e riportando quelle che sembrano scelte del vulgarizzatore in realtà una fedeltà assoluta al testo latino non ci sia in questo periodo un ripiegamento della spinta energetica fresca di fine duecento un ripiegamento in un manierismo dove l'antico è interpretato dove si sviluppa un gusto per l'antico una una moda ecco dove si si preserva il testo latino si ripete il testo latino ma appunto come come un prodotto come un prodotto di moda ecco e un'altra cosa se posso una seconda domanda mi riferisco a quel caso del Rascido uno che rispetta il testo fino a quel punto come immagini tu Valentina abbia trattato come immagini si presentasse il testo del volgare sulla pagina riesci a immaginare quali fossero le scelte di mise en page del volgarizzatore come questo testo si presentasse effettivamente perché prende il paratesto lo mette dentro come è interpretato questa scelta che è una scelta importante insomma risalire risalire oltre quello che si vede è sempre abbastanza complicato bisogna vedere appunto noi nel nel codice Vaticano vediamo ancora questa costellazione in parte ancora distinta ma già in parte resa fluida dal punto di vista testuale cioè alcuni di quelli i dest qualcos'altro sono già a testo nel latino quindi anche lì capire in che quantità questi elementi collaterali che poi sono passati a testo sono già passati a testo nel latino nel volgare chiaramente è complicato dal punto di vista dei diciamo dei volgarizzamenti i codici sono tutti lineari salvo quel caso che insomma come rifacevo anche prima per rispondere alla domanda su c'è qualcuno che interviene per aggiornare il testo sì un manoscritto c'è in cui vediamo notazioni marginali che appunto vanno in qualche modo ad aggiornare a integrare alcune cose però è un caso unico e lì siamo già in un sistema interamente volgare ed è un passaggio successivo rispetto al testo del volgarizzamento cioè si ricostituisce un ulteriore passaggio di appunto di intorno del testo con però su come fosse il volgarizzamento 1 nel manoscritto del volgarizzatore io non so insomma non ti posso non ti posso rispondere non so se Giulio voleva rispondere all'altra allora sì io allora io non credo che ci sia in realtà una volontà archeologica cioè secondo me una volontà archeologica si afferma diciamo dovendo dare un arco cronologico a partire dal volgarizzamento della quarta decca quindi più o meno siamo dalla fine degli anni 40 diciamo che quello che sicuramente c'è è una dinamica ben precisa del volgarizzare tant'è che se tutti i volgarizzamenti sono stati attribuiti ovviamente a un autore vuol dire che tutto sommato tutti i volgarizzamenti procedono lungo una linea che però secondo me non è poi una linea così archaizzante cioè certo Lancia non è ora lo dico davanti a Massimo Zangia e quindi però non è di certo il Ceffi che è un traduttore molto migliore molto più attento e anche molto più tutto sommato più volgarizzatore è un traduttore probabilmente più più mediocre questo senza dubbio però diciamo volgarizza come volgarizza tutti gli altri è un prodotto diciamo così di fascia media passatemi l'espressione insomma con molte molte virgolette per venire a partire dai due interventi di Nieri e Lorenzi per la loro analoga struttura di provare a verificare una volta tanto se si trova un appiglio più sicuro nel retroterro latino perché lo dicevo un po' già Corrado Bologna che questo è un punto è un punto chiave e vorrei allargare un momento la riflessione su questo punto perché di fatto così l'invito pasqualiano correggimi non è che sia stato molto popolare tra i filologi classici nel corso del novecento cioè di fatto e non a caso anche loro hanno iniziato dicendo Pasquale infatti lo segnalava come un'eccezione cioè per un classicista che deve fare un'edizione critica che recensiores non siano deteriori è un'eccezione cioè era un monito a non buttarli via subito nel cestino come si rischiava di fare e come si tendeva un po' a fare quindi l'attenzione era un po' un'anomalia ai recensiores è chiaro che in una prospettiva diversa come quella che vedo praticata qui che interessa qui e ovviamente i recensiores assumono una funzionale naturalmente la prospettiva è appunto quella della storia della tradizione che già ovviamente Pasquale aveva ben presente che oggi forse declineremo nei termini di ricezione della classicità però ecco questo punto cioè l'effettiva mancanza di dati utilizzabili su questo retroterra e non solo per i classici che sono fra l'altro i testi più studiati anche per testi meno studiati dei classici latini ecco questa mancanza in effetti forse è anche parte della difficoltà che negli ultimi anni e ormai decenni di grande ripresa e enorme ampliamento di scavo sui volgarizzamenti la difficoltà dico ad assumere una prospettiva un po' più generale di inquadramento della prassi traduttoria di queste e delle varie fasi che questa ha seguito non a caso continuiamo a riferirci ai quadri di Segre e di Folena che certo si basano su dati molto meno microscopicamente accertati di quelli di cui potremmo avere a disposizione ormai dopo tanti scavi dopo tante edizioni e in vista di tante altre edizioni perché insomma c'è questa giusta cautela ma anche problematica cautela nel senso che poi tanti dei procedimenti tanti degli chiamiamoli quasi atteggiamenti nei confronti del testo classico che si tendeva ad attribuire o si attribuivano senz'altro all'opera dei traduttori o volgarizzatori che dir si voglia poi in realtà si vedono già in atto nelle dinamiche della trasmissione o della rielaborazione latina in ambito latino quindi forse bisognerebbe riuscire a sciogliere questo nodo per poter poi più concretamente più precisamente disegnare qual è stato il ruolo dei traduttori il ruolo di questa stagione così lunga e così produttiva di effettiva traduzione involgare cioè se misurare se almeno una parte e fino a che punto fino a che parte di questi processi di adattamento di a volte di come abbiamo visto anche oggi in alcuni esempi di imbarbarimento o deterioramento della tradizione perché ovviamente per i volgarizzamenti non servono soltanto i recensiores poziores anche i deterioriores naturalmente servono ecco dico bisognerebbe effettivamente che questa stagione di studi sulle traduzioni che non solo in Italia penso al repertorio francese coordinato da Galderisi eccetera c'è stata in questi ultimi anni riuscisse a coinvolgere anche chi statutariamente disciplinarmente si occupa della tradizione dei testi latini perché in effetti se no rischia di mancare non so se sia possibile perché non è un caso se finora non è stato così cioè una ricerca sui codici trecenteschi di palladio non credo sia mai presentabile facilmente presentabile per un'abilitazione e viceversa neanche per un'abilitazione in filologia romanza naturalmente quindi forse c'è qualcosa che anche a livello diciamo così istituzionale dobbiamo cercare di mettere a posto perché altrimenti rimarremo sempre con una con una zona grigia che però poi ci impedisce di cogliere anche effettivamente qual è la vera novità di questa stagione di volgarizzamenti ma io se posso intervenire appunto mi pare che i tempi tu hai perfettamente ragione hai descritto un quadro che fino ad ora è stato così però mi pare che i tempi siano cambiati negli ultimi decenni appunto e sono maturi per un incontro di queste due linee che finora hanno proceduto separatamente e forse diciamo non è troppo lontano il tempo in cui uno studio sui codici tardi di palladio può valere anche per un'abilitazione appunto tra i classicisti nel senso che sempre di più lo studio dei classici ha prestato attenzione non solo in Italia negli ultimi decenni proprio alla ricezione come canale ma per leggere i classici mentre una volta fino a pochi decenni fa questo era il settore della fortuna dei classici cioè veniva riservato era uno spazio che nei manuali di storia letteraria compariva era l'ultimo paragrafo dei vari medaglioni sugli autori appunto adesso non è più così cioè adesso si vede quanto la prospettiva di chi è venuto dopo non solo ha condizionato diciamo la nostra percezione moderna degli autori ma ci ha anche aperto delle strade nuove cioè molte volte le scelte dei traduttori dei ricettori in senso lato in tutte le forme anche dal punto di vista delle arti figurative per esempio anche quello è un canale interessantissimo per leggere il mondo antico appunto è quello che i testi antichi dicevano ci sono state delle rivelazioni illuminanti che queste analisi appunto fatte a posteriori hanno offerto per per la nostra idea dei classici cioè oggi diciamo i percorsi veramente sono intrecciati e probabilmente il tempo è maturo appunto per 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 un incontro fecondo in entrambe le prospettive questa almeno è la mia sensazione ma mi pare che sia appunto un fenomeno diffuso a livello internazionale appunto anche negli altri paesi lo spazio della riflessione è sempre più ampio e non è più come una volta appunto un settore di ripiego diciamo meno interessante e non so se ci sono altre osservazioni se non ci sono possiamo allora dichiarare qui conclusa questa prima sessione mattutina e dare l'appuntamento alle 15 oggi pomeriggio in questa stessa sala per la ripresa dei lavori grazie a tutti la collega ciocciola ha richiamato ha fatto notare che il compito di dare la parola nel pomeriggio è affidato a due direttori dell'opera del vocabolario è quello presente preceduto da quello passato che sono io ricordo allora che da sempre negli antichi fin dall'inizio e nella fase antica dei lavori che consistettero dapprima nel costituire un corpus per l'opera del vocabolario e per il vocabolario i volgarizzamenti hanno avuto una grande parte e naturalmente con una situazione testuale molto complicata molto insoddisfacente poi all'Ovi come in altre parti non soltanto lì ma certamente anche lì lo studio dei volgarizzamenti è molto andato avanti anche dal punto di vista testuale è arrivata una generazione di giovani studiosi collaboratori interni o esterni che per i volgarizzamenti hanno fatto molto ho visto nascere spontaneamente ma in un ambiente che aveva preparato la cosa il progetto del Divo di Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro che nel momento in cui hanno preparato questo progetto erano ancora collaboratori precari dell'Ovi ma si sono subito allora incardinati e sono diventati parte colonne dell'istituto il progetto Divo è formalmente formalmente concluso in quanto progetto però è tuttora è tuttora una fonte di grande qualità e quantità nella ricerca sui volgarizzamenti così come altri progetti che sono stati nominati stamattina presso la scuola normale altrove fra i testi particolarmente disastrosi come edizione che però dovevano stare nel corpus del vocabolario c'era l'Egidio Senese il regimine principum volgarizzato che era necessario ma orrendo e nel tempo è arrivata per l'appunto Fiammetta Papi che ormai ne ha dato una grande bellissima edizione lei è qui ora ma non ci parla di questo però di un altro argomento che è per i volgarizzamenti del Brevi Loquium De Virtutibus di Giovanni Gallico e le do senz'altro la parola grazie a Pietro Beltrami anche io mi assosso ai ringraziamenti a Claudio Sosola e a Corriado Bologna per l'invito a partecipare a questo convegno al principio dell'ascesa al Purgatorio di fronte alla prima cornice Dante e Virgilio assistono al visibile parlare che agisce sui rilevi marmorei raffiguranti tre esempi di umiltà glorificata l'annunciazione alla Vergine la traslazione dell'Arca Santa l'atto di giustizia reso da Traiano a una vedovella in quest'ultimo episodio la rappresentazione e il dialogo si dilatano quasi in forma di sceneggiatura a sottolineare l'importanza di un exemplum che sarà richiamato e completato nel ventesimo del paradiso nel cielo di Giove quando Traiano compare nel ciglio dell'occhio dell'Aquila come imperatore giustissimo che appunto la vedovella consolò del figlio la leggenda di Traiano fu tra le più diffuse del medioevo mentre si dirige a cavallo verso la Dacia per la sua campagna militare l'imperatore è fermato da una vedova che in lacrime lo implora di punire l'assassino del figlio Traiano risponde che provvederà al ritorno e alla domanda della vedova se tu non torni era sicura che in quel caso un suo successore provvederà ma la vedova lo richiama al principio per cui solo lui stesso una volta assuntosi il compito di assolvere alla giustizia può agire in nome del suo bene e attraverso questo del bene comune a tali parole con atto di umiltà e magnanimità al tempo stesso Traiano vendica il figlio della vedova e compiuto il suo dovere riparte per la guerra due le fonti più antiche del racconto Paolo di Acono e Giovanni di Acono entrambe relative alla vita di San Gregorio Magno secondo il seguito della leggenda questi un giorno visitando il foro Traiano mosso a compassione dalla storia della vedovella pregò perché l'anima del principe non rimanesse esclusa dalla salvazione in quanto pagana da qui la successiva assunzione di Traiano in paradiso e l'esperienza ricordata da Dante di questa dolce vita e dell'opposta si noti anche a un passant il doppio potere istruttivo di un exemplum che induce all'umiltà e alla preghiera sia San Gregorio sia a Dante che a San Gregorio si richiama un exemplum basato sulla parola e su un'immagine la vedova implorante l'imperatore frutto di una probabile sovrapposizione della leggenda all'iconografia della donna inginocchiata come la provincia la Dasha assoggettata al principe da Dante in avanti la scena della vedova supplicante Traiano a cavallo di cui vedete qui un paio di esempi di miniatura del purgatorio diventerà essa stessa un topos per l'iconografia della giustizia dell'imperatore che conta riprese figurative moderne fino almeno a De La Croix si deve alla scuola storica l'approfondimento di fonti e derivazioni della storia di Traiano nelle lettature romanze nel 1878 Gaston Paris pubblica La légende de Traian nell'80 d'Ancona fa suo tale studio per il saggio sulle fonti del novellino e le ricerche saranno poi messe a frutto decenni più tardi da Graff che dedica a Traiano un capitolo della Roma nella memoria nelle immaginazioni del Medioevo ma prima del 1923 era intervenuto sul tema proprio in relazione a Dante Michele Barbie con una brevissima nota del 1895 intitolata La leggenda di Traiano nei volgarizzamenti del Brevi Locium De Virtuti busti fra Giovanni Gallese una noticina di poche pagine destinata a essere pressoché ignorata fino a oggi e invece meritevole di recupero proprio in questa sede non fosse altro perché il protagonista della nuova filologia annunciava la pubblicazione di uno studio sui volgarizzamenti un volume di traduzioni da alcuni fra i trattati morali più diffusi nel Medioevo tale volume non uscì ma di lì a poco Barbie dedicò al maestro D'Ancona nella miscellane per il pensionamento del 1901 un altro articolo di grande importanza per i volgarizzamenti relativo al manoscritto di cui poi nominato appunto Codice Barbie nella tradizione testuale dei volgarizzamenti di Albertano l'articolo fu poi ristampato nella nuova filologia anche la nota del 95 in realtà recava una dedica illustre perché fu pubblicata in opuscolo per le nozze del quasi coetaneo di Barbie Francesco Flamini anche egli allievo di Dancora e la pubblicazione in opuscolo è probabile ragione della scarsa considerazione successiva del saggio di Barbie di cui si conservano poche copie ora tra i testi vagliati da Paris ripresi da Graff e poi da tutta l'esegesi moderna sulle fonti del decimo del purgatorio testi che non posso ripercorrere in dettaglio in questa sede un rilevo centrale è il Policraticus di Giovanni di Sosbury da qui la leggenda di Traiano passa tramite gesta romanorum di Elinando allo speculo mistoriale di Vincenzo di Bovet al fiore di filosofi e quindi al novellino taccio invece delle versioni parallele della leggenda ma mi fa piacere segnalare che nell'ultimo bollettino Ovi del 2016 edito da Lino Lenardi e altri e dedicato ai volgarizzamenti della leggenda aurea si legge ora la versione 3 cosiddetta della leggenda di San Gregorio nell'edizione a cura di Lauren Gallinella rispetto a tali testi scandagliati dai precursori Barbie segnala nel suo puscolo un'ulteriore fonte rimasta appunto ignorata dalla dantistica più o meno recente non compare neppure alla voce traiano dell'enciclopedia dantesca tale fonte appunto al brevi loquium de virtutibus di Giovanni del Galles composto intorno al 1260-70 e come vedremo a breve precocemente volgarizzato in tutta Europa è possibile che Dante conoscesse quest'opera vi sono spie che ne suggeriscono la ripresa nel decimo del purgatorio cominciando dalla seconda domanda Barbie stesso osservava che la cosiddetta redazione A dei volgarizzamenti su cui tornerò in un minuto del brevi loquium volgare avrebbe riscontri più stringenti con i versi danteschi di quanti non ne abbiano il fiore dei filosofi o il novellino ancora oggi solitamente allegati tra i passi paralleli segnalo soltanto la presenza del freno del cavallo di Traiano e non del piede o della staffa e alcuni identici passaggi del dialogo come se tu non torni o chi sarà tipo me la farà chi fiado viola ti farà rispetto a il mio successore ti soddisferà d'altra parte di fronte alla diffusione così vasta di una leggenda e di fronte non occorre ricordarla alla grandezza della rielaborazione dantesca bisognerà mantenersi prudenti nel restringere l'ipotesto a un'unica occorrenza tuttavia all'osservazione delle riprese microtestuali dal breviloquio vale la pena aggiungere un aspetto macrotestuale non ricordato da Barbie mentre infatti nel fiore dei filosofi e nel novellino il racconto di Traiano compare all'interno di una generica rassegna di gesti memorabili degli antichi il racconto di Traiano nel breviloquio ha una posizione particolare perché è inserito tra gli esempi la precisamente delle virtù di umiltà e pietà che fanno parte delle sottospecie di giustizia lo schema delle virtù morali in cui è inserito concide pertanto con quello dantesco con Traiano presente contemporaneamente nei bassorilevi dell'umiltà del purgatorio e nel cielo dei giusti in paradiso e tralascio qui di entrare nel merito di un tale schema di virtù che ancora inizi 300 poteva non essere scontato se si pensa che proprio l'umiltà e la magnanimità erano tra le virtù che ponevano maggiori problemi di classificazione come mi è capitato di osservare in altra sede in un lavoro dedicato ai cataloghi delle virtù nei volgarizzamenti del 2300 è evidente che aggiungere un tassello alle fonti dantesche dovrà comportare anche analisi più approfondite nelle quali non ho modo di addentrarmi qui tuttavia per rispondere alla domanda se Dante potesse conoscere Giovanni del Galles vi mostrerò ora alcuni risultati parziali di ricerche che sto portando avanti sul brevi loquio ricerche che hanno confermato e anzi rafforzato l'impressione che si tratti di un testo molto più diffuso e pervasivo di quanto finora non sia stato ritenuto ad eccezione di Barbie ci tengo a precisare che tali ricerche sono ancora in fase seminale perché si sono sviluppate a fianco dell'edizione critica dell'Egidio Volgare un'altra fonte esplicitamente citata da Dante di recente valorizzata nelle opere di Dante diretta da Marco Sant'Agata nel De vulgari eloquenza di Mirko Tavoni nel convivio di Fioravanti una fonte su cui ha richiamato l'attenzione in più sedi proprio Corriado Bologna ricordo per esempio l'intervento al laboratorio dantesco per i 750 anni dalla nascita di Dante del 2015 a Udine organizzato da Domenico De Martino per passare quindi alla seconda parte del mio intervento Giovanni del Galles variamente nominato nella tradizione gallese o gallico è un teologo francescano vissuto in piano 200 oggetto di attenzione scientifica per lo più all'estero da ricordare la monografia pur datata di Jenny Swanson a lui dedicata dell'89 e alcuni articoli di Albrecht de Diem che annunciavano l'edizione critica del breviloquium latino ancora tuttavia non disponibile lettore prima ad Oxford e quindi a Parigi Giovanni del Galles fu autore di opere pastorali e compilazioni morale di grandi successo molto simili tra loro per impostazione tutte denominate loquia oltre al breviloquium segnalo fin da ora anche il compendiloquium su cui tornerò in conclusione come già anticipato il breviloquium è un breve trattato concepito come una raccolta di 230 esempio di eroi antichi catalogati secondo le quattro virtù cardinali giustizia prudenza temperanza e forza allo scopo di dimostrare come esse si manifestassero prima dei cristiani già nei pagani illustri tra le fonti vi sono in primo luogo valerio massimo il volgarizzamento circola anche con il titolo di estratto delle virtù cardinali da valerio massimo agostino seneca cicerone vegezio gerolamo tra i medievali l'autore più citato è giovanni di solsburg il breviloquium fu un testo fortunatissimo sono oltre 180 i manoscritti a oggi noti del latino perché si prestava molto bene per brevità e accessibilità a fornire un'antologia dei classici ad uso di chiarici e laici se ne conosce il rifacimento del 300 opera dell'agostiniano Michele da Massa Marittima e il testo continua a essere letto e citato non solo nel 300 per esempio è tra le fonti più citate di Francesco da Barberino ma anche durante tutto il 400 ampie porzioni si ritrovano nel trattato politico morale di Giovanni Cavalcante o nei sermoni di Nicola Cusano che possedeva un manoscritto contenente l'intera serie dei loquia del Gallese e il rifacimento di Michele da Massa testimonianza della fortuna del breviloquium sono anche le traduzioni volgarie solo curzioriamente segnalate peraltro con alcune sviste nella monografia di Swanson questo è lo schema che viene proposto solo questo e integrabili con il prospetto che vedete qui a oggi le versioni italiane individuate da Barbie su cui mi soffermerò in un attimo risulterebbero le più antiche precedentemente vi sarebbe solo una traduzione francese della fine del 200 che però non è completa si tratta delle interpolazioni sulle virtù morali contenuta nel manoscritto francese 1822 della BNF testimone della versione anglo-normanna di Geoffroy de Waterford del secretum secretorum lo ha dimostrato Jacques Monfran in uno studio tuttavia non recepito dalla bibliografia sul breviloquio il secretum di Waterford fu poi ritradotto in inglese nel 1422 da James Yonge con il titolo Governance of Princes se ne conoscono almeno due manoscritti completi e un frammento ora le traduzioni italiane restano indipendenti dalla versione di Waterford anche se rimane da verificare se esistesse a monte un'altra traduzione francese duecentesca dalla quale lo stesso Waterford avrebbe potuto attingere si conoscono inoltre due ulteriori versioni francesi del Quattrocento studiate da Rosemont nel menoscritto laudiano miscellano 570 codice noto per il ricco apparato decorativo di illustrazione sulle virtù la cui iconografia si richiama anche al breviloquio una seconda versione è interpolata alla seconda redazione del Fleur des Histoires di Jean Mancel vi è infine una traduzione catalana di inizi Quattrocento testimoniata da tre manoscritti ed edita nel 1930 mi concentrerò ora sulle traduzioni italiane Michele Barbie rintracciava nelle biblioteche fiorentine quattro redazioni diverse del breviloquio A la più diffusa B C a testimone unico e D il saggio d'edizione è relativo al solo exemplum di Traiano dal quale siamo partiti ed è dato sui primi manoscritti citati per ciascuna redazione assegnate tutti tranne l'ultimo alla seconda metà del 300 rispetto allo studio preliminare di Barbie illustrerò ora nel tempo che mi rimane alcune nuove acquisizioni cui sono giunta sul fronte rispettivamente del censimento dei manoscritti che sarà da portare avanti anche nelle biblioteche non fiorentine della datazione dei codici e della collazione delle redazioni che sarà da estendere all'intero testo per verificarne i rapporti con il latino ed eventuali affinità strutturali come l'associazione di una certa redazione del breviloquio con testi affini nei manoscritti mescellanei per quanto riguarda l'ampliamento del testimoniale sono da aggiungere alla recenzio di Barbie i seguenti codici dei quali alcuni sono noti da importanti studi recenti che però non sempre identificano il testo come volgarizzamento del breviloquio segnalo qui il ricardiano 1655 di cui abbiamo potuto apprezzare questa mattina la valorizzazione nell'intervento di Miramo Khan per parte mia ho rintracciato oggi altri sette manoscritti del breviloquio in varie redazioni due di questi il barberiniano latino 4012 e il codice di Philadelphia mi sono stati segnalati rispettivamente da Valentina Neri e Federico Rossi che ringrazio ho potuto inoltre individuare un testimone conservato oggi alla Welcome Library di Londra che appare di particolare interesse in quanto gemello di un codice perduto che figurava tra i citati della prima a Crusca per la quale il volgarizzamento del breviloquio era stato incluso tra i testi spogliati a ciò dedicato a un seminario alla fondazione Ezio Franceschini da cui ho ricavato un articolo in corso di stampa per la nuova rivista di letteratura italiana tra i codici invece già noti a Barbie è da segnalare che il conventi soppressi E1 250 ha un nuovo esame autoptico è risultato contaminato per cambio d'antigrafo si vede chiedo scusa non ho la riproduzione ma lo si vede perché nella trascrizione proprio dell'exemplum di Traiano si ha un netto cambio di inchiostro dopo le prime righe del racconto che attaccano con la versione A e passano poi alla versione C in questa slide vedete indicati in blu i manoscritti riportati a ciascuna versione come si può osservare la redazione C non risulta più a testimone unico si sono aggiunti tre manoscritti su questa redazione tornerò in un istante prima però vorrei anche proiettare i dati relativi all'aggiornamento della cronologia dei manoscritti qui vedete riportati in rosa i codici della redazione A in viola quelli della B in azzurro la C e in verde la redazione D sono evidenziati in giallo i codici che presentano problemi di datazione proprio come i due codici più antichi della redazione B e C rispettivamente sui quali mi propongo di ritornare in altra sede ho invece qui accolto la proposta della bibliografia più recente di retrodatare il codice più antico di A il secondo secondo 146 dalla seconda metà del 300 dove lo assegnava a barbi alla prima metà del secolo il codice peraltro caso per ora unico nella tradizione del breviloquio è riccamente miniato tanto da far pensare a un prodotto di lusso destinato a una lettura cortese più che di studio le miniature cito da Bertelli riproposta del tipo bolognese in uso alla fine del 200 sono probabilmente da datare intorno alla metà del secolo e rappresentano alcune delle virtù cardinali in primis la giustizia in trono cui segue a breve distanza proprio la raffigurazione di Traiano e della vedova che potrà quindi essere affiancata alle miniature del purgatorio come uno dei primi esempi del topo siconografico commentato all'inizio di questa presentazione ad ogni modo la cronologia al di là di casi specifici conferma l'antecedenza direi delle versioni A, B e C rispetto alla C che si conferma di piano 400 la precoce diffusione di A cui però si affiancano forse in epoca più alta di quanto finora ritenuto i primi manoscritti delle redazioni B e C proprio sulla redazione C vorrei soffermarmi brevemente perché tutti i manoscritti di C tranne il codice di Londra che però è più tardo riportano una dedica del volgarizzamento al giudice di Gallura dedica che se fosse da attribuire all'originale costituirebbe un importante indizio di datazione antequem del volgarizzamento l'ultimo giudice di Gallura muore infatti nel 1296 e da Nino Visconti il giudice Nin Gentil di Purgatorio VIII nipote di Ugolino della Guerra Artesca ciò suggerirebbe quindi che il volgarizzamento C sia da retrodatare a un periodo molto più alto delle copie superstiti a meno che la dedica non dipenda da un brevi loquium latino adoperato dal volgarizzatore in modo simile a quanto Giulio Baccaro ha riscontrato nella tradizione del vegezio volgarizzato da Giamboni in cui la dedica a re di Francia dipende in realtà dalla tradizione nell'antecedente latino dell'epistola di Fireculfo in quel caso cioè se la dedica fosse da riportare al latino il 1296 sarebbe il termine antequem della copia latina o se si vuole della circolazione del brevi loquium in Italia quindi il volgarizzamento si sposterebbe più avanti però da ciò che si sa della tradizione latina studiata da Diem negli articoli che citavo non ci sono esemplari dedicati e d'altra parte mi chiedo perché in manoscritti del 3400 quando il giudicato di Gallura non esisteva più si sarebbe dovuta inserire una dedica a un principe morto uno o due secoli prima un'altra circostanza che mi pare rilevante come elemento strutturale della redazione C è che i testimoni attestano non soltanto il volgarizzamento del brevi loquium ma anche quello del compendiloquium di Giovanni del Galles tradotto con il titolo Motti dei filosofi e in tre manoscritti attribuito a un altrimenti poco noto Pietro da Reggio forse da identificare con uno dei traduttori attivi fino agli anni 80 del 200 alla corte di Alfonso X di Castiglia come ho provato a mostrare nell'articolo in corso di stampa che vi citavo prima del compendiloquium un'opera di compilazione incentrata sull'utilità della filosofia e sulla vita dei filosofi sono noti 27 manoscritti latini di cui uno peraltro appartenuto a Boccato e quest'unica traduzione della sezione sui detti dei filosofi e non mi sembra da sottovalutare che i due volgarizzamenti di Giovanni del Galles circolino insieme nella redazione che stando alla dedica risulterebbe a questo punto la più antica è peraltro interessante che alla serie breviloquio compendiloquio di C faccia riscontro in molti manoscritti di A un'associazione simile in cui al breviloquio seguono le sentenze detti di più filosofi secondo la versione una versione diversa è quella edita da Moschini nel 1827 alla redazione A erano frequentemente associati anche altri testi e in particolare come vi mostrerà Federico Rossi al termine di questo pomeriggio quindi non voglio dire troppo ora il compendium del secretum e il libello di Taddealderotti il libello a conservare sanità di Taddealderotti analogamente in almeno un manoscritto della redazione C il codice di Londra che vi dicevo prima compaiono il secretum e una operetta medica simile al libello di Taddealderotti che comincia secondo che dice Galieno ed è seguita da un antidotario entrambi i testi l'operetta medica e l'antidotario sono attributiti allo stesso Pietro Dareggio cui è attribuito il compendiloquio un'altra associazione privilegiata sembra essere stata quella del breviloquio con i volgarizzamenti dello pseudo Seneca cioè la formula oneste vite di Martino da Braga la cosiddetta redazione 2 secondo la classificazione di Bertolini circola insieme al breviloquio B lo abbiamo già sentito questa mattina nella redazione di Miramocan la cosiddetta invece redazione 4 che circola insieme all'esopo volgare si vedono i due volumi di edizione facsimilare curati da Sciocciola nel 96 dicevo la redazione 4 è almeno un paio di volte affiancata al breviloquio A così per esempio nel manoscritto di Napoli segnalato da Divizia nel 2014 e nel contaminato con venti soppressi che ho citato prima dunque l'approfondimento della storia della tradizione del breviloquio porterà anche a far luce sulle dinamiche di aggregazioni dei testi in miscellane destinate a una precettistica di pronto uso che poteva spaziare dalla morale alla fisica dall'aneddotica alla medicina alla filosofia antica che tale approfondimento comporti vantaggiose ricadute estematica è in dubbio sul piano della valutazione preliminare delle diverse redazioni di un volgarizzamento che ciò poi agevoli l'edizione critica è altro se si considera anche l'alta probabilità che la diffusione di un testo fortunato come il breviloquio per non parlare del secretum e dei suoi stratti comporti la polverizzazione del testo e la contaminazione delle lezioni sarò in grado di fornire maggiori dettagli su tali aspetti una volta intrapresa l'edizione basti per ora intanto come spero aver mostrato l'importanza di un testo probabilmente più antico delle copie superstiti e collocabile in un'epoca coeva se non precedente a Dante sul quale come abbiamo visto all'inizio il breviloquio avrebbe potuto lasciare traccia un testo con poche eccezioni fino ad oggi misconosciuto e che invece grazie a una speciale combinazione di esemplarità figurazione precettistica spesso valorizzata dall'aggregazione a testi affini fu sicuramente più fortunato di quanto finora non sia stato ritenuto grazie grazie di questo contributo esauriente rotondo ben strutturato a questo argomento e la discussione sarà alla fine come è stato sul modello di stamani e quindi ora proseguiamo con il secondo intervento di Cristiano Lorenzi Biondi prego che continua le presenze in questa sede e l'attività della generazione più giovane dei collaboratori dell'opera del vocabolario parla di le ad lucilium in volgare quando troverà il file potremo dargli cioè la parola gliela do anche subito ma se la prende dopo vediamo se trova trovato trovato Eureka allora possiamo partire bene anche io come gli altri mi accodo ai ringraziamenti agli organizzatori per avermi chiamato a parlare di un un tema al quale mi sono appassionato facendo nel far parte del progetto Divo infatti il mio studio sulle ad lucilium in volgare e per dire ad lucilium nel dire ad lucilium in volgare voglio dire il volgarizzamento trecentesco delle epistole morali di Seneca ecco mi sono appassionato a questo volgarizzamento proprio grazie al progetto Divo e al fatto che ho fatto un'edizione di lavoro del manoscritto panciatichiano 56 conservato nella biblioteca nazionale di Firenze manoscritto che ha una certa importanza lessicografica in quanto è stato il manoscritto che fu preso per le allegazioni della prima crusca degli esempi appunto per le allegazioni senecane della prima crusca l'argomento è ampio e devo dire che mi sono trovato un po' in crisi nel cercare di presentare questo volgarizzamento l'anno scorso è uscito un lungo ahimè per voi articolo sulle sulle redazioni delle ad lucillium in volgari su di filologia italiana parto da quello studio o almeno tento ma prima di far questo poiché anche oggi appunto si è spesso sottolineata l'importanza del dato materiale in primis parto da un dato materiale un dato materiale che è costituito da un manoscritto che mi è stato detto essere che mi è stato detto stamattina essere un po' lugolino io non lo sapevo che si chiamasse così lugolino dei manoscritti è un manoscritto di casa Castellani un manoscritto che appunto Arrigo Castellani ha nella sua aveva nella sua proprietà e che fu da lui acquistato e che come potete vedere da questa riproduzione contiene l'epistole di Seneca questa è la prima carta ma come vedete dalla cartulazione che è nell'angolo superiore è il numero romano è già carta 89 ciò vuol dire che sono andate perdute 88 carte e il manoscritto è acefalo e non solo è parziale in quanto mutilo della fine e anche di 100 carte nella sua parte centrale come mi è stato confermato dalla professoressa Teresa De Robertis che ringrazio la datazione di questo manoscritto è all'incirca del quarto decennio del 300 e per dare conferma di questo anzi forse più che una conferma dal punto di vista linguistico rintraccio all'interno della face sicuramente fiorentina del manoscritto segnali come ad esempio forme ad esempio come signore e signoria e signoreggia che dunque attestano diciamo una fase antica del fiorentino e anche quella norma Castellani per le preposizioni articolate che viene rispettata direi con regole e costanza allora Castellani cita questo manoscritto più volte lo cita nel saggio su lo è appunto dicendo che è un manoscritto membra nazionale lettera testuale attribuito al quarto quinto decennio del secolo quattordicesimo insieme a questo manoscritto non l'ho detto c'è anche il volgarizzamento del libro degli animali cioè il bestiario che viene tratto e volgarizzato sostanzialmente dal tresor su questo argomento ho interpellato Marco Giola che sicuramente è più esperto di me in merito lui non aveva potuto vedere il manoscritto e dalla prima carta ha detto che la redazione sarebbe la redazione beta del volgarizzamento toscano le citazioni di Castellani appunto come vedete da qui questa è del 90 poi ce n'è una del 93 nel manoscritto sul monotongamento di Uo a Firenze un'altra nella grammatica storica della lingua italiana il manoscritto di mia proprietà prima metà del XIV secolo che è il più antico di quanti ne siano finora noti ora che sia il più antico è sicuramente uno dei più antichi ci sono altri manoscritti e me ne viene da citare uno il laurenziano 76-80 beh anche questo diciamo ha una patente di antichità dovuta al fatto che il suo copista e questo lo do come dato di cultura del testo e per l'importanza del testo delle pistole morale volgarizzate il copista di questo laurenziano è lo stesso copista che è uno dei copisti che partecipa all'officina della copia del convivio cioè di quel manoscritto il secondo terzo 47 della nazionale che vede avvicendarsi mercanti e notai nella copia del convivio ecco una parte la parte di zanobi è quella del laurenziano 76-80 è una mano mercantesca ma ciò non toglie che questo bureau come viene definito dalla ceccherina della De Robertis di copia che si ha con intreccio di notai e mercanti è assai importante e soprattutto si sviluppa proprio negli anni 40 del 300 considerate che il volgarizzamento dell'epistole ha più di 40 manoscritti al suo attivo e quindi è diciamo uno dei volgarizzamenti più importanti oserei dire del 300 proprio per la sua diffusione e che sia copiato da qualcuno che poi copia la prima opera filosofica involgare della nostra letteratura ecco lo rileverei come fatto importante e decisivo Castellani poi torna a citare il manoscritto nel suo articolo sull'origine della forma Elsa e le parole finale che rispecchia lo stadio più antico e genuino del testo su questo tornerò poi in fondo cercando di collocare il manoscritto Castellani all'interno delle delle redazioni senecane questa è una foto un po' come dire un po' venuta male però ringrazio Tommaso Salvatore e Per Larson che con me sono venuti ultimamente a casa Castellani dove abbiamo rintracciato questi piccoli cartellini fra cui quello che Castellani dà quello della ricevuta che riceve per l'appunto Castellani per il saldo del codice è stato acquistato alla libreria Caldini di Firenze una libreria antiquaria che era situata in via dei Tornabuoni e che ahimè alla fine degli anni 90 è stata ben sostituita da case di moda e quindi non c'è più quindi non mi è stato nemmeno possibile andare a vedere che cosa ci potesse quale potesse essere la storia pregressa del codice sono però sicuro che Castellani acquista nel 1990 il manoscritto come si può vedere anche dallo stesso catalogo semestrale della libreria Caldini che per l'appunto riporta facciamo passare l'ambulanza che riporta la prima descrizione sostanziale del codice dove già si individuano le lacune di cui prima vi ho parlato solo per innescare uno spin off e quasi una spy story intorno a questo codice voglio parlare dei cartigli che sono nelle carte di guardia c'è un cartiglio che sostanzialmente fa una descrizione del codice e che individua il codice come la versione vicina a quella di baccio valori quindi del manoscritto panciaticiano 56 che citavo prima ma è una versione diversa da quella stampata nel 1717 dal Bottari che normalmente adesso diciamo come terza redazione chi fa questa annotazione naturalmente è una persona che bene era informata sui fatti e soprattutto sui manoscritti citati dalla Crusca mi sono interrogato su chi possa essere questa mano e ho riscontrato che nel Riccardiano 4072 ma anche nel Riccardiano 4096 nel Riccardiano 4097 e nel manoscritto dell'Angelica 2465 ci sono cartigli simili e la mano pare essere proprio quella che vi porto lì accanto cioè la mano di Rosso Antonio Martini Rosso Antonio Martini detto il Ripurgato è colui che sostanzialmente nel 1747 fece il catalogo dei manoscritti che allora erano in Crusca naturalmente il Ripurgato aveva una certa fama nella descrizione dei manoscritti e è da pensare che probabilmente fosse stato chiamato a descrivere manoscritti magari di biblioteche private noto che Riccardiano 4072 per mie ricerche è il citato della Crusca per quanto riguarda il Sallustio e Salviati dice che quel citato viene dalla libreria Rinuccini glisso su tutte le vicende della libreria Rinuccini dove codici sono andati perduti oppure rubati perché era stato fatto sparire l'inventario di Antonio Cocchi che era quello che aveva fatto l'indice dei manoscritti insieme al Targioni Tuzzetti delle classi magliabiechiane insomma c'è un bel po' di storia ci sarebbe da raccontare ma fatto sta che i cartigli dovrebbero essere di mano di Rosso Antonio Martini e i codici che vi ho citato con questi cartigli sono tutti acquisti tardi delle biblioteche italiane cioè acquisti che per quanto riguarda Riccardiano 4072 è stato fatto nel 1971 il 4096 nel 76 il 4097 nel 77 e l'Angelicano che è un altro manoscritto dell'Epistole Volgare di Seneca è del 1976 nel 1990 arriva sul mercato il manoscritto di Casa Castellani fatta questa lunga premessa sul dato materiale del dei codici del codice per quanto mi riguarda mi tocca ai miei affrontare il problema redazionale il problema redazionale dell'Epistole Morali è stato affrontato già nel 1970 da Mario Eusebi e poi è stato ripreso ma senza essere approfondito da Marco Baglio nei suoi vari interventi sulle Epistole Volgari di Seneca quello che vedete è lo schema conclusivo che io ho tratto da una lunga collazione redazionale cioè sollecitata soltanto dalle differenze di redazione fra i vari manoscritti che solo come dire in maniera non approfondita Eusebi già di per sé aveva individuato e cerco di spiegarvelo in breve questo io lo definirei uno schema della tradizione una sorta di ibrido fra appunto uno schema e poi uno stemma alla base naturalmente c'è quello che ho definito X-lat cioè un punto preciso del latino di un manoscritto che a un certo punto fu preso e tradotto in francese per cui ho XFR da lì il testo francese è bene dirlo non è pubblicato io ho fatto i controlli sul francese tramite due manoscritti quelli diciamo definiti da Eusebi i più fedeli da lì naturalmente si è tratta la prima traduzione fiorentina X-Fior 1 da cui discende quella tradizione che è stata studiata in tesi di dottorato da Marco Baglio per l'appunto che ha fatto un esempio di edizione sulle prime 15 epistole legati per l'appunto alla tradizione della prima redazione che io chiamerò T1 da X-Fior 1 come vedete discende a catena X-Fior 2 poi cercherò di dare appunto le giustificazioni di queste cose e da X-Fior 2 tramite un suo ramo deriva X-Fior 3 come vedete da X-Fior 2 si diparte una linea tratteggiata che io ho chiamato X-Lat 1 cioè un ricontrollo che puntualmente anzi non puntualmente pressoché puntualmente un rifacitore fa rispetto al primo arrivo del testo delle epistole volgari in Toscano ciò che intendo adesso fare è quello di dare dei piccoli esempi di come mettere dei chiodi per identificare i momenti ecdotici in cui questi stadi redazionali possono avere una validità ecco cioè cercare quelle che chiamerei più che errori perché come abbiamo visto stamattina il concetto di errore per i volgarizzamenti è assai labile più che errore le chiamerei innovazioni innovazioni che talvolta non danno senso o comunque non danno perlomeno senso apparente poi bisogna sempre vedere che cosa ci fosse nell'ipotesto come abbiamo detto ora qui abbiamo la fortuna e la sfortuna di avere un tramite francese quindi di non risalire al latino dove se mi si permette appunto per questa questione dei manoscritti recensiores appunto i problemi sono profondi direi e appunto tramite gli esempi che porterò voglio anche immettere nella tradizione per l'appunto il manoscritto di casa Castellani mi servo mi sono servito a livello generale di quattro tavole in realtà io ho fatto sei tavole ma diciamo le principali sono quattro una in cui si cercano le differenze fra il latino e tutte le versioni romanze una in cui si cercano le differenze fra il francese appoggiato dal latino quindi appoggiato sul latino e distinto però poi da tutte le versioni fiorentine la terza tavola in cui T1 cioè la prima redazione appoggiato dal francese e dal latino va contro il resto della tradizione fiorentina quindi T2 e T3 e poi la quarta tavola in cui il testo francese con T1 va contro il latino T2 e T3 dunque il latino si sposta dall'altra parte perché per l'appunto diventa il testo di ricontrollo per quanto riguarda lo vedremo la seconda redazione dico subito che gli esempi cerco di scorrere in maniera abbastanza veloce perché il tempo è poco ma in questo primo esempio si possono vedere due cose innanzitutto che nel francese entra una negazione che nel latino non c'era quod mortem prospicibus e poi il francese mette la negazione ne naturalmente mettere una negazione in questo caso vuol dire cambiare di netto il senso della frase il senneca dice in questo infatti sbagliamo cioè nel fatto che noi vediamo davanti la morte ma lui dice ma gran parte di essa se ne è già se ne è già andata e la morte tiene tutto ciò che è dietro nella nostra vita ora dire che noi non vediamo in realtà davanti a noi la morte poi dire che una gran parte di essa è già passata capite che è una grossa contraddizione ora si tratta di un'innovazione sicuramente un'innovazione che dal punto di vista di senso generale del testo è erronea perché va in contraddizione questa innovazione che entra nel francese praticamente è portata dietro in tutte le versioni si potrebbe dire che all'inizio come dire un archetipo delle versioni romanze si può dire così aveva questa questa negazione e poi di conseguenza tutto il resto salvo poi la redazione seconda che vedete che io nomino T2 e T3 a cascata che per tappare la contraddizione cambia è dietro passata in resta avvenire come se volesse apportare un correttivo che però comunque dà ancora un senso non totalmente giusto naturalmente il manoscritto Castellani si adagia naturalmente su T2 per quanto riguarda l'esempio che qui porto questo è un esempio che serve a dire quale sia la direzione perché Formisano ad esempio ha detto che nel nel testo francese delle delle epistole ci sono degli italianismi allora nessuno mi potrebbe dire viene prima il francese o l'italiano naturalmente a livello di studio solitamente sia che dal francese abbiamo il volgare ma a prova testuale nessuno aveva dato come dire il appunto il bollino di qualità mettiamo così allora in questo caso siamo in un discorso diretto il francese appunto immette un inciso per dire che quello è un discorso diretto ciò dici tu dove dove i questi comandamenti eccetera eccetera sedi tu la tradizione fiorentina fraintende sostanzialmente l'inciso e lo trasforma in un aggettivo dimostrativo più sostantivo questi detti e comandamenti naturalmente il senso regge però ciò mi fa dire che la direzione può essere solo quella dal francese all'italiano e questo mi dà la direzione e ciò vuol dire che il volgare verrà sempre dopo il francese non ho più dubbi qui invece vediamo come si possa creare un errore perché errore è ma che in questo caso l'editore non potrebbe correggere in francese ho la rousseur che come ogni sostantivo in or oris è femminile si porta dietro un pronome che è el femminile che però quando arrivo nelle versioni romanze io avrò il rossore e il suo pronome che arriva alla terza riga di t1 e t2 dovrebbe essere esso o comunque un maschile qui invece trovo ella naturalmente c'è un'incongruenza ma è un'incongruenza dovuta al trascinamento dal francese questa innovazione o meglio questo errore riportato dal francese è proprio naturalmente di tutte le versioni romanze e nessuno lo corregge eccetto T3 che ha un occhio più come dire più acuto e non solo qui ma in molti è molto più interventista e riesce a sanare e anche a togliere molti errori naturalmente il manoscritto Castellani si adegua a tutto ciò in questo passo invece abbiamo un altro caso per cui nel latino e nel francese sostanzialmente c'è una negazione quel ne che vedete al secondo rimo del francese e quel non che vedete nel secondo rimo del latino che poi anche qui nella tradizione viene tolto e va come il caso precedente a creare una contraddizione il manoscritto Castellani naturalmente continua a seguire la tendenza del volgare qui invece vediamo come il latino il francese e T1 in questo caso abbiano una filigrana testuale che sostanzialmente è assai simile sostanzialmente però a livello di T2 arriva un cambionetto per cui quella frase in corsivo viene sostituita da ogni altro schermo è dubbioso con una parola schermo che a questa età non è una parola casuale è una parola che naturalmente ha del suono poetico e soprattutto dantesco e non si può non notare questa cosa il manoscritto Castellani naturalmente si adegua a T2 in questo caso invece vedo una sorta di errore sul ricontrollo cioè se francese e T1 portano una corretta traduzione di suspiciant quando T2 arriva a ricontrollare sul latino sostanzialmente legge il verbo suscipio e dunque mette a testo sicché tutte le genti ricevano la nostra vita una frase che essenzialmente non dà senso anche se è frutto di un ricontrollo sul latino e naturalmente questo è un errore di senso che mi fa dire che in T2 ho appunto uno di quei momenti innovativi e riconoscibili ecodicamente in cui porre la redazione in ultimo qui c'è un vero e proprio anche qui ricontrollo di T2 sul latino dove il francese e T1 si scostavano dal latino mentre T2 lo recupera la lettera e anche in questo caso il manoscritto Castellani va con T2 eccoci qui tornati al problema iniziale avete capito quindi come ogni redazione viene l'una dall'altra e come il manoscritto Castellani sostanzialmente si innesti sulla redazione T2 delle epistole volgari però nel far questo ho anche portato come dire voglio porre anche dei problemi come avete sentito appunto io ho parlato spesso di redazioni di archetipo delle versioni romanze eccetera eccetera ecco il concetto di redazione se noi apriamo i normali manuali di filologia italiana è legato soprattutto alle redazioni d'autore e invece chi ha a che fare con i volgarizzamenti sa che molte redazioni ci sono nei volgarizzamenti districarsi nel definirle è assia difficile mi sono chiesto come si potessero definire effettivamente queste redazioni e non mi sono dato che una risposta che è quella empirica cioè una redazione è nei volgarizzamenti un qualcosa che si può individuare dal punto di vista della classificazione stemmatica un po' come ho cercato di farvi vedere oggi seppur impropriamente e soprattutto secondo me è un qualcosa che risponde al grado di collazionabilità cioè più una redazione è meno collazionabile con lo stato del testo precedente più effettivamente quella è una redazione del testo perché l'editore non avrà lo spazio fisico per relegarla in un apparato che si direbbe diacronico del testo ma ne deve fare un'edizione a parte e qui quindi si deve definire una redazione che dunque diventa diversa da quella che Varvaro definiva come tradizione attiva perché una tradizione attiva è una normale tradizione dei testi medievali rispetto a quella che lui definiva tradizione quiescente dei testi classici però una tradizione attiva è una tradizione in cui il copista interviene magari una tantum e l'editore può segnalare mano a mano nell'apparato ecco che quando questa cosa sfugge di mano forse dico io ho una redazione e poi sollevo sempre il problema come chiamare quel XFR archetipo delle versioni romanze va bene cioè lo pongo come anche spunto di discussione e che cosa diventano XFior 1 e XFior 2 diventano certo XFior 1 è sicuramente archetipo della tradizione fiorentina nei luoghi in cui rimane sempre uguale cioè dove non viene rimaneggiata ma allo stesso tempo XFior 2 diventerà dunque un subarchetipo ma anche un archetipo direi redazionale quindi quello che volevo fare era semplicemente cercare di mettere sul piatto anche forse una nomenclatura che va pesata ad hoc per tradizioni di questo genere spero di essere stato all'altezza del compito e vi ringrazio per l'attenzione grazie anche per avere posto dei problemi in maniera estremamente stimolante e penetrante a questo punto dovremmo avere la pausa la pausa caffè vorrei chiedere agli organizzatori di quanto è prevista la pausa caffè ditelo voi e io bandisco quarto d'ora benissimo allora 15 minuti e ci si ritrova qui e passerò il compito al collega Leonardo ecco ricominciamo qualcuno si attarda ecco intanto che entrano iniziamo questa ultima sessione della giornata di oggi con altri tre interventi mi permetto soltanto di aggiungere prima di dare la parola a Lauren Gallinella che io ho vissuto soltanto la conclusione del progetto Divo nella sede dell'opera del vocabolario italiano ma questa conclusione ha dato luogo si è manifestata in un convegno che è svoltosi un po' più di un anno fa di cui sono in allestimento gli atti quindi avremo presto e guardo Giulio Vaccaro che è uno dei due curatori un altro volume da aggiungere a questa bibliografia recente e abbondante sulle traduzioni italiane con la particolarità che quel convegno era stato significativamente organizzato non soltanto sulle traduzioni italiane ma con una ottica europea o forse direi meglio romanza e anche oggi sono emersi i vari aspetti per cui questa è un'ottica inevitabile indispensabile per l'analisi delle traduzioni dal latino nelle lingue volgari spesso però diciamo i percorsi di ricerca avvergono in modo parallelo nelle varie tradizioni ecco mi fa piacere ricordare questa occasione in cui invece si è tentato di trovare percorsi comuni e trasversali ma non rubo altro tempo e quindi lascio il microfono a Laura in Gallinella che dopo aver fatto ancora non concluso forse ma il suo perfezionamento qui in normale ora è emigrata felicemente spero negli Stati Uniti e non ha però cessato di occuparsi di quello che era che è stato il suo argomento e che è tuttora il suo argomento di tesi di perfezionamento e cioè con una prospettiva un po' diversa e cioè quella delle traduzioni di natura ageografica in quanto in base a questo suo interesse partecipa anche al progetto di edizione critica del volgarizzamento di fine 300 fiorentino della leggenda aurea ed oggi il suo argomento è in parte a questo tema collegato nelle storie dei Santi non sono se non cose giuste e sante e veritabili la tradizione dei leggendari francesi alla luce di un passionario italiano del 400 prego ringrazio il professor Leonardo e ovviamente mi accodo nei ringraziamenti agli organizzatori del convegno per questo invito e mi riallaccio a quanto affermato dal professor Leonardo partendo proprio dalla fortuna volgare della leggenda aurea e uno tra i più curiosi episodi della fortuna volgare in Italia in area italiana di questo leggendario è rappresentato da una raccolta di testi ageografici conservata nella biblioteca riccardiana segnatura 1390 si tratta di un manoscritto autografo di cui conosciamo la data di allestimento 1460 è il nome del volgarizzatore copista Giovanni Cherichi agente di cambio fiorentino attivo a Ginevra nella seconda metà del 400 di cui Marco Bernardi avrà modo di parlare più diffusamente nell'intervento successivo al mio questo leggendario presenta una raccolta di testi ageografici introdotti da un prologo del volgarizzatore nel quale si dichiara come essi derivino da cito uno libro chiamato la storia aurea parte in latina e parte in gallica lingua come ho già avuto modo di dimostrare in una notizia apparsa su Medioevo Romanzo alla fine del 2014 premessa al mio lavoro di tesi che sono ormai in procinto di concludere che Erichi volgarizza non una raccolta contenente una versione francese della leggenda aurea bensì un collettore afferente a una tradizione ben più antica che con la leggenda aurea ebbe modo di intersecarsi solo a partire dalla fine del XIII secolo quando i primi volgarizzamenti dei leggendari di Jacopo d'Avarazze cominciarono a circolare nell'area Gallo-Romanza una collezione di volgarizzamenti a geografici in prosa francese nota nella tradizione degli studi anche se piuttosto impropriamente come Legendie Francais Methodiques il dato non sorprende tanto più se notiamo che la pratica di indicare raccolte di vite di santi in prosa sotto il titolo di Legende d'Oré affiora in almeno una costellazione di leggendari afferente a questa tradizione i leggendari per loro definizione sono oggetti mutevoli ognuno dei quali offre una rappresentazione della comunità in seno alla quale esso è stato progettato e allestito lo studio dei testi a geografici passa sempre attraverso l'analisi dei macrotesti e all'obiettivo di restituire il singolo testo si affianca spesso quello di restituire le dinamiche di allestamento di leggendari o di gruppi di leggendari apparentati da un comune progetto compositivo l'obiettivo in altre parole è quello di restituire spesso la fisionomia di un ur leggendario a monte della tradizione questo approccio è stato applicato con profitto alla tradizione del leggende franzè originariamente prodotto in un non identificato centro monastico della regione piccarda il leggende franzè conosce nelle sue più varie formulazioni una lusso reggiante fortuna dal 200 fino alla fine del 400 fortuna che non scalfita dall'introduzione di nuovi modelli geografici abbraccia tutta l'area galloromanza dall'inghilterra all'italia settentrionale tra genoa e venezia e come è stato recentemente suggerito da fabio zinelli in un articolo apparso nel 2016 con una precoce tappa oltre marina probabilmente ad acri in un'indagine trentennale poi confluita nel capitolo della celef dedicato alle leggende francesi in prosa Paul Meyer ha ricostruito un'immagine di questa tradizione che salvo pochi riassestamenti risulta ancora efficace Meyer individua vari modelli strutturali ordinati secondo una complessità crescente da un passionario apostolico detto A sino a leggendari più articolati da B a G concentrando la propria attenzione su una decina di leggendari poi Jean-Pierre Perrault ha dimostrato negli anni Ottanta come il secondo nucleo individuato da Meyer derivì da un archetipo perduto costituito da una serie gerarchica passionario apostolico cinque passioni di martiri cinque passioni di vergini il leggendario volgarizzato da Cherichi d'ora in poi R rispecchia chiaramente la struttura di un leggendario perduto in cui si ritrovano cristallizzate varie fasi particolarmente antiche della tradizione del leggendario francese in prosa come vedete esso si costituisce di 31 testi che comprendono una prima sezione perfettamente corrispondente al passionario apostolico più la passione di Longino seguita da una coda il trittico Dionigi Cosme Damiano Sette Dormienti propria della tradizione genovese di questo leggendario segue infine una coppia una coppia martiriale locale Lamberto Pantalone prodotta probabilmente nello stesso scriptorium del leggendario francese ma mai perfettamente integrata ad essa e una sezione di martiri di età romana venerati nei mesi di luglio agosto da Apollinare ad Agapito segue un altro santo locale Quintino di Vermanduà e termina la serie il trittico Sebastiano Vincenzo Giorgio che appare estratto di peso dalla compatta sezione martiriale posta a seguito del passionario apostolico del leggendario francese si tratta di una struttura che si presenta frammentata e che rende quindi impraticabile la possibilità di una indagine a campione lo scavo deve quindi essere duplice perché deve dare conto non solo della natura del testo come volgarizzamento ma anche del testo come proiezione di una struttura di un progetto compositivo concepito entro una tradizione dalle dinamiche ben definite in questo intervento in particolare prenderò in esame il trittico a chiusura della raccolta che Carichi condivide con il leggendario francese così come è stato formulato da Perrault vale a dire le passioni di Sebastiano Vincenzo e Giorgio la disamina di questi tre casi permette di dimostrare come R possa essere dirimente per la Constituzio Textus ma anche e soprattutto per la valutazione delle dinamiche di trasmissione dei leggendari francesi prosa nelle loro fasi primitive veniamo a Sebastiano il volgarizzamento francese della passione di San Sebastiano incluso nel leggendario francese traduce la passio più antica e diffusa nel medioevo latino a lungo attribuita a Sant'Ambrogio e recentemente da Cecilia Lanerich che ne sta preparando un'edizione critica ad Arnobbio il Giovane esse alla base di rielaborazioni più tarde da cui però il nostro volgarizzamento non dipende la versione di questa passio inclusa nel leggendario francese si distanzia nettamente dai volgarizzamenti della serie martiriale a cui appartiene per il trattamento della fonte latina di cui vengono soppressi numerosi episodi l'originario ciclo epico che raccoglie intorno alla vicenda di Sebastiano quella di numerosi martiri minori è del tutto scarnificato e vengono conservati soltanto il nucleo iniziale della passio e quello finale relativo al solo Sebastiano il volgarizzatore si mostra comunque padrone dell'intero arco narrativo originario dal momento che si preoccupa coscienziosamente di fornire brevi informazioni sui personaggi apparsi in episodi soppressi qualora essi appaiano nuovamente i rapporti tra i testimoni di Sebastiano possono essere riassunti nello stemma seguente tutta la tradizione eccetto H codice conservato nella biblioteca Royal de Belgique 10.295 10.304 un leggendario miscellaneo prodotto nel 1429 adat quindi nell'Enau regione Vallona e il volgarizzamento R quindi tutti i codici eccetto il volgarizzamento e questo leggendario tardo corrispondono dipendono da un subarchetipo beta caratterizzato anche da alcune varianti che pongono questioni di interesse lessicografico ne descrittereò per ragionità di tempo soltanto una dopo la morte per flagellazione il corpo di Sebastiano viene gettato nella cloaca maxima ed è qui rinvenuto da Lucina a cui è apparso in sogno e che si deve incaricare della sua sepoltura dinanzi alla fonte latina che ha in cloaca maxima in cloaca illa la tradizione francese diverge beta presenta concordemente un merdié ansel merdié fornendo una resa volgare perfettamente in uso H invece presenta sur une clé ansel clé clé è una variante che dà senso perché significa letteralmente graticcio ma indica nelle cronache del 400 anche la graticola trainata da un cavallo su cui si portavano in processione i corpi dei condannati a morte la traduzione di R sopra una campanile dipende invece da una lezione che doveva essere del tipo sur une clé sopra una campana entrambe le lezioni presuppongono la degradazione di un originario anancloac l'opposizione dunque tra un cultismo sicuramente presente a monte di H ed R e con tutta probabilità nell'originale è la variante prettamente volgare Mardier che si può ipotizzare sia propria di beta e che sembra chiaramente essere una glossa messa a testo in effetti il sostantivo cloac che secondo i repertori è di piena attestazione trecentesca si ritrova almeno due volte in un altro volgarizzamento duecentesco proprio dei leggendari francesi la vie de Saint Hippolyte dove tra l'altro si trova sempre corredato da glossa la testimonianza combinata delle lezioni entrambe di fatto erronee attestate da H ed R consente dunque di ripristinare una lezione originaria retrodatando l'attestazione di cloac alla prima metà del duecento l'individuazione di una stemma sifatto permette inoltre di identificare per questo come per molti altri testi pertinenti a questa tradizione dei micro interventi redazionali propri di beta cioè di tutti i codici analizzati da Perrault per la ricostruzione del leggendario francese in prosa in Sebastiano beta interviene per esempio su un tratto stilistico che il volgarizzamento mutua direttamente dal modello latino la passio latina si caratterizza infatti per il frequente uso di temporali espliciti o ablativi assoluti del tipo cumette et similia diceret o ec et similia dicente alcune di queste frasi si ritrovano nella sezione omessa dal volgarizzatore francese e quindi non sono tradotte le rimanenti sono state fedelmente tradotte dal volgarizzatore ma in alcuni casi beta interviene sostituendo queste frasi fisse con varianti a diafore dallo stesso significato si vede per esempio il secondo ita et similia madre proseguente mentre la madre continuava a dire queste cose e altre simili fedelmente tradotto in H e poi in R che ha e mentre che la madre loro diceva queste cose con grandissime grida ma in beta abbiamo diversamente siccome il demenuette son del antie maniere con una significativa obliterazione dell'elemento enunciativo una varianza eliminare localizzata cioè a inizio frase paragrafo o testo sembra configurarsi come prerogativa redazionale di beta nel suo complesso passiamo a Vincenzo il ricco dossier geografico relativo a Vincenzo di Saragozza è stato a lungo studiato da Victor Saxer che ne ha allestito edizioni critiche per tutte le principali versioni censite la più diffusa detta comune e alla base di numerose rielaborazioni tra cui la cosiddetta versione di Saint Germain un cito Saxer rimaneggiamento meniori stilo della versione comune allestito nel nono secolo presso l'abbazia di Saint Vincent destinata poi a essere universalmente nota proprio come abbazia di Saint Germain de Pre questa è la versione volgarizzata dal leggendario francese Vincenzo è contraddistinto dai tratti tipici dei volgarizzamenti della prima stagione del leggendario francese in prosa il primo di questi è la riconversione funzionale del prologo il prologo già presente nella fonte latina in cui viene lamentata l'assenza di acta ufficiali sul martirio di Vincenzo e che la versione di Saint Germain aveva mutuato direttamente da quella comune viene sostituito da un prologo in cui il volgarizzatore illustra la necessità pedagogica e morale dell'ascolto delle passioni di martiri e lamenta in pieno stile omiletico come i suoi contemporanei siano più disposti a subire atroci sofferenze per il diavolo piuttosto che per Dio i rapporti tra i testimoni di Vincenzo possono essere riassunti nello stema che segue stavolta il solo volgarizzamento R si oppone all'intera tradizione francese conservateci che dipende da un unico subarchetipo R contraddistinto da una serie di errori che possono essere individuati soltanto dal diretto confronto tra il volgarizzamento e il modello latino e a volte soltanto grazie alla triangolazione dei dati interni alla tradizione quindi latina francese e fiorentina l'esempio più chiaro è dato dalle lacune sanabili soltanto appunto dal ricorso all'originaria fonte latina del testo esempio numero uno in beta si ritrova quasi interamente omessa la resa della temporale cunque retice rett episcopus rimane solo il soggetto lievesque e la lezione originaria can il ozze di lievesque si settù è ricostruibile sulla base della testimonianza di R che ha quando egli ebbe così parlato il vescovo sitacette ma soprattutto grazie al fatto che in altri testi sono attestati il medesimo costrutto ci sono varie attestazioni del medesimo costrutto regolarmente volgarizzate da R con la medesima struttura un altro caso in cui invece la tradizione latina francese fiorentina divergono ci si sta disfacendo del corpo di san vincenzo abbiamo l'ablativo assoluto nullo defendente ostacolo letteralmente gettate il corpo senza farvi fermare da alcun ostacolo il volgarizzamento francese omette questo ablativo assoluto R ha una relativa che dipende da campagna laddove persona non abiti il cui significato sembra del tutto indipendente rispetto a quello dell'originale latino la sua lezione più economica è la seguente la prossimità semantica di campum a locus desertus induce il volgarizzatore francese ablativo assoluto nullo defendente obstacolo con una relativa debitrice del versetto evangelico giobbe 38 26 ubi nullus mortalium colmoratur del tipo u personna bit questa frase appare infatti in forma pressoché cristallizzata in numerose altre descrizioni di luoghi isolati nell'intera letteratura romanza anche e specialmente nei testi di cui ci occupiamo e la sua fissità è perfettamente riflessa nelle traduzioni di Cherichi beta ovviamente si limita in questo caso a omettere la relativa piccola parte dei numerosi errori e lezioni singolari presenti in S1 il codice bibliotex en genevieve 587 individuato dall'iarescite come l'autore di una lezione un po' raccorciata e se uno è un leggendario composito la parte di nostro interesse è vergata da una mano di fine 200 allestito probabilmente nella Lorena questo leggendario è l'unica traccia squisitamente orientale del precocissimo transito che di fatto possiamo collegare tra secondo e terzo quarto del XIII secolo di leggendari prodotti in area piccarda ad est poi nel midi in particolare a Lione tanto vicina alla Ginevra in cui operava il Cherichi e in cui di fatto si trovò per alcune operazioni finanziarie e di qui nel Mediterraneo a Genova e Venezia tutti i testimoni concordano in errori in varianti comuni contro S1 ed R sin dall'incipit dell'Apassio le varianti che avevano indotto il redattore della scheda Iereshtè non sono dunque indizio di un rimaneggiamento di una versione un po' compendiata da parte di S1R bensì il contrario è il resto della tradizione beta a intervenire su un testo altrimenti pacificamente derivato dalla fonte latina la variante di maggior rilievo è quella dell'incipit in cui si notano due interventi la semplice resa volgare del costrutto in illo tempore tanto diffusa in sede eliminare nei testi ageografici in quel tempo quando gli uomini si impegnavano a esaltare la legge di Nostro Signore viene resa con un più complesso Vremont racconte la divina page che viene inserito il rinvia anaforico si convose a Vesui così come avete sentito in precedenza entrambe le innovazioni si spiegano nel contesto di una revisione complessiva dei testi inclusi nel leggendario francese in prosa lo stesso tipo di innovazione redazionale a livello dell'incipit si trova ad esempio in una passione del gruppo apostolico Filippo dove il prologo di tipo pastorale viene scorciato in beta con la frase siccome la divina page temo il rinvia anaforico siccome vos a Vesui si può infine spiegare come integrazione durante un processo di revisione di una serie azione martiriale ambientata durante il periodo delle persecuzioni per concludere possiamo ricavare alcune osservazioni operative alla luce dei casi che abbiamo osservato per prima cosa fatto piuttosto ovvio il volgarizzamento non può essere studiato soltanto come parte di una tradizione ma come parte di una rete di tradizioni lo studio di un volgarizzamento di volgarizzamento come la raccolta di Cherichi è un caso limite e insieme esemplare di questo aspetto esso in quanto volgarizzamento è opera di un singolo ma è anche una raccolta di testi che pertengono a stadi differenti di una tradizione attiva quella dei leggendari francesi in prosa abbiamo visto soltanto una sezione di questi differenti stadi i quali a loro volta attingono a una turbulenta tradizione di grandi collettori quella latina immediatamente precedente alla formulazione del leggendario un flandrense la seconda osservazione invece riguarda il tipo di conclusioni che si possono trarre coniugando analisi a livello del testo e analisi a livello della struttura l'annosa opposizione intuita da Meier e poi istituzionalizzata da Perrot tra passionale apostolico A e modelli BG diventa di fatto virtuale se proiettiamo tutti i dati a nostra disposizione essi fanno pensare piuttosto a un lavoro di equip in movimento in cui a un primo allestimento di lavoro corrispondente al passionario apostolico A che io chiamerei piuttosto alfa transitato immediatamente nel Mediterraneo segue la costituzione di un nuovo modello beta il modello da cui dipendono i leggendari BF e parzialmente G abbiamo visto e gli esempi si moltiplicano allargando l'analisi ad altri testi della raccolta che beta reca tracce di una revisione complessiva che si può dire redazionale il trattamento della tarsia latina in Vincenzo l'aggiustamento stilistico delle rese volgari di Ecke e Zimilia in Sebastiano la variazione dell'incipit con rinvia anaforico in Giorgio l'idea è quindi che questo lavoro di equip sia stato sottoposto a un'operazione che potremmo dire editoriale attiva anche a un minuto a livello lessicografico soltanto alla luce di una valutazione di questo tipo si può per esempio spiegare un fatto microscopico ma costante come vale a dire il fatto che beta sostituisce sistematicamente parmenable eterno con il suo sinonimo par durable si tratta di una variazione perfettamente a diafora è giustificabile soltanto come puro fatto di gusto di un singolo anonimo revisore ma che di fatto costituisce una spia per l'identificazione dell'appartenenza di un codice a beta o ad alfa e non sorprende che Kerichi abbia sempre il duro calco permanabile 45 occorrenze in conclusione lo scopo non è dunque soltanto quello di ricostruire un ur leggendario che sia a monte di tutti i leggendari francesi o del solo volgarizzamento fiorentino ma di mettere a frutto i dati a disposizione per dar conto di una tradizione che rispecchi chiaramente già nelle sue piccole nelle sue primissime fasi lo sforzo collettivo di una comunità grazie grazie a Laura in Gallinella che implicitamente ha un po' ripreso anche la domanda con cui si concludeva l'intervento di Cristiano Lorenzi Biondi non a caso avendo a che fare anche qui con intermediari francesi cos'è una redazione in che senso possiamo inserire volgarizzamenti varie versioni o redazioni di uno stesso testo in un unico stem e parlare quindi di archetipo sono queste un po' le questioni che agitano queste analisi a più strati anche linguistici chiamo quindi il secondo relatore Marco Bernardi il secondo relatore di questa sessione che alla fine si è configurata come una sessione tutta interna alla scuola normale Marco Bernardi infatti è assegnista alla scuola e ha al suo attivo già studi di altro genere di altra materia in primis Colocci lo suo Zibaldone e poi anche Orazio la trasmissione più che però la traduzione non la trasmissione i commenti a Orazio in area francese meridionale ma oggi invece l'argomento è un altro l'argomento è naturalmente in linea con il convegno e ritroviamo però il nostro Giovanni Cherichi quindi un evidentemente attivo in area a contatto con materiali galloromanzi e quindi in questo caso ci parlerà del Cherichi volgarizzatore del libro di Jean-Tisce Vallier di Philippe de Madien prego bene mi accodo anche io i ringraziamenti e parto precisando subito diciamo che il taglio che intendo dare alla mia comunicazione è leggermente differente a quello dei relatori che mi hanno preceduto nel senso che io mi occuperò piuttosto di aspetti storico-biografici intorno alla ricostruzione di questa figura di volgarizzatore che risponde appunto al nome di Giovanni Cherichi e alla ricostruzione di quel contesto che è possibile ipotizzare sulla base dei dati che abbiamo a disposizione a riguardo a questo personaggio come ha già precisato Laura in Gallinella sono attribuiti due volgarizzamenti in particolare uno è quello che è stato su cui si è soffermata in Gallinella poco fa che indicheremo con la sigla di R per indicare questo manoscritto ricardiano e l'altro è quello su cui più specificamente si è svolta la mia ricerca e che è contenuto in un manoscritto della biblioteca marciana che indicherò con M e che contiene appunto un volgarizzamento del libro D'Ugenti Chevalier Philippe de Madia mi scuso per un refuso che mi è sfuggito nel programma il titolo è Livre D'Ugenti Chevalier Philippe de Madia nel senso che Philippe de Madia non è l'autore ma è appunto il protagonista del libro ora spiegherò un po' meglio anche questa circostanza dovreste avere ricevuto anche un handout sul quale troverete nella tabella 1 l'elenco l'elenco dei manoscritti a cui potrà capitare di far riferimento nell'esposizione e che eventualmente vi invito appunto a tenere d'occhio allora è preciso che M è custodito appunto alla marciana dal 1713-14 quando vi entra dopo aver fatto parte delle collezioni di Giacomo Contarini che era un patrizio veneziano e che collochiamo cioè appunto della seconda metà del Cinquecento dicevo ho scelto giusto questo per collocare una fase della storia di questo manoscritto perché vedremo che è un elemento interessante anche per altri versi dicevo ho scelto questo taglio storico-biografico perché dal punto di vista testuale M non presenta una situazione così interessante e così oltretutto dettagliata e come dire propagginata come quella a cui ha fatto cenno e esemplificato appunto Laura in Gallinella sulla storia testuale di di M ecco qui sono i due manoscritti sulla storia testuale di M mi limito a far presente due presenti due aspetti il primo è che riguarda il testo che M contiene e che messo a confronto con i manoscritti del romanzo francese sono quattro li trovate sempre nella tabella 1 mostra di dipendere da un antecedente francese probabilmente più prossimo all'originale di quanto non non si possa dire degli altri quattro manoscritti francesi conservati ovviamente non c'è tempo ora di soffermarsi sull'argomentazione di questo l'ho fatto insomma in un articolo del 2014 che troverete in bibliografia qui ho dato una semplice esemplificazione di alcuni loci in cui messi a confronto lezioni di codici diversi francesi si vede che M normalmente è più prossimo a quello che di fronte a errori palesi mostra la soluzione testuale più più corretta l'altro aspetto che diciamo è tutt'altro che infrequente ed eccezionale è il fatto che questo volgarizzamento risulta molto aderente al testo francese con esiti linguistici a volte davvero peregrini un po' sorprendenti con calchi pesanti sia dal punto di vista lessicale che morfologico e sintattico ho messo una brevissima esemplificazione in molti altri casi si potrebbero ritrovare e vengo quindi al diciamo al cuore della 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 mia esposizione prima di soffermarmi però su Giovanni Cherichi vale la pena dire due parole sul come come hanno fatto anche le persone che mi hanno preceduto dire qualcosa sul modello francese quindi su questo libro d'Ugenti Chevalier Philippe de Madian di che si tratta intanto l'autore di questo per ora lo chiamo romanzo risponde al nome di Perrinee Dupin Perrinee Dupin è uno scuro cronista della prima metà anzi della seconda metà del Quattrocento attivo alla Corte di Savoia e a lui sono attribuite due alcune cronache relative a Umberto III Medeo III il Conte Rosso di Savoia che sono però redazioni degli anni settanta del Quattrocento si sa di Perrinee Dupin che probabilmente era ancora attivo nel 1482 quando sta raccogliendo dati per scrivere una nuova biografia relativa a Medeo VIII di Savoia che è il primo Savoia ad avere il titolo ducale ed è quell'Amedeo V che sarà poi l'antipapa Felice V questo giusto per contestualizzare un po' il periodo dicevo queste sono opere probabilmente della maturità di Perrine Dupin invece il libro d'Ugenti Chevalier Philippe de Magdian ha delle date che sono indicate da Perrine stesso nel prologo e nella conclusione del suo libro vi ho riportato i due testi in cui compaiono le date e queste date sono il 1447 anno in cui Perrine inizia la stesura del suo libro e il 1448 quando dichiara appunto di averlo concluso il libro è dedicato e questo è un altro elemento su cui torneremo a Anna di Lusignano che era la consorte di Ludovico I di Savoia figlio di quell'Amedeo VIII che ho ricordato poco fa e anche questo un altro elemento su cui ritornerò in breve la storia raccontata in questo libro d'Ugenti Chevalier molto brevemente perché è un romanzo molto prolisso sono 243 capitoli se non ricordo male una storia intricatissima in cui si intrecciano sostanzialmente due vicende una di tipo guerresco in cui Philippe de Madien che ecco apro una piccola parentese Philippe de Madien sarebbe il suocero di Florimond di Durat Florimond che sarebbe il protagonista del romanzo di Emond di Varène questo fa di Philippe de Madien il potremmo dire anche anzi Florimond sarebbe il bisnonno di Alessandro Magno quindi diciamo che questo romanzo inventato da Perrinee Dupin è un po' un prequel potremmo dire così molto alla lontana del romanzo d'Alexandro dicevo la vicenda riguarda la riconquista dei regnaviti di questo di questo Philippe de Madien e questa vicenda si intreccia con la storia d'Amor de Logn per Amor de Lille che è questa principessa africana con la quale però nonostante l'inizio d'Amor de Logn poi il protagonista convola giuste nozze ecco questo per quanto riguarda la storia quanto al genere ecco dicevo prima uso con una certa riluttanza la categoria di romanzo per definire questo libro perché esso ibrida ha anche tratti relativi ad altri generi come una certa attenzione per esempio per aspetti che potremmo definire amministrativi tipo il peso il prezzo di certi oggetti il numero di cavalieri impiegati in certe battaglie e così via in più presenta alcuni tratti che fanno pensare a intenti didascalico pedagogici e vi sono alcune vicende che sembrano allegorizzare fatti che riguardano la biografia dei dedicatari quindi è un po' potremmo dire un genere misto io credo in questo senso veniamo quindi a questo punto a Giovanni Cherichi e al suo volgarizzamento allora prima di tutto i dati che sono disponibili sono ricavabili direttamente dal manoscritto M che sono molto pochi il volgarizzatore si nomina in tre punti definendosi fiorentino in uno di questi punti precisa anche il pubblico a cui si rivolge perché c'è un passaggio ve l'ho riportato lo trovate anche al testo 1C dell'end out dove si dice di rivolgersi a nobili giovani toscani è un'indicazione che tornerà utile proprio per la collocazione dell'area di attività del personaggio quanto alla datazione non abbiamo elementi interni anche se possiamo trovare forse un indizio un indizio in R cioè nel volgarizzamento studiato da Laura in Gallinella che è invece datato come ricordava anche la relatrice che mi ha preceduto e che nel prologo presenta alcune indicazioni secondo cui Kerichi dichiara di essersi dedicato a queste biografie di Santi dopo aver passato del tempo a ricercare visitare antiche storie dovreste avere ecco qui sia il passaggio dove trovate la datazione 1461 e il passaggio in cui si parla di queste antiche storie ora se le antiche storie di cui parla nel prolago di R fossero come potrebbe essere plausibile le storie relative a Philippe de Vadiens avremmo qui nel 1461 ovviamente un terminus antequem per collocare la redazione di M e nel 1448 anno di conclusione del romanzo di Philippe de Madien da parte di Perrine e Dupin il termine spusquem il termine spusquem quindi abbiamo sostanzialmente un intorno di anni piuttosto circoscritto per la collocazione di M se questa ipotesi è corretta quindi siamo nella seconda metà del 500 e del 400 e verrebbe da dire a Firenze si rivolge a Toscani lui Fiorentino in realtà vediamo che proprio questo aspetto ci fa capire quanto sia eccentrico rispetto al contesto fiorentino di quegli anni il lavoro di Giovanni Cherichi nella seconda metà del XV secolo tradurre volgarizzare dal francese forse non è l'attività più frequente sono molto più frequenti i volgarizzamenti d'argomento umanistico e dal latino allo stesso tempo occuparsi di un romanzo cavalleresco in prosa di nuovo è un aspetto un po' particolare perché il momento in cui fioriscono i cantari in ottava è l'epoca del Pulci per intenderci e poi lo stesso rapporto col contesto sabaudo non è così scontato perché non era come dire il referente più con il quale la Firenze me dice aveva i contatti più frequenti quindi questa serie di circostanze ci invita a guardare in altra direzione per ricostruire il contesto d'attività del Cherichi dove indirizzare la ricerca un dato ci viene dalle filigrane dei manoscritti sia M sia R non c'è bisogno di premettere che ovviamente le filigrane vanno sempre maneggiate con una certa cautela non danno indicazioni sempre certe ma in questo caso indicano perlomeno una area verso cui guardare specie quando si scopre che la prima delle filigrane è quella a testa di bue vedete è una filigrana che è l'unica presente in M e che troviamo anche in R quindi questo diciamo depone anche a favore di un collegamento tra probabilmente tra i due manoscritti anche se l'autografia di M è un aspetto che andrebbe ulteriormente approfondita comunque dicevo queste sono filigrane che non circolano nell'Italia peninsulare non circolano in Toscano e non circolano nemmeno in Veneto dove il manoscritto è custodito almeno dal Cinquecento circolano invece soprattutto la prima in area ginevrina a Chambery e anche Chambery dicevo e poi in area a contatto con il Ducato di Savoia quindi la domanda che mi sono posto per la ricostruzione delle linee biografiche di questo personaggio era è attestata la presenza di comunità toscane fiorentine segnatamente in area ginevrina e indagando un po' più a fondo nella storia economica soprattutto di Ginevra e delle aree circostanti si scopre che intanto a Ginevra era attivo dal 1262 una fiera che richiamava mercanti un po' da tutta Europa e soprattutto dall'Italia e dalla Toscana in special modo tant'è vero che il Banco Medici aveva aperto nel 1429 la sua prima filiale extra italiana proprio a Ginevra e dal 1446 era attiva una nazione fiorentina cioè una associazione con finalità di mutuo soccorso e devozionale è proprio in questo contesto della nazione fiorentina attiva a Ginevra che troviamo in alcuni documenti la menzione di un personaggio un documento del 1471 relativo ad una vendita di una vigna personaggio che agendo come procurator della nazione fiorentina si firma o meglio è registrato come Ioannes Clerici ora Ioannes Clerici può ben essere come appare evidente la versione latinizzata di Giovanni Cherichi tanto più che lo stesso personaggio in altre fonti dell'epoca viene ricordato come Jean Clerc quindi addirittura una versione francesizzata del nome ho quindi provato a seguire un po' le vicende biografiche di questo personaggio come è possibile farlo sulla base dei documenti conservati all'archivio di Ginevra e in particolare il registro del consiglio generale che per fortuna è anche edito in edizione di inizio novecento trovate tutto indicato in bibliografia e si scoprono delle cose piuttosto interessanti in particolare ho cercato di vedere se da queste vicende poteva emergere potesse emergere qualche elemento che mettesse in contatto questo Ioannes Clerici con l'ambiente appunto della corte Sabauda o dei migli più direttamente collegati con essa il discorso che tenterò di svolgere adesso può essere seguito nella cronologia che è trovata al fondo dell'endout e oppure qua appunto in una sua prima parte ecco questo Ioannes Clerici che agisce come procurator della Nazione Fiorentina nel 71 lo troviamo due anni dopo a fare il suo ingresso nella borghesia di Ginevra nel essere registrato nel Livre de Bourgeois come il Nobilis Ioannes Clerici De Florencia Mercator da qui parte la sua parabola ascensionale la sua carriera nel 74 entra nel Consiglio dei 50 che era un consiglio che era stato istituito pochi anni prima per trattare di questioni delicate due anni dopo nel 76 entra nel Consiglio Ordinario che era l'organo collegiale più importante e nel 76 si colloca anche una vicenda storica che lo vede protagonista in prima persona nel 76 Carlo il Temerario di Borgogna attacca per espandere il proprio dominio attacca la confederazione delle città svizzere e Ginevra ottiene l'appoggio dei Savoia e Ginevra essendo parte del territorio controllato dai Savoia sotto la giurisdizione del vescovo Jean-Louis di Savoia fratello del duca dell'epoca dicevo Ginevra deve andare contro le città elvetiche peccato che le città elvetiche minacciano di porre a sacco Ginevra allora Ginevra si autotassa per pagare una taglia e a essere incaricato della riscossione di questa taglia insieme ad altri due personaggi è proprio questo Ioannes Clerici in seguito ecco Iannes Clerici tra l'altro dichiara di fare svolgere questa mansione per il bene della comunità e senza nessun compenso vedremo che questa cosa in realtà non stette proprio così in ogni caso nel 77 Clerici diventa sindicus almeno per un breve periodo cioè la più alta carica della città di Ginevra e in questo stesso anno troviamo come dire quell'elemento che ci permette di collegare la figura di Ioannes Clerici all'ambiente sabaudo perché un biglietto di Jean-Louis di Savoia il vescovo di Ginevra impone ai sindaci di Ginevra di versargli 100 ducati per una ragione che adesso non vale la pena approfondire ma incarica in questo stesso biglietto che Ioannes Clerici qui in realtà ha indicato come Jean Clerc di effettuare effettivamente questo versamento il che ci porta forse a ipotizzare che avesse funzioni di tesoriere o qualche funzione analoga mi soffermo brevemente su questo Jean-Louis di Savoia Jean-Louis di Savoia era figlio di Anna di Lusignano cioè proprio la dedicataria del libro Dugenti Chevalier Philippe de Madien e era lui stesso in primis un appassionato lettore di storie cavalleresche infatti oltre a possedere un manoscritto del Guiron Le Courtois che è custodito alla BNF di Parigi fu anche committente proprio di due manoscritti uno con Le Soir du Saint-Gral e un Merlin custoditi uno a Borusquel e l'altro sempre a Parigi alla BNF quindi ecco la collocazione nel DM in questo contesto appare tutt'altro che peregrina ecco nel 78 però quindi l'anno seguente la Ioannes Clerici lo troviamo sempre attivo come mediatore finanziario nei confronti di nobili della zona quindi contatto con alte società strati della società e dall'anno seguente inizia però la sua parabola discendente perché diventa viene potremmo dire indagato per essersi intascato circa 800 fiorini da questa esazione che si era verificata due anni prima quindi gli viene chiesto di rendere conto della sua amministrazione e curiosamente per un anno il suo nome scompare dai registri noto così a passant che il 1480 questo anno in cui scompare il nome di Ioannes Clerici è anche l'anno in cui Jean-Louis tenta di fare un pellegrinaggio in Terra Santa che lo porterà a soggiornare a lungo a Venezia un dato forse di un qualche interesse visto che lì poi sarà custodito il manoscritto di M dicevo chissà che i due elementi non possano essere collegati in qualche maniera però ecco i dati per il momento almeno per quanto ne so io mancano nell'81 Ioannes Clerici si appella a Jean-Louis al vescovo perché venga rivista la causa sostanzialmente dopodiché probabilmente viene incarcerato perché sappiamo che dopo quattro mesi viene scarcerato dopo essere stato custodito in domo episcopali quindi e viene scarcerato contro il parere dei sindaci quindi questi elementi ci portano a dire che probabilmente Ioannes Clerici aveva un rapporto privilegiato con questo Jean-Louis de Savoia da cui probabilmente risultava protetto ecco dopo l'81 sappiamo che nell'83 siamo nella seconda parte della cronologia i suoi beni vengono pignorati gli vengono poi restituiti perché possa rifondere la comunità di Ginevra e dopo l'86 però di fatto per un po' non abbiamo più notizie che lo riguardano a meno che non sia è probabile insomma non siano da riferire a lui altre due notizie dell'88 e del 91 da cui risulterebbe che il poveretto sostanzialmente si è ridotto sul lastrico probabilmente proprio per risaldare questo debito c'è una notazione nei registri del Consiglio Generale in cui si dice convenitor con Ioannes Clerici Ioannes Clerici ut meglius firi poteri qui a pau per est quindi probabilmente ecco morì in miseria dopo il 91 non troviamo altre menzioni che lo riguardano ma e mi avvio alla conclusione questi dati abbiamo detto siamo partiti dal 71 è probabile che con questo stesso personaggio vada identificato un certo Jean-Claire Florentin che è menzionato negli atti del processo intentato contro Jacques Coeur che era il tesoriere di Carlo VII e che è ricordato in questi atti come agente commerciale per una società che Jacques Coeur aveva fatto con altri due mercanti fiorentini e che vedono appunto questo Jean-Claire attivo intorno a me 447 tra l'Italia e la Francia sono inoltre da Laureen Gallinella me lo diceva poco fa anzi sarebbe utile un'integrazione su questo punto che ci sono altri documenti che lo indicano attivo tra Italia e Francia negli anni 50 quindi questo vedremo che appunto è un'ulteriore conferma per l'identificazione e quindi appunto vengo alle conclusioni e ricapitolo quanto ho cercato di esporre allora l'ipotesi ovviamente è che Ioannes Clerici finanziere fiorentino naturalizzato ginevrino possa essere Giovanni Cherichi volgarizzatore quali sono gli elementi quindi che li accomunano l'origine fiorentina sostanzialmente l'identità del nome e il fatto di vivere sostanzialmente nella stessa epoca Giovanni Cherichi è attivo sicuramente tra gli anni 50 e il 61 invece Clerici tra il 47 e il 86 c'è una larga fascia di sovrapponibilità entrambi sono poi in contatto col mondo transalpino Cherichi traduce dal francese usa carta d'area sabauda clerici attivo a ginevra e entrambi sono in contatto in maniera più o meno diretta verosimilmente con il milieu culturale della corte sabauda quindi per concludere mi sembra che se l'ipotesi dell'identificazione del Cherichi con il clerici non può dirsi provata con assoluta certezza vi sono tuttavia indizi che per qualità e numero mi pare invitino a ritenerla fortemente probabile grazie grazie a Marco Bernardi per questo la ricostruzione un po' di questo retroterra biografico e non solo è anche storico e l'intreccio fra le due cose certo da un fiorentino che fa il banchiere a Ginevra ci si può aspettare soltanto il peggio del peggio infatti però che illuminano anche invece e interrogano sulle ragioni di due volgarizzamenti così diversi per materia per impostazione l'uno dall'altro ma che certo spiegano i contatti col mondo francese propri di entrambi ma non rubo altro tempo e chiamo allora Federico Rossi per l'ultimo intervento della giornata dopo essere arrivati quasi alle soglie del Cinquecento torniamo quindi indietro anche Federico Rossi è normalista dottorando perfezionando anzi se non vado errato e il suo argomento ritorna quindi ad ambienti più antichi e anche ad ambientazioni meno esotiche rispetto a quanto abbiamo appena sentito e torna anche almeno così dal titolo al rapporto latino volgare il titolo infatti è latinizzazione d'autore o volgarizzamento il libellus conservante sanitatis dottorando alderotti prego grazie comincio anch'io ringraziando gli organizzatori e in particolare vorrei ringraziare Claudio Ciociola che quando ero ancora al primo anno di università mi ha fatto entrare in questo grande cantiere dei volgarizzamenti rispetto alle due relazioni che mi hanno preceduto facciamo qui veramente un triplo salto carpiato perché torniamo come diceva giustamente per il suo Leonardo molto indietro su un caso estremamente diverso su un tipo di testo che ancora non abbiamo affrontato cioè un testo di natura medica infatti il libellus conservante sanitatis è un regime sanitatis scritto sotto forma di epistola attributato al De Alderotti quindi c'è un breve prologo in cui si dice che il testo è stato scritto facendo seguito alla richiesta qui us da mamma in cimei multamidi lezioni steneritate coniunti poi torneremo sul prologo anche per vedere cosa succede nelle redazioni volgari seguono una serie di prescrizioni che riguardano l'igiene generale la corretta alimentazione la condotta da tenere dopo i pasti e il sonno e infine indicazioni sul regime di vita da seguire nelle varie stagioni l'operetta è anche nota come regime in percorso donati sulla base della rubrica di uno dei più antichi testimoni della versione latina un ambrosiano indicazione tuttavia che finora è isolata nella tradizione e come vedremo ha una risposta sorprendente nei testimoni volgari e sulla base di questa ssd si è anche proposto di datare il test al 1293 quando corso donati era a bologna in qualità di capitano anche se l'argomento non è realmente provante e alcuni pensano che si possa addirittura arrivare al 1295 in quanto altri testimoni del testo latino dicono che Teddeo scrisse l'opera nell'anno in cui morì ma soprattutto del testo è nota fin dal settecento una redazione involgare nota come livello per conservare la sanità del corpo redazione non è che un'ipotesi critica ormai invalsa ma mai realmente dimostrata vuole essere addirittura la versione originale dell'opera che in questo caso si candiderebbe a essere il primo testo di argomento medico scritto direttamente al volgare di sì preceduto naturalmente in ambito romanzo dal regine anducordia e aldobrandino da siena e si comprenderà facilmente la rilevanza di un libello composto direttamente involgare dall'alderotti che sarebbe quindi espressione di quale interesse per la cultura volgare da parte dei medici dello studium bolognese già più volte rilevato che i suoi frutti più insigni nella traduzione dell'etica nicomachea attribuita anche se con qualche incertezza allo stesso Teddeo nella questione di felicità dedicata a Giacomo da Pistoia a Cavalcanti e nel commento di Dino del Garbo a Donna Meprega dello stesso che a Cavalcanti anche la dedica a corso donati ha naturalmente sollecitato la curiosità degli studiosi dato che il sogno a gentile ha supposto che si possa vedere un'allusione al libello in un passo del convivio che vi ho riportato nella diapositiva quando come esempio di dono che non è veramente utile a chi lo riceve si dice come quando uno medico donasse a uno cavaliere iscritti gli anforismi di Pocras ovvero i tecni di Galieno e vedremo in chiusura di questa redazione se e a che livello si può compiere questa identificazione e a loro volta a Giorgio Pasini che sono editor di un'antologia di consiglia del medico fiorentino hanno messo in relazione i libelli sulla salute considerati cito piccole enciclopedie mediche brevi piacevoli da leggere destinate ad assistere alla ricca classe borghese emergenti a divertire i nobili e hanno messo in relazione con il nuovo contesto in cui l'uso della lingua volgara acquisì rispettabilità letteraria suggerendo addirittura che i cittadini benestanti leggessero insieme le poesie di Cavalcanti e il libello di Taddeo quindi è nata un po' questa leggenda di un libello come testo scritto direttamente in volgara addirittura ad intrattenimento che lo dico subito è qualcosa di molto diverso da quello che effettivamente è però sulla precedenza ad accordarsi la versione latina o quella volgara dell'opera le opinioni degli studiosi sono state apertamente contrastanti e la questione non è mai stata impostata con soliti argomenti dato che l'idea che sia stato Calderote abbia scritto il regimen prima in volgare sembra ad attribuirsi in primo luogo alla notorietà della redizione del testo che si riteneva Zibaldone Andreini un codice allegato già agli accademici della prima crusca ritenuto fino almeno a tutto l'ottocento molto più antico di quanto sia perché è un codice vedremo quattrocentesco ma che si riteneva di almeno un secolo antecedente che quindi ha dato la base sostanzialmente per quasi tutte le edizioni di questo testo però chi si è occupato di questo codice di solito non ha esitato a parlare del libello come opera scritta direttamente in volgare addirittura ignorando l'esistenza di una redazione latina non ponendosi il problema mentre altri soprattutto gli storici della medicina che hanno studiato l'alderotti latino quello del commento al canone di Avicenne e di altre opere hanno pensato quasi naturalmente a un'opera scritta in latino e poi volgarizzata ma in nessun caso si è tentato di mettere a confronto effettivamente le due versioni per capire in quale direzione può andare il processo di traduzione addirittura lo storico della medicina Francesco Puccinotti che nell'Ottocento pubblicò fianco a fianco le due redazioni dell'opera latina e volgare rinunciò dichiaratamente al confronto schierandosi per la precedenza del volgare sulla base di motivazioni decisamente deboli in particolare della fama di Alderotti come volgarizzatore dell'etica e negli ultimi anni l'idea di una genesi volgare dell'operetta sembra essersi affermata quasi per inerzia e anche un po' diciamo per il piacere di farne il primo esperimento di divulgazione scientifica d'autore in volgare italiano ancora segno argentino non ha esistato a parlare di incunaburo del convivio dando quindi a questo testo un grande rilievo che deve assolutamente essere verificato inoltre dall'attribuzione del libello volgare alle penne dell'Alderotti sono discese a cascata quelle di una serie di altri testi che lo accompagnano nei manoscritti e quelli che vedevamo prima nella relazione di Fiametta Papi serie di attribuzioni che risale sostanzialmente all'operum series premessa da Follini a due manoscritti nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in cui in entrambi alla fine del libello che è sostanzialmente l'ultimo testo o l'ultimo testo della serie si dice Ecclicit Liber Magistri Taddei quindi si è pensato che l'intero insieme dal volgarizzamento del brevilocchium in avanti fosse tutto volgarizzato da Taddeo la base probatoria naturalmente è molto fragile ma questo non ha attribuito che in una parte consistente della bibliografia recente traduzioni come il Valerio Massimo che poi in realtà è il nostro brevilocchium di Giovanni Gallico nella redazione A di Barbie una raccolta di sentenze gli atti di filosofi e un compegno volgare del Secretum Secretorum siano stati attribuiti con nonchalance a Taddeo vorrei quindi provare a sottoporre questo castello di ipotesi a verifica analizzando le redazioni volgari perché in realtà vedremo subito che se ne possono identificare due diverse e mettendole in confronto col testo latino per individuare in quale direzione vada il processo di traduzione in primo luogo è stato necessario fissare una lezione affidabile sia per la versione latina che era stata pubblicata sulla base del solo testimone più antico quello che alla dedica a Corso Donati sia di quella volgare per il latino mi sono limitato a una collazione a campioni di una serie di manoscritti in particolare più antichi senza volere proporre un testo critico anche perché è un numero di codici nettamente più numeroso mentre per il volgare ho collezionato l'intero testimoniale rimanendo alcuni codici non ancora segnalati per arrivare veramente alla costituzione di un testo critico quello che vi presento comunque al momento è ancora provvisorio rivedendo il testo volgare del libello per la conservazione della sanità del corpo cioè il testo già noto in passato la prima cosa che salta all'occhio che sottolineo ancora una volta è la necessità di abbandonare decisamente la preminenza data in passato allo Zibaldone Andreini dato che il testo del libello di un Zibaldone Andreini che è quello che di fatto è stato riproposto fino in epoca recente ha una lezione altamente idiosincratica perché il libello è inserito in un Zibaldone personale con molte variazioni e questo di fatto ha portato ad avere una percezione decisamente distorta di quella che è la faccia del volgarizzamento vediamo subito in questa slide come il testo critico da me costituito sulla base di tutto il testimoniale si avvicina molto di più al testo del libello latino al testo latino di quanto non sia effettivamente per la redazione dello Zibaldone che spesso a brevi amescola i periodi e in basso a destra abbiamo inserito anche un piccolo riscontro con un compendio volgare del secreto pubblicato da Milani nel 2012 dove sono fatti dei prelievi che già Milani riconosce dal libello di Taddeo Alderotti ma che ricostituendo il testo critico è possibile verificare molto più largamente perché alcune parti che erano state eliminate nella redazione dell'Ozebaldone Andreini come questo che ho sottolineato in questa diapositiva stesso discorso in una diapositiva successiva non messo fermo sui testi per motivi di tempo naturalmente si possono rintracciare proprio nel testo critico quindi è molto vicino alla redazione latina ma soprattutto studiando la tradizione del libello sono emersi due testimoni di una diversa redazione del testo finora rimasta sconosciuta agli studiosi alla fine più avanti vedrete anche le due diapositive con le segnature dei codici che ora vi dico un po' velocemente ma i due testimoni in questo caso sono il secondo quarto 33 della Biblioteca Nazionale di Firenze dove la presenza di un libello della sanità conservare composto da Maestro Taddeo era già nota al Biscioni poi segnalata alla Mazzatinti ma comunque è sfuggita a chi in epoca più recente si è occupato del testo il secondo testimone è il Pluto 73-48 della Biblioteca Medicina Laurenziana dove la presenza del testo alderottiano non è mai stata rilevata in primo luogo a causa di una situazione testuale turbata di una rubrica in parte fuorviante del fatto che le parti del testo sono montate in una sequenza diversa da quella consueta per cui anche chi ha descritto il codice nell'ambito della catalogazione di una serie di manoscritti di argomento medico non ha riconosciuto di fatto l'operetta ma se mettiamo a confronto le due versioni ci rendiamo conto che non sono soltanto due diverse redazioni dello stesso volgarizzamento ma addirittura due diversi volgarizzamenti scusate io sto già dicendo volgarizzamenti penso che mi sia sfuggito un po' di volte quindi avete già capito qual è la mia soluzione cioè questi sono volgarizzamenti non è un testo nato in volgare e poi latinizzato dall'autore stesso come vedremo si diceva ma arriveremo anche a questa dimostrazione però prima volevo stabilire la differenza fra queste due redazioni nel caso che vedete nella diapositiva il testo volgare B è per certi aspetti più vicino della redazione A con quella consueta per esempio nell'ordine delle parole nella collocazione iniziata di non osservando però non si può pensare che A sia una parafrasi di B nel senso in una maggiore vicinanza all'uso volgare dato che in altri casi è B a discostarsi maggiormente dalla versione latina per esempio consistenziam tradotto con sostanza in B ma in A con consistenza termine probabilmente strane nell'uso volgare dato che le prime le prime occorrenze nel corpus ovvi si trovano addirittura con il commento di Francesco Dabuti quindi molto più avanti questa diventa a questo punto la prima occorrenza censita in volgare che invece nell'altro volgarizzamento non troviamo ma soprattutto la redazione B si distingue dal testo A e dal latino per alcune varianti che non sono assolutamente spiegabili come accidenti di tradizione in questo passo che vi ho portato l'aggiunta al riferimento al comandamento del nostro signore Dio ma le varianti più significative le troviamo nel caso successivo dove addirittura nel volgarizzamento B troviamo un sorprendente cambio di destinatario dove il destinatario generico che vi ho letto in apertura nel latino che nel volgarizzamento A è semplicemente mosso a preghe per amore da alcuno mio amico diventa io Taddeo mosso per lo prego amore deneri mio signore amico per sua utilità e ancora più avanti nel passo successivo quello che era un amico carissimo diventa lo stesso volgarizzamento signore mio amico peraltro si può anche notare come la caratterizzazione di uomini che vivono al modulo delle bestie nel latino nella versione di A diventi un po' venga un po' attenuato in uomini che vivono non bene perché forse in presenza di un destinatario estresso dirgli che vive il costume delle bestie poteva essere non particolarmente gradito ora simili varianti sembrano da escludere da scriversi a interventi d'autore cioè non sono interventi di copista naturalmente tra l'altro l'inserimento e il volgarizzamento B di Io Taddeo il soggetto espresso porta anche ad escludere che il cambio di dedica avvenga nell'ambito di un tentativo di appropriazione del testo da parte di altri cioè qualcuno che volgarizzi il testo per un altro destinatario escludendo l'originaria autorealità l'originaria destinatario corso donati e ci possiamo chiedere come si spieghi la presenza dei più destinatari Puccinotti che non era corrente delle due redazioni ma sapeva da Biscioni che esistevano diverse dediche in circolazione ipotizzava che Taddeo avesse indirizzato l'opera a diverse persone provvedendo addirittura a trasferirlo da una lingua all'altra a seconda della necessità quindi quando lo voglio mandare a corso donati glielo mando in latino quando lo voglio inviare a questo neri che non sappiamo ovviamente chi sia glielo invio in volgare resta da verificare tuttavia quanto una simile pratica sia attestata nella produzione scientifica medievale e soprattutto sembra poco verosimile che Alderotti abbia potuto inviare di fatto lo stesso testo perché queste varianti minime sono le principali in ordine dei contenuti a più destinatari appena cambiando il nome cioè sarebbe qualcosa di francamente poco verosimile un'altra spiegazione che si può ipotizzare è che il testo nasca con una dedica specifica quella nera che troviamo nel testo nel testo volgare B resa poi più generica in vista di una più larga circolazione dell'opera però a questa ricostruzione prescinda a questo punto dalla dedica a corso donati che allora andrebbe giudicata spuria entrambe le dediche sono testimoniate in modo notevolmente incerto perché quella del libellus a corso donati lo ricordo è solo in un ambrosiano l'ambrosiano i108 superiore unico testimone su 17 del latino a testimoniare la dedica mentre quella neri è un personaggio non identificabile è nota finora solo in questo in uno dei due manoscritti della direzione volgare B quello della biblioteca nazionale mentre nel Pluto il destinatario è indicato soltanto come signore ed amico in entrambe le occorrenze e quindi per raggiungere maggiori certezze sarebbe necessario in primo luogo esplorare compiutamente la tradizione latina dell'opera per verificare se succeda qualcosa a livello di dedica anche se chi ha censito i manoscritti non ha segnalato nulla di simile dopo i paragrafi successivi il testo scorre senza significative varianti nei contenuti fra le due redazioni volgari qui ho riportato altri brani in particolare per mostrare come da un passo all'altro in alcuni casi è la redazione A a mantenersi più vicina al testo latino in questo caso in particolare anche se con le dovute accezioni perché in questo stesso passo c'è un validas del latino che rimane forte in B e molti in A quindi in questo caso invece diremo che è B a conservare maggiormente nel caso successivo abbiamo scusate se non li leggo dovete un po' fidarvi ma purtroppo le cose da dire sono tante ma spero che la linea argomentativa risulti chiara la redazione A presenta tratti di maggiore vicinanza al latino per esempio nella relativa a che tu mangerai o nel mantenimento del participio seguente ma al tempo stesso è B a rendere fermentato sconformentato mentre nel testo A sia lievito cambia la resa di viscera che è interiore in A e budella in B quindi da tutto questo si vede che i testi sono spesso molto vicini ma nessuno dei due può derivare dall'altro dato che essi si discostano alternativamente più o meno dal testo latino non si può dire ce n'è uno più vicino al latino da cui poi deriva l'altro o uno viene tradotto in latino e poi ne deriva l'altro ma l'ipotesi più economica sembra essere quella di due differenti traduzioni di un modello latino sostanzialmente unico ad eccezione di quelle poche varianti che abbiamo dato nel prologo ora questa ricostruzione naturalmente entra in collisione frontale con un'opinione ormai data per certa quella appunto secondo cui il regime di Taddeo Alderotti avrebbe visto la luce proprio come opera volgare occorre dire che questa ipotesi assai suggestiva non è confermata nell'analisi testuale dato che da entrambe le versioni emergono indizi abbastanza sicuri che abbiamo a che fare con un volgarizzamento tralascio subito l'argomento della presenza di latinismi lessicali dato che si potrebbe pensare all'interferenza dell'abitudine di Taddeo a scrivere in latino anche nella composizione di un'opera volgare abbiamo ricordato che volgarizzare era prima di tutto una situazione mentale quindi anche nello scrivere un libello volgare sarebbe stato il tutto naturale che un medico usasse dei latinismi tecnici nel caso della terminologia tecnica e della medicina addirittura sarebbe fuorviante per ragionare in questo modo già maggiore peso iniziando con il volgarizzamento A alla presenza di latinismi sintattici e ve ne ho riporto solamente un caso quello in cui un nesso relativo viene reso con una traduzione parola per parola abbastanza dura che è difficile pensare sia composta direttamente in volgare in un testo di questo tipo che non è un testo letterario di un boccaccio dove si può latineggiare sintatticamente ma sembra veramente preso di peso dal latino un indizio parlante è anche l'inserimento di glosse per esempio unicum tb cibum diventa ma prendi solo di uno cibo cioè di una vivanda la flebotomia che in questo caso è un termine tecnico mentre il cibo francamente è una parola del tutto usuale diventa flebotomia cioè infatti scemare del sangue cioè proprio io traduco riproduco il termine tecnico ma inserisco anche una glossa per rendere per spicco il significato ma la prova veramente risolutiva risiede nel fatto che si trovano nel testo almeno un paio di errori di traduzione il primo ve l'ho inserito anche se è un caso abbastanza delicato perché comprenderete come ed uno medesimo cibo è una lezione che deve essere accertata con estrema attenzione però in una parte importante della traduzione c'è proprio questo et scritto tutte le lettere poi d'uno medesimo cibo che sarebbe una lezione d'uno medesimo cibo fa uno bene un altro male facilmente scartabile che infatti in altri manoscritti decade se non fosse che nel latino troviamo una frase con deo dem cibo ale quim veniuntur qui uvamentum recipient e tali recipient documentum quindi sembra che in cui il volgarizzatore abbia iniziato rendendo parola per parola deo dem cibo ma poi abbia avuto difficoltà nella sintassi di quello che segue e abbia finito per scorciare non più facile uno medesimo cibo fa uno bene e un altro male ma l'errore veramente sicuro che porta a dire è una traduzione è il caso successivo dove la relativa ut cibus per membra discurrat mellius operatur viene tragicamente fraintesa dal traduttore che rende ut come come e a quel punto è consapevole a gestare la sintassi come meglio sa come il cibo per le membra discurrendo meglio ad opera ottenendo una frase che forse non ci insospettirebbe troppo se vista in sé per sé ma che sicuramente è un travisamento dell'originale naturalmente questo non solo ci dice che è un volgarizzamento ma ci dice anche che il traduttore non è Tadde Alderotti perché difficilmente l'autore del testo avrebbe potuto incorrere in svisto di questo genere traducendo il proprio testo nel secondo caso in questo caso un forte argomento in favore di un volgarizzamento all'inserimento di utologie ne troviamo diverse il bello medicinale all'inizio che diventa medicinale è utile purga buntur saranno più purgate e nette ma la complessione che diventa la maleria compressione anche in fondo è il contrario che diventa contrario e nocivo diciamo che quattro di utologie di questo tipo sono già un indizio di un po' attitudine del volgarizzatore in nessuno di questi casi peraltro c'era la necessità di spiegare una parola possibile sembra più che altro un vezzo uno stilema ma possiamo immaginare che se il testo a destra fosse l'originale in almeno uno dei quattro casi sarebbe stata mantenuta anche nel latino perché ci sono delle litologie del latino che vengono tranquillamente riflesse nel testo volgare ma soprattutto anche in questo caso troviamo alcuni errori di traduzione uno è lo stesso uti di prima che evidentemente era difficile dato che qua uti diventa un perciò che lo cibo discorre meglio per le membra e meglio ad opera che se fosse puro dove che se fosse puro è chiaramente una zeppa inserita a quel punto per tenere in piedi un periodo che altrimenti non reggerebbe in caso successivo è un fraintendimento dell'imperativo che diventa che tu usi in caso successivo ancora è un fraintendimento stavolta di tipo semantico perché si parla di come compiere il sonno bisogna rivolgersi prima su un lato poi sull'altro poi rivolgersi nuovamente e quello che era poste al complendum un sonno un tu un itero un superdextro latere convertaris diventa e poscia che avrai il tuo sonno compiuto che invece vuol dire un'altra cosa perché il testo vuol dire tu fino alla fine del tuo sonno volgeti su un lato e questa era una cosa per loro importantissima perché era un caso su cui i medici ti davano battaglia vicenda indica certi lati il segreto un segretore un altri quindi non era un dettaglio ininfluente poscia che avrai il tuo sonno compiuto dopo che avrai compiuto il tuo sonno vuol dire chiaramente un'altra cosa in un caso del genere non possiamo essere certi che il volgarizzatore non avesse davanti un testo latino corrotto naturalmente per rifarsi un po' al monito che ho già stato dato più volte di stare attenti prima di dare la colpa ai volgarizzatori ma questo in questo caso non cambia perché se il testo che il volgarizzatore aveva davanti era un testo corrotto a maggior ragione non sarà l'autore stesso a lavorarci quindi una volta spero che vi ho convinti del fatto che abbiamo a che fare con un anzi con due volgarizzamenti vorrei analizzare brevemente la tradizione di questi testi per vedere come essi circolavano in che ambito e in che periodo essi possono essere nati quindi vi presento prima di tutto l'elenco dei testimoni del primo dei due il libello per conservare la sanità del corpo quello che come vi ho detto è stato a lungo pubblicato da Ezebel Donald Reini ma di cui ho potuto rintracciare altri cinque testimoni alcuni dei quali mai segnalati in particolare l'ultimo un codice emerso nella circolazione delle aste sono in tempi abbastanza recenti e come abbiamo visto prima nella relazione di Fiametta Papi sono tutti codici che hanno uno stesso blocco di testi costituito dal volgarizzamento A del breviloquium dalle sentenze dette di filosofi da un compendio volgare dei capitoli morali del secretum e dal libello i testi che si presentano in quest'ordine nei manoscritti che ho siglato L, GR ed F2 mentre in S e in F1 l'ordine è rivoluzionato nel caso del manoscritto di Filadelfia sappiamo che l'ordine del codice che oggi è frammentario era quello che vi ho riportato perché abbiamo ancora le carte di confine fra un testo e l'altro nel secondo caso il riordino dei testi si inquadra nella costituzione di una raccolta più ampia di testi tipo di attico morale perché appunto vi ricordo che F1 è per l'appunto quel nazionale centrale secondo secondo 146 su cui già ci siamo soffermato prima quello per intenderci con la miniatura di Traiano e la vedovella che ha una raccolta ben più vasta e prende anche altro materiale comprende la fiorita di Guido della Pisa comprende le canzoni di Bindo Bonichi la canzone Patria degna di Triunfo al fame e altri testi ancora in G ed R scusate sono aggiunti in fondo alla serie i capitoli fide cristiani del Gidio Romano che peraltro in un codice troviamo in volgare e nell'altro in latino che questo meriterebbe un ulteriore approfondimento ancora una volta comunque un testo di taglio di Descalco moraleggiante e in due codici si inserisce inoltre il fiore di virtù anche se la posizione è diversa e la collazione fa pensare che questa aggiunta venga in diversi punti dello stemma cioè non è un dato che li apparenti ancora una volta un trattato comunque dello stesso genere in G che non presenta perturbazioni dell'ordine del nucleo originale e il fiore è allocato opportunamente dopo il compendio del secretum e prima del libello dato che la sua materia naturalmente ha più a che fare con quella morale del secretum che con quella medica del secondo ma l'accostamento fiore di virtù brevilocchium ritorna in quest'ordine anche nel ricardiano 1375 dove fra i due testi è inserito un ulteriore cioè il trattato di Bono Giamboni della miseria dell'uomo questo per dare alcune indicazioni su altre tradizioni che incrociano la nostra come abbiamo già visto nel caso del brevilocchium che possono aiutarci a capire meglio come si è formato questo genere di miscellane e morali in G poi sono le aggiunte al fiore di virtù presenti probabilmente già in antigrafo eccetera eccetera quindi il volgarizzamento A del libello sembra avere circolato prevalentemente in miscellane e morali collocazione che ai nostri occhi può apparire un po' incongrua ma doveva essere decisamente meno sorprendente nel tardo medioevo dato che anche il secretum secretorum documenta qualsiasi stessa convivenza tra morale e medicina del resto proprio il testo del secretum dà ragione dell'accostamento tra il compendio e il livello infatti nell'opera pseudoeristotelica ai capitoli morali quelli appunto riassunti nel compendio seguono una parte medica e un regimen sanitatis su cui esattamente si basa il testo di Taddeo Alderotti quindi è qualcuno direi che ha redatto il compendio o se l'ha trovato a disposizione direttamente in volgare questo è un compendio peraltro che non fa riferimento a un compendio latino ovviamente è composto direttamente in volgare dovendo poi arrivare a compendiare o comunque ad accostare la continuazione del secretum cioè la parte medico-sanitaria ha preferito volgarizzare il libello di Taddeo un'opera più recente o al limite aggiungere il volgarizzamento già esistente del libello praticamente sostituendo la trattazione del secretum con una trattazione di argomento analogo dovuta al più celebre medico dell'epoca nucleo originale che si sarà presto associato a quello formato dal volgarizzamento A del brevi loquium e da sentenze di atti di filosofi per poi conoscere una successiva aggregazione che raggiunge l'ampiezza massima in F1 mettendo sempre più in minoranza la materia medica del libello che a quel punto sarebbe stato trasferito da un test all'altro semplicemente passivamente per inerzia senza che se cogliesse ormai più legame con il compendio del secretum che lo precedeva non mancano infatti i codici in cui brevi loquium sentenze e compendio del secretum si presentano in assenza ormai del regimen in un codice biblioteca nazionale di Firenze in un londinese eccetera sono casi probabilmente in cui in origine c'era anche il libello che però percepito ormai come estraneo ai contenuti morali è stato semplicemente lasciato cadere l'indagine sulla tradizione di questo libello quindi ci porta a interrogarci sulle motivazioni dell'allestimento di miscelinari di questo tipo e questo naturalmente ha implicazioni di storia culturale ma anche delle concrete conseguenze da un punto di vista stammatico dato che studiare il libello aiuta a classificare parti dei testimoni di altre opere che incrociano la tradizione con la sua come quella del brevi loquio per arrivare al volgarizzamento del tesoro al fiore di virtù al libero quindi attacendi eccetera del tutto differente invece qui sarò più breve la tradizione del volgarizzamento B in questo caso il contesto non è morale ma medico o come avrebbe detto il medioevo fisico infatti i due testimoni contengono in una stessa successione di testi costituiti dal volgarizzamento anonimo del regime du corps non quindi quello di zucchero bencivenni un liber medicinarum che mi risulta inedito il libello è una ricetta dell'acquavite il libello della sanità a conservare nei due testimoni del testo quindi accompagna la traduzione anonima del secretum e sarà necessario proseguire le ricerche su quest'ultimo testo per verificare se in altri suoi testimoni non vi siano nascosti altri testimoni del volgarizzamento di Taddeo Alderotti dato che essi potrebbero essere sfuggiti ai catalogatori se interpolati all'interno del trattato del Dobrandino è proprio quello che accade nel codice laurenziano il pluteo dove il volgarizzamento del libello è interposto fra i primi tre libri e il quarto della sanità del corpo insieme al libro medicinarum e alla ricetta dell'acquavite un fenomeno naturalmente degno di attenzione che si può spiegare ancora una volta come un'esigenza di razionalizzazione dell'ordine dei testi dato che il quarto libro della sanità del corpo è relativo alla fisionomia materia decisamente più lontana da quella di progetti di sanità invece che riguarda il fatto di come riconoscere determinate persone con ricadute morali una persona con un certo carattere sarà fatta in un certo modo eccetera quindi si può immaginare che con l'andare del tempo la fisionomia fosse sentita come un testo di genere differente rispetto alle prescrizioni mediche che la precedono e la seguono e quindi fossero raggruppati i testi medici prima della tradattazione fisionomica relegate in ultima posizione cosa peraltro che osserviamo anche nella tradizione di altre versioni del regime du corps nello zibaldone andreini dove c'è il volghezzamento di zucchero ancora una volta c'è una fisionomia separata dal resto preceduta da una serie molto interessante di testi che qui non abbiamo modo di analizzare in conclusione l'analisi di radiazioni volgari del libellus conservandi sanitatis ci impone sicuramente di abbandonare l'ipotesi di una genesi volgare dell'opera quindi quello che ha potuto apparire a qualcuno in un cunabolo del convivio rivela la sua natura di più convenzionale regimen sanitatis solo in un secondo momento l'opera fu volgarizzata nel contesto dell'allestimento di antologie volgari di testi fisici o morali e i più antichi testimoni delle redazioni volgari di entrambe datano direi al secondo quarto del trecento in questa veste il libello conobbe una buona diffusione che anche se non raggiunse i numeri della redazione latina si è stesa comunque a quasi due secoli e a tutta l'area toscana come si comprende dalla caratterizzazione linguistica dei manoscritti su cui ora non mi sono soffermato bisognerà quindi rinunciare all'idea di un alderotti divulgatore di medicina involgare ciò non porta però a svalutare il suo ruolo di divulgatore nel senso più comune del termine merita infatti attenzione il trattamento che il medico fiorentino gli ricò alle sue fonti componendo il libellus dato che lo schema fondamentale è offerto come è noto dal regimen inserito nel secretum secretorum ma la trattazione pseudo-aristotelica sentita evidentemente da Taddeo come troppo sintetica e in alcuni casi contrastante con quello che Alderotti poteva leggere in fonti sentite come più autorevoli viene integrata un caso su tutti è il canone di Avicenna che doveva essere per Taddeo Alderotti la principale autorità infatti di medicina e quindi in più casi sono inserti avvicenniani che vanno a correggere le prescrizioni del secretum secretorum ma siccome testi come il canone sono assai più complessi sono scritti per medici hanno un'ottica specialistica e spesso per esempio delineano anche il quadro teorico filosofico che sta alla base delle singole prescrizioni qualcosa che certo non sarebbe interessato a un corso donati o un neri che sia è necessario ancora una volta inserendo questi prelievi agire nel senso della semplificazione per cui nell'attingere da vicenda come anche si potrebbe dimostrare da altri testi della medicina araba Taddeo semplifica questa operazione avvicina notevolmente il libellus agli esiti del regime du corps tant'è vero che si potrebbe chiedersi fino a che punto questa vicinanza sia casuale se anche il regime non fosse sul tavolo di Taddeo come possibile parallelo volgare ci sono alcuni paralleli testuali abbastanza forti ma prima di conoscere molto bene la situazione delle fonti latine di ambito medico in gran parte inesplorate e molto maledite è meglio non arrischiare ipotesi troppo ardite comunque mettendo insieme qualcosa di più ricco rispetto alla scarna esposizione del secreto ma anche di fortemente divulgativo lontano dalla complessità dei modelli arabi Taddeo compie di fatto una riuscita mediazione tra la scienza islamica e la divulgazione pseudo-aristotelica due ambiti in genere considerati come rami ben distinti nella produzione medievale di argomento medico-sanitario quindi concludendo vorrei tornare al parallelo col convidio per dire che l'operazione di Taddeo è nella sostanza ben diversa da quella ridicolizzata da Dante in cui uno medico donasse a uno cavaliere iscritti gli anforismi di Pocras o i tecni di Galeno il medico fiorentino infatti non invia al suo dedicatario una copia delle sue autorità di riferimento troppo lunga e complessa per il lettore specialista ma al contrario ne estrae una serie di precepti facilmente applicabili quale che potesse essere quindi il malanimo di Dante verso Taddeo come verso l'ipotetico destinatario corso donati non si può certamente inquadrare al libellus come esempio del dare cose non utili al prenditore negando Taddeo Alderotto e qualsiasi rapporto con le redazioni volgari del libello infine verranno meno necessariamente anche altre attribuzioni al medico fiorentino di testi con esso collegati si potrà semmai ragionare in senso opposto questo è l'ultimo suggerimento chiedendosi se i volgarizzamenti dell'operetta siano dovuti alla stessa mano dei testi che costantemente li accompagnano quali il compendio volgare del secreto nel brevi loquium nel caso del volgarizzamento A o il liber medicinaro nelle recette dell'acqua vita nel caso del volgarizzamento B quindi lo studio dei volgarizzamenti e del liber conservante sanitatis offre un piccolo ma spero significativo contributo alla storia della divulgazione scientifica in volgare di sì grazie grazie anche a Federico Rossi che ha dimostrato come la fame di volgarizzamenti non si arresta neanche di fronte a Taddeo per cui abbiamo un altro un altro numero da aggiungere al catalogo anche se è certo è simulare che poi Taddeo compare soltanto nel volgarizzamento io Taddeo comunque fa un po' colpisce nel testo in volgare ma devo dire che con quest'ultimo intervento siamo circolarmente tornati sul primo del pomeriggio di Fiammetta Papi quindi aprirei senz'altro la discussione su tutte le relazioni di questo pomeriggio prego grazie Federico Rossi mi ho guardato mentre i pezzi visualizzati sullo schermo mi sembra che si veda quasi subito che i due testi i due versioni A e B cosa interessante è che B è parecchia fiorentina ma c'è un paio di elementi che fiorentini non possono essere neanche toscani ma che invece sembrano puntare verso Bologna c'è un paio di forme che vorrei vedere meglio ma insomma che sembrerebbero rimasti da una copia antecedente perché i tratti super fiorentini non li farebbe mai un copista bolognese viceversa sia un fiorentino può lasciare alcune delle forme bolognesi Allora rispondo dicendo che senz'altro anche io trascrivendo preparando questa prenedizione ho preso note di alcune forme nel caso del vorgalizzamento B avendo soltanto questi due testimoni di un secondo molto tardo è difficile ragionare sulle stratificazioni nel senso che io ovviamente ho mantenuto per quanto riguarda la veste grafica il codice nazionale che è ben più antico tuttavia sembra essere prova di una stratificazione mentre per quanto riguarda l'altro volgarizzamento addirittura io ho preso come base di collezione il testimone Gaddiano che è uno dei due più antichi che ha una certa caratterizzazione linguistica in senso occidentale mentre se avessi preso il secondo secondo 146 quello che vedevamo oggi saremmo in tutta un'altra area della Toscana in area probabilmente Aretina e sono testi che senz'altro hanno una notevole circolazione spesso si trovano nello stesso codice forme ascrivibili a più provenienza a più varianti locali quindi è molto difficile anche sulla base dello stemma per quel poco che si può ragionare naturalmente stematicamente su fatti formali capire quale potesse essere la versa originaria dove abbia avuto luogo il volgarizzamento ancora una volta io penserei che una una soluzione possa essere guardare anche i testi vicini cioè nel caso del DB il volgarizzamento anonimo della sanità del corpo che lo accompagna costantemente anche se non in tutti i testimoni potrebbe forse una volta chiarito come funziona la tradizione di un testo comunque più lungo dove è più facile e con più testimoni più facile da destematizzare intendo possa magari darci una indicazione in questo senso poi volevo solo dire un piccolo aneddoto perché Cristiano Lorenzi Biondi ha riportato alla memoria quel codice che io come altri amici abbiamo conosciuto quel codice in Casa Castellani e volevo solo ricordare come si leggevano i manoscritti in Casa Castellani si veniva accolti lui signorilmente ti levava il cappotto e lo appendeva ti conduceva in salotto ti metteva sulla poltrona più comoda ti portava il manoscritto e un vassoio con una ciotola di noci e un bicchiere di whisky e poi ti lasciava in pace e leggevi il manoscritto sulle ginocchia in una comoda poltrona per quante ore volevi voglio solo dire questo piccolo aneddoto per ricordare il maestro mio e gli altri io ho solo una curiosità per Cristiano Lorenzi Biondi che a un certo punto ha fatto allusione a degli italianismi in una versione francese di Seneca quindi volevo sapere se se ne sa qualcosa di più di chi si tratta ora la memoria non è così ferma comunque c'è un articolo di Formisano e Lee che per l'appunto parlano prendono ad esempio il vulgarizzamento delle pistole in cui a detta loro e sottolineo a detta loro sinceramente non ci credo più di tanto rintracciano per l'appunto degli italianismi poi ti posso dare penso di indicarlo in bibliografia nel mio articolo il mio discorso naturalmente è un po' capzioso per forzare la mano e dire voglio provare soltanto dal punto di vista testuale che la direzione di traduzione è dal francese all'italiano e non viceversa visto che comunque ci sono studiosi di una certa fama che potrebbero arrivare a fermare alla fine il contrario si potrebbe dire che un italiano ha fatto la traduzione in francese di volgarizzamento italiano insomma ecco semplicemente questo detto che poi ci sono anche testi francesi scritti da italiani per cui esatto o in Italia per cui ero interessato alla cosa ciò che interessava a me era appunto togliere ogni dubbio tramite i procedimenti che già abbiamo visto anche altre volte cioè vedere delle traduzioni che possono derivare soltanto da un antigrafo o comunque da un esemplare da un ipotesto francese e quello io ho portato solo un esempio anzi due esempi però ci sono anche altri esempi che confermano questa dinamica grazie grazie io avrei una domanda per Federico Rossi e Fiammetta Papai ringraziandoli per i splendidi contributi veramente molto affascinanti voi avete toccato un testo che a me è particolarmente caro che sarebbe il segreto un segretorum o se vogliamo dirlo in arabo ecco il compendio che vedete rappresentato nella vostra tradizione manoscritta così per dire è un compendio effettuato a partire dal testo latino da un volgarizzamento precedente e in questo caso immagino che si tratti della tradizione della versione lunga del segreto un segretorum immagino e immagino in particolare per Federico Rossi in che modo è giustificata la correzione del segreto un segretorum per mezzodì a vicinna cioè si seguono il tipo di argomentazione razionale oppure c'è un qualche altro modo per dire qui si corregge viene in qualche modo esplicitata resa conscio questo passaggio di dire qui si corregge l'aristotele del segreto un segretorum perché alla fine è un testo pseudo aristotelico allora parto dalla seconda parte che è più facile da risolvere senza ricontrollare i miei appunti no non si dice assolutamente niente di simile ma quello che succede è che nel testo latino Taddeo ricalca abbastanza passivamente il segreto un segretorum che è di fatto l'unica fonte che fino a ora è stata indicata diciamo con certezza poi è chiaro che Taddeo potesse avere in mano vicenda non è una cosa assolutamente straordinaria semplicemente ci sono dei punti in cui si trovano delle frasi dei segmenti che non si trovano nello pseudo aristotele che si trovano invece abbastanza pari pari nel canone di avvicenna ci sono anche io ho parlato di correzioni perché ci sono dei casi ho parlato del fatto di come dormire su quale lato del corpo in cui si nota la correzione cioè che il segreto dava una certa prescrizione avvicenna dall'opposta e in tutti questi casi che ho notato Taddeo nel libello si schiera sempre con avvicenna però in tutti questi casi lui non lo dice non è che dice finora ho seguito lui non dice neanche di star seguendo il segretum abbiamo visto che all'inizio del libello gli dice ho compilato diversi libri ma è l'unica indicazione sulle fonti non fa nomi nel libello sarebbe certo interessante andare a vedere di volta in volta il commento di Taddeo Alderotti al primo fan del canone di avvicenna in cui rientrano queste cose che è proprio la parte che lui ha commentato per vedere se eventualmente in quella sede commentando in un commento specialistico diremmo oggi lui eventualmente dica il segreto in quale dice una cosa diversa ma io seguo avvicenna invece per quanto riguarda il compendio faccio un po' fatica a orientarmi a memoria però ecco infatti sì è la redazione lunga comunque sì però ho esistato molto perché entrambe le redazioni hanno volgarizzamento cioè esiste un'altra redazione volgare un volgarizzamento pubblicato da poco nell'area Zamuner che risale invece al segreto un breve che è stato anche attribuito a Taddeo perché è quello che nel codice Corbinelli quello che scusate che nel libro Mantovano poi pubblicato nel Cinquecento da Corbinelli seguiva l'etica volgare quindi anche questo volgarizzamento che però è un altro volgarizzamento del segreto sempre in forma un volgarizzamento breve è stato in passato attribuito a Taddeo Alderotti sulla base stavolta della prossimità con l'etica però non con il livello anche questo c'è un po' di confusione in bibliografia poi comunque possiamo continuare il dialogo sul segreto perché le redazioni ovviamente sono tante e anche qui studiare tessi come questi aiuta a fare ordine pian piano volentieri e grazie mille entrambi piccolo accenno appunto Federico lei mi ha anticipato volevo richiamare questo studio di Ilaria Zamuner proprio ma quindi decade questa mia introduzione bibliografica invece una cosa non so se sono io che ho perso un passaggio ma mi pare di ricordare che ci sono nello stesso punto due soluzioni quasi ci fosse una diffrazione direbbe Contini di errori in A e B nello stesso logo con quel loot ho capito bene quindi lei come interpreta questa cosa cioè ci troviamo davanti a due volgarizzamenti autonomi in cui lo stesso luogo che di per sé è una semplice frase finale non particolarmente complessa ma in entrambi i casi viene interpretato come un loot quale come e in un altro caso adesso non ricordo esattamente che cosa lei interpreta come se quello latino sia davvero la base sicura di entrambi o che in mezzo c'è qualcosa perché ripeto l'idea di diffrazione anche se non capisco bene in che modo e che cosa può esserci in mezzo mi compare alla mente allora prima di tutto devo dire che prima abbiamo parlato di volgarizzamenti di medio livello qua siamo proprio sul livello basso perché quella frase lì del loot con una finale anteposta è uno dei punti sintatticamente più difficili del livello di Taddeo che in genere ha una sintassi molto molto piana quindi io direi che in questo caso entrambi i volgarizzatori sull'unico punto un pelino difficile sintatticamente sono caduti miseramente nel primo caso ut è reso come come io penso che veramente sia l'errore su ut il secondo caso come ho detto subito potrebbe essere diverso perché è dove c'è la zeppa per ciò che discorre così meglio ad opera che se fosse puro in un caso così non è impossibile che il modello latino già fosse pasticciato ci fosse qualcosa di diverso però ripeto da quello che ho potuto vedere finora nella tradizione del latino dove comunque ho visto i testimoni più antichi che ho visto circa un terzo dei testimoni non si vede nulla di simile però bisognerebbe averli visti tutti in ogni caso possiamo parlare di diffrazione di fronte a l'unica quasi l'unica difficoltà sintattica di tutto il testo lieve difficoltà questa sarebbe la mia risposta non diffrazione di sesso tecnico ma normale inciampo di fronte a un testo più complesso poi visto col microfono approfitto poi casomai dopo che avevano parlato altri ho delle considerazioni più generali su diverse relazioni ma vorrei notare anche nella sequenza di queste due belle relazioni di lauree insomma diverse insomma questo preferisco discuterlo un poco dopo miscellane e morali ha detto lei Federico che convivono con la medicina nel caso di A e invece di B un libro di scienza medica senza alcun dubbio però quello che mi viene un poco a mancare è quali possono essere non tanto le motivazioni quanto le giustificazioni intrinseche di quegli ordini che lei ci ha mostrato così fondamentalmente stabili ma che hanno una lieve oscillazione che mi pare di ricordare riguarda proprio l'inserto dell'elemento medico rispetto all'elemento morale allora una parola di più su questo cioè sulle motivazioni più generali più se si può arrivare filologicamente a darne un senso allora nel caso del primo volgarizzamento la compresenza dei due elementi è dovuta al secretum cioè io vedo veramente qualcuno che ha davanti dovessi sbilanciarmi direi qualcuno che ha davanti il secretum nella sua versione lunga compendi ai capitoli morali e poi per il regime sanitatis prende una cosa che già ha che è il libello volgarizzandolo se si può dimostrare che lo stesso autore volgarizza tutto o eventualmente prendendolo già in volgare e questo è il nucleo diciamo fondamentale di una serie di altre cose io interpreterei che i casi in cui il secretum viene in fondo a tutto il blocco brevi locum e quello che segue senza il libello sono casi più tardi in cui il libello viene lasciato cadere e non che il libello da solo venga aggregato a una serie preesistente appunto per questo motivo che uno potrebbe non rendersene conto ma fra compendi e morale e il libello c'è un rapporto strettissimo che uno può capire soltanto se in mente il secretum perché è il secretum che non funziona così che funziona così se si perde il riferimento al modello a quel punto il libello messo lì dov'è non ha molto senso allora viene puntualmente spostato in tutti i codici più tardi o ha lasciato cadere e nell'altro caso invece l'ordine è un po' più stabile ha parlato di libro di fisica appunto perché c'è Sant'A del corpo Liber Medicinarum e il libello in quel caso l'unico aggiustamento come ho detto è il fatto che il quarto libro della Sant'A del corpo cioè la Fisionomia viene a un certo punto spostato semplicemente per mettere il Liber Medicinarum e il libello in immediata continuità col terzo libro della Sant'A dove c'erano argomenti più affini quindi è solo un piccolo ritocco peraltro in entrambi i codici della seconda redazione l'ordine dei fogli è turbato e probabilmente almeno in un caso questo deriva proprio da turbamenti in fasi precedenti quindi una tradizione molto frastagliata volevo segnalare una cosa a fiammetta di cui parlavamo prima che parlando di Giovanni di Galles a quale sono finito per interessarmi dal momento che parla di una storia alexandri tra le sue fonti che potrebbe essere una versione dell'istoria dei prelis ma in effetti si tratta di un autore le cui operano una circolazione molto interessante per il mondo italiano o comunque per la penisola italiana e un canale di trasmissione è quello della predicazione e se ricordo bene Beryl Smalley segnala un manoscritto contenente il compendiloquium annotato da Remigio Gerolami segnalo poi che il testo di Giovanni di Galles era conosciuto da Jacopo da Cassole per il suo Ludus Caccorum che è un altro testo che appartiene alla tradizione realizzato nel 1300 e poi ci sarebbe e qui però vado a memoria una traccia di Giovanni di Galles anche nei sermoni di Federico Visconti arcivescovo di Pisa e zio di Nino del giudice di Gallura tutto qua ti ringrazio moltissimo per questa segnalazione e integrazione ai cenni di fortuna del testo a cui ho potuto dedicare soltanto alcune osservazioni parziali e sono d'accordo che uno dei canali di circolazioni privilegiato per compilazioni come il Brevi Loquio e le altre opere del Gallese fosse la predicazione per aggiungere un altro nome a quelli che hai già fatto tu aggiungo anche Giordano da Pisa nelle cui prediche sono stati rintracciati prelievi dal Brevi Loquio e dal Comuni Loquium se non sbaglio da Del Corno visto che hai citato il saggio di Smalley posso anche darti poi magari ne riparliamo un'indicazione più recente uscita l'anno scorso ed è il capitolo dedicato a Moral Philosophy and Wisdom Literature a cura di Charles Briggs dove mette proprio in collegamento le opere di Giovanni del Galles con l'ambiente dei predicatori quindi dopo se vuoi ne ripariamo grazie mille sono altri mi aggancio all'accenno al giudice di Gallura perché volevo chiedere a Fiammetta in uno di quei passi che erano presenti in una slide dove si fa appunto menzione del giudice di Gallura compariva anche un altro nome e ora non ricordo a memoria però perché diciamo in quei passi in alcuni di quelle formulazioni sembrava quasi che potesse essere dedicatario dell'originale poi invece in una di quelle si fa menzione del passaggio dalla grammatica in latino che formula un po' per noi può parire singolare per dire tradurre dal latino al volgare e lì oltre al destinatario c'è anche un altro nome che compare è il nome di Pietro d'Arreggio a cui viene attribuito il volgarizzamento del compendiloquium e quindi i motti dei filosofi attribuiti a Pietro d'Arreggio e la dedica al giudice di Gallura talora è a seguito del breviloquio mi sembra così nel palatino 631 talvolta alla fine è ripetuta anche alla fine forse non avere dovuto sottolinearlo questo compare anche dopo l'explicit dei motti dei filosofi quindi i due nomi sono questi mi pare nel Rediano e nel Conventi soppressi invece nel codice di Londra cade la dedica al giudice di Gallura ma il codice di Londra è esemplato a Venezia nel 1430 quindi me lo spiego come fatto di copia legato a quel testimonio ed è genericamente dedicato a un signore mio messere però si mantiene l'attribuzione a Pietro dal Reggio quindi diciamo sistematicamente sono dati che possono risalire sostanzialmente a una fase originaria penso di non spiegarli altrimenti grazie già che ho la parola volevo dire volevo accennare alle conclusioni di Cristiano sulle modalità quasi sulla terminologia da usare per distinguere redazione non redazione eccetera perché questo è un tema diciamo forse insolubile ma presente alla fine sempre quando parliamo di traduzioni fino a che punto nel Medioevo la rielaborazione di una traduzione si configura come un ritorno dell'atto di traduzione forse è perché era in fondo al tuo intervento perché l'intervento mi sembrava che disegnasse molto bene i vari passaggi anche distinguendo graficamente per quello che può valere con l'orizzontalità dei passaggi linguistici e la verticalità dei passaggi diciamo di trasmissione invece però mi sembra che se non ho capito male la conclusione per cui consideriamo redazione diversa quando i dati di varianza sono tali da non portestare in un apparato mi sembra un po' semplicistica cioè non che sia facile forse non è neanche proprio possibile fornire una ricetta per distinguere il concetto di redazione però deve essere una certa intrinseca cioè che guarda la natura dei fatti più che la loro quantità o la loro gestibilità in sede filologica dico bene quindi non so se su questo allora alla fine dell'intervento diciamo che correvo molto e quindi il se posso come dire chiarire meglio sono d'accordo detto in questa maniera appare semplicistico in realtà io partivo da un discorso di innanzitutto grado di collazionabilità come ho detto che si può riverberare effettivamente nella gestione di tutto una serie di cambiamenti che intervengono in un momento della tradizione all'interno di un apparato naturalmente ci vuole di vedere quale materiale e come ritorna in quel momento e quindi mi ricollego a quello che dicevi tu cioè nella seconda redazione per fare l'esempio specifico si vede che innanzitutto si tenta di intervenire sul testo proveniente dalla prima redazione nel momento in cui il testo della prima redazione non è perspicuo e questo è un gruppo poi si tenta di intervenire spesso e volentieri sulle congiunzioni subordinanti ad esempio viene inserito il poniamo che per al posto di un ora non mi ricordo qual era quello che c'era in Tino ma per la concessiva ad esempio poi c'è tutta una serie naturalmente di correzioni fatte con il ricontrollo del latino naturalmente ecco e non solo questo una volta che chi studia appunto l'andamento redazionale trova che in quel momento individuato appunto come ho cercato di dire quasi stematicamente ci sono al medesimo passo tutti questi cambiamenti e tutti questi cambiamenti sono in un numero tale che difficile ne è il grado di collazionabilità poi di gestione poi alla fine pratica nell'apparato ecco in quel caso io individuerei una una redazione ora anche qui c'è da mettersi d'accordo sul termine redazione perché nella bibliografia troviamo rifacimento redazione versione che è ancora più sibillino di tutto il resto ora nelle conclusioni del mio articolo cerco di cioè faccio un po' tutto un grosso insieme diciamo così anche perché bisognerebbe vedere che cosa vuol dire se si chiama rifacimento una cosa vuol dire che magari appunto risalgo a un altro di nuovo al testo latino e rifaccio delle parti o le rimaneggio però non c'è solo quello e allora mi domando ancora come la devo chiamare lo devo chiamare quel momento ecco insomma su questo appunto il problema certo resta aperto è un problema che forse mi avrebbe la pena affrontare in modo un po' sistematico e aggiungerei che tu hai citato anche tra le cose da sistemare la citabilità in questo contesto del termine archetipo io gli starei un po' più prudente perché archetipo è un termine che è molto caratterizzato in senso diciamo così stemmatico stemmatico quindi tenderei a limitarlo ad un testo un testo può risalire ad un archetipo dopodiché è chiaro che se quel testo dimostra di dipendere da un altro testo a sua volta discendendone derivandone degli errori se volessimo diciamo estendere l'interpretazione stemmatica il testo precedente è l'archetipo del testo successivo ma il fatto che tra i due ci sia una traduzione ci sia un passaggio traduttivo o rielaborativo credo che dovrebbe far sì che non rientino nella stessa figura con passaggi diciamo così ritenuti analoghi a quelli che ci sono in una trasmissione infatti chiarisco che mi sono trovato a dover chiamare in qualche modo queste entità e naturalmente con la rappresentazione che ho dato nel momento nel momento in cui metto sull'asse orizzontale i passaggi di lingua o di redazione è naturale che il passaggio di lingua è un fatto separativo di per sé e quindi certo hai ragione tu l'archetipo è come dire solo uno diciamo così però nel dover dare un nome a quell'entità io ad esempio su il punto iniziale della tradizione cioè il approdo francese in questo caso io ho parlato guardando alla prospettiva del volgare italiano archetipo delle versioni romanze nel senso che lì c'è un portato che poi cade uno può usare un termine come modello che è meno connotato esatto ipotesto quello ecco scusate poi riscedo la parola alla sala ma siccome si collega molto a questo tema volevo anche fare una domanda a Laura Gallinella perché lei invece nei suoi negli stemmi che hai mostrato la versione appunto R la versione italiana è inserita negli stemmi dei manoscritti del testo francese e certo è molto singolare che questo traduttore siamo in epoca molto tarda rispetto alla data di questi testi francesi che sono fra i testi non dico delle origini ma insomma della fase gloriosa della letteratura d'Oil quindi affondano le radici in un contesto completamente diverso e hanno una diffusione però ampia di un secolo un secolo e mezzo con molti manoscritti dopodiché in tutti e tre gli esempi sembra che lui sia andato per la punta a pescare una versione che evita tutti gli errori tutte le diciamo corruttele che invece si sono riprodotte nella nella trasmissione della versione francese originale ecco non è che ci sono indizi del fatto che ci può essere stata non dico da parte sua che forse non aveva né interesse né possibilità ma da parte di qualcun altro una correzione un ritorno piuttosto che avere accesso un ritorno voglio dire al testo latino una rielaborazione piuttosto che lui avesse accesso a fonti che verosimilmente a quell'epoca dovevano essere si potrebbe dare una risposta ringrazio per la domanda si potrebbe dare una risposta affermativa o anche tenere conto di questa ipotesi nel momento in cui tutto il modello di R presentasse una qualità di questo tipo invece ci si trova di fronte a un paradosso io ho preso in esame un nucleo particolarmente peculiare proprio perché dimostra in maniera inedita come un volgarizzamento così tardo possa avere avuto accesso a un modello così alto nello stemma invece la prima parte del leggendario quella corrispondente al passionario postoerico alfa e ne ho avuto già modo di parlare per esempio l'anno scorso al convegno CILPR si colloca perfettamente con tutto l'elenco di mende errori e lacune tipiche di quel ramo con la tradizione genovese quindi tenendo è anche uno dei motivi per cui avere scelto di fare un'analisi non a campione ha portato alla fine frutto perché riconoscere questa varianza nel collocamento nella collocazione del modello del volverizzamento all'interno di questa tradizione permette di qualificare questo modello come un oggetto pluriforme che quindi aveva accesso a una parte della tradizione già profondamente mutata rispetto all'originale quindi ricca di errori ricca di problemi a livello testuale e dall'altro è un livello di testo ancora era praticamente vergine molto vicino all'originale e questo dall'idea che la tradizione all'inizio non sia stata lineare come per esempio una ricostruzione di Perrot tenderebbe a far intuire perché evidentemente questo passionare apostolico è stato prodotto evidentemente all'inizio era stato già sottoposto possibilmente a una serie di copie e quindi a una serie di stratificazioni che avevano prodotto varie emende e quindi poi successivamente erano stati aggiunti altri pezzi che invece erano molto più vicini all'originale quindi il testo a cui ha avuto accesso Cherichi era sostanzialmente un monstrum dal punto di vista delle varie provenienze della qualità del testo finale ed è un dato che alla fine poi ha un suo valore anche nel valutare le pratiche traduttorie di Cherichi perché la quantità di loci che potrebbero essere stati attribuiti a insipienza del volgarizzatore nella prima sezione non avendo presente il tipo di ramo da cui esso proviene sono molti di più rispetto alla seconda metà del volgarizzamento in cui la qualità del volgarizzamento sale insomma molto più alta ma perché evidentemente quella parte di leggendario aveva una qualità del testo molto migliore rispetto a quella della prima metà quindi credo che questo dia un po' una risposta grazie per raggiungere un particolare su quest'ultima questione non so se può aiutare Laura sicuramente ce l'ha presente ma nel prolago Giovanni Cherichi dichiara che questa storia Aure da qui prende essendo parte in latina e parte in gallica lingua dice quindi è come se lui dichiaresse già in partenza che quello è un testo molto composito poi a che cosa attribuire questo ecco non so come tu abbia interpretato questo io non mi sono posto il problema perché non ho studiato direttamente Riccardiano lui dice di tradurre dalla gallica lingua però precisa che questo libro è un po' è un po' e quindi ecco mi chiedevo se si può collocare in qualche maniera questo elemento ecco anche questo esatto no mi sono posto il problema chiaramente e la conclusione a cui sono arrivata è che la dichiarazione di Cherichi sia in qualche modo nobilitante per il suo lavoro nel senso che lui si riferisca a questo testo parte in latina parte in gallica lingua riferendo e il latino si riferisce alle tarsie latine quindi abbiamo noi sostanzialmente queste 31 vite il 40% delle quali contiene citazioni scritturistiche di salmi che sono sovente accompagnate da glosse già nel volgarizzamento francese Cherichi copia di peso in un latino tremendo queste tarsie latine e quindi di fatto credo potesse costituire uno statuto appunto nobilitante l'idea di l'affermazione sto traducendo un codice che originariamente presentava anche delle parti latino tra l'altro nei codici più antichi tutte queste tarsie erano rubricate quindi avevano uno statuto differente quindi un volgarizzatore che prende in mano un leggendario e decide di volgarizzarlo nota quell'elemento come fatto primario ecco quindi grazie Marco Bernardi hai parlato di hai discusso la messa in discussione del genere romanzo hai fatto accenno al Florimont di Amon de Varenne di cui credo che domani con Lorenzo Fabiani si tornerà a sentire parlare sia pur rapidamente perché è un tipico caso di una di quelle miscele di materiali alessandrini e come tu accennavi addirittura nonni e bisnonni di Alessandro Magno se puoi dirne una parola di più e poi su Fiammetta Papi tu hai accennato lei ha accennato alla scusi si diventa amici alla fine di un seminario di questo tipo e non si ricordano più gli ordini gerarchici dei pronomi lei ha accennato al fatto che questo previloquio è una tra le fonti più citate da Francesco da Barberino e contemporaneamente ha mostrato come il volgarizzamento ha rapporti verbali con Dante più di quanto non li abbia rispetto al novellino al fiore di virtù ora vista una certa contiguità di ambiente tra Francesco di Barberino e l'ambito dantesco vorrei qualche se è possibile qualche notizia in più e poi magari un accenno al fatto che già Ambrogio Camozzi ha sottolineato l'importanza dell'elemento dei predicatori ora perché questo è un francescano viene da Oxford a me viene in mente ora una tesi di dottorato appena discussa da Francesca Galli con un Bartolomeo di Bologna del trattato De Luce che era edito malamente in una rivista di studi francescani degli anni 30 senza commento senza nulla e è venuto fuori in modo molto forte diciamo come in realtà gli ambienti predicatori sia francescani sia dominicani fruissero molto la cosa era già nota ma qui cominciamo ad avere delle esemplificazioni piuttosto forti come insomma questi materiali tra scientifico e morale siano molto presenti sul tavolo di lavoro dei predicatori ora è vero in quel caso è solo latino mentre qui intervengono addirittura i volgarizzamenti e quindi si fa un passo ulteriore e soprattutto queste due cose poi se il presidente me lo permetterà volevo alla fine alla fine ma quando avranno finito tutti allora io molto brevemente preciso che su questo specifico aspetto non mi sono soffermato più di tanto nel senso che Florimont è un personaggio presente nel romanzo romanzo ripeto un po' particolare ma è più come nome che come altro c'è una breve vicenda conclusiva che però non mi sembra che abbia grosse connessioni con il Florimont di Emo è un manoscritto in cui il Florimont si aggancia ancora tutto da studiare in cui il Florimont si aggancia testo francese e testo volgare italiano quindi con delle imbricazioni linguistiche interessanti proprio il romanzo ad Alessandro e volgarizzato ecco questo è un aspetto che devo un po' eventualmente approfondire quello che c'è da dire è l'impressione che siccome Perrine proprio nel prologo dell'opera fa un elenco fa l'elenco delle sue fonti ma sono fonti che sembrano un pochino inventate perché fa un elenco di nomi il libro di Selerin Roi de Caldex Zambard de Calver Menoy d'Afrique Brouillant de Cartage che sono poi tutti i personaggi del romanzo l'impressione e qui poi cita anche Florimont L'impressione è che in realtà forse lui li abbia sentiti orecchiati messi dentro e per dare come dire una sorta di fondamento storico li citi come fonti storie che contengono ecco sì piuttosto questo grazie mille ringrazio per la domanda interessantissima che apre un campo sul quale potrò avere una risposta più dettagliata più avanti quando avrò a disposizione almeno la trascrizione integrale dei volgarizzamenti quello che posso fare estemporaneamente è per Francesco da Barberino ribandare al saggio di Maria Cristina Panzera appena uscito l'anno scorso Francesco da Barberino fra Andrea Cappellano e Verroa che dedica un'intera sezione alla classificazione delle virtù nella quale agirebbe il breviloquio sull'ambiente dei predicatori sono totalmente d'accordo ho l'impressione che il breviloquio come Valerio Massimo come altri testi affini servisse da collettore di esempi a pronto uso per illustrare questa o quella virtù questa o quella disposizione su Dante increscendo bisognerebbe naturalmente soffermarsi di più gli esempi che ho mostrato mi parevano suggerire una ripresa anche del volgarizzamento oltre che del testo latino col quale sicuramente Dante si sarà confrontato c'era una spia sulla quale non mi sono soffermata e che alla ripresa del verbo consolare per fece giustizia risarci la vedova che è il consolatus est del latino mentre i volgarizzatori tutti tranne quello della redazione C hanno altre sul fece vendetta fece giustizia quindi lì sembrerebbe più spostato verso il latino d'altra parte tanto per riprendere l'esempio di Traiano la menzione del freno è soltanto nella versione A mentre in latino l'avrei dovuto mostrare sia il piede come del resto nelle altre redazioni e mi pare nel novellino se non sbaglio ma vorrei aver tempo di studiare per dare una risposta più soddisfacente grazie del suggerimento sì ecco questo era un po' lo scopo sì sì ecco Egidio la differenza è che Egidio è citato proprio nel reggimento degli principi e ripreso nel quarto del convivio Giovanni del Galles no ma quindi grazie del suggerimento per fare io da solo conclusioni se non qualche appunto di riflessione di un grazie grande perché sono un po' vecchietto ho frequentato non pochi seminari e convegni ma questo ha un'aria davvero seminario per così dire alla tedesca quindi con una serie di riflessioni di gente competente a livello altissimo quindi si esce di qua non soltanto con problemi di metodo ma con cose anche molto concreti volevo stare un momento sui problemi di metodo mi sono permesso di andare a riprendere perché l'avevo portato con me a Firenze quel giorno che presentammo alla Sismel la collana insomma e mi era portato Editi Errari di Domenico De Robertis con in mente un saggio lo ricorderete molto vecchio credo che fosse del 60 in quel convegno importante bolognese sui problemi di edizione e lui parlava dei problemi di metodo dell'edizione dei cantari quindi un genere completamente fuori rispetto ai ragionamenti che stiamo svolgendo però da tanti tanti anni fino a quando mi occupavo un pochino di letteratura francescana o comunque di rapporti fra la cultura francescana e la letteratura laica mi ponevo il problema se non sul piano del metodo non fossero in qualche modo accostabili se non assimilabili i cantari o meglio le edizioni dei cantari alle edizioni dei volgarizzamenti al tempo si parla di 20 o 30 anni fa quando si parla dei volgarizzamenti si diceva sostanzialmente qualche cosa che è abbastanza vicino a quello che vi leggo brevemente poche righe e si parli pure anche per i cantari di edizioni critica dice De Robertis ma come la rappresentazione il più possibile spiegata davanti al lettore della storia della tradizione cioè della formazione e della fortuna di un testo della collaborazione intorno ad esso l'oggetto non sarà la ricostruzione di un alezio ma come dire gli virgolette integrali chiuse virgolette di questo sviluppo nel tempo uso una metafora di tipo matematico e l'edizione prenderà forma di una serie di operazioni piuttosto che di un'operazione unica di ordinamento e di coordinamento di un complesso di dati di immaginazione di cultura di mestiere di gusto allora queste parole mi sono tornate in mente parecchie volte oggi perché stante la differenza fondamentale tra un testo che ha un gradiente direbbe barbaro di intreccio con l'oralità piuttosto elevato quale un cantare o di probabilità di intreccio con l'oralità è invece un volgarizzamento che con l'oralità non ha proprio rapporto tuttavia credo che quando si è parlato da parte di Fiammetta Papi di dinamiche di aggregazione dei testi che sono dunque mobilizzate in maniera diversa ma dinamicamente ancora Cristiano Lorenzi Biondi di stadi redazionali come dire translinguistici fondamentalmente e ha ribadito è tornato sul concetto di archetipo e fra un secondo dico una parola su quello che ha aggiunto molto opportunamente Lino Leonardi e poi ancora Lauren Gallinella che ha detto non una traduzione ma una rete di traduzioni e poi ha aggiunto stadi differenti di una sezione attiva se ho ben appuntato turbolenta situazioni di grandi collettori e ancora un lavoro di equipi in movimento allora mi pare che questa insistenza sulla categoria del movimento abbia qualcosa a che fare con ciò di cui stiamo parlando Dino Leonardi ha molto opportunamente richiamato il fatto che archetipo è una categoria insomma Gian Lachman nel suo Lucrezio lo diceva chiaro chiamo archetipo quella cosa lì che è una astrazione mentale ma lui se la inventò mi pare se è 1850 se la inventò ed allora a mia memoria di archetipo mobile si è parlato per le satire dell'Ariosto da parte di Cesare Segre mi pare di ricordare qualcosa del genere ma più prudentemente perché non c'erano le prove per Machiavelli il principe avesse proposto Giorgio Inglese ma poi di archetipo mobile non ho più sentito parlare se non ho perso dei passaggi ora in realtà mi pare siano venuti fuori oggi delle categorie una rimessa in discussione di queste categorie ora è evidente che le categorie si possono rimettere in discussione a condizione che si capisca che non è un fatto nominalistico cioè non siamo soltanto rinominando una cosa a me pare che in quello di cui stiamo parlando ci sia qualcosa di piuttosto simile mi scuserete il balzo un pochino shocking a quello che gli storici i preistorici cioè gli studiosi di paleontologia e di geologia penso a Stephen Jay Gould e a Eldridge hanno chiamato puntuated equilibria e Franco Moretti aveva proposto di introdurre nella storiografia letteraria a queste categorie di equilibri punteggiati loro dicono in sostanza questo vado in breve perché è piuttosto tardi abbiamo avuto una densissima giornata non tanto una evoluzione darwiniana lui dice delle specie in modo lineare ma quelle che lui chiama appunto equilibri loro chiamano equilibri punteggiati c'è un bel volume del solo Gould pubblicato a Torino da non so più una casa editrice che adesso non so più il nome ma che consiglio a tutti i filologi cioè come faceva Gaston Paris insomma studiare gli Haussmann Fossil è sempre utile ebbene lì dentro mi pare che ci sia qualche cosa che a noi può essere utile perché non è tanto una categoria di mobilità di un archetipo quanto forse del fatto che noi stiamo cercando di individuare degli stati di una situazione in movimento degli stati oltre che stati introdurrei la categoria di stati traendola per quel po' che ne so che è pochissimo dalla chimica o dalla fisica Contini non a caso parlava di isotopie insomma quando doveva o di diffrazioni quando doveva cercare di definire delle categorie di questo genere ricorreva alle scienze esatte e allora mi domando non possiamo noi ricorrere alle scienze esatte in questo caso e cioè parlare di sistemi di inerzia che poi di improvviso hanno quelle che Gould chiama le catastrofi cioè le cadute di un sistema e che possiamo ben identificare come gli stati situazionali della documentazione che spesso sfuggono e sono in fondo quegli stadi di tradizione anche translinguistici di cui mi sembra abbiamo preso atto oggi è evidente che qui la categoria di archetipo che per sua definizione deve essere una categoria statica invece stabilizzata viene non dico rimessa in discussione come non accertabile ma in fine conti è proprio Bédier quello che aveva per primo ridiscusso la questione come mai sempre bifide le tradizioni come mai abbiamo difficoltà a capire a chiudere in alto talvolta la tradizione dei testi allora mi domando se senza turbare troppo le categorie consuete alla filologia però se proprio il ragionamento intorno a una filologia editoriale ed ermeneutica proprio filologia come ermeneutica storica dei testi che in particolare si applica qui alla categoria dei volgarezzamenti non possa integrare queste categorie non tanto di fluidità quanto di stati differenziali difficilmente organizzabili secondo la categoria di archetipi anch'io concordo con Lino Leonardo quando diceva che in fondo questa idea che una redazione risponda al grado di collazionabilità se ho appuntato esattamente la formula è stata questa è un po' limitativo perché il grado di collazionabilità è dal nostro punto di vista che lo poniamo e quindi siamo per così dire modellando noi ciò che la tradizione ci ha portato ecco ma se invece noi proviamo a pensare che effettivamente non ci sono probabilmente quelle linearità evolutive che la filologia positivistica aveva immaginato perché nasceva nel contesto di una scienza positivistica che pensava in termini evolutivi mentre probabilmente i termini in cui noi stiamo pensando oggi non sono più di tipo evoluzionistico diretto sto ponendo un problema non voglio chiudere squadrare da ogni lato l'animo nostro in forme della nostra disciplina ma insomma pongo un problema e se invece queste categorie di inerzia stati inerziali caduta di sistemi catastrofi e quindi non tanto redazioni quanto stati fluidi che noi possiamo identificare sulla base di una serie di elementi che sono anch'essi però da discutere preliminarmente e su cui occorre metterci un po' d'accordo sul piano del metodo insomma a condizione che il metodo sia sorvegliato ben venga la ridiscussione di criteri mi scuso se ho preso un po' di tempo non volevo dare conclusioni ma volevo intanto esprimere ad alta facit entusiasmus versos quindi volevo esprimere insomma una viva soddisfazione per quanto riguarda me e ho visto anche Claudio Ciosciola rispetto insomma al buon risultato anche di metodo e poi vediamo domani quello che accadeva grazie mille Corrado una sola battuta permettimi per questa tua citazione di De Robertis perché ovviamente mi sembra che la prospettiva sia quella però segnalerei una cautela perché le conseguenze a lungo andare di quell'articolo così antico e che certo apriva allora una prospettiva molto ragionevole quanto nuova in un contesto che era tutto appunto sì allora sì 1960 ancora abbastanza in cui in cui il metodo stematico era ancora considerato da alcuni in modo abbastanza meccanico quindi apriva una prospettiva di pluralismo di redazioni di la data di un test e quella del suo manoscritto eccetera ecco poi in realtà in tempi più recenti da quella prospettiva si è assistita ad una deriva molto preoccupante in cui si pensa di poter valutare la redazione o versione o semplicemente il testo presente in un manoscritto studiando quel manoscritto soltanto quindi questo ci terrei a sottolinearlo proprio perché invece negli interventi di oggi è sempre emersa questa potenzialità della collazione dell'analisi diciamo comparata ovviamente con tutte le difficoltà le aporie spesso a cui alla fine porta e con l'incertezza sui risultati ma comunque la potenzialità nel tentare una storia della tradizione anche indipendentemente dalla critica del testo per tornare sulla coppia di cui si parlava già stamattina ma insomma credo che questo fosse un po' il senso anche assolutamente ti ringrazio molto di aver precisato questo ma evidente io stesso stamattina richiamavo la categoria di filologia materiale cioè il fatto che proprio sui codici a valle ci ha insegnato a valle segre roncaglia insomma e altri ma soprattutto a valle ha incominciato a lavorare sulla tradizione manoscritta andando alla materialità dei singoli codici io stesso stamattina rievocavo l'importanza di stare sul codice che porta un testo non soltanto genericamente sul testo è evidente che la deriva c'è stata dopo e che sono passati 50 anni almeno da quel momento però continua a restare per me molto interessante l'idea non tanto che ogni testo sia databile all'altezza del manoscritto quanto il fatto che là dentro in questo ragionamento di De Robertis mi parerà di cogliere un elemento che era già in BD e cioè il fatto perché andiamo in cerca di un manoscritto del buon manoscritto perché in fondo esiste un testimoniale autentico quello così come tu dici giustamente c'è una deriva però c'è anche una deriva lachmaniana esagerata probabilmente che arriva ad una ricostruzione totalmente astratta di un testo spesso dimenticando la storicità dei dati ora quando Avalle diceva aprendo quei suoi principi di critica testuale ed era evidentemente in posizione fondamentalmente anticrociana e diceva lo ricordo quando lo raccontò a Lincei la prima volta questa ipotesi su questa idea diceva una cosa è il testo come dato e una cosa è il testo come processo ecco proprio questa idea di processualità testuale è ciò che mi parerebbe però interessante recuperare a questo a questo livello del ragionamento ecco grazie della precisazione bene allora credo che chiudiamo qui io mi scusi in anticipo che domani non potrò esserci sono trattenuto a Firenze mi spiace che perderò la parte diciamo Alessandro ma sono ben lieto invece di aver potuto assistere alla giornata di oggi e saluto tutti e a domani un attimo c'è un intervento Claudio scusa no io mi limito semplicemente a ricordarvi a ricordare in particolare i relatori e i presidenti che questa sera ci vediamo a cena insieme al ristorante La Sosta che per i non pisani è in via San Frediano a metà strada circa la via che collega la piazza a Lungarno per il resto ringrazio tutti della bella giornata e permettetemi di ringraziare molti che ho ascoltato oggi per quello che mi hanno insegnato in questi anni grazie e proseguiamo con Ambrogio Camozzi Pistoia che ha una formazione milanese scoperto nonostante l'indicazione di Pembroke College e dunque ci parlerà del volgarizzamento di Cracovia del romanzo di Alessandro problemi di un'edizione a fronte subito la parola per non sottrarre neppure un minuto grazie mille grazie mille professoressa esprimo il mio sentito ringraziamento al professor Corrado Bologna che posso ringraziare viva voce al professor Claudio Ciociola che invece se vorrà troverà un ringraziamento registrato volevo anche ringraziare i presenti e i colleghi che hanno contribuito a questo a questa sessione di lavoro vorrei cominciare facendovi vedere qualche immagine del codice che unico preserva il testo di cui io e la collega Claudia Tardelli Terni parleremo oggi ci sarebbe un video è un codice ora preservato a Cracovia alla biblioteca Gagellonica come vedete è rovinato è un codice molto bello queste sono alcune delle immagini che illustrano il testo 42 immagini come vedete qui Alessandro incontra i draghi di montagna questo è l'episodio di una bosco maledetto questo è l'assalto a una fortezza indiana che richiede ai soldati di Alessandro di entrare nel fiume nudi e qui sono aggrediti dagli ippopotami ancora draghi leoni Alessandro sul subucefalo che qui ha occhi iniettati di sangue e denti canini questa curiosa immagine di cui se volete si potrà parlare dopo nelle domande siamo in fase di chiusura gli ultimi 5 secondi questo è un incontro tra il pittore Candaci trasformato in una vergine trasformato in una vergine giottesca e questo è un dettaglio architettonico che probabilmente riconoscete dal volantino è un codice è un codice molto frammentario e anche molto danneggiato come avete potuto vedere sono solo 16 le carte sopravvissute e costituiscono circa un quarto del manufatto originario il manufatto è stato realizzato a Firenze nel secondo quarto del quattordicesimo secolo e le paginette queste 16 carte quando erano ancora slegate appartenevano alla biblioteca riccardiana e facevano parte del miscellane di una cartella la 1222 dalla riccardiana purtroppo vengono rubate trafugate da uno studioso tedesco Friedrich von der Hagen all'inizio dell'ottocento e qui trasportate a Berlino a Berlino finiscono alla collezione della biblioteca Regia alla morte di von der Hagen e come potete vedere questo è il primo piatto di pagina qui c'è una nota di appartenenza che è difficile slegare vedete il logo della biblioteca di Berlino il numero 4727 a penna che risale appunto al 1856 quando le pagine arrivano alla biblioteca vengono rilegate e piccolo in matita il numero 60 che corrisponde invece alla paginazione della riccardiana del miscellaneo come i fogli finiscono da Berlino poi a Cracovia è presto detto è il 1941 a Berlino Berlino è sotto i bombardamenti della Royal Air Force e un gruppo di convogli notturni trasferisce alcuni dei tesori in territorio polacco in strutture controllate dal Terzo Reich alla fine della guerra con la disfatta della Germania alcuni di questi tesori finiscono a Cracovia e i codici formano la collezione berlinese della biblioteca gergellonica una vita avventurosa almeno quella che possiamo ricostruire dall'Ottocento che ha lasciato dei segni segni visibili adesso qui molto velocemente vi faccio vedere tutte le immagini del codice volevo farvi vedere più che altro le infiltrazioni d'acqua e e le pagine rovinate tutto qua nonostante lo stato precario del manoscritto siamo di fronte a un codice di grande importanza di notevole interesse sia storico letterario sia linguistico che artistico dal punto di vista storico letterario siamo di fronte al testo più antico dell'Alessandro Italiano un volgarizzamento della storia dei prelis I3 risalente all'inizio del XIV secolo Claudio poi si soffermerà sulla caratterizzazione linguistica e per quanto riguarda invece la dimensione artistica molto rapidamente volevo segnalarvi il fatto che siamo in presenza di una delle filiazioni più belle del ciclo tardo antico quel Late Antique Picture Psycho di cui ha parlato Corrado Bologna in uno studio pioneristico dedicato a questo codice al suo apparato illustrativo questo Late Antique Picture Psycho che è alla base scusate dei manoscritti illustrati dell'Alessandro codici che vanno dall'undicesimo fino al sedicesimo secolo codici persiani bizantini francesi italiani questa tra l'altro sempre parlando di dimensione storico-artistica è un unicum della storia dell'Alexandre Historiatus l'incontro tra Alessandro e il Basilisco Alessandro ha fatto costruire uno scudo sbombato molto ampio con uno specchio dei calzari fatti apposta dei guanti fatti apposta è così bardato affronta la creatura immonda e la uccide e al primo giro di bozze devo dire ormai da qualche tempo uno studio che con Claudio abbiamo dedicato a questo codice uscirà spero presto con Brepols per la collana Alexander Redivivus di cui parlava Michele Campopiano una collana a cui ha contribuito anche Giovanni Borriero con uno studio e il professor Bologna con lo studio di cui vi parlavo prima il volume che abbiamo preparato dedica una prima parte alla mappatura di testi alessandrini in Italia e qui vorrei segnalare tre tessere originali che sono emerse nel corso di questa mappatura molto rapidamente la prima è un documento relativo alla biografia di Vilichino da Spoleto giudice marchigiano il secondo è un Alexandro in una predica di Giordano da Pisa del 1304 a Firenze un Alexandro che Giordano segnala come fonte di informazioni aneddotiche in particolare delle formiche aurifere dimostrando comunque una piccola tessera che potrebbe essere utilizzata per suggerire l'esistenza di una tradizione orale di I2 a Firenze a inizio 300 o comunque nell'ambito dei predicatori e infine l'ultima tessera è quella della circolazione italiana dello Pseudo Curzio un testo poco conosciuto della tradizione alessandrina ma che lascia tracce chiare nel florilegio veronese del 1329 e a Napoli nel 1348 dove arriva Dionigi da Borgo Sansepolcro portando con sé probabilmente una copia dello Pseudo Curzio da Parigi e lo utilizzerà per una informazione nei commenti ai facta riferendosi come Curzio va bene questo è quanto per quanto riguarda lo studio di Brepos al centro c'è una nuova edizione del testo volgare edizione che abbiamo allestito insieme e a fronte del testo volgare in servizio alla lettura allo studio del volgarizzamento ho preparato un'edizione anche del testo latino di partenza la versione i3 della storia dei prelis scusate questo è un dettaglio questa è una pagina del libro che spero presto sarà possibile tenere in mano la oggi vorrei condividere con voi le ragioni di questa scelta di questa edizione a fronte alcuni problemi di metodo per usare le due parole del titolo di questo convegno alcuni problemi di metodo che essa ha comportato alcune delle soluzioni adottate e spero alcuni dei benefici per il lettore questo lo lascio a voi prima di tutto la scelta del testo latino quale testo latino e come identificarlo come si è detto si tratta di un volgarizzamento di i3 un'analisi attenta rivela che si tratta di una traduzione ad l'ictera e quindi mi sono chiesto se fosse possibile rintracciare quale dei manoscritti esistenti della storia dei prelisi i3 trasmettesse la versione del testo latino più vicina al volgarizzamento fosse in pratica quella più vicina al modello latino sul banco del volgarizzatore dico modello quindi non antigrafo e certamente non archetipo la tradizione manoscritta di i3 è stata a suo tempo indagata da steffens che nel 1975 pubblica questa edizione critica molto discutibile per varie ragioni non mi addentro adesso nelle ragioni per cui l'edizione non è interamente affidabile o per nulla affidabile però segnalo che l'editore esamina 45 manoscritti ai quali ora è possibile raggiungere un codice nella Repubblica cieca che divide in due macro gruppi alfa e beta una sorta di stemma di bipartito per l'edizione steffens utilizza in teoria 19 di questi 45 manoscritti in pratica ne utilizza solo due considera come optimus un manoscritto berlinese e poi adesso a fianco si appoggia talvolta a un manoscritto della Marciana ora l'edizione di steffens per quanto criticabile si rivela molto utile per il tipo di lavoro di cui abbiamo parlato in questi giorni perché perché in apparato steffens pubblica come potete vedere qui una corposa serie di lezioni tratte sia dal manoscritto Marciano che dagli altri 17 manoscritti considerati ora i problemi di questo apparato rimangono seri tanto quanti quelli dello stemma di bipartito perché perché steffens non pubblica queste lezioni in alcun modo sistematico dice che riporta le lezioni e il criterio è quando lui le ha ritenute importanti e questo è quanto dice in Altlich von Bedeutung nonostante la parzialità e l'aleatorità dei criteri di allestimento dell'apparato queste lezioni si sono rivelate molto utili per quello che cercavo di fare io perché mi è stato possibile rapidamente isolare un primo piccolo gruppo di manoscritti che le cui lezioni trovavano corrispondenza nel testo del volgarizzamento meglio di qualsiasi altro testimone esaminato riportato da steffens in questo modo non sistematico ed ecco un esempio questi sono i tre manoscritti il manoscritto H K L sono tutti manoscritti italiani e tutti alla vaticana ora qui un piccolo esempio veloce abbiamo sulla sinistra l'edizione steffens dal codice berlinese poi le lezioni sempre riportate da steffens pagina 17 e sulla destra la colonna di destra il testo del volgarizzamento come potete vedere adesso purtroppo il tempo non è molto per cui magari non leggerò tutto però insomma guardiamo almeno il primo esempio qui si vede che il gruppo HKL aggiunge il verbo vedere che trova riscontro nel volgarizzamento e lo stesso è nel secondo caso dove l'inserto qui exercitum conducevant a differenza dell'edizione steffens trova corrispondenza nel volgarizzamento li quali menavano l'oste questi sono solo due di tantissimi casi che ovviamente non sto a riportare in questo momento e per quanto numerosi questi casi non sono significativi per sé perché perché come vi accennavo prima le lezioni non sono riportate sistematicamente allora cosa ho fatto ho preso i tre codici e li ho esaminati direttamente ed è emerso senza ombra di dubbio il codice H come quello più come preferibile sia K che L per un per un ampio numero di consonanze quasi raddoppiato rispetto a quelle che segnala l'apparato di Stephens e anche per due errori singolari che si riflettono nel volgarizzamento allora sulla sinistra ora il manoscritto H e sulla destra il testo del volgarizzamento l'errore su cui vorrei attraere la vostra attenzione è l'aggiunta del que dopo il pronome eos un errore che trova corrispondenza nel volgarizzamento dove si legge e quando ebbono notato la quarta parte del fiume expotami et loro incontanente feriano questo è quello che si trova nel manoscritto non è il testo dell'edizione anche sotto ed exinde oh sì sì scusate sotto invece c'è un salto da uguale a uguale sui chinocefali scritti dal coprista in maniera errata l'anolcefalis e questa omissione poi finisce per riflettersi nel volgarizzamento per cui impugnando questi due errori e tutta quella serie di consonanze sono andato a esaminare tutti quei codici che Steffens riporta al gruppo alfa il gruppo a cui appartengono HKL questa è la lista dei codici che ho esaminato direttamente o tramite riproduzioni l'unico codice che Steffens riporta la famiglia alfa e che non ho potuto verificare è quello di Holcomb Hall a Holcomb che ha due passi da Cambridge però è una sfortuna sì ci sono stati vari disguidi il manoscritto non si trovava le volte che sono andato va bene l'esame ha dimostrato che ci sono alcune lezioni soprattutto del manoscritto Z che sono di un certo interesse ma sostanzialmente hanno confermato questi esami questi sondaggi che il testo di I3 trasmesso da H è quello più vicino al volgarizzamento i due errori sono rimasti singolari tra l'altro la conclusione a cui sono giunto è dunque questa che il modello latino da cui è stata tratta la versione in volgare confluita in Cracovia nel testo di Cracovia deve essere un antecedente o collaterale del testo di H che come si diceva è quattrocentesco ciò è di una certa importanza perché perché la versione trasmessa da H e dal gruppo a cui partiene H è imparentata anche col testo usato da Vilichino da Spoleto nel 1236 come dimostrato da uno studio di Thomas Gartner nel 2000 e anche al testo anonimo del volgarizzatore della Marciana dell'Alessandro della Marciana di cui parlerà Lorenzo Fabiani che ha già segnalato in un convegno su Alessandro qualche anno fa questa tripla corrispondenza tra l'altro a inizio 200 a inizio 300 e durante il 400 segnala la fortuna di una specifica tradizione manoscritta dell'istoria dei prelis nell'Italia tardo medievale cosa mettere a testo una volta individuato H rimane il problema di che tipo di testo latino mettere a fronte ho fatto vari tentativi e alla fine ho deciso anche in vista dell'alto numero di lezioni che differenziano H dal testo edito da Stephens ho deciso di procedere a un'edizione diplomatico interpretativa di H il testo di H ovviamente presenta errori allora gli errori sono segnalati in apparato in accordo con l'edizione Stephens l'apparato riporta anche le varianti in accordo con Stephens ed è questo un esempio della pagina come vedete all'apparato si aggiungono anche delle note qui ce n'è una sola e c'è anche un refuso invece della famiglia beta bisognerebbe leggere la famiglia alfa per chi riesce a leggere fino qua scusate comunque nelle note di commento cosa ho fatto ho cercato di interpretare quanto possibile segnalare e quando possibile interpretare quei casi di discostamento che rimangono quelle dissonanze che rimangono per cui nel quadro di una traduzione ad litteram che cosa rimane fuori una volta portato H di fronte al volgarizzamento e segnalo quelle lezioni di altri manoscritti del gruppo alfa che trovano corrispondenza nel volgarizzamento e che quindi si può ipotizzare che fossero nel modello latino ora prima di procedere verso la conclusione un appunto metodologico il mio scopo nel fornire il testo latino chiaramente non è quello di ricostruire il modello usato dal volgarizzatore nemmeno di risolvere la tradizione di i3 semplicemente di fornire al lettore del testo del volgarizzamento uno strumento in più di analisi tutto qua e questo strumento risulta essere la versione di i3 tra quelle a me disponibili con il più alto numero di consonanze con il testo volgare ora che cosa emerge una volta che si guarda al testo a fronte emerge quanto Valentina Nieri segnalava ieri con parole molto chiare e lucide un'adesione ancora più stretta del testo volgare a quello latino dove quasi nulla è lasciato fuori non ho trovato dittologie in questi sette frammenti di testo stiamo parlando di un quarto del manoscritto originale per cui è molto difficile trarre conclusioni però non esiste non ci sono dittologie non ci sono aggiunte le discrepanze rimangono pochissime e questo ho segnalato nella notte di commento le discrepanze che rimangono dovrei chiamarle dissonanze sono tutte farina del sacco del traduttore certamente no perché no perché H non è il manoscritto sul banco del volgarizzatore e C non è insomma è una copia di cui e questi aspetti immagino che Claudia ne parlerà a breve e Claudia Tardelli eppure con questo tipo di testo a fronte e correlativo apparato è possibile esaminare con tutta la necessaria prudenza ma anche con qualche strumento in più spero con maggior cognizione di causa quelle oscillazioni o mancanze di oscillazione a livello di lessico di sintassi che potrebbero offrire materiale utile per ricostruire il milio di appartenenza del volgarizzatore ma anche del pubblico e del destinatario nell'edizione ho segnalato queste oscillazioni sul versante del lessico dove ci sono perifrasi e termini generici al posto di termini specifici modernizzazioni semplificazioni soluzioni di registro alto eccetera non è quello di cui vorrei parlarvi quello di cui vorrei parlarvi invece se ci sono ancora due minuti cinque minuti sono tantissimi spero vorrei parlarvi di due cose la prima è una serie di interessanti omissioni o dovrei dire scorciamenti però usando la parola scorciamenti magari già da un'ipotesi interpretativa qui vedete il testo di H come vedete il testo volgare raccorcia la resa di queste due frasi trasforma riscrive le due frasi in una e quella amenissima in realtà probabilmente veniva letto come amarissimo tradotto con molti molto amari un altro caso trovate sotto dove il testo latino viene tradotto anche in questo caso in maniera più raccorciata guardando il testo a fronte si nota che questo tipo di operazioni sono concentrate in uno dei sette frammenti il sesto che proprio dal punto di vista visivo salta all'occhio perché il testo volgare è più corto del testo latino in maniera significativa ora come interpretare queste omissioni scorciamenti è ovvio possono essere nel testo latino perduto nel modello latino perduto però la tipologia di riscritture a cui ci troviamo di fronte è inusuale non si tratta di omissioni lineari ma proprio di riscritture sommative e quindi si potrebbe ipotizzare che sia stato un intervento del volgarizzatore e come interpretarlo bisognerebbe interpretarlo nell'ottica dell'allestimento del codice un codice il cui parato illustrativo come avete visto è molto molto esigente è il fatto che questi accorciamenti siano in una parte solo nel sesto frammento e non negli altri rinforzerebbe l'idea che rinforzerebbe questa ipotesi interpretativa funzionale che implica in ultima analisi che l'antigrafo usato per l'allestimento di C fosse stato già all'origine un codice illustrato che il testo sia stato commissionato che il volgarizzamento sia stato commissionato per un codice illustrato è solo un'ipotesi che non si può confermare né escludere con certezza ultima cosa di cui vorrei parlare molto rapidamente e così tornare alle immagini vorrei farvi vedere in che modo questo esame stretto tra il latino e il volgare può essere utilizzato e che tipo di applicazioni ha non prendo esempi dal lessico e dalla sintassi Valentina ieri ha fatto vedere alcune casi molto interessanti vorrei se possibile mostrare in che modo questo può aiutarci addirittura anche a rienterpretare il ciclo illustrativo allora come si diceva il ciclo illustrativo è basato sul Late Antique Picture Cycle e come in altri codici dell'Alessandro c'è un'immagine dell'episodio in cui Alessandro e il suo esercito sono attaccati di notte da scorpioni fischianti e da dragoni multicolore ecco qua l'immagine questa è tratta dal bellissimo codice di Lipsia che contiene il testo di I2 e come potete vedere qua l'episodio è riportato identicamente nelle tre recensioni ora in H il testo è diverso sembra che ci sia stato un deterioramento del modello da cui H è stato copiato da cui H deriva e una linea di scrittura quel subito ceperunt ad bibendum in ipsum stagnum scorpiones mire magnitudinis ad venire è caduta o comunque era leggibile magari ed è stata sostituita dall'inserto antequem de ipsa come notate si è verificato un'altra cosa non solo una riscrittura di quella di quell'inserto caduto ma anche un salto da uguale a uguale sulla parola ceperunt per cui il risultato di questo fenomeno è che invece di dragoni multicolore e scorpioni fischianti abbiamo solo dei grandi scorpioni fischianti multicolore questa immagine è da da Cracovia è un caso che il professor Bologna aveva segnalato come un caso importante e questo piccolo scavo conferma la sua la sua analisi che cosa ci dice ci dice una piccola cosa che il ciclo illustrativo di C è stato realizzato in prossimità di questo testo che H e il gruppo a cui appartiene H sono manoscritti italiani e che quindi forse questa recensione figurativa del Late Antique Picture Psycho è stata realizzata in Italia grazie 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 vivissime per questo itinerario anche apprezzando la volontà di far emergere dietro la critica del testo gli uomini e gli scrittori dove sono avvenute queste imprese quindi grazie vivissime e la seconda parte del dittico certo di nuovo un nome italiano Claudia Tardelli Terry di nuovo una università inglese Cambridge e poi la lingua del volgarizzamento inedito di Cracovia del romanzo di Alessandro perfetto europeismo la parola grazie c'è un errore nel titolo oh cielo ma non è assolutamente colpa sua lei non è assolutamente responsabile anzi mi scuso il volgarizzamento non è non è inedito allora un attimo che esatto questa è una versione di powerpoint ecco forse ecco ecco forse ce l'ho sullo schermo eccolo benissimo e quindi mi scuso per questo per questo errore io ringrazio molto sia Corrado Bologna che Claudio Ciociola per il loro gentile invito a partecipare a questo ricchissimo convegno sui volgarizzamenti e ringrazio anche Fabrizio Franceschini che lo vedo presente come Parlarson che hanno discusso con me anche se parvi c'è di non ricordarsi che hanno discusso con me vari aspetti di questo testo e di questa analisi in un luogo e in una città che come a Michele Campopiano mi stanno particolarmente particolarmente a cuore e devo dire che neanche a farlo apposta discutere di questo manoscritto dell'Alessandro o meglio del testo tradito in questo manoscritto proprio a Pisa non potrebbe essere più appropriato se da una parte tentare di ascrivere la circolazione di quello che siamo soliti chiamare non senza problemi romanzo di Alessandro a una particolare area della penisola è operazione certo insidiosa poiché sappiamo trattarsi di una vicenda altamente ramificata sia dal punto di vista linguistico che culturale dall'altra possiamo tuttavia dire che il territorio pisano rappresenta un distretto tra gli altri importante e significativo un distretto all'interno del quale la rielaborazione la fortuna del materiale alessandrino sembra essere stata continua e vivace lungo il corso dei secoli che ci interessano è un eco importantissimo della circolazione di materiali alessandrini nel territorio pisano proviene per esempio dalla presenza come diceva prima Michele in maniera molto più sofisticata di me essendo un esperto al contrario della sottoscritta di materia alessandrina dicevo dalla presenza di una storia delle gesta di Alessandro Magno contenuta nel Liber Guidonis una sorta di summa civica per le elite cittadine pisane realizzata a cavallo tra il 1118 e il 1119 da Guido Pisano diacono della cattedrale e si tratta se non vado errata della più antica testimonianza della recenzio i due come messo sempre in luce da Michele che ha ampiamente studiato e poi edito per Sisme lo abbiamo visto prima il Liber Guidoni se Campopiano propende anche per l'affascinante ipotesi che Guido sia proprio l'autore della redazione i due ancora come messo in luce più di recente anche da Fabrizio Cigni che pure vedo presente all'area pisana è senz'altro riconducibile il cosiddetto microzibaldone pisano trasmesso dal manoscritto 1127 della Biblioteca Universitaria di Padova databile alla fine del XIII secolo ampiamente studiato nel 1980 da Donadello e questo manoscritto contiene proprio in apertura e uniti agli spezzoni del Secretum Secretorum tre brani relativi alla storia di Alessandro Magno di cui uno ossia quello che narra dell'utilizzo degli specchi stori cioè incendiari per la conquista dell'Oriente singolarissimo abbiamo e ne dà notizia anche Ambrosio nell'ampia introduzione al libro anche notizia di un libero Alexandri presente nell'inventario privato di Jacobus Pisanus arciprete della cattedrale di Pisa datato 3 ottobre 1300 e sempre dagli studi di Ambrosio è emerso che ancora agli inizi del 300 Giordano da Pisa si serviva nelle sue prediche di materiali alessandrini riconducibili alla recenzio i due inoltre e qui quoto proprio Ambrosio dall'ampia introduzione al libro è dato significativo che alla fine del XIV secolo dopo tre secoli di riscritture e rielaborazioni Domenico da Peccioli nella sua lettura epistularum senace si appoggia ancora o si dovrà dire di nuovo alla prima recensione dell'istoria la cosiddetta I1 realizzata probabilmente in area tedesca nell'XI secolo fine della citazione e sempre sul finire del XIV secolo Francesco D'Abuti fa riferimento nel suo commento dantesco ovviamente a un libro dei fatti di Alessandro laddove i commentatori che lo precedono tutti accenano piuttosto o una vita di Alessandro o a un'istoria a Alexandri e sono perfettamente d'accordo con Michele Campiopiano e mi chiedo e lo faccio ancora una volta da profana se magari anche la questione del titolo così come quella del genere che al titolo è poi un po' connessa se ulteriormente verificate non potessero fornire risultati interessanti infine in rapporto alla frammentaria diffusione dei modelli iconografici Alessandrini in Italia bisognerà anche tener conto di quella linea di sviluppo e diffusione di modelli bizantini che come messo in luce ancora da Camozzi nell'introduzione al libro passa per la Toscana e in particolare per Pisa i cui collegamenti con Costantinopoli e il Levante sappiamo essere stati particolarmente vivaci e continui nel periodo che a noi interessa ma detto questo in rapporto alla ramificata vicenda della ricezione del materiale Alessandrino in Italia a cui accennavo poco fa in apertura che cosa c'entrano tutte queste pillole o tessere pisane se così possiamo chiamarle con il nostro Alessandro di Cracovia beh una tessera ulteriore che forse possiamo aggiungere al nostro mosaico continuando la metafora pisano è quella che si ottiene attraverso l'incrocio dei dati raccolti sulla lingua impiegata nel più antico rifacimento della vita di Alessandro quello appunto trasmesso nel manoscritto quarto 33 come diceva prima Ambrosio una traduzione all'iteram della redazione cosiddetta itterè ed è proprio sull'aspetto linguistico che vorrei concentrare con voi l'attenzione nella mia piccola comunicazione di oggi abbiamo appena visto ce lo ricordava Ambrosio poco fa come la travagliata storia delle carte riccardiane prima trafugate a Berlino nel XIX secolo poi trasferite a Cracovia durante la seconda guerra mondiale qui dimenticate tra l'altro e soltanto di recente riscoperte ha contribuito probabilmente a far sì che esse non siano mai state oggetto di uno studio dettagliato se da un lato già esisteva una edizione a cura di Alfon Silke pubblicata nel 1922 nella rivista tedesca e qui perdonatemi Seicrift Fur Romanische Philologie in grado di dar conto del testo pur con i molti problemi che l'edizione di Ilka è presente e sui quali per ragioni di tempo non mi posso soffermare dall'altro a dispetto dell'eccezionalità del manoscritto uno studio anche sommario sulla lingua impiegata nel rifacimento non è mai stato compiuto ecco che allora posso dire che se da una parte il testo è caratterizzato in senso vistosamente fiorentino dall'altra a mio avviso a monte del testo del frammento di Cracovia deve esserci stato un modello caratterizzato da una veste linguistica toscano-occidentale piuttosto pisana che lucchese dunque colui che allestisce il testo del manoscritto di Cracovia anzitutto a mio avviso non è il volgarizzatore e ha verosimilmente sul banco un modello caratterizzato in senso toscano-occidentale nonostante sia sempre necessaria una valutazione molto prudente in rapporto a qualsivoglia chiamiamola così analisi tra virgolette stratigrafica la mia ricostruzione credo sia sostenibile se si si tiene conto di certi tratti che ora andremo in un attimo a vedere nel dettaglio e mi sento di dire subito a scanso di equivoci che questi tratti se presi singolarmente sono certo minoritari e sporadici tuttavia se considerati complessivamente sono a mio avviso capaci di formare un quadro riconoscibile come toscano occidentale e più specificamente pisano e vedremo anche che questi stessi tratti non hanno tutti ovviamente lo stesso peso ma come vi dicevo se presi insieme riescono comunque a fare sistema e allora comincerei ovviamente dal piano fonetico segnalando non so se riuscite a leggere spero le forme con assenza del dittongo dopo consonante più r prego ti che registro in due ecco par che si avvicina non promette mai niente di buono no dicevo dopo consonante più r in prego ti che registro in due occorrenze su quattro e provo senza controesempi qui vedete un passo dal volgarizzamento registro anche la forma non dittongata omo in un'occorrenza su 27 quindi nettamente minoritaria aveva quello monte scale di zaffiri 2400 per li quali l'omo salia e attendò insi e qui vedete gli scaloni ricoperti da zaffiri registro poi probabilmente il passaggio o in uda out secondo condizioni del pisano e lucchese antichi in un'occorrenza su quattro eccolo qui rispose enco seguiterami nell'ora della notte mostrerrolati disse alessandro fa te dimmi l'ho fatto tuo è conosciuto o è non certo e si tratta tra l'altro di un passo di difficile interpretazione per noi editori e devo ammettere che proprio in sede di edizione abbiamo avuto un po' di difficoltà su questo passo e alla fine abbiamo deciso di stampare così come vedete qui riportato e devo dire che anche Ilca l'editore primo novecentesco del frammento mi pare che abbia incontrato anche lui qualche difficoltà e vedete come alla fine decida di saltare a pieppari quel fatte di cui evidentemente non sa bene che farsi effettivamente non aveva tutti i torti però d'altronde fatte c'è cosa dobbiamo fare un testimone unico e interpreta sempre Ilca il nostro U che io credo vada interpretato come congiunzione piuttosto V dimmi l'ho fatto tuo è conosciuto V non certo segnalo poi la presenza costante di U postonica davanti a L in Riuli e in Candeulo che talvolta si trova scritto anche con la cappa da Candeolus e questo mi parrebbe un tratto particolarmente significativo in quanto è uno dei più esclusivi dell'antico pisano e il fatto che la conservazione si verifichi in rapporto a un nome proprio è anche questo a mio avviso significativo e vedete qui in questa bellissima miniatura Candeulo con il mantello rosso insieme alla moglie e al nostro eroe Alessandro sulla via di Candaci segnalo poi la conservazione forse inavvertita dell'uso pisano-lucchese di cicce di liata per esse sonora in ginosotife e genosotife entrambe le forme derivanti da ginosofite tramite un tipo con metatesi ginosotife una conservazione anche qui molto probabilmente inavvertita dal momento che siamo in presenza di un nome etnico e questi che vedete qui rappresentati sono i ginosofisti un fenomeno di conservazione analogo a questo mi pare essere quello che si registra nella forma senza controesempi amassoni che tradisce l'esito tipicamente pisano-lucchese insibilante dentale che compare nel volgarizzamento in tre occorrenze e qui vedete le amassoni con la loro regina e questi due ultimi esempi ginosotife e amassoni come dicevo mi paiono significativi perché si tratterebbe in entrambi si tratta in entrambi i casi di nome di nomi etnici e quindi probabilmente percepiti così come esotici dal copista e sfuggiti alla normalizzazione dunque conservati nelle loro forme originali toscano-occidentali non hanno senz'altro lo stesso peso di amassoni ma sono comunque degne di nota o dimensione le forme con mancata la bializzazione della vocale protonica per esempio nell'alternanza domanda-dimanda somigliante simigliante il mancato passaggio da I a O nell'unica occorrenza di indivino per indovino o l'impiego della forma dunqua quest'ultima va detto è d'uso normale oltre che a Pisa e a Lucca anche a Pistoia e a Prato tuttavia come dicevo mi paiono pur sempre significative se valutate globalmente all'interno di questo sistema di tratti che diciamo orientano verso la Toscana occidentale passando al piano morfologico parla anche qui forse a favore di un antecedente pisano l'uscita nel nome femminile plurale le mane per le mani che sulla base degli spogli effettuati nella banca data dell'Ovi sembra essere tipicamente pisana è registrata per esempio nei trattati di Albertano da Brescia volgarizzati nel breve dell'arte della lana nella storia di Barlam e così via e qui vedete ancora una volta ecco qui sono le mane di Alessandro che non si vedono perché sono dietro questo scudo con cui lui sta per uccidere il puzzolentissimo Badalischio anche qui si potrebbe aprire una grossa parentesi o in rapporto alla morfologia verbale accanto alle uscite proprie del Fiorentino in Ero con 18 occorrenze e in Ono con 11 occorrenze che sono largamente maggioritarie segnalo la desinenza itte nel perfetto della terza persona singolare in Patitte forma d'uso preponderante appisa e Eno nel perfetto forte della terza plurale in Ucciseno uscita questa tipica della Toscana occidentale e nell'imperfetto congiuntivo immandasseno e andasseno normale il tipo Ero nelle restanti occorrenze registrate che sono 19 bisogna tuttavia qui precisare che l'allotropia trecentesca è particolarmente spiccata nel settore verbale tant'è che queste forme compaiono anche a Firenze tuttavia sempre con bassi numeri assoluti bassissimi nel caso dell'imperfetto e come nota Roberta Cella in fenomeni innovativi nel fiorentino trecentesco con rilevanza percentuale solo tra gli anni 60 e i 70 segnalo infine un bel imperativo in E in intende forma normale appisa ma va detto anche della Toscana non fiorentina sul piano lessicale e mi avvio verso la conclusione un peso ben diverso credo che eserciti la presenza di Verchione per Chiavistello che rimanda sia al pisano antico che a quello moderno nel Corpus Ovi Verchione per Chiavistello è rappresentato soltanto dai esempi pisani e specificamente da cinque occorrenze presenti nel commento pisano del Buti la distribuzione areale non fiorentina di Verchione suggerita nella banca dati dell'Ovi è confermata proprio dal comportamento assunto da un copista o fiorentino o comunque fedele alla patina linguistica trasmessa dal modello di riferimento del commento del Buti al Purgatorio questo signore quando si trova a copiare questo passo che qui leggiamo dal manoscritto del Buti napoletano che è il manoscritto più autorevole del commento del Buti qui bisogna un po' che vi fidiate ma se Franceschini non non protesta vuol dire che vi potete fidare cennero terra che secca si cavi siamo al verso 115 del canto nono del Purgatorio in questi cinque ternari finge lo nostro autore che l'angelo aprisse con le chiavi l'overchione della porta del Purgatorio ecco che il copista dell'attuale manoscritto Baedense così innova in questi cinque ternari lo nostro autore finge che l'angelo aprisse con le chiavi il chiavistello ovvero il catenaccio ovvero il verchione così chiama della porta del Purgatorio ora l'aspetto interessante secondo me qui è anche che mentre nel caso del passo del buti è evidente che si stia parlando del chiavistello posto sulla porta del Purgatorio se noi torniamo un attimo al nostro volgarizzamento e leggiamo il testo ecco voi capite bene che per il nostro povero copista che lo ricordiamo non è il volgarizzatore quindi non c'ha Vectes lì accanto capire che si sta parlando di chiavistelli fra le scimmie i garzoni di Saracini le cantere che anche lì vero e il leofanti non gli è apparso povero a lui così evidente e come dargli torto ed ecco dunque spiegata forse la conservazione senz'altro molto significativa da un punto di vista geolinguistico di Verchione che verosimilmente stava nel modello e che il nostro copista non è stato in grado di normalizzare o meglio tradurre nella sua lingua ecco che allora proprio su Verchione concluderei il mio intervento di oggi col quale e torno qui volentieri un po' al discorso che facevo all'inizio quando vi ho così messo diciamo in fila queste pillole pisane col quale dicevo mi auguro di aver così contribuito attraverso l'aggiunta di questa piccola pillola o tessera come la si voglia chiamare al vivace dibattito sulla circolazione che pare essere stata fortunata di testi alessandrini nel contesto pisano grazie grazie vivissime per questa dettagliata relazione sulle emergenze o sui relitti pisani in in questo manoscritto di Cracovia e anche devo dire per la citazione pubblica di quello straordinario elenco di libri di Jacopo Beneventano quello pubblicato da Caturelli benissimo le leggi e l'usanza dicono che possiamo prendere un caffè in quanto tempo? un quarto d'ora allora tra un quarto d'ora vi dovete ritrovare qua grazie Lorenzo Fabiani Roma 3 tradurre l'istoria dei prelisi in Italia alcuna osservazione a partire dal volgarizzamento inedito della Biblioteca Marciana subito la parola con molto interesse grazie grazie a tutti i presenti e agli organizzatori allora il quadro generale degli studi sui volgarizzamenti italiani dell'istoria dei prelis è molto cambiato nel corso dei circa 80 anni che ci separano dal fondamentale volume di Storos che ha inaugurato questo campo di ricerca tra i contributi che si sono susseguiti nel tempo alcuni hanno dato un impulso determinante per allargare l'orizzonte degli studi mettendo al centro l'attenzione sulla circolazione manoscritta dei volgarizzamenti e i rapporti delle traduzioni con la tradizione del testo base latino sono alcune delle cose che abbiamo ascoltato prima proprio alla luce del continuo progresso degli studi e dei dati emersi nel corso degli anni mi pare che sia giunto il momento di dotare di una sorta di ideale supplemento il benemerito lavoro di Storos appunto di quell'opera è ancora valida la struttura complessiva io direi che è costituita attorno a sezioni ciascuna dedicata a un diverso volgarizzamento con una presentazione della tradizione manoscritta o a stampa un commento linguistico uno studio dei rapporti con la tradizione latina dell'istoria dei prelis in particolare per determinare la recensione che è alla base di ogni testo volgare l'edizione di brani significativi e un sintetico commento per mettere in luce le peculiarità del singolo testo questa è la struttura diciamo del libro lavorando su un volgarizzamento appunto inedito della recensione i tre dell'istoria dei prelis che è quello conservato appunto alla marciana che a suo tempo fu oggetto dell'analisi di Storos ho potuto misurare la validità operativa diciamo così di una simile impostazione tanto che i limiti per così dire di esecuzione dell'opera mi appaiono in effetti marginali e perdonabili dire quasi giustificabili specie se li osserviamo in prospettiva storica non è dunque a causa di limiti di impianto se il libro di Storos oggi non può più soddisfare chi desideri un quadro completo della situazione italiana dei volgarizzamenti dell'istoria dei prelis ciò che rende necessario integrare le informazioni fornite dal volume è in primo luogo l'emersione nel corso del tempo di materiali che furono sconosciuti a quello studioso per limitarsi ai volgarizzamenti della recensione i tre che è quella che più mi interessa devo dire che non trovano spazio nel libro di Storos tre importanti testi che sono ancora inediti sono pochissimo studiati praticamente sconosciuti direi sono quelli conservati da tre manoscritti diversi che qui vedete uno alla Yale University o Bainiki Library con una segnatura a Takamia 50 uno è conservato a Padova al Museo Civico e l'altro nella biblioteca del Museo Correr nel Fondo Cicogna a Venezia proprio su quest'ultimo volgarizzamento vorrei soffermarmi nel tempo che ho a disposizione non prima però di aver fatto cenno a un altro fondamentale motivo per cui oggi il libro di Storos ha bisogno di essere integrato e in parte mi ricollego a quello che diceva prima Ambrogio perché un'ulteriore mancanza di quell'opera si evidenzia in modo chiaro con il progresso degli studi e questa volta non quelli sulla tradizione volgare ma quelli sulla tradizione latina perché quando Storos scriveva le sue pagine non esisteva un'edizione di riferimento per i tre solo nel 75 come abbiamo visto ne fornì una Stephens basandosi su un solo manoscritto l'abbiamo già detto e registrando in apparato con le elezioni di 19 dei 45 manoscritti noti questa edizione quindi nonostante i propri limiti costituisce ancora un supporto molto utile che consente come abbiamo visto dei passi in avanti enormi rispetto a quello che poteva fare Storos in quel momento storico pubblicare il testo di tre sulla base di un solo manoscritto a mio parere era forse l'unica possibilità per mantenere un rapporto vantaggioso tra il dispendio di energie profuse nel lavoro e l'obiettivo che Stephens verosimilmente si poneva in quel momento cioè offrire un'edizione fruibile di servizio diciamo così in un'ottica simile anche la decisione di includere in apparato le varianti di un numero scelto di manoscritti è coerente e condivisibile diciamo anche l'edizione di Stephens però ha il problema che non soddisfa pienamente proprio nella parte dedicata allo studio preliminare sulla tradizione in manoscritta e in particolare perché non rende sempre evidenti le ragioni che hanno portato al restringimento del numero dei testimoni impiegati e in questo modo quindi si allunga come abbiamo già visto un'ombra anche sulla qualità dell'apparato di varianti fornito quindi tutto quello che seguirà al carattere di un'ipotesi di lavoro fondata sullo stato attuale della conoscenza quindi insomma questo va premesso tenendo sullo sfondo quindi quanto appena detto vorrei dare conto di alcuni problemi aperti ancora di uno studio che è nelle premissime fasi su un volgarizzamento tradito dal manoscritto 854 del fondo Cicogna della biblioteca del museo Correrra a Venezia si tratta di un manoscritto di 56 carte che contiene solo il volgarizzamento dell'istoria dei prelis e quindi fa parte di quel tipo di volgarizzamenti che sono traditi da manoscritti che hanno soltanto quell'opera ce ne sono altri invece che associano l'opera ad altre il manoscritto è databile al secondo quarto del quindicesimo secolo e Barbara Vanin che ha recentemente descritto tutti i codici medievali del fondo Correrra riconduce la confezione del manoscritto ad area nord orientale cosa che secondo me trova riscontro anche nella fascia linguistica del testo il volgarizzamento come ho già detto dipende dalla recensione I3 dell'istoria dei prelis e lo dimostra la presenza di gran parte delle amplificazioni caratteristiche di questa recensione ecco qui c'è un piccolo prospetto diciamo così dove ci sono tutte le amplificazioni caratterizzanti di I3 come vedete sono molte non sono tutte sono assenti gli episodi corrispondenti ai capitoli 132 134 dell'istoria dei prelis che si trovano all'estremo confine del testo che è proprio solitamente una zona di grande mobilità della tradizione sia latina che volgare comunque non mi pare che ci siano dubbi sul fatto che sia un volgarizzamento di I3 volgarizzamento che con ogni probabilità copia di un antecedente perduto e presenta una lacuna nella parte iniziale che corrisponde all'intero capitolo 1 dell'istoria dei prelis nella recensione I3 tra quelli noti per via manoscritta è l'unico i cui capitoli siano dotati di un titolo e di una numerazione progressiva nell'ambito di I3 quindi numero di capitoli e titolazione progressiva che inizia i capitoli iniziano regolarmente con il primo e si concludono nel 161 Emanuele Cicogna che fu il possessore del codice nel suo catalogo manoscritto sosteneva già ipotizzava la finità di questo testo con quello della Marciana un testo che poi però rimase sostanzialmente sconosciuto segnalato soltanto in nota in un lavoro tangenzialmente quindi sostanzialmente mai studiato e quindi per verificare questa congettura dell'antico possessore cioè per determinare se davvero questa storia del manoscritto Cicogna sia in sostanza la medesima per usare le sue parole rispetto a quella tradita dal Marciano vorrei soffermarmi sui punti di contatto tra questi due manoscritti sul manoscritto Marciano come accennavo ho in corso un lavoro di edizione commento che mi ha permesso di individuare alcune zone di testo significative diciamo così luoghi del volgarizzamento che corrispondono a singolari deviazioni diciamo rispetto alla tradizione latina nota verificando il comportamento del manoscritto Cicogna in corrispondenza di alcuni di questi luoghi critici ritengo che sia possibile un sondaggio preliminare che dia qualche indicazione sul grado di affinità tra due manoscritti allora nel preparare l'edizione del Marciano spero che si veda mi è apparso notevole intanto che l'espressione rivolta da Dario ad Alessandro nella prima lettera a lui indirizzata quando gli dice congregasti la truncolos definibus occidentis sia stata tradotta con tua e congregatori ladroncelli dalle confine d'Oriente in base ai dati messi a disposizione dall'edizione Stephens nessun manoscritto si discosta dalla lezione occidentis che poi è stata messa a testo e dico qui una volta per tutte che anche io ho verificato personalmente la situazione su alcuni codici in particolare proprio sul codice urbinate di cui parlava prima in Bologia anche sul codice conservato a Darmstadt che pure affine un poco al manoscritto marciano quindi diciamo ho verificato sull'apparato ma anche poi sui codici che mi sono sembrati più promettenti da quel punto di vista e non ho trovato riscontri di varianti in questo luogo Oriente però quindi una lezione che non sembra trovare alcuna premessa nel testo base latino è una lezione che compare anche nel manoscritto Cicogna dove si legge appunto tu ha congregato tutti i baroni d'Oriente e anche nel libro del Nascimento tu ha congregato alcuni radoncelli delle fine d'Oriente e apro qui una breve parentesi per dire che il libro del Nascimento è un altro volgarizzamento molto importante prodotto anch'esso in area Veneta probabilmente di cui non si hanno testimoni manoscritti noti ma che ha un'abbondante tradizione a stampa e che sarà di qui in avanti tenuto sempre presente con particolare riferimento alla Princeps che è del 1474 a Treviso e verrà sempre tenuto presente non solo perché come si vedrà il suo dettato appare molto vicino a quello dei manoscritti fin qui citati ma anche perché sembra affine al manoscritto Cicogna per via di un dato di sistema perché la scansione dei capitoli nel libro del Nascimento è praticamente identica a quella che ho detto esserci nel manoscritto Cicogna così come anche la titolazione dei capitoli presenta non poche affinità quindi c'è un dato di sistema che mi porta a pensare anche oltre a quelli di microsistema anche uno di macrosistema che porta ad avvicinare il libro del Nascimento al manoscritto Cicogna allora dopo questo primo esempio ne porto un altro che appunto è quello che coinvolge una singolare trasformazione del nome ecco qui Ariolo nome proprio anzi scusate un nome comune cioè Ariolo l'Indovino che viene trasformato forse per una difficoltà del volgarizzatore di fronte alla parola del proprio modello viene trasformato in nome proprio nella recensione I3 dell'Historia dei Preli si legge infatti Ex Urgence Alexander Assomnio feci da sé venire Ariolum eccetera eccetera il manoscritto Marciano riporta la seguente versione del passo ed è sedato Alessandro elevato dal suo letto si fei clamare a sé Ariolo so indovino e si disse che il sogno che Elza aveva il sognato il volgarizzamento tradito dal manoscritto del fondo Cicogna risulta in questo punto affine a quello Marciano nel Cicogna anzi manca anche quell'inciso che nel Marciano chiarisce la funzione del personaggio chiamato Ariolo che potrebbe configurarsi anche come una sorta di chiosa entrata a testo la lezione del fondo del manoscritto del fondo Cicogna la potete vedere è quella che recita Alessandro si fei chiamare a sì Ariolo per quanto riguarda gli altri volgarizzamenti va segnalato che il libro del nascimento non traduce il termine Ariolo ma lo inserisce direttamente a testo facendolo però precedere da un articolo indeterminativo e invece la parola viene normalmente tradotta con indovino in tutti gli altri volgarizzamenti per quanto riguarda un altro esempio che mi è sembrato abbastanza come dire interessante da proporre qui come spia dei contatti tra i manoscritti c'è anche un episodio relativo alla preparazione dell'assedio di tiro che è un episodio caratteristico della recensione I3 e qui si legge il seguente passo per il quale nessuno dei manoscritti latini superstiti stando alle informazioni messi a disposizione da Stephens presenta varianti la parte che ci interessa è qui in eretto ed è quella in cui appunto caulus verus vero ipsius ducis verticem amputavit quindi cosa avviene che c'è un personaggio al quale viene tagliata la testa che era stato presentato poco prima come Theosolius Dux Armentorum dunque c'è un caulo c'è un personaggio chiamato caulo che è uno dei compagni di Alessandro che taglia la testa a un combattente che faceva parte della compagine avversa e il manoscritto marciano travisando il dettato del testo di base recita invece Emmeleager si prese per forza gaulo che era uno dei signori dell'armento quindi Dux Armentorum gaulo diventa Dux Armentorum e si tagliò la testa al ditto gaulo quindi la stessa confusione tra nomi dei personaggi che si scontrano nel marciano la troviamo pure nel manoscritto Cicogna che recita Emmeleagro lo quale era ardito e forte per arme tutti i riguardiani dell'armento si sconfisse e a uno che era dose dell'armento che aveva nome Caul li tagliò lo capo quindi c'è questa confusione che è un errore da cui sono immuni tutti gli altri volgarizzamenti in prosa della recensione di tre compreso il libro del nascimento che più di altri abbiamo visto presenta affinità con i due già citati si possono leggere si può leggere anche il passo nel libro del nascimento ometto di leggerlo un altro episodio dell'istoria dei prelis interessante è quello durante il quale un nobile tebano che è reduce dalla distruzione della propria città trionfa nei giochi indetti da Alessandro questi diciamo volendolo premiare ma ignorando il suo nome gli chiede di presentarsi e lui per tutta risposta afferma di chiamarsi sine civitate Alessandro allora replica e gli chiede o beatissime certator ut quid sine civitate vocaris ecco qua la parte che ci interessa è certator appunto perché la lezione certator che viene trasmessa in modo compatto dalla tradizione manoscritta almeno per la sua parte supersite presa in analisi da Stephens non ci sono appunto variazioni la tradizione manoscritta è compatta da questo punto di vista e nel volgarizzamento marciano all'altezza di questo brano si legge invece che certator diventa creatore vedete o beatissimo creatore perché ha tu nome senza cittate il passaggio dal latino certator a creatore si trova anche nel volgarizzamento tradito dal manoscritto cicogna lo vedete al dando questo Alessandro si dice o beatissimo creatore l'errore è evidentemente una banalizzazione che nasce in seguito alla mancata comprensione del testo di partenza e che può essere stata favorita anche da ragioni paleografiche nessun volgarizzamento noto della recensione i tre dell'istoria dei prelis a parte quelli traditi dal manoscritto cicogna e dal manoscritto marciano partecipa di questa innovazione neppure il libro del nascimento in due casi con i quali concludo questa rassegna il volgarizzamento tradito dal manoscritto marciano traduce in modo non letterale il sintagma tube bellice tra l'altro in un passo che ha fatto vedere anche prima Michele il manoscritto marciano non traduce letteralmente si tratta di luoghi in cui ancora una volta la tradizione manoscritta di tre è secondo i dati a disposizione compatta e non ci sono variazioni anche nei manoscritti che ho osservato direttamente non ci sono chiose sono testi appunto puliti che non presentano nessuna turbolenza in questo luogo il primo dei passi in questione si trova al capitolo 65 dell'istoria dei prelis nella descrizione della battaglia con Dario e qui si legge appunto tube bellice e l'altro a distanza notevole al capitolo 89 è il racconto dei momenti che precedono lo scontro con Poro e ancora una volta qui vediamo tubis bellicis e in entrambe le occasioni il volgarizzamento marciano ricorre alla medesima espressione per tradurre questa formula e questa espressione ora le trombe le cialdinelle cominciarono a sonare e poi ancora sonando le trombe le cialdanelle nessuno dei volgarizzamenti in prosa della recensione i tre ha una soluzione simile a quella appena presentata se non i due che per adesso abbiamo considerato accanto a quello marciano perché vediamo che nel manoscritto del fondo cicogna in corrispondenza del primo dei due brani si legge alla fine le trombe le cialdinelle cominciò a sonare mentre la traduzione del secondo brano era la seguente e suonando le trombe le cialdinelle si cominciò ad assaltarle una parte dell'altra eccetera nel libro del nascimento la traduzione del sintagma tube bellice con la coppia trombe e ciaramelle si trova solo in quest'ultimo caso come vedete mentre nel primo si incontra una traduzione più fedele al dettato originale e comincia a suonare le trombette della battaglia tenendo fermo il fatto che specie in questa fase preliminare dello studio si procede per ipotesi di lavoro cercando tra esse la più soddisfacente la più compatibile diciamo con il quadro generale occorre allora riflettere sull'economicità di una ricostruzione secondo cui lo stesso sintagma in due punti lontani del testo base del volgarizzamento sia trattato allo stesso modo da volgarizzatori diversi trombe e ciaramelle ed altronde erano spesso congiunte nell'orizzonte diciamo quotidiano dell'uomo medievale come testimone ad esempio il fatto che a Siena il comune a partire dalla seconda metà del XIII secolo giunce da stipendiare con denaro pubblico un piccolo complesso composto da suonatori proprio di questi strumenti ecco qui vi do la trascrizione di questo del volgarizzamento degli statuti del comune di Siena l'abbinamento di trombe e ciaramelle in una formulazione diciamo simile a quella presa in analisi lascia di sé tracce anche nei documenti e nella letteratura volgari dei primi secoli come mostrano i diversi casi di coocorrenza delle due parole che si incontrano interrogando le basi di dati qui ho scelto qualche esempio che mi è sembrato particolarmente significativo la coppia trombe e ciaramelle quindi impiegata nei tre volgarizzamenti presi in analisi potrebbe essere dunque uno stilema che riprende una formula comune per certi versi quasi cristallizzata nell'uso fatta questa premessa occorre riflettere anche sul fatto che rendere una parola attraverso una coppia di termini spesso sinonimi offerente a un medesimo campo semantico è un tratto molto frequente nei volgarizzamenti con questo sistema i traduttori come già notò segre perseguono l'obiettivo di cito svolgere tutto il campo significativo della parola di partenza tradurre un solo termine con una dittologia significa quindi compiere un'operazione di cui gli stessi volgarizzatori avevano colto l'utilità per colmare quella distanza tra emittente e ricevente che oggi chiameremmo per citare ancora segre epistemica cioè non solo crono geografica ma anche culturale questo mi sembra un caso evidente di questo tipo di procedimento quanto scritto da Bartolomeo di San Concordio a questo proposito è illuminante perché lui scrive appunto conviene spesse fiate d'una parola per lettera dirne più in volgare e non saranno però così proprie alla luce di queste considerazioni e stando ai dati a disposizione sulla tradizione manoscritta della recensione i tre è possibile che la lezione trombe e ceramelle che accomuna il volgarizzamento marciano quello del fondo cicogna e il libro del nascimento trovi le sue premesse non nel modello latino ma nelle dinamiche comuni ai meccanismi di traduzione quindi ricapitolando quanto detto si può cercare di trarre qualche conclusione anche se come dicevo provvisoria nel primo dei casi presentati la lezione caratteristica oriente che sostituisce l'occidentis del testo base potrebbe essere frutto di interventi compiuti indipendentemente dai sensori diversi favoriti non solo dalla prossimità grafica di due termini ma anche da una sorta di tic mentale di chi scriveva e leggeva le gesta di Alessandro in Italia che poteva essere portato a collocare inconsciamente il macedo nei suoi a oriente rispetto al proprio qui d'altro canto però non si può escludere che la lezione oriente sia segno di una più profonda affinità fra i volgarizzamenti traditi dal manoscritto Marciano dal manoscritto Ciconia e il libro del nascimento legata all'esistenza di un antecedente comune latino ma si è visto che in questo senso la tradizione della recensione i tre non dà alcun appoggio a questa idea o volgare nel secondo caso un nome comune diventa un nome proprio e e questo avviene soltanto nel manoscritto Marciano e in quello del fondo Ciconia ciò potrebbe testimoniare o la mancata comprensione del modello latino da parte di due diversi volgarizzatori oppure la discendenza dei testi da un unico modello però che questa volta dovrebbe essere volgare il fraintendimento del dettato originario diciamo così che porta il manoscritto Marciano e Ciconia a confondere Caulo che era uno dei compagni di Alessandro con il dux armentorum da questi decapitato appare un errore dotato di un certo valore congiuntivo a mio parere a quale altezza la tradizione si sia prodotto non è possibile dirlo con certezza resta tuttavia il fatto che poiché la tradizione latina non presenta turbolenze in quella zona del testo esso potrebbe essere riferito anche molto facilmente a un modello volgare di un certo interesse è anche il passaggio a cui si assiste ancora una volta soltanto nei manoscritti Marciano e Cicogna della lezione Certator alla lezione Creatore si tratta di un errore che potrebbe avere anche caratteri di una trivializzazione poligenetica quindi una sorta di diffrazione diciamo così a partire da una lezione percepita come difficilio da chi volgarizzava poi sarebbe anche una diffrazione in presenza perché nel libro di nascimento abbiamo Certatore l'ultimo caso presentato mi sembra avere anche questo carattere di rilievo l'espressione trombe e ciaramelle lo si è visto era evidentemente in uso ma ritengo difficile che Tube Bellice sia stato sostituito da volgarizzatori diversi con la stessa coppia di termini in assenza di qualsivoglia suggestione che partisse dal testo base latino l'ipotesi poligenetica insomma mi sembra antieconomica di fronte a quella alternativa di una dipendenza dei manoscritti da una fonte comune e tale fonte potrebbe essere una fonte volgare non latina la lezione caratteristica trombe e ciaramelle pare infatti come ho già detto più facilmente uno stilema emanato da dinamiche tipiche della prassi di traduzione che è un riflesso di un modello latino i dati sono microscopici ma messi in successione mi sembra che inducano quantomeno a sospettare che esista un'affinità tra i testi traditi dal manoscritto Marciano e del fondo Cicogna e il libro del nascimento che però ha una posizione particolare rispetto agli altri due che va definita il quadro indiziario fin qui ricostruito induce ad approfondire attraverso un'indagine più capillare magari con ricorso più massiccio al confronto con la tradizione manoscritta dell'Historia dei Prelis la ricerca il fatto che volgarizzamenti diversi di un'opera come l'Historia dei Prelis si presentino come copie identiche è piuttosto è raro se non appunto come vedevamo anche Michele Campupiano ha detto che i manoscritti fiorentini non sono copie ma sono due redazioni diverse quindi è praticamente un rarissimo se non un caso che non si dà e ciò dipende io credo dalla natura stessa di questa tipologia testuale che è caratterizzata da un'intrinseca mobilità e che è sempre aperta a interventi redazionali così come è stato il testo latino in un certo senso ciò tuttavia non impedisce di porre laddove si presentino spie concrete in questo senso la questione genetica più ancora che quella di una semplice affinità nell'ambito degli studi sulla circolazione italiana dell'Historia dei Prelis nella recensione I3 si è trovato il modo l'abbiamo visto di dimostrare che è un particolare ramo della tradizione latina goduto di larga fortuna osservando che rispetto ad altri magari mostra maggiore capacità di entrare in dialogo con la cultura volgare alcune zone della tradizione latina insomma ci si mostrano attive in un determinato spazio in un determinato tempo e abbiamo visto che gli spazi sono lontani e i tempi sono lunghissimi perché sono state in grado appunto si mostrano attive proprio perché sono state in grado di generare dei volgarizzamenti ragionare sulle varianti della tradizione latina e osservare come esse si riverberano su quella volgare significa proprio ricostruire le vie attraverso cui si praticò il travaso del materiale alessandrino dall'uno all'altro recipiente e in questo senso quindi una prima grande generica affinità fra traduzioni si determina laddove sia dimostrabile che esse dipendono da un gruppo di testi di base latini che da solo trasmette una serie di lezioni caratteristiche non è ancora stata condotta nessuna ricerca almeno a mia conoscenza sul caso diverso di traduzioni della recensione I3 dell'istoria di Prelis prodotte in area italiana che abbiano alla loro origine non un modello latino comune ma un testo o una tradizione volgare comune con il mio intervento non credo di aver risolto tutti i dubbi circa il fatto che questo sia il caso dei manoscritti Marciano e Cicogna e del libro del nascimento però credo anche che l'ipotesi che sia esistito diciamo un modello volgare per questi tre testi sia quantomeno da tenere in considerazione per quanto sia necessario un supplemento di indagine per dimostrarlo definitivamente una simile proposta comunque non è incongruente sul piano storico culturale la fenomenologia della copia l'abbiamo visto nel caso dei volgarizzamenti dell'istoria di Prelis pur avendo dinamiche complesse non sempre facili da esplorare ha lasciato abbondanti tracce di sé si pensi al fatto che appunto quasi tutti i manoscritti che noi abbiamo sono copie di manoscritti che sono andati perduti è il caso del Cicogno è il caso del Marciano abbiamo visto il caso del manoscritto di Cracovia ma dunque se questa è la situazione sono esistiti dei centri diciamo così di radiazione da cui le copie dei volgarizzamenti hanno raggiunto le loro diverse destinazioni dove venivano redatti questi manoscritti e con quali modalità rispondere a queste domande è difficile e necessita almeno per i volgarizzamenti della recensione I3 dell'istoria delle prelis quel tipo di ricerca di ampio raggio cui facevo cenno in precedenza e che mi auguro di poter condurre in futuro una ricerca che riprenda e integri il lavoro di Storos dando conto di quei vulgarizzamenti che gli furono ignoti studiando la storia della trasmissione in stretto rapporto con la tradizione latina e la storia della ricezione con attenzione non solo ai singoli testi che traducono l'istoria dei prelis ma anche ai sistemi che essi a volte costituiscono con altri testi cui sono associati riguarda i testi in latino ma questo vale anche per i testi in volgare ovviamente un altro dei vulgarizzamenti di cui occorrerebbe occuparsi in questo senso è quello conservato presso la biblioteca civica di Padova che ho citato solo rapidamente durante il mio intervento esso viene trascritto come anche il marciano nel quindicesimo secolo già avanzato appunto abbiamo visto che è datato 1464 e proprio su questo monoscritto vorrei chiudere ma in un certo senso anche aprire perché proprio a partire da alcune suggestioni che se ne ricavano si può rilanciare la sfida per trovare una risposta a quelle domande che ho appena posto il monoscritto che fu redatto da Andrea Vitturi ha un volgarizzamento della recensione I3 dell'Istitola dei Prelis preceduto da un volgarizzamento del Florimò che è un vero e proprio antefatto appunto del ciclo alessandrino e che è posto strategicamente come accessus al romanzo del condottiero Macedone ecco qua l'explicit che è già stato citato da Michele Campopiano qui nell'explicit appunto il volgarizzatore dei testi di entrambi i testi che probabilmente non fu Vitturi ma qualcuno che lavorò prima di lui e forse ancora nel XIV secolo se sono giuste le osservazioni che fece ormai anni fa Antonio Midin che è stato l'unico che si è occupato che io sappia di questo codice appunto il volgarizzatore rende esplicito il regame tra le due opere ricordando ove mai ce ne fosse bisogno che da Florimò nacque Filippo di Macedonia che questi a sua volta ebbe un figlio ebbe nome Alessandro e conquistò poi tutto come intenderete seguitando lo libro preditto e questo libro fu traslatato eccetera eccetera fu traslatato in lingua latina per aimo romano e fono 1103 anni al di 18 di aprile e fono mandato in molti luoghi le copie a ciò che tra scrittura si intendessero per memoria e ricreazione delle persone che si diletteranno a intendere le cose passate il passo quindi nonostante scusate alcune piccole difficoltà testimonia che la saldatura del Florimò e dell'Alessandro in un'unica opera fu voluta proprio dal volgarizzatore dei due testi e il progetto editoriale alla base del libro che era annunciato peraltro anche nel prologo dell'opera nel prologo del volgarizzatore che è preceduta suolta da un prologo di Vitturi che è solo copista del manoscritto appunto questo progetto editoriale si rende così scoperto così come l'obiettivo che i due testi saldati in uno si prefiggono cioè alimentare la memoria del passato insieme direttare un pubblico di intenditori un pubblico che evidentemente non era ristretto perché secondo me l'immagine di questo libro traslatato di cui furono mandate in molti luoghi le copie per quanto sia riferita al Florimò sembra descrivere lo stato di cose al tempo del volgarizzamento italiano grazie bene molte grazie per questa relazione che insieme stabilisce dei collegamenti ma soprattutto pone tante nuove domande e dunque con i ringraziamenti transitiamo all'ultima comunicazione con un titolo molto sintetico dunque Giovanni Borriero Università degli Studi di Padova note sul Liber Alexandri passo la parola la giusta distanza ecco scusate ma non ci vedo né da vicino né da lontano bene allora io ringrazio innanzitutto Corrado Bologna e Claudio Ciociola per l'invito ma ci tenevo anche a ringraziare tutti i giovani colleghi che mi hanno preceduto perché devo dire che ho imparato molte cose in queste due giornate e grazie tra l'altro la mia relazione Alessandrina anch'essa dovrebbe essere costellata da citazione gli interventi che mi hanno preceduto non sarà così diciamo che siano implicite e nelle pieghe del discorso insomma comunque mi riallaccio a tutti gli interventi molto interessanti in più ecco io mi rivolgerò non solo agli Alessandrini agli studiosi di Alessandro agli iniziati ai misteri ecdotici di questo groviglio ma anche agli altri quindi mi scuseranno i colleghi che hanno parlato di Alessandro se insomma parlerò anche di questioni generali il mio intervento l'argomento della mia relazione verte sulla redazione del Libera cosiddetto Libera Alessandri tramandata dal manoscritto conservato a Firenze Biblioteca Nazionale Centrale 2 1 363 alle carte 83 recto 126 verso avete qui la prima carta cioè l'83 recto con anche la trascrizione diplomatica io sto approntando l'edizione di questo testo sono molto più indietro dei giovani colleghi con relativa analisi linguistica preferisco però in questa sede piuttosto che squadernare diciamo delle schede di lavoro ancora parziale riprendere e sviluppare i risultati a cui sono giunto anche a partire da un contributo che ho dedicato a questo tema però un contributo molto più più tecnico e soprattutto vorrei riprendere le questioni di carattere metodologico punto di partenza per chi si accinga a studiare il manipolo delle versioni italiane della leggenda alessandrina è costituito dalla visualizzazione direi propria proposta da Ross nell'Alexander Historiatus seconda edizione del 1988 prima del 63 visualizzazione che esplicita i rapporti intricatissimi che intercorrono tra i vari costituenti delle storie in un'asse spaziale e temporale secondo la sistemazione proposta sostanzialmente da Cari nel laureo volume del 1956 si tratta come ovvio di una semplificazione operativa accedervi produce comunque uno spaisamento se non un reale sgomento pari a quello di Alessandro nella Valle Perigliosa un luogo ostile e misterioso da cui non si sa bene come uscire è chiaro infatti che anche per editare un singolo testo della catena lo si è visto oggi è necessario procedere a una preventiva collocazione nell'ambito della tradizione tanto più per le opere che non costituiscono un'elaborazione originale ma si configurano come una traduzione il primo passo in tal caso è cercare di individuare il testo o meglio la pluralità di testi soggiacenti la polarità elaborazione originale versus traduzione è anche qui legittima in una sorta di reduzione funzionale alla gestione di una tradizione così complessa e variegata altrimenti impraticabile basti pensare a un ramo minimale che è quello del romano d'Alexandre che sussume direi tecnicamente l'estensore stesso del prologo a dichiararlo le precedenti esperienze poetiche su tutti i romani Andecassillab provvedendo a rabberciare per Paniaus ad operare una traduzione perché anche essa è una traduzione in Alessandrini del testo la complessità stratigrafica era visabile anche nella redazione che lega il testo tradotto la sua fonte qualora questa ed è il caso nostro non sia costituita da un singolo liber perfettamente individuabile quanto piuttosto sia rappresentata da quella che potremmo definire una costellazione testuale i cui individui non sono chiaramente decifrabili nella loro unità e specificità i confini del testo fonte risultano allora per così dire sfocati sovrapposizioni e riscritture increspano la verticalità della tradizione rendendola così accidentata prendiamo appunto lo schema di Ross da cui tutti partono che è bene sottolinearlo non modella un albero genealogico i cui principi di organizzazione stemmatica rendano parlante la trafila della figliazione dei testimoni si tratta piuttosto della rappresentazione di insiemi linguistici in primo luogo di agglomerati testuali per cui sia possibile stabilire un minimo di interrelazione l'istoria dei predis da cui provengono i testi italiani è catalogabile nella versione delta dello pseudocallistene e rimonta lo si sa a leone arciprete tra le sue altre fonti vi sono però altri modelli e manoscritti perduti l'istoria conosce poi cospicue interpolazioni secondo direttrici piuttosto sfumate orosio altri modelli per i due alessandro ebraico e romano d'alexandra per i tre ad inquietare è comunque questa specificazione che segue questa clausola indeterminata eccetera chissà cosa si nasconde dietro questo eccetera in particolare dai tre discende fondamentalmente ma non esclusivamente la tradizione italiana lo spettro linguistico geografico e temporale è di eccezionale ampiezza come possiamo vedere per limitarsi solo agli idiomi implicati abbiamo latino lingue slave ceco polacco russo ugrofinniche e italiano la visualizzazione è come potete vedere a raggera quasi una sorta di irradiazione dai tre visivamente indicato come fonte unica se le cose stessero veramente così l'edizione di ciascun testo dovrebbe almeno teoricamente tenere in considerazione tutte le variegate e disparate tradizioni non penso naturalmente alla confluenza in un ipotetico apparato della varia lezione ma piuttosto alla formulazione alla voce fortuna di i3 di una mappa della ricezione della fruizione e della traduzione dell'istoria dei proelis in questa sua versione interpolata impossibile dunque ricavare dallo schema di rosse dunque da cari e dagli studi precedenti i rapporti che regolano le versioni italiane quanti intermediari vanno ipotizzati dai tre alle versioni in volgare italiano che grado di parentela esiste tra questi testi le questioni sono rilevanti non solo da un punto di vista diremmo così ermeneutico metodologico ma anche per quella che è la prassi procedurale in definitiva andranno edite tutte le rediazioni italiane singolarmente o è possibile costruire uno stem più preciso per cui una o più traduzione venga declassata a coppia con la varia lezione relegata in apparato un aiuto parziale a risolvere la questione a uscire da questa valle perigliosa ci giunge come si sa da Storost che in un libro imprescindibile del 35 indaga proprio sulle traduzioni italiane pur editando parzialmente però devo dire quasi impeccabilmente le redazioni e riesce a sbozzare per ciascun individuo testuale un sistema di relazione con le fonti non tutto proviene dai tre e ciò provvede a scardinare almeno in parte la raffigurazione predisposta da Ross c'è da tenere poi in considerazione che Storost edita solo una minima parte dei testi limitandoci poi a proporre ma è già tantissimo delle sintesi di sutura e raccordo tra i vari lacerti una visione parziale un procedere per loci critici per così dire che al merito di fornire una prima visione di insieme dove a essere sacrificata per forze di cose è la voce e dunque la specificità di ciascuna testimonianza in definitiva date le premesse Ross Storost che potremmo riassumere in assenza di una configurazione se non stemmatica quanto meno relazionale ed insieme che tenga da un lato e parcellizzazione dei dati nell'edizione dei singoli snodi ritenuti significativi dall'altro l'ipotesi più economica come dimostrato anche da oggi appare dunque quella di propendere per l'edizione di ciascun singolo testo ma auspicabile sarebbe poi stabilire dei criteri di massima costruire almeno un sito che accolga tanto le riproduzioni fotografiche che le edizioni diplomatiche e diplomatico interpretative di queste versioni insomma è un appello che lancio analizziamo ora da un altro punto di vista quello storico letterario la questione prima di concentrarci sulla tradizione oggetto di analisi in questo mio intervento per fornire qualche nuova da quella che chiamerei la periferia del canone è chiaro che anche qui l'assenza di edizioni complete di relativi studi linguistici in primo luogo non può che determinare un approccio parziale possediamo comunque una serie di studi dall'edizione di nobili fatti di Grion del 1872 alla recentissima e importante sistemazione operata da Michele Campopiano nei volumi dell'Alexander Redivivus che ci permettono di collocare questi testi all'interno di un orizzonte storiografico si tratta di una decina di opere derivanti stante la forzosa categorizzazione Kerry Ross sia dalla tradizione romanzesca sia da quella cosiddetta storica sono barriere che probabilmente andranno superate non è il caso di elencare qui le varie redazioni le avete le avete qui sono queste più l'aggiunta che si dicevano più le aggiunte che si dicevano poco poco fa preme piuttosto sottolineare alcune costanti ricavabili dagli elementi a nostra disposizione è chiaro comunque che l'edizione dei testi e insisto l'analisi linguistica delle script potrà modificare o quantomeno precisare il quadro a nostra disposizione ci troviamo ebbene osservarlo subito alla periferia del canone Alessandro un personaggio che è così straordinario insomma nella sua polimorfia figura di Cristo e figura anni anticristo al contempo ma anche ingombrante come personaggio naturalmente non gode di un gran successo nel nostro medioevo non è praticamente protagonista di alcuna opera indipendente originale il dante della commedia lo ignora relegandolo ammesso che sia lui sarebbe forse peggio un emistichio nella teoria dei tiranni nel De Monarchia è exemplum direi quasi meccanico per certi aspetti della ruota della fortuna che dà e toglie nel complesso le opere si rifanno principalmente alla tradizione romanzesca in particolare l'abbiamo visto l'interpolazione I3 degli stori dei predis anche se sarà da insistere a livello di ricostruzione filologica proprio su scarti e deviazioni scarti che Storost ha cercato un po' di imbrigliare e sottomettere a una logica di base altro effettivamente non poteva non poteva fare quanto alle fonti la matrice è dunque latina e quindi abbiamo un rapporto di verticalità e non romanza orizzontale il romanzo d'Alexandra e le sue molteplici ramificazioni non hanno goduto di particolare fortuna in Italia pur essendone testimoniata la presenza la fortuna di Alessandro dato questo sì indubitabile si manifesta più che altro nell'umanesimo e nel rinascimento è un Alessandro raccontato per lo più in prosa e la cui tradizione è sostanzialmente manoscritta i testi sono quasi tutti anonimi e anepigrafi e anche qui la storia si costruisce e silenzio la stratificazione che esibisce e modella il passaggio della fonte latina alla realizzazione volgare provvede a cancellare le tracce degli autori per dirla con Victor Hugo una citazione che mi è cara chaque flot du temps superpose parla naturalmente di Notre-Dame e de Paris superpose son alluvion chaque race depose sa couche sur les monuments chaque individu apporte sapere le caratteristiche formali dei manufatti ci dicono poi qualcosa della trafila produzione fruizione non si tratta molto probabilmente di una letteratura in senso stretto di corte ma quanto piuttosto tra virgolette borghese siamo anche linguisticamente alla periferia del canone Firenze e la Toscana per certi aspetti ma non per tutti sono eccentrici a parte il discorso su Pisa rispetto a questa tradizione perché il nord Italia è effettivamente più rappresentato in quella linea Treviso Venezia Emilia-Romagna nulla di paragonabile allora con quanto capita in Francia ma questo è un altro discorso veniamo alla versione di Firenze l'analisi di ciascun testo va dunque ricondotta al quadro generale e al caso particolare e viceversa data la solidarietà che almeno sulla carta dimostrano di possedere le versioni procedenti dall'istoria di Predis e in particolar modo di I3 abbiamo sbozzato delle coordinate spazio-temporale ora più precise grazie per l'appunto a Campopiano siamo nel 400 in area padana e vediamo ora più da vicino un prodotto che si può definire per tutti gli aspetti tipico perché tipico? come il libero Alexander contenuto in questo manoscritto fiorentino che chiamerò F perché la fonte è I3 si tratta di un manoscritto cartaceo senza miniatura rimonta al XV secolo ed è in prosa nonché è localizzabile nell'Italia del nord più precisamente nella zona padana una seconda operazione una volta tentata la contestualizzazione dei dati dei testi è quella di indagare ciascun codice non come semplice contenitore di testi ma come estensore di un canone o quantomeno di un progetto che si può chiamare editoriale ad esempio il ricordato manoscritto di Firenze Biblioteca Nazionale Centrale 2 secondo primo 62 contiene si è detto prima i nobili fatti una vita di Carlo Magno di Donato Acciaiuoli una vita di Dante di Boccaccio e una di Cicerone di Bruni lo spettro biografico che presiede all'assemblaggio di questi viri magni potremmo chiamarli si dispone chiasticamente sulle direttrici delle armi Alessandro e Carlo Magno e delle lettere Dante e Cicerone con fonti salvo quella di Boccaccio naturalmente classiche vediamo ora il contenuto del manoscritto fiorentino allora vedete qui nella carta di guardia è annunciato l'autore e il titolo cioè Giovanni Bonsignori di Città di Castello si tratta del libro imperiale allora questo manoscritto è sostanzialmente diviso in due parti vedete da carta 1 78 verso noi abbiamo della mano A il libro imperiale per l'appunto l'origine di Roma e la tavola del libro imperiale quindi fatti di Cesare potremmo chiamarli quattro facciate bianche segnano il trapasso alla seconda parte del codice seconda parte del codice di mano B diciamo di argomento aristotelico alessandrino perché abbiamo un frammento del secretum secretorum e il liber alexandri ad espoto e anepigrafo vedete qui questa è la carta di guardia ci dice appunto che questo manoscritto proviene dalla biblioteca del senatore Carlo di Tommaso Strozzi 1670 una lettera capitale qui si vede poco nulla di quattro righe d'altezza la cui ornamentazione si estende su due terzi del margine marca l'incipit del testo rubriche in rosso e lettere capitale di tre quattro righe d'altezza segnalano la segmentazione del libro imperiale in diversi capitoli ulteriori segni di punteggiatura marcano sottodivisioni a carta 63 verso ce l'avete ce l'avete qui scusate abbiamo l'origine di Roma il titolo è giunto da una mano recensore vedete nel margine i testi a 1 e a 2 non sono separati ma copiati senza soluzione di continuità senza alcuna rubrica organica ed originale e o indicatore formale segno di paragrafo o altro o spazio bianco quindi per il copista si trattava di un unico testo testo che si conclude a carta 75 verso Deo Grazia Samen vedete segue la carta 75 verso 78 verso la tavola delle rubriche dei capitoli di ciascuno dei quattro libri del libro imperiale che si conclude tavola a 78 verso con l'explicit è un manoscritto in cui si ringrazia sempre Dio ovunque a carta 81 recto dopo alcune facciate bianche di altra mano vedete che questo si vede subito che si tratta di un'altra mano abbiamo un frammento del secretum secretorum attribuito ad Aristotele il copista o il suo modello ha riconosciuto il carattere frammentario del testo perché infatti ci dice questo sia uno capitolo tratto da uno libro che si chiama il secreto degli secreti di Aristotele filosofo eccetera eccetera metà della carta 82 verso è lasciata bianca quindi marca una separazione e a carta 83 recto comincia la sezione che ho chiamato B2 cioè la storia anch'io mi tengo sempre su questa etichetta in un romanzo la storia di Alessandro ad espota e anepigrafe il testo non è introdotto da alcuna rubrica particolare ma la lettera capitale vedete più grande delle altre si estende su cinque righe d'altezza quindi marca comunque un inizio ciascun paragrafo è inaugurato da una lettera maiuscola su tre righe di altezza a inizio rigo alcune lettere sempre procedute da un segno di punteggiatura sono ritoccate in oro e qui naturalmente la coppia in bianco e nero non lo vedete indicano naturalmente ulteriori suddivisioni interne il testo si conclude attorno alla metà di carta 126 verso con l'indicazione dell'explicit explicit libri alexandri deo grazia samen naturalmente dio vigesimo ottavo mensi juni 1473 testo presente inoltre sottolineature correzioni interlineari nel margine del foglio dovute probabilmente alla mano alla stessa mano sia la mano b che ha esemplato il testo alcune rapide rapidissime schede il manoscritto e vi risparmio l'analisi dettagliata e la dimostrazione fidatevi quella che ho condotto l'analisi codicologica diciamo ha sofferto di perturbazioni queste perturbazioni sono testimoniate sono avvenute tra la descrizione di Mazzatinti 1898 e il volume di Storost 1935 con un restauro cioè con un riposizionamento di carte fuori sede che è avvenuto prima del 6 febbraio del 1933 due l'abbiamo visto le mani implicate torniamo allo schema a la mano a e la mano b la prima è responsabile della sezione a1 a2 a3 quella relativa diciamo così alla storia romana la seconda del segmento aristotelico alessandrino b1 b2 lasciamo perdere anche qui l'analisi codicologica dei fascicoli essendo l'ultimo redattore non mi pare il caso di infierire che dimostra ancora una volta una perturbazione nella parte terminale del manoscritto quella che qui ci interessa il manoscritto fiorentino si presenta dunque diviso nettamente in due segmenti da un punto di vista paleografico e contenutistico pur essendo parte la sezione alessandrina di una stessa coerente e condivisa unità codicologica alla mano a pertengono i fascicoli dal primo all'ottavo quella b opera nei fascicoli dal nono al tredicesimo si pone allora una questione per certi aspetti insolubile cioè l'aggiunta della mano b è casuale perché vi era dello spazio bianco oppure questa iunctura cesare alessandro è dovuta a una progettualità datazione siamo nel 1473 come riporta avete visto l'explicit rapportabile questa data alla coppia dei testi b1 b2 molto probabilmente non ha tutto il manoscritto secondo storost la storia di alessandro contenuta in f qui riemerge uno dei problemi che abbiamo visto stamattina sarebbe una coppia sostanzialmente fedele di una versione proveniente una versione naturalmente involgare proveniente dai tre ma in relazione anche con i1 e i2 la tipologia degli errori salvo analisi più approfondita sembrerebbe sostanziare la presenza di tale intermediario la lingua ma qui naturalmente ci sarà da lavorarci ci riporta quindi sono molto vago tra Emilia e Veneto contenuto abbiamo visto libro imperiale che cos'è il libro imperiale è una compilazione in quattro libri che narra nei primi due gli ultimi anni della vita di Cesare fino alla sua uccisione i libri terzo e quarto celebrano l'origine imperiale come spesso capita di alcune famiglie in particolare dei Colonna e dei prefetti di Vico testo ha una tradizione complessa il libro imperiale perché è tramandato da 18 manoscritti e tra l'altro la complessità vi è anche a livello attributivo perché è tradito con diverse attribuzioni Cam Can cambio da castello cambio di Stefano Camillo Giovanni Bonsignori Giovanni Bonsignori nato a città del castello prima della prima metà del quattordicesimo secolo il libro imperiale gli viene secondo me giustamente e comunemente attribuito perché presenta una profonda affinità con una versione volgarizzata delle metamorfosi di Ovidio queste sì ascrivibili sicuramente a Giovanni Bonsignori vediamo ora il contesto di ricezione la circolazione dei romanzi francesi di materia antica Tebe Troia Alessandro nel nord Italia è ben documentata nel tredicesimo secolo quanto alla galassia specifica del romano Alexandre il manoscritto dell'Arsenal che avete qui 3472 che contiene quelle che potremmo chiamare le vestigia dell'Alexandro de Cassillabic va ricondotto almeno per l'impianto decorativo al contesto universitario bolognese e presenta aggiunte di mano italiana è proprio la carta che vi ho riportato la 16 verso il manoscritto Correr più bello anch'esso del tredicesimo secolo è stato realizzato nell'Italia centro settentrionale più precisamente anche qui l'apparato iconografico e la scrittura ci portano a Bologna e quanto alla circolazione al milieu preumanistico bolognese e padovano il manoscritto parmense della biblioteca palatina 1206 degli inizi del del quattordicesimo secolo è di provenienza italiana infine un notaio trevigiano trascrive probabilmente nel 1325 una lassa del romano d'Alexandra nel quaternulus possessionum del comune di Treviso tutti i manoscritti di fattura italiana del romano d'Alexandra vanno associati a questo asse Bologna Padova come secondo questa felice etichetta proposta da Paolo Rinoldi nella Venezia del tredicesimo secolo la lettura delle avventure di Alessandro è ben documentata il Florimont di cui abbiamo parlato prima che racconta le gesta degli antenati del macedone circolava nel nord Italia a partire dalla prima metà del tredicesimo secolo e si è parlato di questa copia del patrizio veneziano Andrea Vitturi e di questa storia di Fiaramonte di Durazzo in un manoscritto datato per l'appunto settembre 1464 a Venezia circolavano oltre alle versioni che abbiamo appena visto anche per l'appunto il libro del nascimento e l'Alessandreida in rima la Iungtura Cesare e Alessandro cosa si può dire? beh naturalmente questa è la Iungtura classica nelle compilazioni di storia universale per citare un testo conosciuto nel nord Italia si pensi all'Istitua Ancien Giusca César ma ci può essere dell'altro il quindicesimo secolo è il secolo della riscoperta di Plutarco in Italia e la fortuna delle vite parallele in Europa passa esattamente per Padova anzi da Padova come è stato dimostrato si irraggia a Venezia e da lì per la penisola Guarino Veronese che ritroviamo a Firenze Venezia Verone Ferrara come insegnante di Greco conclude tra il 1411 e il 13 la traduzione di Alessandro e Cesare da Plutarco per candido Decembrio attivo nella corte viscontea di Milano in quella estense di Ferrara autore di un epitome latina delle vite di Plutarco di una versione italiana dell'istoria di Curzio Ruffo redige una comparazione tra Cesare e Alessandro il manoscritto fiorentino qui esaminato costituisce un ulteriore capitolo della fortuna di Alessandro in Italia e più precisamente nel nord tra Bologna e Padova il codice ci propone sulla scorta di Plutarco ma in isteron proteron potremmo dire come nel poemetto dell'intelligenza le vite parallele di Cesare e Alessandro il poemetto dell'intelligenza infatti databile al XIII secolo ci presenta l'ecfrasis della storia di Cesare alle lasse 77-215 ecfrasis che precede le figurazioni relative ad Alessandro nelle lasse 216-239 quindi esattamente con quest'ordo Cesare-Alessandro e chiudiamo restringendo ancora di più il campo prospettico con Padova il legato dei libri che un lettore ci lascia che è questo benvenuto dell'anzarotti alla morte ci permettono ad accedere alla biblioteca dei primissimi del XV secolo è datato infatti 30 maggio 1402 era un lettore appassionato evidentemente di letteratura d'Oil ci lascia questo catalogo di una dozzina di libri tra cui troviamo due esemplari di un tristano un sangradale un liber alexandri scritto su questo intervenuto il maestro dei nuovi padovani Gianfranco Folena ma anche un altro maestro che ricordo sempre volentieri che è Paolo Sambin scritto ci dice Folena in francese non si sa può essere un romanzo in versi un romanzo in prosa francese questo Folena non ce lo dice nulla però impedisce di ipotizzare che non si tratti di un libro in francese ma di un libro in italiano nel manoscritto fiorentino noi leggiamo infatti l'explicit libri alexandri se il copista si riferisce al modello ossia abbiamo visto che la fonte è i tre il libri alexandri potrebbe essere in latino ma abbiamo visto che la tipologia di errori fa pensare che F provenga da un antecedente in volgare italiano spesso se visto per le versioni italiane non in volgare italiano non rimontano direttamente dal modello latino ma è necessario ipotizzare un intermediario in volgare l'etichetta libera alexandri è applicabile però anche per l'appunto alla storia stessa che la mano bi esempla nel codice fiorentino cioè qui termina la storia che ho copiato che ho scritto questo libro d'Alessandro l'uso del latino serve a nobilitare l'opera abbiamo anche nel manoscritto veneziano la stessa clausola si conclude appunto con explicit libera alexandri mani anche qua vale lo stesso discorso se la fonte sia latina o italiana o il libera è questo la biblioteca di De Landarotti conteneva un liber domini Ioannis Boccacci che Folene identifica come un Decameron molto semplicemente quindi un libro in italiano posto che il libro Alexandre contenuto in F è in volgare italiano manoscritto fiorentino che noi abbiamo visto e che molte storie della matière d'Alexandre sono state composte nel nord Italia se non proprio nel Veneto si può supporre allora che il libro posseduto dal De Landarotti sia scritto in volgare italiano senza però spingersi oltre non è possibile naturalmente identificare la storia alessandrina contenuta nel manoscritto fiorentino datato 1473 con il libro del Padovano testamento 1402 né tantomeno si può inferire che il libero Alexandre di Padova sia il perduto modello di F sarebbe fantafilologia possiamo semplicemente osservare ed è un tentativo di uscire da quell'intrico della valle perigliosa in cui ci siamo volontariamente cacciati parlo non in plurale maestatico ma tutti gli amici certo uscirne non con la baldanza dimostrata da Alessandro diciamo possiamo semplicemente osservare la solidarietà di dati materiali e non che non concorrono certo a disegnare un quadro coerente ed unitario quanto piuttosto a illuminare nella periferia del canone tra Venezia Padova e Bologna una tradizione poco conosciuta ma sicuramente vitale e per molti aspetti ancora da decifrare vi ringrazio bene ringraziamo molto perché con precevolissimo linguaggio tecnico e con ingursioni tra il micro e il macro abbiamo avuto un'eccellente sintesi dei problemi delle questioni e anche delle novità emergenti da questa storia così fascinosa e credo che le suggestioni siano molte e che quindi si possa aprire immediatamente una discussione invitando forse qui di volta in volta per parlare per rispondere gli oratori e gli interrogatori degli oratori chi si lancia e chi comincia osservando ah no era proprio solo la sete lo spingeva fin qua santo cielo io volevo fare una domanda sull'Alessandro di Cracovia di entrambi i relatori che ne hanno parlato i cracoviani vengano qua così in realtà soltanto chiedere un piccolo chiarimento posto che io ho trovato molto convincente l'argomentazione sull'antecedente pisano cioè che quei pochi segni veramente soprattutto quali sui nomi propri mi sembrano veramente spie parlanti ma io ho accolto a un certo punto che uno di voi due ha detto il manoscritto del secondo quarto del 300 volgarizzamento di inizio 300 allora mi chiedevo ci sono degli indizi voleva dire semplicemente prima metà oppure ci sono degli indizi veramente per risalire perché pensavo comunque a quell'esplosione di volgarizzamenti a Pisa proprio nei primi decenni nei primissimi decenni del secolo in cui a questo punto viene voglia di collocare anche questo ma forse sono io che esagero il primo 300 vola solamente dire prima metà giustamente grazie prima metà sì non ci sono elementi diciamo sufficienti per restringere il campo per quanto mi riguarda no 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 l'errore è mio ho detto secondo quarto e poi nel corso della presentazione invece ho parlato di inizio 300 intendevo in realtà la prima metà errore mio no dal punto di vista invece della lingua no non sono emersi tratti che aiutino l'adattazione il processo di adattazione e invece la seconda domanda per quanto riguarda le illustrazioni perché l'antecedente latino il codice più vicino che tu hai trovato che però naturalmente è un codice successivo non è illustrato vero ma invece per le illustrazioni si possono individuare dei modelli più vicini penso per esempio alla faccenda degli scorpioni il fatto che ci sono solo gli scorpioni non i draghi cioè qualcosa che si ritrova in altri cicli oppure ma questo è sempre una curiosità molto perché mi chiedevo se il ciclo illustrativo fosse in qualche modo nato sul volgare oppure se già in latino perché quello è un aggiustamento veramente puntuale di qualcuno che è stato molto attento al testo che leggeva la ringrazio molto ti ringrazio molto per la domanda sul ciclo illustrativo credo che ci siano altri interessi su questo aspetto per cui mi chiedevo visto che ho delle immagini più estese se magari raccogliamo altre domande sul tema io nel frattempo trasferisco le immagini sul computer le immagini parlano sempre sì anche io avevo così delle riflessioni circa il codice di Cracovia che devo dire avevo avuto modo già di vedere via internet grazie a Camozzi che mi aveva mostrato un'anteprima ecco molto gustosa di questo esemplare effettivamente straordinario e ora che appunto Claudia ci mostra questa particolarità linguistica collegandolo anche per esempio al micro Zibaldone Pisano cioè a quel codicetto conservato a Padova che contiene testi affini e esempi tratti dalla leggenda di Alessandro forse si potrebbe dire che comunque la materia pseudo-aristotelica c'entra in qualche maniera perché nel micro Zibaldone c'è comunque anche una una versione del secretum il quale secretum in Pisano è conservato poi in un altro codice fiorentino studiato appunto da Castellani quindi si potrebbe pensare a ambienti che accorpano in qualche maniera la la insomma il carattere esemplare di alcuni brani Alessandrini assieme appunto a testi sempre così didattici o esemplari il libro delle vertudiose pietre il libro delle meraviglie del mondo e così via no e comunque ecco forse il micro Zibaldone Pisano e questo potrebbe andare a sostegno anche della proposta cronologica forse è un po' più tardo di quanto Donadello proponeva sì forse ma insomma bisognerebbe vedere anche paleograficamente quello che questi manoscritti possono dire perché sembrano molto arcaici poi andandoli a vedere bene a livello per esempio di scrittura sono in realtà curati e potrebbero così illuminarci su un'attività primo-trecentesca ecco all'interno della prima metà del 300 certo per la lingua mi veniva da dire che ci sono casi analoghi ovviamente di sovrapposizione fiorentino toscano-occidentale mi chiedevo se fosse possibile trovare qualcosa però con una fonte appunto latina perché io conosco cose dove la fonte è in francese o in franco-italiano per esempio il Tristano panciaticiano ora c'è un lancillotto scoperto edito sempre per la sisme da Cadioli che ha uno strato fiorentino sovrapposto a tratti toscano-occidentali quindi non sono nuovi questi fenomeni però in genere il modello è sempre cavalleresco cortese di origine francese qui abbiamo un testo latino ecco mi chiedevo basta mi chiedo perché purtroppo ah no ecco io voglio prima di tutto scusarmi con Claudia Tardelli e Giovanni Borriero una nuova amica con cui finora si era parlato solo via Facebook io e lei e Giovanni che conosco da molti anni perché ambe due mi avevano contattato tempo fa e avevo espresso opinioni poi prontamente dimenticandomene facendo brutta figura chiedendo non sapevo che lo facevate queste cose qui e poi mi hanno risposto ambe due che mi hanno parlato del fatto io e quello che ha detto Giovanni è vero perché quel suo codice non è localizzabile più precisamente che tra Emilia e il Veneto e quello che dice Claudia mi torna perfettamente voglio sollevare un esempio soltanto che avrebbero discusso io e lei perché il resto del pubblico lo sente stavamo parlando di una parola che ci ha mistificato diciamo che era verchioni su cui non c'è dubbio non c'è dubbio sull'ettimo non c'è dubbio su significato ma c'è dubbio su perché mai dovessero portare dei chiavi stelle come dono e aveva una sola ipotesi che forse è un pochino farfetched quindi mi direte voi se funziona che quando una città veniva espugnata o comunque attaccata si portava via appunto se il fatto delle mi pare che forse Ambrovia mi citava uno mi citava l'esempio no Fabrizio citava l'esempio delle catene del porto di Pisa al palazzo comunale di Perugia c'è le c'è le chiavi stelle e non mi ricordo più quale città forse Siena se fosse un caso così come quando si porta le chiavi della città perché altrimenti non mi spiego perché dovessero portare dei chiavi stelle anche se debbano come doni per il resto devo solo ringraziare perché ho imparato un sacco di cose oggi di Alessandro non sapevo quasi niente e adesso tante idee che mi sono venute tanta ispirazione grazie a tutti gli alessandrini poiché ci siete voi cracoviani una parola soprattutto sulla questione su cui poi tornerai tu fra poco e cioè le miniature il sesto frammento di Cracovia presenta degli scorciamenti tu hai segnalato e mi pare di ricordare anche dal tuo libro che in quel punto l'intervento del editor voglio chiamarlo così perché mi pare che sia venuto fuori una presenza di qualcuno che sta a monte anche nei passaggi linguistici c'è probabilmente la traccia di una operazione di qualcuno che fa l'editor ebbene si può dire che che lì l'intervento il volgarizzatore inteso come editor abbia a che fare proprio con il desiderio di adeguare il testo all'apparato iconografico nel senso quando è possibile rispetto all'episodio degli scorpioni e dei dragoni e tu hai avuto la gentilezza di ricordare io avevo segnalato nel convegno di Lille qualche tempo fa poi l'ho ritrovato molto arricchito nel tuo lavoro ecco rispetto a quell'episodio e mi pare evidente che adatta le immagini al testo alterato Cracovia scusa adatta le immagini al testo alterato cioè è un caso in cui probabilmente un momento ecdotico cioè l'individuazione di quella variante che fa canone per un gruppo viene in qualche modo aggiustata e allora a questo proposito ricorderei che ma sicuramente ci tornerai su tu adesso ricorderei che il caso straordinario del libro di Cracovia così frammentario dimostra unico caso di I3 miniato in tutta Italia non mi constano assolutamente neanche tutti i codici Takamia o Cicogna o altri nessuno ha una traccia di disegno questo che è così fittamente miniato per quanto immaginiamo ne abbiamo 16 carte ma chissà che cosa doveva essere tutto intero ebbene ha una relazione molto precisa come tu sai bene con Lipsia con il famoso codice di Lipsia quasi pagina a pagina comunque io le ho rimesse poi a confronto proprio lì a Lille e poi insomma immagino l'avrei fatto anche tu viene fuori un'evidenza straordinaria di una fonte I2 perché Lipsia è I2 dell'apparato iconografico e sarebbe dunque un'attestazione straordinaria e spiego anche perché abbiamo poi scelto con Claudio Ciorciola quella immagine che è finita sul nostro volantino perché quella viene proprio da Cracovia ed è forse la più bella di Cracovia e rappresenta tre fasi tre livelli e volevamo anche alludere ai livelli della trasmissione testuale e linguistica eccetera però la cosa su cui vorrei fermare l'attenzione e poi qualcosa dirò casomai alla fine della discussione è proprio questo un caso molto interessante in cui un testo che ha scarsa fortuna italiana come I2 ma che ha probabilmente una fortuna meridionale italiana come I2 ha un'interferenza con un testo invece tutto I3 quindi l'interferenza è nella tradizione del late antique cycle di miniature così lo definì Ross e quindi abbiamo come dire due fonti una iconografica e una testuale si potrebbe pensare ad un testo un ur cioè un antecedente di Cracovia che ha operato questa commissione perché non mi pare di vedere che sul piano testuale Cracovia abbia mai nessuna traccia di I2 nessun elemento che possa portare di I2 dunque è qualcuno che ha un editor che ha trovato eleganti e belle non per parole di Lipsia o forse di un suo affine ma sicuramente il modello è quello le ha immesse in un testo I3 facendo in questo modo una contaminazione ed è su questa parola che volevo finire perché tutto ciò che questa mattina abbiamo sentito ed è il proprium dei testi Alessandrini è la contaminazione di fonti di livelli di registri di storia con fabula ma magari su questo più tardi grazie grazie per tutti i suggerimenti e le domande in realtà è materiale soprattutto questo a cui fa riferimento il professor Bologna che in effetti meriterebbe di essere magari discusso a parte fuori dal libro ripensando all'intera circolazione del late antique picture cycle in Italia alcune note però nel commento iconografico artistico che ho preparato per questo testo per Brepos ci sono ora cerco di ricordarmi i vari spunti e le varie richieste purtroppo volevo farvi vedere qualche immagine se è possibile mettere il magari c'è un codice ok purtroppo spero riusciate a mantenere la memoria da un click all'altro allora in realtà nel libro di Brepos queste due immagini sono una di fronte all'altra questo è il codice di Lipsia il codice di Lipsia è di fine 200 è stato localizzato nel meridione d'Italia io ho sollevato delle perplessità dovute al fatto che tre dei tre codici che vengono indicati fin dai primi studiosi quindi Bruc e poi riutilizzati anche da Kirsch tre dei tre codici che vengono utilizzati per contestualizzarlo a Napoli Sveva o Protongioina di fine 200 in realtà sono stati poi trasferiti tutti e tre altrove in particolare nel Veneto tra l'altro uno è l'8501 che proprio lei professor Cini avvertiva in una recensione all'edizione del Barlam avvertiva guardate se questo allora va verso Treviso dobbiamo far andare su anche quindi questo rientra nel discorso che faceva anche Giovanni Borriero che ha parlato riferendosi anche agli studi di Paolo Rinaldi a quest'asse Bologna Padova e comunque l'Emilia alla Valle Padana come particolare come distretto molto attento alla vicenda alessandrina quindi qui davvero io parlerei per ore di questo aspetto cerco di trattenermi allora questa è la pagina dell'Ipsia questa è la pagina del Cracovia è lo stesso episodio Alessandro arriva in Egitto vede una statua riconosce il padre Nettanebo si inginocchia lo stesso avviene nel testo I3 sia I2 e I3 tramandano questo episodio la cosa interessante non è tanto notare le similarità iconografiche quanto la mise en page il ciclo tardantico non è semplicemente un ciclo che trasmette modelli iconografici ma trasmette anche il modo in cui il testo e le immagini si mettono in relazione un altro esempio è questo questo citato dal professor Bologna nel suo studio vedete l'assalto alla fortezza d'India di nuovo I2 area padana adesso punto di domanda fine 200 volgarizzamento di Cracovia guardate la ripresa della linea di scrittura una sola linea ma una linea che proprio così isolata assume una certa importanza e ancora questo è l'interramento di Poro che è questo un tratto curioso qui si parla di oscillazione di resa iconografica perché dove il testo parla semplicemente di un interramento questo atelier fiorentino di formazione chiaramente religiosa sensibile alle soluzioni giottesche in particolare della pittura monumentale rende un interramento una processione funebre a tutti gli effetti col cavaliere davanti che regge una lancia in realtà una croce insomma è un'interpretazione religiosa in un punto che invece il testo in cui il testo originale non fa alcun riferimento alla appunto alla liturgia guardate tutti i paramenti liturgici le vesti il numero di persone coinvolte nulla di questo si trova nel testo ed è curioso perché è uno dei pochissimi casi in cui l'immagine sembra interpretare il testo questo però è un caso che si collega a quanto diceva il professor Bologna lei giustamente diceva è il testo che si avvicina alle immagini o l'opposto l'opposto in questo caso allora questa è una cosa curiosa non so se riuscite a vederla però sì nel testo sì nel testo qui torniamo a quel discorso che facevo tra la versione di I3 che si trova in H e la versione di I3 che è quella edita da Stephens la maggioranza dei manoscritti parla di dieci soldati morti uccisi da questo orribile animale H invece di dieci a due ora sì potrebbe trattarsi di una soluzione iconografica questa che vedete è dovuta allo spazio compositivo non ce n'è abbastanza non si possono mettere dieci cadaveri però sono proprio due uno lo vedete sotto la bestia dell'animale l'altro è nelle sue fauci purtroppo non riesco a fare un ingrandimento ma questa qua è la testa che finisce dentro per cui insomma si tratterebbe ancora di una sì appunto di un'adesione totale delle immagini al testo l'atelier le maestranze all'opera sul circo illustrativo lavorano a strettissimo contatto con i copisti è un manoscritto realizzato in uno stesso studio ci sono anche delle sì sì siamo in presenza di un editor che segue tutta la filiera qua sono elefanti fatti nello stesso modo adesso volevo far vedere una cosa in risposta a quanto mi veniva chiesto per la localizzazione questo manoscritto bizantino scusate andiamo ho detto veramente parlerei per ora però volevo solo segnalarvi ecco qua siamo in presenza di un'immagine del Cracovia e questo invece questo volto preso di profilo queste piccole figure dalle gambe tozze è invece preso da un palatino della nazionale di Firenze il 108 che trasmette un volgarizzamento del libro di Sidrac mi sembra proprio anche nella scusate è una immagine non molto chiara però anche nell'assenza di sfondo colorato questa insistenza su visi di profilo e questi nasi che talvolta finiscono per assumere delle forme un po' particolari mi veniva in mente un'ultima cosa ma purtroppo mi veniva in mente non mi viene più in mente adesso sulla datazione ah sì questo è un altro che ho avvicinato come rese come disegni soprattutto un codice anche questo fiorentino mi verrà in mente però una cosa riferita a quanto diceva a lei ah sì sì nel contesto di questi a quali altri manufatti possiamo avvicinarlo aggiungerei a quelli che ha segnalato lei dal francese anche il San Gradale l'inchiesta di San Gradale che aspetti anche lessicali simili va bene tutto qua tutto qua per modo di Dio posso approfittare ancora un momento Lorenzo Fabiani e anche Giovanni Borriero hanno insistito sull'ipotesi che ci siano stati centri di con il punto di domanda sia chiaro che siano esistiti centri di radiazione e di rielaborazione e Lorenzo Fabiani accennava il fatto che ipotetico che ci possa essere una discendenza sia del Marciano sia del Cicogna da un volgare comune questo sarebbe qualcosa di abbastanza prossimo a ciò di cui stiamo parlando e inserirebbe per il caso Alessandrino mi pare ma non soltanto perché anche nella giornata di ieri modelli di questo tipo cioè interpositi volgari per esempio francesi sono stati segnalati l'interposito francese quell'XFR che sarebbe mediatore quindi e poi Giovanni Borriere adesso ha parlato anche molto opportunamente di questo asse Bologna Padova Venezia una parentesi finché io sono molto vecchio e quindi questo lavoro su Leipzig come meridionale c'è una adesione sentimentale Federiciano Angioina per me finché non mi darete anche nella introduzione al tuo libro che mi hai fatto l'onore e il piacere di lasciarmi scrivere insomma ribadisco con un po' di prudenza che in quel luogo lì vorrei un po' più di prove cioè occorre tornare all'Ipsia e vedere l'Ipsia intesa come manoscritto e andare a vedere tratti linguistici che consentano se ci sono o di fattura che consentono di spostare in modo così brutale dall'area meridionale Svevo Angioina all'area bolognese ma anche qui ci starei anch'io ore a parlare per esempio del fatto che la prima a mia conoscenza così a memoria attestazione figurativa di Alessandro all'interno di un canone degli eroi classici di tipo proto-umanistico di altissima potenza è nel castello di Roberto D'Angio fatto niente meno che da Giotto con un Alessandro Magno accanto a Giulio Cento Cesare e agli altri sette eroi ma insomma e poi passa alla Manta un poco più tardi insomma però nasce lì e in quell'area Leone Erciprete ha lavorato un bel po' di secoli prima ma materiali potranno essere stili ma volevo non voglio confondere le acque e restavo al tema della fortuna sfortuna di Alessandro e la periferia del canone è sempre più evidente che l'area padana soprattutto Padova Bologna per ovvi motivi di relazione nel 1222 Bologna nasce come gemmazione universitaria Padova nasce come generazione universitaria di Bologna e quindi può darsi benissimo che quei centri universitari abbiano prodotto materiali ecco ma mi pare vorrei qualche riflessione vostra in più intorno proprio a questa idea che esistano si riferimenti nel caso di H come un treginion fra i vostri due lavori mi pare abbastanza impressionante e cioè l'individuazione di un codice addirittura o comunque di un'area di riferimento in cui quel codice si trova da cui si radierebbero quindi un centro di volgarizzamento è un po' una domanda vorrei sia da Fabiani sia da Borriero qualche parola in più su questa non so dove Giovanni ah eccoti quando parlavi di questo asse insomma Bologna Padova canonico con Venezia aggiunto molto interessante ma c'è qualche elemento in più che fa parlare che spinge a parlare cosa secondo me di enorme interesse di un vero proprio atelier centro di operazione di volgarizzamento e adattamento perché poi magari nella parte conclusiva vorrei stare sulla parola che ha usato che ha usato Campopiano ed è compilazione tu hai utilizzato la parola compilare ma su quello magari più tardi ma per quanto riguarda questa domanda per il momento non so quanto sia facile rispondere sul fatto che siano esistiti degli atelier però di sicuro è esistito un appunto una zona ben precisa nello spazio e nel tempo che è quella dell'Italia padano-veneta diciamo quattrocentesca possiamo dire in cui la fortuna di Alessandro è stata grande quindi da quel punto di vista è da approfondire il caso sicuramente appunto il manoscritto Marciano di cui un po' mi sono occupato appunto è tra Venezia e Padova probabilmente quindi insomma anche lui è un candidato a essere quel libero Alexandri che è nel catalogo e sicuramente c'è una proliferazione di testi straordinaria io non so sinceramente come come possono essere messi in relazione quello che mi pare di vedere per il momento è che bisogna lavorare cosa che non so insomma non è mai stata fatta in presenza diciamo di per quanto riguarda i tre almeno io penso in presenza di di volgarizzamenti diversi ecco lavorare sui volgarizzamenti per cercare di stabilire i rapporti tra i diversi volgarizzamenti in termini appunto genetici diciamo così e anche di affinità perché in fondo noi abbiamo sempre cercato nel latino il modello però a un certo punto mi pare ormai chiaro che il testo latino non è più sul sul tavolo di chi copia cioè anche il volgarizzamento ha una sua capacità specie dopo un certo periodo appunto noi parliamo di testi diversi per tante ragioni però nel caso dei manoscritti quattrocenteschi secondo me appunto cominciano ad avere una capacità di generare a loro volta copie ma non solo copie fedeli ma anche copie che appunto nelle quali si rispecchiano poi tutti quei processi che c'erano anche nel passaggio dal latino al volgare cioè amplificazioni e proprio a questo proposito credo che sia interessante vedere per quanto riguarda le amplificazioni che ci sono nei testi volgari a questo punto quello che suggeriva Michele cioè i contesti in cui si trovano e anche quello che diceva Giovanni Borriero cioè quanto può influire il fatto che ci sia vicino a un certo volgarizzamento della storia o del romanzo di Alessandro insomma come dirsi voglia i fatti di Cesare sul dettato di quel testo e quanto invece che ci siano come in altri casi appunto Florimò o come nel caso del Takamia che è un altro manoscritto tutto da studiare un testo stranissimo che si chiama i fatti di Hector io conosco solo i due esemplari quello e un altro poco studiato cioè quanto poi il progetto editoriale che appunto mi sembra innegabile sia dietro certi manoscritti certi manufatti possa aver condizionato anche entro certi limiti il tipo di amplificazioni di trasformazioni che subisce quella particolare tradizione volgare diciamo così quindi questo mi è sembrato molto interessante e sono contento che se ne sia parlato perché secondo me non vale soltanto per il latino appunto cioè vale anche per il volgare e poi appunto come trattare questi testi così almeno chiudo quello che vorrei dire io è che è bella l'idea appunto di fare un'edizione diciamo digitale io pensavo a testi paralleli appunto nel caso di questi tre volgarizzamenti se davvero poi col procedere degli studi le affinità fossero così spiccate come a me pare che siano si potrebbe procedere anche per testi paralleli un'edizione sinottica che metta a fronte diciamo i testi in modo tale da evitare la questione dell'apparato che abbiamo visto anche ieri essere un po' pericolosa e da offrire così una visione chiara delle trasformazioni che subisce un testo che probabilmente ebbe un modello volgare comune quindi questo potrebbe essere un modo per restituire i testi che magari da soli non significano tanto ma con i testi che compongono i progetti letterali e con i testi diciamo che sono collaterali affini analoghi allora lì entra in un dialogo più ricco insomma diventa più produttiva la ricerca perché sennò effettivamente un manoscritto un testo diventa un po' cioè non si può isolare il testo dal contesto è sempre più chiaro insomma questo quindi quello che volevo aggiungere è questo e poi soltanto una cosa forse ho perso qualche cosa ma tu quindi ipotizzi che al modello su cui avvenne esemplato il codice sia già il codice di Cracovia sia già un codice dotato di un appalato iconografico o ho capito male perché tu avevi fatto quella cosa mi sembrava che magari uno scorciamento potesse intervenire anche nel passaggio da un modello privo quindi da quel punto di vista non ho presentato le due possibilità come perfettamente equipollenti però trattandosi di scorciamenti concentrati in un'area e sembrerebbero coinvolgere l'attività del volgarizzatore invece che ipotizzare che questi scorciamenti fossero nel testo latino allora dico magari erano funzionali nel momento in cui chi viene incaricato di trasformare il latino in volgare gli viene anche chiesto fai un testo che si infili in questi spazi perché guarda che cosa dobbiamo fare guarda dove dobbiamo arrivare c'era Giovanni che forse voleva allora la domanda di Corrado ci ricaccia nella valle perigliosa proprio dentro ma io sono assolutamente d'accordo con i rilievi che ha fatto Lorenzo Fabiani cioè si potrebbe procedere anzi metodologicamente la via giusta secondo me è quella di procedere a rebur diciamo cioè nel senso possiamo a partire dalla fruizione possiamo individuare quelle che sono dei possibili centri di produzione e attraverso diciamo questi agglomerati costellazioni erano chiamati testuali sia latini che volgari un po' diciamo sciogliendo i nodi i nodi gordiani che la tradizione critica ci ha imposto cioè Storos da un lato e Ros dall'altro quindi procederei con estrema cautela in un in un contesto che si sta chiarendo che è quello appunto padano per cui prudentemente non darei una risposta a questa questione sollevata da Corrado Bologna se non tra magari un po' d'anni quando si realizzerà questa non tanti che sono vecchiotte non tanti sì quando si realizzerà magari questa idea di una lettura e di un'edizione magari sinottica che trovo che sarebbe utile al di là degli studi specifici che vanno benissimo ovviamente grazie una breve reazione su alcuni dei temi che sono stati toccati in primo luogo volevo anche io ringraziare Lorenzo per aver posto il problema diciamo così degli antecedenti volgari penso sia un tema fondamentale io in maniera molto faziosa mi sono concentrato sugli antecedenti latini anche perché la mia cattedra è letteratura latina medievale quindi insomma mi perdonerete il privilegio accordato da questo punto di vista però per esempio anche nel caso del manoscritto 2.1.62 volgarizzamento dell'istoria dei Pelerisi i2 e insomma il codice è del 1470 però il testo è quasi sicuramente precedente quindi lì ci pone anche lì un problema di continuità di trasmissione dei testi volgari è molto interessante quello stesso codice insomma e qua volevo ritornare al punto messo in evidenza da Giovanni parlando della circolazione sociale di questi testi che in maniera molto interessante è in mercantesca quindi siamo veramente a un punto in cui possiamo penso capire molto della circolazione di questi testi e magari anche ricostruire alcune di queste linee di trasmissione di connessione tra centri non soltanto attraverso la storia della lingua ma anche facendo riferimento alla paleografia insomma mi sembra un altro ambito essenziale sulla questione delle edizioni l'idea lanciata adesso da Giovanni del sito mi sembra una bellissima idea d'altro canto voglio anche mettere in evidenza il fatto che comunque le buon vecchie edizioni cartacee sono quelle che durano di più quindi raccomando a tutti voi come sì 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 alla fine sì perché i server verranno tutti trascinati nell'oblio insomma molto presto mentre lo splendido libro di Claudia e Ambrogio potrà essere ancora letto nei secoli a venire quindi insomma spero che da un lato magari si possa pensare a un progetto del genere ma si continuino a fare come Ambrogio e Claudia e come sto cercando di fare anch'io insomma di lasciare alla beniamata carta insomma anche la memoria di questi lavori forza carta e forza papiro anche una piccola cosa ah sì funzionava scusatemi era solo per dire una piccola nota per Giovanni che no per Michele Campopiano che quel bel manoscritto bello nel senso di importante manoscritto di Bamberg in realtà che poi non cambia molto perché è rimasta comunque l'idea che sia stato il progetto realizzato nel meridione d'Italia ma è stato trasferito da studi recenti al di là delle Alpi non sarebbe di origine italiana c'è una scheda curata da Paolo Chiesa sul manoscritto che riprende la storia recente degli studi e segnala come questo Vescovo Arnulfo in realtà non sia italiano ma il riferimento ai Longobardi è un disperato tentativo di mantenere il codice localizzato comunque per nulla togliere il ruolo di Napoli di quella biblioteca meravigliosa nella creare queste compilazioni storiche su cui tu una lettera dedicatoria di amici da volcro al commento ai fatti e detti di Valerio Massimo che viene finita a Napoli e lì che viene citato in quel lungo elenco che fu già studiato da Remigio Sabbadini la presenza di Alessandro Magno ora la biblioteca napoletana poteva ben conservare la biblioteca Gioina e chissà forse Giasveva poteva ben conservare materiali che a Napoli erano stati prodotti all'epoca del Duca Giovanni III e Marino II da Leone Arciprete dunque non è la mia volontà assoluta di conservatività napoletana o meridionale è che questa scomparsa definitiva dell'area meridionale italiana in presenza di una forte istanza imperiale come quella di Federico e imperiale pure come quella di Roberto D'Angio vicario imperiale come Claudia Villa ci ha insegnato e sottolineato con grande volontà di diventare davvero imperatore incoronato dal Papa che tutto questo non abbia alcuna relazione con meridione e continuo a pensare che va bene accetto e nella introduzione ho un po' insomma preso qualche distanza ma prudenza perché tu sei un grande rivoluzionario e la proposta che lanci col tuo libro con una fittissima analisi a tappeto di tutti i testimoni insomma è molto innovativa e molto originale insomma il fatto che abbiamo lì a Napoli la prima raffigurazione a mia conoscenza pubblica insomma nel Palazzo Reale di Alessandro che genera è fatta da Giotto che genera poi altri modelli in Italia e che a Napoli Dionigi dica di aver visto tutti quei libri qualche cosa potrebbe sempre significare solo rapidamente conosco la scheda di chiesa però insomma resta comunque il problema di come la miscellania organizzata sia sorta e penso che lì i studi linguistici soprattutto di Kretschmer insomma lasciano pochi dubbi che alla fine si ritorna comunque all'area meridionale francamente quindi penso che dobbiamo sì e poi anche Peter Stotz insomma ha mostrato recentemente delle cose in quella direzione quindi Peter Stotz insomma niente naturalmente anche Massimo tanto di cappello anche a chiesa insomma per la compilazione per l'assetto miscellario insomma secondo me bisogna stare un po' più attenti se voglia mi consenti a parlare di troppo due piccole notazioni Alessandro vola sui grifoni a Otranto se si percorre la via di Attica ma sono qui solo in absenza di Claudio Ciociola che si scusa ma il suo ruolo di vice direttore della scuola lo costringe oggi a essere a Firenze in una funzione politica diciamo così cioè dialogare con il presidente della regione per i rapporti con le università toscane e quindi prendo la parola anzitutto per ringraziare tutti quelli che hanno parlato e che hanno guidato ieri Beltrami e Leonardi e da prima Rosati e oggi Claudia Villa credo che questo essere partiti con un presidente che è latinista di mestiere e aver finito dopo due filologi romanzi come Beltrami e Leonardi e aver finito con una studiosa del mondo classico come Claudia Villa nei suoi Fort Leben verso un continuo rinascimento perché se c'è una delle cose che Claudia Villa ci insegna è che non c'è un umanesimo rinascimento ma ce ne sono tanti e che lungo i secoli il decimo il dodicesimo insomma i suoi secoli le tradizioni dei classici non si interrompono mai e quindi potremmo infine vedere quel vecchio progetto di Curzius di continuità dall'antico al moderno come qualcosa su cui ancora meditare ma io vorrei veramente ringraziarvi con alcune brevissime vi prometto riflessioni sui metodi quello che già nella schedina sulla quarta di copertina dicevamo è che aver raccolto tanti giovani in fondo cioè persone che sono con le mani in pasta proprio con le maniche rimboccate non teorici di lungo corso che hanno poco da dire sui singoli dettagli e molto sui metodi ha significato di avere delle esemplificazioni in laboratorio quindi mi pare perfettamente raggiunto il primo scopo e cioè un laboratorio vivo attivo nel quale alcune grandi questioni come noi dicevamo la i problemi di geografia e storia ecco ritorno laddove ero partito geografia e storia dei volgarizzamenti italiani restituire come Dionisotto ci diceva ai luoghi e ai tempi differenziati ciò che loro compete abbiamo sentito proprio nell'ultima relazione ancora richiamarsi a richiamare un asse un asse padano importantissimo che continua a significare università quindi geolinguistica ma anche aree di saperi livelli di saperi momenti sociopolitici una cosa è il monastero del decimo e una cosa è l'università del tredicesimo eccetera eccetera la seconda considerazione è che in questo aver identificato il problema dei centri e dei soggetti ci sono stati casi interessanti per esempio Lauren Gallinella e Marco Bernardi hanno finito per convergere su un personaggio e non mi pare sia molto praticato questo e cioè restituire una biografia di un volgarizzatore cioè di qualcuno che di mestiere fa quello e quindi anche le biografie anche i dati personali soggettivi al di là della generica formula centro di volgarizzamento quindi questo è un secondo elemento dopodiché fortuna e sfortuna dei canoni appunto un altro degli elementi quella S tra parentesi è molto divertente e la dice lunga la fortuna e la sfortuna dei canoni e anche la fortuna e sfortuna di tutta intera la storia della tradizione non solo dei volgarizzamenti funziona così che un Dante scompaia dal canone per due secoli o quasi e poi riemerga in età molto recente come capostipite pur essendo stato posto da boccaccio subito lì in testa allora in qualche modo restituire la storia dei volgarizzamenti italiani e comporta ciò che diceva Dionisotti che ha dedicato ricordo ancora una volta tra i primi forse prima ancora mi pare di ricordare di Folena e Segre una riflessione a questo cioè come il tema del volgarizzamento e della traduzione vada contestualizzato alle relazioni con la lingua latina la cultura latina e la nuova grande lingua di cultura quale è il francese anche quello che Fabrizio Cigni ha rievocato poco fa è un tema forte importante cioè la presenza Dionisotti diceva non so più se è pericolosa o dominante insomma e mi pare che il discorso condotto oggi sul nord Italia ribadisca questo anche nel nord Italia alla presenza di un Alessandro Magno francese ci dimostra quale doveva essere probabilmente il conflitto una domanda da porsi è poiché c'è già il volgarizzamento francese e lingua di cultura forse i volgarizzamenti italiani diventano meno necessari subito quando poi il francese esce di scena infatti il quindicesimo secolo è quello di cui si è più parlato ecco che ritorna il tema del volgarizzamento quindi anche le età dei volgarizzamenti e soprattutto se posso chiudere su elementi invece più tecnico editoriali un altro aspetto che mi pare sia stato attraversato un po' da tutte le relazioni forse piuttosto ieri che oggi per ragioni intrinseche alla tema di oggi è quello dei recensiores non sempre sunt deteriores ma forse utiliores come dicevamo ieri nel senso che questa formulazione pasqualiana che era una dialettica di due poli che a lui interessava tenere uniti perché per la prima volta recensendo Omas si rendeva conto e magistralmente lo insegnava a tutti noi che non si dà l'una senza l'altra poi lentamente ci rendiamo conto che possono essere questi due poli scorporati l'uno dall'altro e che allora forse se vogliamo un testo probabile di Orazio avremo un'edizione critica che miri ecdoticamente a quello ma se vorremmo capire come i volgarizzatori di Orazio in vento nel quindicesimo secolo abbiano lavorato non ci interessa più l'Ackman e tutta la posizione della critica del testo ma possiamo incominciare a lavorare sulla storia della tradizione che quindi va arricchita e deve diventare una storia organica finché non conosceremo le vicende interne dei recensiores che normalmente vengono abbandonati al loro destino dagli editori dei classici antichi o dei testi antichi ecco che diventerà più difficile capire come i codici più recenti perché abbiamo visto quasi sempre essere proprio i codici più recenti quelli che vengono utilizzati certo che se uno volgarizza nel 1420 non andrà a cercarsi un codice del nono secolo ma ne avrà uno quattrocentesco più vicino a lui più sotto mano e normalmente mi pare anche interessante che da qualche parte sia venuta la proposta che non solo le età ma le aree di circolazione anche dei codici latini possano essere viste come solidali a quella delle aree in cui si produce volgarizzamento questa è un'altra delle ipotesi che mi pare abbia un po' attraversato tutti e quindi chiudo proprio su questa idea che anche l'individuazione delle unità codicologiche non soltanto dei codici ieri si diceva il testo è il codice che lo porta oggi si è entrati nel tema delle unità codicologiche proprio perché il caso di Alessandro è un tipico caso di contaminazione Lorenzo Fabiani quando preparavo l'introduzione per il libro di Camozzi che speriamo davvero di vedere molto presto è anche quello su Dante quindi sull'Alessandro Magno di Dante e della sua cultura mi segnalò che c'è una storia dei discendenti di Ettore pubblicato da Gorra molti secoli un secolo e mezzo fa direi ma che va ricontestualizzato a quella storia di Ettore che sta legata con Alessandro nel codice Tacamia sul quale io peraltro avevo dato una tesi di laurea circa 25 anni fa un po' come avevo fatto sul Cracovia però credo che sia anche un bel un bel gesto quello compiuto rinunciando a mandare avanti i propri allievi quando si è scoperto che ci sono studiosi più bravi ai quali vi ha lasciato pienamente il compito di condurre loro a termine quindi non sarò mai sufficientemente grato al buon destino che mi ha fatto dire quel giorno alla signorina Tania non diciamo il cognome è arrivato qualcosa e lei era tutta pronta a pubblicare il Cracovia ha già fatto anche un bel lavoro ma le dissi guardi che c'è qualcuno che lo ha fatto meglio e in scienza bisogna sempre riconoscere le oggettività dei fatti quindi credo che questo sia un momento etico deontologico sul quale mi piacerebbe concludere veramente con un grande ringraziamento e con la speranza che anche Claudio Sciocciola cova fortemente che ne nasca un volume perché là noi ci rendiamo ben conto di un problema cioè che ciascuno di voi ovviamente ha portato qui soprattutto un laboratorio attivo ma soprattutto delle ricerche che sta già sviluppando da tempo e quindi a parte subiecti ci potrebbe essere qualche problema a dare un contributo da scorporare rispetto a non so un volume o assaggi più ampi ma se voi pensate a che cosa potrà venire fuori da un volume che contenga tutte le vostre voci e cioè un buon principio metodologico una buona riflessione di metodo applicata a casi puntuali questo io direi parla a favore della pubblicazione quindi speriamo davvero vi manderemo lettere speriamo di farceli anche presto perché è ovvio che tanto prima può uscire un volume di questo genere tanto più rientrerà anche lui nel dibattito nella circolazione delle idee grazie a tutti chiudiamo veramente alziamoci ringraziando perché è risuonato il nome di Dionisotti in questa sala e Dionisotti qui ricordando Momigliano disse mi piace molto perché io mi sento di appartenere e questo è un segno di continuità molto forte grazie 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 Grazie.